amore fede di sir arthur conan doyle parte prima nel vecchio mondo capitolo primo l'uomo d'america era una di quelle finestre assai comuni a parigi verso la fine del secolo diciassettesimo alta attraverse quadrate con una larga striscia di legno al centro e sopra questa un minuscolo stemma dipinto sul vetro delle losanghe tre fasce rosse su campo d'argento sporgeva al di fuori una grossa sbarra di ferro sospesa alla quale era una piccola palla dorata che dondolava cigolando ad ogni minimo soffio di vento dinanzi ad essa le case alte strette dalle facciate stranamente decorate con dei freggi di legno dai tetti popolati di acuti comignoli e di torretti agli angoli fra le due fila di edifizi il selciato ineguale della via san martino sul quale risuonava il calpestio di innumerevoli passi all'interno la finestra era fornita ad un grande sedile ricoperto di cuoio di spagna stampato sul quale la famiglia poteva prendere posto ed osservare dietro le cortine tutto quello che succedeva nella strada due persone sedevano su quel banco un uomo e una donna ma avevano le spalle rivolte alla finestra e davanti a loro la grande sala riccamente ammobiliata di tanto in tanto si scambiavano uno sguardo e i loro occhi dicevano che non avevano bisogno di alcuno spettacolo per essere felici e non c'era da meravigliarsene perché formavano davvero una bella coppia e la poteva avere al massimo vent'anni con il volto pallido ma d'un pallore dorato fresco e sano i suoi tratti avevano una delicatezza ed una dolcezza estrema i suoi capelli erano neri a riflessi turchini e le sue lunghe ciglia formavano un contrasto piccante con i grandi occhi grigi e con la pelle d'un bianco d'avorio c'era nell'espressione di quel volto qualche cosa di modesto e di sommesso accentuato ancora dal semplice abito di seta nera senz'altro ornamento che un piccolo spillo di perle essa era adele catinat l'unica figlia del famoso ugonotto mercante di panni l'uomo seduto accanto a lei dimostrava una trentina d'anni aveva una superba testa di soldato fattezze energiche un paio di baffetti neri e due begli occhi bruni capaci ugualmente di imporre per il comando o di sedurre nei momenti d'amore era vestito con un abito azzurro chiaro ornato di ricami sotto il quale appariva una sottoveste bianca i pantaloni della stessa stoffa penetravano quasi interamente dentro i larghi stivali forniti di speroni dorati una spada con l'impugnatura d'argento e un cappello a piume bianche posato sopra uno sgavello accanto a lui completavano un costume che era un segno d'onore per chi li indossava perché qualunque francese l'avrebbe riconosciuto per l'uniforme dei celebri moschettieri azzurri di luigi quattordicesimo aveva davvero un aspetto fiero e risoluto questo soldato coi capelli neri ricciuti la testa ben posata sulle spalle larghe e lì già si era mostrato prode sul campo di battaglia tanto che il nome di amoride catinat era divenuto famoso fra le migliaia di nobili che si affollavano al servizio del re erano cugini e c'era abbastanza somiglianza nelle loro fattezze fini e regolari per scoprire questa parentela amoride catinat discendeva da una nobile famiglia ugonotta ma ha perduto presto i genitori aveva scelto la carriera delle armi e si era fatto una posizione nell'esercito col solo merito il fratello minore di suo padre vedendosi chiusa ogni via verso la fortuna dalle persecuzioni alle quali erano già esposte le persone della sua religione aveva soppresso il de che indicava la sua origine nobile e si era stabilito mercante a parigi con un successo tale che egli divenne rapidamente uno degli uomini più ricchi e più notevoli della città era sotto il suo tetto che si trovava in questo momento il moschettiere cingendo col braccio la vita snella della cugina i due giovani erano fidanzati e il vecchio catinat carezzava la speranza di veder continuati il suo nome e la sua stirpe che hai dunque adele chiese ad un tratto il soldato sei turbata mi sembra no amorino non nulla scorgo però una piccola ruga la fra le sopracciglia leggo in te come in un libro aperto non ho niente amorì soltanto soltanto che cosa tu mi lasci stasera sì ma per tornare domani è proprio necessario che tu parta se non fossi a versailles stasera perderei il mio posto sono di servizio tutta la notte alla porta della camera del re dopo la messa il signor de brissac prenderà il mio posto ed io sarò libero ah amorì quando ti sento parlare del re della corte delle grandi dame non posso fare a meno ad essere stupita stupita perché pensando che tu pur vivendo in mezzo a quegli splendori consenti ad entrare nell'umile casa di un mercante ma questa casa contiene ecco quello che eccita ancora di più il mio stupore dire che passi la vita fra tante dame belle eleganti spiritose e che giudichi degna del tuo amore me piccolo topo grigio timido tranquillo sperso in questa grande casa ciò è strano ognuno ai suoi gusti disse suo cugino carezzandole la piccola mano avviene per le donne come per i fiori taluni amano le rose i cui vivi colori attirano lo sguardo io preferisco l'umile violetta che si nasconde fra l'erba e che è pure così graziosa espande un profumo squisito ma sempre questa ruga amor mio vorrei che mio padre fosse ritornato perché sei dunque così sola qui la pallida faccia della giovinetta si rischierò d'un sorriso lo sarò presto rispose però sono sempre inquieta quando egli assente non si parla che di persecuzioni contro i nostri poveri fratelli ma mio zio non ha nulla da temere è andato dal prevosto per informarsi circa l'alloggio dei dragoni alloggio dei dragoni tu non me ne hai parlato ecco qui ella si alzò e prese sopra un mobile un foglio di carta azzurra con un sigillo di ceralacca rossa la fronte del giovane si corrugò mentre egli lo percorreva con gli occhi si avverte diceva la nota che a voi teofilo catinat mercante di panni nella via san martino è imposto di fornire alloggio e vito a 20 dragoni del reggimento di langhe doc sotto l'ordine del capitano d'albert e questo fino a un nuovo ordine firmato de bopre commissario del re amoride catinat conosceva bene questo metodo di persecuzione che era stato adottato nella francia intera contro gli ugonotti ma si lusingava che la sua situazione alla corte metterebbe i suoi parenti al riparo da simili oltraggi egli gettò lungi da sé la carta con un gesto di collera quando devono venire stasera non ci resteranno a lungo domani avrò ottenuto l'ordine di partenza ma il sole scompare dietro la chiesa di san martino e dovrei essere già in cammino no no te ne prego non partire ancora vorrei poterti lasciare a tuo padre perché ho paura di saperti qui sola quando quei soldati verranno e non pertanto nessuna scusa mi varrebbe se non fossi stasera a versailles ma guarda un cavaliere si ferma la porta non ha uniforme forse è un messaggero di tuo padre la fanciulla corse vivamente alla finestra e guardò fuori con la mano appoggiata alle spalline d'argento del cugino ah il esclamò me ne ero dimenticata è l'americano il babbo mi aveva detto che doveva arrivare l'americano ripete l'ufficiale in tono di sorpresa e tutti e due allungarono il collo per veder meglio nella strada il cavaliere un giovane forte dalle larghe spalle dal volto abbronzato interamente raso alzò gli occhi osservando la facciata della casa portava un cappello molle di colore grigio di forma poco parigina ma il suo abito di panno scuro e gli stivaloni qualunque cittadino avrebbe potuto portarli però il suo aspetto generale era così insolito che un gruppo di sfaccendati si era già formato intorno a lui esaminando curiosamente l'uomo e la sua cavalcatura un vecchio fucile attaccato alla staffa drizzava la lunga canna dietro le spalle del cavaliere un gran sacco nero pendeva da ogni parte del cavallo ed una coperta vistosa a rigature rosse era rotolata dietro alla sella il cavallo una forte vestia grigia grondava di sudore aveva il ventre coperto di fango le gambe quasi piegate come esausto dalla fatica intanto il giovane dopo essersi assicurato della casa che cercava saltò leggermente a terra e prendendo il fucile la coperta e i disacchi si diresse verso la porta spingendo col gomito chi gli parava la strada picchiò rumorosamente ma chi è dunque chiese decatinato un canadese lo sono quasi anch'io avevo tanti amici laggiù quasi quanti ne ho qui può darsi che lo conosca i visi bianchi non sono numerosi e non credo ne esista alcuno fra il saganai e il neppissin che io non abbia conosciuto è delle province inglese morì ma parla la nostra lingua sua madre era francese e come si chiama amos amos questi nomi inglesi green sì così amos green suo padre il mio sono in relazioni di commercio ed oggi il figlio che da quanto capito ha vissuto sempre fra i boschi viene in francia per imparare a conoscere i suoi simili ed iniziarsi nella civiltà a mio dio che succede si udivano delle grida acute di spavento e di dolore decatinata si precipitò per le scale due cameriere strillando con tutta la forza dei loro polmoni si appoggiavano al muro e il vecchio pietro il maggiordomo un austero calvinista la cui dignità non era ancora stata mai messa a simile prova stava in mezzo agitando le braccia come un pazzo e cacciando degli urli che si sarebbero potuti sentire dall'ouvre una piccola palla di peli neri in mezzo ai quali si distinguevano un occhietto rosso e due dentini bianchi aveva agguantato la calza di lana che ricopriva il suo magro polpaccio alle grida del servo lo straniero che era ritornato al suo cavallo rientrò correndo e afferrando l'animale gli diede due colpi secchi sul muso e lo rificò con la testa in avanti nel sacco da dove era fuggito non fa nulla disse in un francese perfetto è un piccolo orso colpa mia avrei dovuto tenere il sacco chiuso egli è nato il giorno in cui sono partito da new york martedì prossimo avrà sei settimane ho io l'onore di parlare all'amico di mio padre signor catinat no signore rispose il moschettiere di sulle scale mio zio è uscito ma io sono il capitano de catinat al vostro servizio ed ecco la signorina catinat figlia del vostro ospite lo straniero salì le scale e salutò i due giovani assai timidamente mentre offriva alla fanciulla una magnifica pelle che pendeva al suo braccio l'orso è per vostro padre signorina disse egli e per voi ho portato dall'america questa piccola pelle che vi prego ad accettare non è che una piccolezza ma può servirvi a fare un manicotto adele ebbe un'esclamazione di delizia mentre affondava le mani nel pelo folto e morbido aveva ragione d'ammirarla perché nessuno al mondo avrebbe potuto possedere una più bella pelliccia è magnifica signore disse ella che animale è e come l'avete avuta è una volpe nera l'ho uccisa io stesso l'inverno scorso presso i villaggi froqua del lago oneida ella se la cinse al collo e il suo bel visino spiccò come un marmo bianco sul nero della pelle vi ringrazio signore mi dispiace che mio padre non sia qui per darvi il benvenuto farò io le sue veci vi prego di considerarvi qui come in casa vostra la camera destinata vi si trova al piano di sopra se volete pietro vi ci condurrà la camera perché farne ma signore per dormirci bisogna che dorma in una camera amoride catinat fece una risata vedendo la faccia rannuvolata dell'americano non ci dormirete se non vi farà piacere disse egli lo straniero si rallegrò subito e andando ad una finestra che dava sulla corte ah esclamò che bell'albero se mi ha permesso di distenderla sotto la mia coperta sarò felice nell'inverno si è costretti a rinchiudersi ma in questa stagione io soffocherei con un soffitto sopra me non abitate dunque in una città chiese decatinata mio padre abita a new york due porte dopo la casa di pietro stovesan di cui avrete certo inteso parlare egli è molto forte e può sopportarlo ma a me non riesce ad abituarmi qualche giorno ad albeni o a schenectudi mi basta per un anno io ho vissuto sempre fra i boschi sono sicura che mio padre vi permetterà di dormire dove volete e come più vi piace grazie signorina allora vado a portare fuori la mia roba e a custodire il mio cavallo no pietro lo farà ho l'abitudine di occuparmene io stesso vi accompagno disse decatinata perché vorrei dirvi una parola addio adele a domani a domani a morì i due giovani scesero insieme le scale poi l'ufficiale seguì l'americano nella corte avete fatto un lungo viaggio osservò vengo direttamente da rouen dovete essere stanco no non mi stanco così facilmente allora vi prego restate con la signorina finché suo padre non sarà ritornato perché mi dite questo perché io sono costretto a partire ed ella potrebbe aver bisogno di un protettore lo straniero assenti con la testa senza una parola e togliendosi la giacchetta si mise a strigliare vigorosamente il suo cavallo capitolo secondo il risveglio del re il capitano dei moschettieri si era frettato a riprendere il servizio ed aveva passato la notte di guardia nell'anticamera reale le otto del mattino suonavano al grande orologio di versailles si avvicinava il momento in cui il re doveva alzarsi attraverso i lunghi corridoi ornati di affreschi dell'immenso palazzo era un sommesso mormorio un camminare lieve ma continuo nell'agitazione degli ultimi preparativi perché l'alzarsi del monarca era un'importante cerimonia di stato a cui un gran numero di persone prendeva parte un servo con un bacino d'argento colmo d'acqua fumante passava correndo per consegnarlo al signor de Saint-Quentin barbiere di corte altri portando abiti sul braccio si inoltravano in fretta per il corridoio che conduceva nell'anticamera i moschettieri di servizio nelle loro sfarzose uniformi azzurre ed argente si mettevano in posizione rialzando le loro alabarde mentre il giovane ufficiale che guardava pensoso fuori della finestra si voltava ad un tratto dirigendosi verso la porta bianca filature d'oro della camera reale c'era appena giunto quando l'uscio si apria ad agio ad agio all'interno e un uomo venne fuori senza rumore e richiudendolo dietro a sé con ogni precauzione disse mettendosi un dito sulle labbra mentre l'espressione del suo volto e degli occhi pregavano e ammonivano insieme il re dorme ancora le parole furono ripetute in un sussurro dall'uno all'altro dei presenti quello che aveva parlato il signor bontem il cameriere capo fece un segno all'ufficiale di guardia e lo condusse un po' in disparte nel vano della finestra buongiorno capitano decatinata e gli disse con un misto di familiarità e di rispetto buongiorno bontem come ha dormito il re benissimo è la sua ora di alzarsi non è vero fra poco non lo svegliate ancora fra sette minuti e mezzo rispose egli tirando fuori un piccolo orologio rotondo che dettava legge all'uomo che rappresentava egli stesso la legge per venti milioni d'uomini chi comanda il corpo di guardia il maggiore de brissac e voi siete qui di servizio sì per quattro ore ancora bene il re mi ha dato iersera qualche ordine per l'ufficiale di guardia mi ha incaricato di informarvi che il signor di vivon non deve essere ammesso al gran levè glielo direte non mancherò poi se venisse un biglietto di lei mi capite quella nuova la signora de mantenon precisamente ma sarebbe preferibile di non far nomi se la mandasse un biglietto prendetelo e consigliatelo al re appena vi si presenta un'occasione favorevole va bene se invece si presentasse l'altra come è probabilissimo l'altra sapete quella antica la signora de montespan quella benedetta lingua capitano ebbene se venisse impeditele dolcemente il passaggio con parole cortesi capite non permettetele in alcun modo di entrare nella camera del re resta inteso bontem ed ora non abbiamo che tre minuti attraverso ancora la stanza che si era sempre più affollata con un'aria d'altera umiltà quale si conveniva ad un uomo che per quanto cameriere era almeno il re dei camerieri essendo il cameriere del re presso la porta stava una fila di domestici risplendenti nelle loro parrucche incipriate nei loro abiti di velluto rosso con le spalline d'argento e qui l'ha detto alla stufa chiese bontem sì signore rispose uno che portava un vassoio sul quale erano dei truccioli e delle pine secche e per l'apertura delle finestre presente signore l'incaricato per le lampade presente signore siate pronti al segnale riaprì la porta senza rumore e scivolò nella camera quasi buia era una grande stanza quadrata con due alte finestre davanti alle quali erano tirate delle tende di velluto di un valore inestimabile attraverso le sottili fessure il sole del mattino infiltrava dei piccoli raggi che s'allargavano sopra il tappeto per diffondersi in larghe chiose di luce sulle pareti ricoperte di seta gialla una grande poltrona era presso la stufa senza fuoco e il caminetto di marmo bianco era sormontato da arabeschi e da emblemi gentilizzi in scultura che si innalzavano su per la parete fino alle ricche pitture del soffitto in un canto uno stretto divano sul quale era gettata una coperta indicava il luogo in cui il fedele bontem aveva passata la notte nel centro della camera sorgeva un gran letto con baldacchino e cortine di vero gobelen lo recingeva una balaustrata di metallo rilucente alla distanza di circa cinque piedi dalla sponda del letto in questo spazio che si chiamava la ruelle era un tavolino rotondo coperto da un tovagliolo bianco con sopra un piatto e una coppa d'argento contenente l'uno tre pezzi di pollo l'altra un poco di vino di frontignan nel caso in cui il re avesse avuto fame durante la notte bontem andava e veniva quietamente per la stanza quei piedi che affondavano nel soffice tappeto l'aria era pesante e si poteva udire la calma e regolare respirazione del dormente egli entrò nello spazio compreso fra la balaustrata e il letto e con l'orologio alla mano attese il momento preciso in cui il cerimoniale inflessibile della corte esigeva che il re fosse svegliato di sotto la coperta verde di seta orientale mezzo sepolta fra lettrine dei cuscini emergeva una testa coperta da folti capelli neri si poteva distinguere il naso un po ricurvo e la bocca ben disegnata che spiccava sul fondo bianco il cameriere rimise in tasca l'orologio e si curvò sul dormente ho l'onore di informare vostra maestà che sono le otto e mezzo disse egli ah il re aprì lentamente i suoi grandi occhi bruni si fece il segno della croce e baciò un piccolo reliquiario che tirò fuori dalla camicia da notte poi si mise a sedere sul letto e si guardò intorno come raccogliendo i suoi pensieri bontem avete trasmesso i miei ordini all'ufficiale di guardia e gli chiese sì sire chi è di servizio il maggiore de brissac alla porta principale e il capitano de catinat nell'anticamera de catinat ah il giovane che fermò il mio cavallo a fontainebleau me lo ricordo potete dare il segnale bontem il cameriere andò prestamente alla porta e la spalancò subito entrarono i domestici in livrea rossa e parrucca bianca silenziosi intenti al loro servizio uno prese il divano con la coperta di bontem e in un batter d'occhio lo fece sparire in un'anticamera un altro portò via il tavolino con la lampada d'argento mentre un terzo tirava le tende di velluto inondando la stanza con un torrente di luce poi siccome le fiamme si innalzavano già dai trucioli messi nel focolare l'addetto speciale vi pose sopra due ceppi in croce perché l'aria del mattino era assai fredda e si ritirò coi suoi compagni erano appena usciti che un gruppo più augusto penetrò nella camera due personaggi venivano primi un giovane di una ventina d'anni d'altezza media con tendenza alla pinguedine dall'andatura lenta ostentata e dal viso abbastanza regolare che sarebbe parso privo di qualsiasi espressione senza un lampo di malizia che accendeva di tanto in tanto i suoi occhi era riccamente vestito di velluto color viola con un largo nastro di seta azzurra attraverso il petto all'estremità del quale brillava la decorazione dell'ordine di san luigi il suo compagno era un uomo di 40 anni circa dall'aria dignitosa e solenne indossante un ricco abito di seta nera ornato di ricami d'oro al collo e alle maniche giunti che furono in faccia al re si notava troppo evidentemente la somiglianza fra quei tre volti per non riconoscere che appartenevano a persone di una stessa famiglia e perfino uno straniero avrebbe indovinato che l'uno era messier il fratello minore del re e l'altro il delfino luigi il suo solo figlio legittimo ed erede al trono sul quale per gli strani disegni della provvidenza nel lui nei suoi discendenti erano destinati a salire per quanto manifesta fosse la reciproca somiglianza fra quei tre uomini il naso ricurvo dei borboni l'occhio grande ed aperto il labbro inferiore sporgente degli asburgo eredità comune di anna d'austria pure esisteva una notevole differenza di temperamento e di carattere impressa sui loro tratti il re aveva allora 46 anni i suoi capelli folti e neri cominciavano a diradarsi in mezzo alla testa e prendevano verso le tempie una tinta grigiastra però aveva conservata quasi intatta la bellezza della gioventù temperata dalla dignità e severità che aumentavano con gli anni i suoi occhi neri erano espressivi e le sue fattezze nettamente disegnate formavano la delizia dei pittori e degli scultori la bocca ferma eppure sensuale i sopraccigli folti e ben arcuati davano alla sua fisionomia un'area d'autorità e di comando mentre l'espressione più dolce sottomessa abituale al fratello indicava l'uomo la cui vita rascorsa in un lungo esercizio di deferenza e di umiltà il delfino contratti più regolari di quelli del padre non possedeva quella mobilità d'espressione dalla collera alla gioia né quella serenità regale nella calma che avevano fatto dire ad un acuto osservatore che se luigi non fosse stato il più gran monarca sulla terra era esteticamente il più adatto a rappresentare quella parte dietro il figlio ed il fratello del re entrò un piccolo gruppo di notabilità e di ufficiali che il dovere chiamava ad assistere a questa cerimonia quotidiana c'era il gran maestro della guardaroba il primo gentiluomo di camera il duca di men un giovanetto pallido vestito di velluto nero che zoppicava visibilmente dalla gamba sinistra e il suo fratello minore il piccolo conte de toulouse ambi due figli illegittimi del re e della signora di montespan dietro a loro venivano ancora il primo cameriere della guardaroba seguito da pagon il medico di corte da tellier primo chirurgo e da tre pagi in costume scarlato a guarnizioni d'oro che portavano gli abiti del re bontem aveva versato sulle mani del re qualche goccia di spirito raccogliendola poi in un piatto d'argento e il gentiluomo di camera gli presentò la coppa d'acqua benedetta il monarca si fece di nuovo il segno della croce e mormorò la breve preghiera dello spirito santo poi con un lieve moto della testa al fratello ed una parola di saluto al delfino e al duca de men tirò fuori le gambe e restò seduto sul letto nella lunga camicia da notte dalla quale sortivano i piccoli piedi bianchi attitudine che sarebbe apparsa ridicola o perlomeno comica a chiunque altro ma luigi aveva un senso così profondo della propria dignità che non immaginava neppure che potesse venire compromessa in qualsiasi circostanza in questa posizione lui il padrone della francia era pure lo schiavo del minimo soffio di vento infatti una corrente d'aria lo fece rabbrividire il signor de senquenten il nobile barbiere mise una veste purpurea sulle spalle reali e sulla testa un enorme parrucca a lunghi riccioli mentre bontem gli infilava le calze rosse e li posava davanti le pantofole di velluto ricamato il monarca le calzò si annodò la veste e si diresse verso la stufa qui vi sedette nella sua poltrona mentre i presenti facevano cerchio in attesa della cerimonia del gran levè che doveva seguire signori che cosa significa questo domandò il re ad un tratto guardandosi intorno irritato sento un odore acuto certo nessuno di voi avrà usato portare dei profumi in presenza mia sapendo quanto mi sono insopportabili i presenti si guardarono l'un l'altro con proteste d'innocenza il fedele bontem però aveva silenziosamente fatto un giro e scoperto il colpevole signor conte de toulouse il profumo viene da voi e gli disse il conte de toulouse arrossì e tentò di scusarsi forse la signorina de grammont avrà bagnato il mio abito con la sua boccetta di profumi quando giocavamo insieme ieri chiedo umilmente perdono io non ci avevo fatto attenzione ma se ciò offende vostra maestà andatevene andatevene gridò il re oh mi soffoca bontem aprite una finestra no non importa ora che se n'è andato signor de saint quentin tocca oggi a farmi la barba sì maestà tutto è pronto allora perché non cominciate siamo in ritardo di tre minuti al lavoro signore e voi bontem date il segnale del gran leve evidentemente il re non era di buon umore quella mattina egli lanciava degli sguardi rapidi interrogativi a suo fratello e dei suoi figli ma gli era impossibile sfogare la sua collera impedito come era dal lavoro del signor de saint quentin questi con l'indifferenza propria di una lunga abitudine insaponava il mento regale gli passava sopra il rasoio poi l'asciugava con una spugnetta imbevuta di spirito quando l'operazione fu terminata un gentiluomo gli infilò i calzoni di velluto nero un secondo l'aiuto ad affibbiarli mentre un altro gli toglieva la veste da camera apporgendogli la camicia già scaldata davanti al fuoco le scarpe con le fibbie di brillanti la sottoveste di velluto rosso li furono messe successivamente dai nobili cortigiani cui spettava questo privilegio ambito fervidamente da ciascuno sopra la sottoveste essi appuntarono il nastro azzurro al quale pendeva la croce in brillanti di san luigi poi gli infilarono l'abito li misero intorno al collo una cravatta di ricca trina due fazzoletti ricamati furono introdotti in ognuna delle sue tasche il monarca prese infine la mazza ad ebano dal pomo d'argento che gli tendeva un altro gentiluomo e così fu pronto per il lavoro del giorno durante la mezz'ora circa impiegata in questi preparativi la porta non aveva cessato di aprirsi e chiudersi per lasciar passare qualche nuovo personaggio il cui nome era pronunziato a mezza voce dal capitano della guardia all'attendente di servizio e da questi trasmesso al primo gentiluomo di camera ogni visitatore salutava la maesta regale con tre profonde riverenze poi si riuniva ad un gruppo per intrattenersi a voce bassa delle novità del tempo e dei progetti del giorno il numero ne andava costantemente aumentando così che quando fu portata al re la sua frugale colazione due fette di pane e un po di vino la vasta camera era affollata di uomini la maggior parte dei quali aveva contribuito a fare di quell'epoca il più illustre periodo della storia di francia c'era il severo ed energico louvois tanto potente dopo la morte del suo rivale colbert che discutevano a questione d'ordine militare con due ufficiali uno grande e ben formato l'altro piccolo e contraffatto insegniti entrambi dei distintivi di maresciallo di francia e possessori di un nome temuto dall'altra parte della frontiera olandese perché luxembourg era già riguardato come il successore di conde e il suo compagno voban come il successore di turen presso allora un piccolo prete dai capelli bianchi con una espressione di bontà dipinta in volto il padre l'ascese il confessore del re spiegava le sue idee sul jansenismo al maestoso bossuet l'eloquente arcivescovo di mo e al giovane abate di fenelon che l'ascoltava grottando le sopracciglia perché si supponeva che il dicitore tendesse verso questa eresia c'era anche il pittore lebrun in mezzo a un piccolo cerchio composto dei suoi collaboratori verco e la guerre gli architetti blondel e le notre e gli scultori girardon sugede sparden e qua se vu le qui opere avevano contribuito così largamente ad abbellire il nuovo palazzo reale vicino alla porta rasin la bella faccia sorridente chiacchierava col poeta boalò e l'architetto mosar essi ridevano e scherzavano con quella libertà che potevano permettersi questi tre favoriti del re i soli che fossero autorizzati ad entrare nella camera reale non annunziati ma che ha egli stamattina domandò boalò a mezza voce accennando il monarca mi pare che il sonno l'abbia messo di cattivo umore è ogni giorno più difficile il divertirlo disse rasin scuotendo la testa alle tre devo essere dalla signora demente non per vedere se una pagina o due della fedra possano operare un cambiamento amico mio disse l'architetto non credete che la signora stessa sia più capace di divertirlo che la vostra fedra la mente non è una donna straordinaria ha ingegno sublime cuore tatto e adorabile eppure ha qualche cosa di troppo che cosa l'età ma che importano gli anni se la non ne dimostra più di 30 che occhi che braccia del resto e gli stesso non è più giovane o la cosa è diversa l'età di un uomo insignificante e quella di una donna determina una calamità benissimo ma un giovane consulta i suoi occhi e un uomo maturo i suoi orecchi al di sopra dei 40 anni è l'intelligenza che trionfa al di sotto è la bellezza allora secondo voi 45 anni e una certa abilità dovrebbero aver più fascino che 29 risplendenti di bellezza ebbene quando la vostra dama avrà vinto la partita si ricorderà senza dubbio di quelli che furono i primi a conquistarle la sovranità credo che abbiate torto racin ma vedremo e se avete torto meglio per voi perché perché la marchesa de montespan ha buona memoria il suo regno è già tramontato non credetelo amico mio quando la fontange arrivò di provenza coi suoi occhi azzurri e i suoi capelli rossi tutti credettero che la montespan fosse liquidata eppure la fontange è sottoterra e la marchesa passò due ore col re anche la settimana scorsa ha vinto una volta e non è impossibile che vinca la seconda ha da fare con una rivale ben diversa non si tratta di una piccola ingenua provinciale ma della donna più intelligente della francia andiamo racin voi conoscete bene il nostro signore o almeno dovreste conoscerlo perché siete stato al suo fianco fino dai giorni della fronda pensate forse che egli sia uomo da contentarsi di prediche da passare le sue giornate ai piedi di una donna di quell'età guardandola lavorare accarezzando il suo cane mentre le più belle facce gli occhi più risplendenti della francia sono tanto numerosi nelle sue sale come i tulipani in un giardino olandese no no toccherà adesso alla montespan o se non a lei a qualche bellezza più giovane mio caro boalò vi ripeto che la sua stella impallidisce non sapete la notizia quale notizia a suo fratello il signor de vivon è stato vietato l'accesso a corte impossibile eppure è vero quando questa stessa mattina da chi lo sapete da morì de catinat il capitano della guardia egli ha ricevuto l'ordine di impedirli di entrare ah allora il re ha davvero delle cattive intenzioni ecco perché così nero stamani perbacco se la marchesa è davvero quale si dice che sia egli si accorgerà che gli è stato più facile conquistarla che abbandonarla sì i mortemar non si lasciano abbattere facilmente voglia il cielo che egli ne esca con onore ma chi è quel gentiluomo la corte non ha la consuetudine di queste facce severe ah ecco che il re l'ascorto e l'uvua gli fa segno d'avanzarsi in fede mia mi sembra che starebbe meglio in un accampamento che sotto un soffitto decorato lo straniero che aveva attirato l'attenzione di racin era un ometto magro con un gran naso aquilino e due occhi grigi duri e severi che brillavano sotto i sopraccigli arruffati il suo aspetto che svelava l'età i dolori i tormenti e una lunga abitudine alle intemperie lo facevano sembrare in mezzo alle figure fresche dei cortigiani come un falco in una gabbia di uccelli a piume lucide indossava l'abito nero che era di moda alla corte dopo che il re aveva rinunziato alle frivolezze e congedata la fontange ma la spada che pendeva al suo fianco non era un'arma di parata era una buona lama con l'impugnatura di rame in un fodero di cuoio che mostrava segni di aver lungamente servito egli stava presso la porta con in mano il cappello a grandi piume nere guardando con un'espressione di sdegno i gruppi che lo circondavano ma ad un segno del ministro della guerra egli si fece largo arditamente attraverso la folla spingendo senza cerimonie coloro che gli impedivano il passaggio luigi possedeva ad un alto grado la memoria delle fisionomie non l'ho visto da degli anni ma lo riconosco benissimo egli disse rivolgendosi al suo ministro non è il conte di frontenac sì sire rispose louvois è proprio luigi de boade conte di frontenac già governatore del canadà siamo felici di vedervi ancora una volta al nostro levè disse il monarca nel punto in cui il vecchio gentiluomo si inchinava baciandogli la mano spero che il gelo del canadano avrà raffreddato la vostra fede la morte sola lo potrebbe sire confidiamo dunque che la ci rimarrà ancora per molto tempo vi ringraziamo di tutto ciò che avete fatto a beneficio della nostra provincia e se vi abbiamo richiamato è principalmente per udire dalla vostra bocca l'andamento delle cose e prima di tutto poiché gli affari di dio hanno la precedenza su quelli della francia come va la conversione dei pagani non possiamo lagnarci sire i buoni padri gesuiti fanno del loro meglio benché a dir la verità siano sempre troppo disposti ad abbandonare le cose dell'altro mondo per mischiarsi negli affari di questo che ne ditte padre mio domandò luigi con un'occhiatina maliziosa al suo confessore gesuita dico sire che quando gli affari di questo mondo sono legati a quelli dell'altro è dovere di ogni buon prete come di ogni buon cattolico di dirigerli al bene è verissimo sire disse frontenac le di cui guance abbronzate arrossirono di collera ma finché vostra maestà mi ha fatto l'onore di confidare quegli affari alla mia direzione non ho permesso l'intervento di alcuno che portasse tonaca o sottana basta signore basta disse luigi severamente vi ho chiesto notizie delle missioni e se prosperano sire gli iroquois del sole delle montagne gli arons di leorette e gli algonquin lungo le rive del fiume da tadousac fino a sola marì e perfino nelle stese pianure del dakota hanno tutti abbracciato il cristianesimo marquette si è inoltrato verso l'ovest per predicare fra gli illinois e i gesuiti hanno predicato il vangelo ai guerrieri della maison long nelle loro capanne di onondaya posso aggiungere maestà disse il padre l'ascese che al tempo stesso ci hanno lasciato sovente la vita sì sì è vero esclamò frontenac con calore vostra maestà ha molti uomini coraggiosi nei suoi domini ma nessuno più coraggioso di costoro li ho veduti ritornare dai villaggi degli irochesi con le unghie strappate le mani mutilate dei buchi neri al posto degli occhi il corpo cosparso di cicatrici numerose come i gigli su queste tende non pertanto dopo un mese di cure assidue delle buone ursoline essi hanno ripreso la via dei paesi indiani dove perfino i cani si sono spaventati alla vista dei loro volti sfigurati e delle loro membra mutilate e voi avete sofferto questo gridò luigi in tono di collera voi avete lasciato in vita gli infami assassini ho chiesto dei rinforzi sire ve ne ho mandati un reggimento il carignan salier non ne ho dei migliori al mio servizio ma ne occorrono di più sire ci sono i canadesi stessi non avete una milizia non potevate raccogliere forze sufficienti per punire quegli infami assassini dei sacerdoti di dio avevo sempre creduto che foste un soldato gli occhi di frontenac mandarono dei lampi e una vivace risposta sembrò per un istante tremare sulle sue labbra ma l'altero vecchio fece uno sforzo per contenersi vostra maestà disse potrà meglio sapere se io sono soldato o no interrogando coloro che mi hanno visto a senel a mulhaus a salzbach e in venti altri luoghi dove ho avuto l'onore di difendere la causa di vostra maestà i vostri servizi non sono dimenticati e mi rincresce di avervi addolorato ci occuperremo dell'affare al nostro consiglio sono felice di sentirvi parlare così esclamò il vecchio governatore i cuori dei bianchi e dei rossi lungo le rive del san lorenzo esulteranno di gioia nel sapere che il loro buon padre al di qua dell'oceano pensa a loro non vi aspettate troppo però perché il canadà è costato già caro e abbiamo molte spese in europa a sire vorrei che poteste vedere quel paese sconfinato quando vostra maestà ha vinto qui una battaglia che può risultarne gloria qualche miglio di terreno forse una città aggiunta al vostro regno ma laggiù con un decimo della spesa e una centesima parte della forza c'è un mondo da conquistare ed è così vasto sire così ricco così bello ed è tutto per noi solo che ci diamo la pena di prenderlo chi ce lo contrasta qualche tribù indiana sparsa qua e là e una masnada di contadini e pescatori inglesi pensateci sire e fra pochi anni voi potrete alzare il vostro trono nella cittadella di quebec e dirvi che esiste un grande impero dalle nevi del nord fino agli ardori del sud dalle onde dell'oceano fino alle immense pianure al di là del fiume marquette e il nome di questo impero sarà quello di francia il suo re luigi la sua bandiera il giglio le guance del re s'erano coloriti alla pittura di questo sogno ambizioso ed egli protendeva il viso con gli occhi fiammeggianti ma ricadde indietro alla conclusione del governatore davvero conte e gli disse avete acquistato il dono dell'eloquenza dagli indiani parlatemi del popolo inglese sono ugonotti non è vero per la maggior parte specialmente nel nord allora sarebbe un servire la santa chiesa lo spacciarli mi si dice che abbiano fondato una città new new come la chiamano new york sire a new york e ne hanno anche un'altra mi pare bos bos boston sire ecco proprio così ditemi frontenac e luigi abbassò la voce per non essere inteso che dal conte e dall'uvoa che forza sarebbe necessaria per cacciare gli inglesi dal canadà un reggimento due e forse anche una fregata l'ex governatore scosse la sua testa grigia non li conoscete sire sono un popolo forte noi con tutto il vostro grazioso aiuto abbiamo appena potuto resister loro eppure quegli uomini hanno incontrato ostacoli infiniti freddo malattie terre incolte guerre contro gli indiani ma essi hanno prosperato e moltiplicato a tal punto che i boschi cedono davanti a loro come il ghiaccio fonde al sole ed oggi le campane delle loro chiese suonano là dove ieri ancora si udivano gli ululati del lupo per mettere il nuovo mondo nelle mani di vostra maestà io vi domanderei 15.000 dei vostri migliori soldati e 20 vascelli di linea luigi si alzò vivamente dalla poltrona afferrando la sua mazza con un moto di impazienza dovreste prendere esempio da questa gente che vi sembra così formidabile disse egli ed imitarli nella loro eccellente abitudine di agire da se stessi rimetteremo l'affare al nostro consiglio intanto è suonata l'ora della messa e tutto deve essere lasciato in disparte finché non abbiamo compiuto il nostro dovere verso dio prendendo un libro di preghiere dalle mani di un paggio egli si diresse verso la porta tanto rapidamente quanto glielo permettevano i suoi alti tacchi mentre i cortigiani facevano alla il suo passaggio per riunirsi in corteggio dietro a lui in ordine di precedenza capitolo terzo la guardia della porta mentre luigi offriva alla sua corte ciò che egli dichiarava apertamente essere il maggiore dei godimenti umani la vista del suo volto regale il giovane ufficiale di servizio alla porta era stato occupatissimo a trasmettere i nomi e i titoli dei numerosi privilegiati ammessi nella camera del re scambiando con ognuno un sorriso ed una parola di saluto perché la sua franca e bella figura era ben conosciuta alla corte coi suoi occhi chiari e ridenti le sue maniere vivaci il suo portamento sicuro aveva davvero l'aspetto di un uomo contento della sua condizione e infatti la fortuna li volse sempre propizia tre anni prima era un povero ufficiale subalterno combattente nei deserti del canada contro gli algonquin e gli rochesi popoli barbari che devastavano il paese un trasloco l'aveva ricondotto in francia nel reggimento di picardia ma avendo afferrato le briglie del cavallo del re un giorno d'inverno a fontainebleau a qualche passo da un fosso profondo in cui l'animale imbizzarrito stava per precipitare insieme al suo cavaliere questo caso fortunato valse per lui più di dieci campagne adesso ufficiale di fiducia della guardia particolare del re giovane coraggioso prode la sua sorte era davvero invidiabile non pertanto con la strana mutabilità della natura umana egli era già stanco di quella vita splendida ma monotona e pensava con rimpianto al tempo in cui sebbene avesse un servizio più faticoso godeva almeno di una maggiore indipendenza alla porta stessa del re il suo spirito si astraeva dalle magnificenze che lo circondavano per tornare alla selvaggia natura e dai torrenti schiumosi del far west quando ad un tratto il suo sguardo si fermò sopra un volto che egli aveva appunto visto nell'ambiente che i suoi ricordi evocavano ah signor de frontenac egli esclamò non mi avete dimenticato spero come decatinat è proprio una gioia di rivedere una figura di laggiù però c'è una bella differenza fra un subalterno nel carignan e un capitano delle guardie del re la vostra carriera è stata rapida tuttavia non son più felice per questo ci sono dei giorni in cui darei tutto per ritrovarmi sulle correnti vorticose in un canotto di scorza e per rivedere quelle colline rosse e gialle alla caduta delle foglie ah sospirò de frontenac sapete senza dubbio che la mia fortuna è tramontata mentre la vostra si alzava sono stato richiamato e della bare al mio posto ma ci sarà laggiù una tempesta contro la quale un uomo come lui non potrà mai resistere con gli rocchesi che ballano e dietro al loro dangan che fornisce la musica avranno bisogno di me e mi troveranno pronto alla prima chiamata vado dal re per cercare di risvegliarlo ed indurlo ad agire da grande monarca laggiù come qui se avessi il suo potere in mano mia cambierei la storia del mondo zitto non si parla di tradimento al capitano della guardia disse de catenat ridendo mentre il vecchio soldato passava nella camera reale durante questa breve conversazione un gentiluomo ricamente vestito di nero a ricami d'argento era entrato nella stanza e nel momento in cui la porta si apriva egli si avanzò con l'aria sicura di un uomo certo del fatto suo non pertanto il capitano de catenat fece vivamente un passo avanti e lo fermò vi chiedo perdono signor de vivon disse egli ma ho l'ordine di non lasciarvi passare di non lasciarmi passare siete pazzo egli indietreggiò impallidendo con gli occhi spalancati e la mano a metà alzata in gesto di protesta vi assicuro che questo è l'ordine del re è incredibile è uno sbaglio sarà certamente allora lasciatemi passare gli ordini impartiti mi sono formali se potessi dire una parola al re disgraziatamente signore è impossibile una parola soltanto in verità signore questo non dipende proprio da me furioso il nobile gentiluomo batte i piedi e guardò fissamente la porta come se avesse l'intenzione di forzarne il passaggio poi voltandosi se ne andò in fretta per il lungo corridoio con l'aria di un uomo che ha preso una decisione ecco balbettò fra sede catenat assottigliandosi baffetti neri ecco che egli corre a preparare una scenata fra poco sua sorella sarà qui scommetterei e mi troverò in un bel imbarazzo o trasgridire agli ordini o farmi di lei una nemica per tutta la vita vorrei piuttosto difendere la fortezza riscelie contro gli rochesi che la porta del re contro una donna incollerita perbacco ecco quello che temevo una signora ah che il cielo sia saludato è un'amica non una nemica buongiorno signorina nanon buongiorno capitano decatinat la nuova venuta era una graziosa brunetta il cui fresco viso e i grandi occhi neri contrastavano col vestito molto semplice sono di servizio vedete non posso parlare con voi non mi ricordo di avervene pregato signore o dovreste essere meno avvenente signorina nanon sussurro il capitano ma che cosa avete in mano un biglietto della signora demente non per il re glielo consegnerete non è vero senza dubbio signorina come sta la vostra signora ah il suo direttore spirituale non l'ha lasciata un minuto in tutta la mattina parla molto bene ma è così noioso quando il signor godè è stato a trovarci non siamo davvero molto allegre dimenticavo che siete ugonotto signore e che queste cose non vi importano certo le loro discussioni mi interessano poco lascio alla sorbona e a ginevra la cura di sistemarle però lo sapete non dobbiamo mai abbandonare la religione della propria famiglia ah se la signora potesse parlare con voi un poco vi convertirebbe mi piacerebbe di più parlare con la signorina nanon ma si udì un fruscio di sottane e la ragazza disparve in un andito laterale lungo la galleria inondata di luce s'avanzava una dama bella alta eccessivamente altera indossava un ricco abito di velluto nero ricamato d'oro e guarnito di trine un piccolo scialle appunto di venezia nascondeva insieme rivelava il suo collo superbo ed era fermato da uno spillo di brillanti mentre parecchi fili di perle si intrecciavano ai suoi splendidi capelli la signora non era più nella prima giovinezza è vero ma le curve magnifiche della sua figura di regina la purezza del suo colorito il fulgore dei suoi occhi azzurri dai lunghi cigli dorati la regolarità dei suoi tratti le permettevano ancora di pretendere al titolo della più bella donna di francia al tempo stesso che a quello della lingua più sarcastica della corte ella era tanto bella con la graziosa testa fieramente retta sul collo bianchissimo con l'ondulazione della sua andatura altera che il giovane ufficiale dimenticò i suoi timori nella sua ammirazione e portando la mano alla fronte in atto di saluto gli riuscì difficile di mantenere il contegno severo che esigeva la sua consegna ah il capitano de catinat disse la marchesa de montespan con un sorriso che aumentò l'imbarazzo del soldato più che non l'avrebbe fatto uno sguardo di collera sono il vostro umile servo marchesa sono contenta di trovar qui un amico perché stamani c'è stato un malinteso ridicolo mi dispiace marchesa a proposito di mio fratello il signor de vivon figuratevi che gli si è proibito di entrare in camera del re infatti signora ho avuto il penoso incarico di rifiutargli l'ingresso voi capitano de catinat e con qual diritto ella aveva rialzato la sua testa alteramente e i grandi occhi azzurri scintillavano di sorprese e di indignazione ordine del re signora il re credete che il re farebbe un'ingiuria simile alla nostra famiglia da chi avete ricevuto quest'ordine inverosimile direttamente dal re per mezzo di bontem ma è assurdo potete credere che il re userebbe scacciare un mortemar per mezzo di un cameriere avete sognato capitano spero che sia così signora ma certi sogni non portano fortuna a chi li fa andate ad avvisare il re che sono qui e che desidero parlargli impossibile signora e perché ho ricevuto l'ordine di non rimettere messaggi nessun messaggio nessuno da parte vostra signora andiamo capitano voi esagerate la consegna non mancava più che questo insulto dunque voi potete trasmettere al re il messaggio di una qualunque avventuriera di una istitutrice brutta e vecchia e rise con rabbia questa descrizione della sua rivale e non quello di francesca de mortemar marchesa de montespan questi sono gli ordini signora mi rincresce moltissimo ad essere costretto ad eseguirli risparmiatemi le vostre proteste capitano vi accorgerete presto che avete davvero forti ragioni di rincrescimento per l'ultima volta rifiutate di portare al re una mia parola lo devo signora allora andrò io stessa e la si slanciò verso la porta ma egli scivolò davanti a lei stendendo le braccia per amor del cielo signora calmatevi egli supplicò tutti gli occhi sono fissi su di voi marmaglia e la gettò uno sguardo sprezzante sopra un piccolo gruppo di svizzeri che il sergente aveva allineati a qualche passo di lì e che immobili osservavano la scena vi dico che voglio vedere il re nessuna dama è stata mai ammessa al mattino nella sua camera allora sarò la prima voi mi rovinate se passate e che mi importa la faccenda si faceva seria de catinat era un uomo di risorse ma questa volta non sapeva che fare la risolutezza della signora de montespan altrimenti chiamata impudenza era proverbiale se ella cercava ad entrare con la forza avrebbe egli dovuto a rischiare d'usare la violenza contro quella donna che ieri ancora teneva in mano le sorti di tutta la corte e che con la sua bellezza il suo spirito e la sua audacia poteva benissimo domani ritrovarsi nella stessa posizione se ella entrava era la rovina per lui perdeva il favore del re che non ammetteva la più leggera infrazione ai suoi ordini d'altra parte se egli la respingeva ella non lo dimenticherebbe e si vendicherebbe appena rientrata nelle grazie del monarca una felice ispirazione li traversò la mente nel momento stesso in cui la signora de montespan coi pugni chiusi e gli occhi scintillanti d'ira stava per rinnovare l'attacco se la signora marchesa si degna di aspettare un momento disse egli per calmarla il re passerà di qui per recarsi in cappella non è questa l'ora mi pare che suonino appunto le nove e perché devo attendere come un servo un minuto solo signora no non voglio aspettare e fece un passo verso la porta ma il fine orecchio del moschettiere aveva udito un rumore di passi dall'interno e sapeva d'essere ormai padrone della situazione porterò il vostro messaggio signora disse inchinandosi ah siete rientrato in voi stesso andate a dire al re che desidero parlargli bisognava guadagnare qualche altro momento devo trasmettere la vostra richiesta al gentiluomo di camera no diteglielo direttamente in pubblico no al suo orecchio e come motiverò la vostra domanda ah mi fate impazzire ripetete quello che vi ho detto e subito ma il problema era felicemente risolto in quel momento la porta si aprì e il re sole apparve sforzandosi di camminare maestosamente sulle sue scarpe a tacco alto battendo il suolo con la mazza seguito dalla folla dei cortigiani si fermò sulla soglia e voltandosi al capitano della guardia gli chiese avete un biglietto per me sì sire il monarca mise il foglio nella tasca del suo abito scarlato e stava per rimettersi in cammino quando i suoi occhi caddero sopra la signora de montespan diritta ed altera in mezzo alla galleria egli aggrottò le ciglia arrossi leggermente e passò davanti a lei senza una parola ma ella lo raggiunse subito e si mise al suo fianco non mi sarei aspettato questo onore signora disse luigi quattordicesimo né io mi sarei aspettata quest'insulto sire un insulto signora voi vi dimenticate siete voi che mi avete dimenticata sire perché siete qui desideravo sapere la mia sorte dalle vostre stesse labbra e la mormorò posso sopportare ed essere colpita io stessa da chi possiede il mio cuore ma è duro il sentire che mio fratello è stato insultato da camerieri e soldati ugonotti per colpe non sue e perché sua sorella ha amato con troppo ardore non è il momento di parlare di simili cose quando posso vedervi sire oggi dopo pranzo alle 4 nel vostro appartamento allora non importunerò più a lungo vostra maestà e con una delle sue graziose riverenze di cui ella aveva il segreto salutò il re e disparve in una galleria laterale con gli occhi brillanti di trionfo la sua bellezza e il suo spirito non l'avevano ancora tradita e adesso che aveva la promessa del re per un colloquio ella non dubitava di riconquistare il cuore dell'uomo nonostante la coscienza del monarca capitolo quarto il padre del suo popolo luigi era andato a pregare in uno stato d'animo ben poco devoto come era facile arguire dalle sue labbra strette dalle sue sopracciglia grottate conosceva bene la sua antica amante il suo carattere ostinato ed audace la sua mancanza di ogni ritegno quando incontrava l'opposizione o la rivalità egli la sapeva capace di suscitare uno scandalo terribile di volgere contro di lui quei sarcasmi che l'avevano fatto ridere alle spese degli altri forse anche di provocare in pubblico qualche scena che l'avrebbe reso lo zimbello di tutta l'europa fremetti a questo pensiero a tutti i costi bisognava evitare una simile catastrofe eppure come rompere i legami che gli univano egli ne aveva spezzati altri simili la dolce lavaglier si era ritirata in un convento al raffreddarsi dell'amante regale ecco una vera affezione ma quest'altra avrebbe lottato con tutti i mezzi prima di abbandonare la posizione che l'era così cara e la parlava del torto che egli le aveva fatto quale torto nel suo egoismo profondo alimentato dalle continue adulazioni egli non riusciva a concepire che i 15 anni della sua vita che ella gli aveva interamente dedicati e la perdita del marito che egli aveva soppiantato le davano dei diritti su di lui egli pensava di averla innalzata alla più alta posizione che un suddito potesse occupare ora era stanco di lei doveva ella dunque ritirarsi con rassegnazione anzi con gratitudine egli le assegnerebbe una pensione e si occuperebbe dei figli che cosa poteva domandare di più una donna ragionevole e poi i suoi motivi di accomiatarla non erano lodevoli ed eccellenti egli li ripensava mentre inginocchiato ascoltava la messa recitata dall'arcivescovo di parigi e più li esaminava e più gli sembravano giusti la concezione che si faceva di dio era quella di un luigi un poco più potente del paradiso quella di una versaie un poco più magnifica se egli esigeva un'obbedienza assoluta dai suoi 20 milioni di sudditi doveva anche mostrarsi sottomesso verso colui che aveva il diritto di esigerlo insomma la coscienza l'assolveva in ogni cosa salvo in questa dal giorno in cui la gentile dolce maria teresa era venuta dalla spagna egli non l'aveva mai lasciata un sol giorno senza una rivale oggi che ella era morta la sua condotta non era migliore una favorita succedeva ad un'altra e se la de montespan era rimasta in favore tanto tempo ella lo doveva alla sua propria audacia piuttosto che all'amore che egli sentiva per lei ma il padre lascese e bossuet non cessavano di ricordargli che egli aveva oltrepassato il punto culminante della vita e che già stava scendendo la parabola che conduce alla tomba il suo accesso di passione disordinata per l'infelice fontange era stato l'ultimo bagliore della fiaccola era venuto il tempo della gravità e della calma e non era certo in compagnia della marchesa di montespan che egli poteva provare questi sentimenti ma aveva scoperto presso chi egli godrebbe di questa calma e di questa gravità dal giorno in cui la montespan introdusse nel castello come istitutrice dei suoi figli la dolce silenziosa vedova egli aveva gustato in sua compagnia un piacere che non lo stancava mai e che andava sempre crescendo nei primi tempi gli era successo di restare delle ore intere nell'appartamento della sua amante osservando il tatto e la dolcezza con le quali l'istitutrice sapeva dominare lo spirito ardito e petulante del giovane duca di Maine ed imporre la sua autorità al malizioso conto di Toulouse nei primi tempi era venuto per assistere alle lezioni poi non aveva tardato a venirci per ammirare l'insegnante col tempo si era sentito attratto verso quella indole dolce ed energica ed aveva finito col consultarla e seguire i suoi consigli con una docilità che non aveva mai usato con alcun altro per un poco immaginò che la pietà e lo sfoggio di buoni sentimenti non fossero in lei che una maschera perché aveva trovato sempre l'ipocrisia intorno a sé non poteva persuadersi che una donna ancora bella dagli occhi così brillanti in una figura così graziosa potesse dopo una vita passata nella società più frivola e più gaia avere le tendenze di una monaca ma non tardò a disingannarsi quando aveva voluto parlarle un linguaggio più tenero di quello dell'amicizia aveva urtato in maniere glaciali e in brevi parole che valevano approvarli come quella donna mettesse il rispetto di se stessa al di sopra del desiderio di piacergli forse era meglio così le tranquille gioie dell'amicizia gli erano dolci dopo le tempeste della passione i momenti più felici erano quelli che egli passava da lei ogni dopo pranzo ad ascoltare parole scevere ed adulazioni opinioni non pronunziate apposta per piacergli e che influenza salutare ella esercitava su lui ella parlava dei doveri di un re degli esempi che egli doveva al suo popolo della preparazione alla vita futura della necessità di uno sforzo da parte sua per rompere i legami che lo tenevano avvinto ella era un buon confessore un confessore con un bel viso e con due braccia perfette capiva che era venuto il tempo di scegliere fra lei alla montespan la loro influenza era diametralmente opposta egli stava fra il vizio e la virtù era necessario scegliere ma il vizio era tuttavia molto attraente piacevole e spiritoso e lo tratteneva con la catena dell'abitudine così difficile a spezzarsi c'erano dei momenti in cui la sua natura lo allontanava dalla virtù sospingendolo verso l'antica vita ma bossuet e il padre l'ascese non l'abbandonavano mai prodigandogli suggerimenti e soprattutto c'era la signora di mantenon sempre pronta a ricordargli ciò che egli doveva alla sua propria posizione e ai suoi 46 anni egli si era dunque deciso a fare uno sforzo supremo ma non poteva considerarsi salvo finché la sua antica favorita fosse alla corte egli conosceva troppo bene se stesso per credere alla possibilità di un cambiamento durevole mentre ella stava ancora là a spiare il suo minimo segno di debolezza bisognava persuaderla a lasciare Versailles senza scandalo se era possibile egli si sarebbe mostrato fermo quel dopo pranzo facendole comprendere una volta per tutte che il regno di lei era per sempre finito tali erano i pensieri che passavano per la testa del re mentre egli si curvava sul ricco cuscino di seta rossa che ricopriva l'inginocchiatoio di quercia intagliata egli stava inginocchiato a destra dell'altare solo circondato dalle sue guardie dalle persone della famiglia mentre dame e cavalieri riempivano il resto della cappella la devozione usava allora come i mantelli neri e le cravate di trina e nessun cortigiano sarebbe stato abbastanza temerario da non ambire la grazia celeste da che il dress era dato alle pratiche religiose non di meno tutti quei signori e soldati avevano un'aria molto annoiata sbadigliavano dietro i loro libri d'ammessa mentre qualcuno che sembrava più attento alle preghiere era in realtà assorto nella lettura dell'ultimo romanzo di scuderi o di la calprened rilegato in cuoio scuro le signore erano più devote e si sforzavano di dimostrarlo perché ognuna teneva in mano una candelina sotto pretesto di seguirla messa nel suo proprio libro ma in realtà con la speranza ad essere meglio vista dal re e dimostrargli che ella condivideva le sue idee qualcuno dei presenti era lì per elezione e forse la preghiera gli usciva spontanea dal cuore ma la politica di luigi trasformava i nobili in cortigiani e questi in ipocriti cosicché la corte intera non era che uno specchio gigantesco riflettente all'infinito la sua propria immagine luigi ritornando dalla cappella aveva l'abitudine di ricevere le suppliche i ricorsi dei suoi sudditi per rientrare in palazzo e li traversava un grande atrio scoperto dove si riunivano tutti coloro che avevano qualche cosa da domandargli quella mattina c'erano tre persone un borghese che si considerava offeso dal prevosto della sua parrocchia un contadino a cui il cane d'un cacciatore aveva sbranato una pecora e un fattore che aveva da lagnarsi del suo padrone qualche breve domanda e un ordine dato al suo segretario regolavano prestamente ogni cosa particolare perché se luigi stesso era un tiranno aveva almeno il merito di voler esserlo solo nel suo regno si disponeva a proseguire il cammino quando un uomo d'una certa età vestito come un rispettabile cittadino dai tratti fermi ed energici si precipitò in avanti gettandosi ai piedi del monarca giustizia sire giustizia gridò che cosa c'è chiese luigi chi siete e che cosa volete sono un borghese di parigi e sono vittima di una crudele ingiustizia sembrate una degna persona se vi sia fatto torto sarà riparato esponete le vostre ragioni venti soldati dei dragoni azzurri di languedoc occupano la mia casa col capitano d'albert alla loro testa si sono impadroniti delle mie provvigioni hanno rubato le mie proprietà abbattuto i miei servi e ciò non di meno i magistrati mi negano giustizia davvero la giustizia mi sembra amministrata in uno strano modo nella nostra città di parigi esclamò il re in tono di collera è una vergogna davvero disse bossuet ci sarà forse qualche buona ragione suggerì il padre lasces vorrei pregare vostra maestà di chiedere a quest'uomo il suo nome la sua professione e perché i dragoni sono acquartierati in casa sua avete sentito le domande del reverendo padre il mio nome sire è catinat sono mercante di panni e mi si tratta in questo orribile modo perché appartengo alla religione riformata me lo immaginavo disse il confessore questo cambia molto la cosa aggiunse bossuet il re scosse la testa e aggrottò le sopracciglia allora non dovete rifarvela che con voi stesso il rimedio è in mano vostra che cosa bisogna fare sire abbracciare la sola vera religione sono stato sempre uno dei suoi fedeli sire il re batte il piede con ira mi accorgo che siete un eretico insolente disse egli non c'è che una sola chiesa in francia ed è la mia chiesa se voi ne siete fuori non potete contare sulla mia protezione la mia fede è quella di mio padre di mio nonno sire se essi hanno peccato non è una ragione perché voi facciate altrettanto anche mio nonno era nell'errore prima che i suoi occhi si aprissero alla verità ed egli ha nobilmente riparato le sue colpe mormorò il gesuita allora non volete aiutarmi sire prima dovete aiutarvi voi stesso il vecchio ugorotto si alzò con un gesto di disperazione mentre il re riprendeva il suo cammino scortato dei due ecclesiastici che li mormoravano all'orecchio parole di approvazione avete agito nobilmente sire siete davvero il figlio primogenito della chiesa siete il degno successore di san luigi ma il viso del re non esprimeva soddisfazione per quello che aveva fatto dunque non pensate che quella gente sia troppo duramente trattata domandò troppo duramente vostra maestà dovrebbe piuttosto rimproverarsi la troppa condiscendenza mi si dice che essi abbandonano in gran numero il mio regno bisogna rallegrarsene sire che benedizione può sperare un paese che dà ricetto a degli infedeli coloro che sono traditori di dio non possono essere leali verso il re osservò bossuet la potenza di vostra maestà sarebbe molto maggiore se non ci fossero i templi come essi chiamano i loro antri d'eresia il mio nonno ha promesso loro protezione come ben sapete essi sono protetti dall'editto che gli fece annant ma è in potere di vostra maestà di riparare il male che gli ha fatto e come revocando l'editto e gettando in braccio dei miei nemici due milioni dei miei più bravi artigiani e dei miei più fedeli servitori no no padre mio io nutro un fervido zelo per la nostra santa madre chiesa ma c'è del vero in quello che diceva stamani de frontenac sul male che risulta dal mescolare gli affari di questa vita con quelli dell'altra che ne dite l'uvoa con tutto il rispetto dovuto alla chiesa sire io dico che il diavolo ha dotato questa gente di una tale abilità per i lavori manuali e di una tale intelligenza per il commercio e per l'industria che essi sono i migliori operai e i migliori negozianti del regno di vostra maestà non so come si riempiranno le casse dello stato se ci vengono a mancare le tasse che essi pagano già molti hanno lasciato il paese portando via le loro industrie se se ne andassero tutti per noi sarebbe peggio che una battaglia perduta ma fece osservare bossuet se si sapesse che il re ha espresso la sua volontà vostra maestà può essere sicura che anche l'infimo dei suoi sudditi gli porta una si profonda affezione che si affretterebbe ad ubbidire finché l'editto esiste essi persisteranno nel loro errore il re scosse la testa sono stati sempre gente ostinata disse egli forse riprese l'uvoa guardando maliziosamente bossuet se gli arcivescovi di francia consentissero ad offrire allo stato i tesori e i benefici delle loro diocesi potremmo fare a meno delle tasse di questi ugonotti tutto quello che la chiesa possiede a disposizione del re rispose seccamente bossuet il regno è mio con tutto ciò che contiene disse luigi nel momento in cui entravano nella grande sala dove la corte si riuniva dopo la messa ma spero che non dovrò mai ricorrere a richiedere i beni della chiesa speriamo lo sire fecero i due ecclesiastici ma lasciamo questi argomenti alla nostra camera di consiglio dovemo usar bisogna che vede i suoi disegni per il mio castello di marlì si diresse verso una tavola ed un istante dopo era assorto nella sua contemplazione favorita esaminando i piani giganteschi del grande architetto ed informandosi del progredire dei lavori io credo disse il padre la chiesa trascinando bossuet in disparte che vostra eminenza ha fatto una qualche impressione sullo spirito del re grazie al vostro aiuto potente padre mio o potete essere certo che io non perderò alcuna occasione per condurre a porto questa buona opera se ve ne occupate voi possiamo considerarla come compiuta ma c'è qualcun altro che ha più potere di me la de montespan no il suo regno è tramontato si tratta della signora de mentenon sento dire che ella è molto devota moltissimo ma ella non ama il mio ordine è francescana non di meno possiamo tutti unirci per uno stesso scopo se voleste parlarle monsignore ben volentieri fatele conoscere che servizio essa renderebbe alla chiesa ottenendo l'esilio degli uconotti lo farò e ditele che in cambio noi faremo tutti i nostri sforzi per si curvò e mormorò qualche cosa all'orecchio del prelato o egli non vorrà mai e perché la regina è morta la vedova del poeta scarron ella è di buona famiglia il suo nonno e quello del re erano intimi amici ma è impossibile io conosco il suo cuore vi ripeto che è possibilissimo certo voi conoscete il suo cuore meglio di chiunque altro un pensiero simile non mi era mai entrato in testa ebbene fatecelo entrare ora e non uscir più se ella serve la chiesa fedelmente la chiesa servirà lei ma il re mi chiama a rivederci la sottile figura nera disparve prestamente in mezzo alla folla dei cortigiani e il grande arcivescovo di mo rimase solo con la testa bassa assorto nelle sue riflessioni intanto tutta la corte si radunò nella grande sala nella quale era un continuo andare e venire di signori e di grandame con dei frusci di seta di velluto e di broccato uno scintillio di gioielli un agitarsi di ventaglia e di piume gli abiti grigi bruni e neri degli uomini attenuavano lo splendore delle acconciature femminili perché tutto doveva essere cupo quando il re era cupo e soltanto l'azzurro e il grigio perla dei moschettieri della guardia ricordavano i primi anni del regno in cui gli uomini gareggiavano con le donne per il lusso dei loro abiti ma se gli abiti si erano modificati le maniere avevano subito un cambiamento più grande ancora la frivolezza e le antiche passioni restavano senza dubbio molto vicine alla superficie ma le facce gravi e le conversazioni serie erano la moda del momento non si parlava più di gioco di belle donnine dell'ultima commedia di moliere o della nuova opera di lulli ma si discuteva sul jansenismo sull'espulsione di arnold alla sorbona sull'insolenza di pascal sui meriti comparativi dei due predicatori popolari burdalù e massillon così tutti quei nobili signori e quelle grandi dame andavano e venivano copiando le loro attitudini da quella del piccolo uomo nero intorno al quale si aggiravano egli pure così poco padrone di se stesso che in quel momento esitava sul da farsi oscillante fra due donne rivali giocanti una partita da cui dipendeva l'avvenire della francia e il loro proprio destino capitolo quinto i figli di belial il vecchio ugonotto dopo la repulsa del re rimase muto con gli occhi fissi al suolo con la faccia esprimente dubbio dolore e collera insieme era un uomo alto molto magro con la fronte larga il grosso naso e il mento prominente ed energico non portava né parrucca né polvere ma la natura aveva già inargentato i suoi capelli e le rughe che gli contornavano gli occhi e si perdevano agli angoli della bocca gli davano un'aria di gravità severa che gli artifici del barbiere non avevano bisogno di accentuare non pertanto a dispetto della sua età il rapido moto di collera che non aveva saputo reprimere quando il re aveva rifiutato di rendergli giustizia e lo sguardo feroce ed altero col quale aveva seguito la corte ed ascoltato le burle e i sarcasmi che gli venivano lanciati a mezza voce tutto dimostrava che conservava ancora qualche cosa della forza e dell'ardore della giovinezza era vestito come si conveniva la sua condizione semplicemente ma con gusto portava un abito di grosso panno marrone guarnito di bottoni d'argento le calze di lana bianca alle scarpe di cuoio giallo una grande fibbia d'acciaio in una mano teneva il cappello di feltro dall'orlatura d'oro dall'altra un rotolino di carta la sua domanda che aveva sperato di lasciare al segretario del re la sua esitazione sul partito da scegliersi fini ad un tratto in un modo non previsto si viveva in un tempo in cui se non assolutamente interdetta la presenza degli ugonotti in francia era appena appena tollerata essi non potevano contare sulla protezione delle leggi che garantivano la sicurezza dei loro concittadini cattolici da vent'anni erano in preda delle persecuzioni sistematiche sempre aumentate finché non c'era più un'arma eccetto l'espulsione assoluta che il fanatismo non avesse volto contro di loro cacciati da ogni impiego pubblico perseguitati nei loro affari le loro case invase dalle truppe i loro figli incoraggiati a ribellarsi contro i padri la giustizia veniva loro rifiutata se si lagnavano degli insulti e delle offese di ogni genere cui continuamente erano fatti segno ciò nonostante tutti questi uomini non potevano risolversi ad abbandonare il paese che rifiutava di riconoscerli e pieni di quell'amore per il suolo natale così profondo in ogni cuore francese essi preferivano subire gli oltraggi nella loro patria piuttosto che andare a cercare un'accoglienza cordiale al di là dei mari ma di già si sentiva avvicinare l'alba di quel giorno in cui la scelta non sarebbe più stata in loro potere due guardie del re nella loro uniforme azzurra che erano di servizio da quella parte del palazzo erano stati testimoni dell'insuccesso del vecchio quando il corteggio fu passato essi si diressero verso lui interrompendo brutalmente il corso dei suoi pensieri via mercante di salmi disse l'uno in tono duro bisogna andarsene non siete davvero un bello ornamento sul passaggio del re disse l'altro chi siete dunque voi per ridervi la religione del re figlio di un cane il vecchio ugonotto getto loro uno sguardo di collera e di disprezzo e si disponeva ad andarsene quando uno di essi lo colpì al fianco con l'alabarda gridando prendi questo canaglia ah tu ardisci guardare in contesto modo una guardia del re figli di belial esclamò il vecchio se fossi un po più giovane non avresti osato trattarmi così ah tu vuoi continuare a sputare il tuo veleno basta andrea egli ha minacciato una guardia del re impadroniamoci di lui e portiamolo nel corpo di guardia i due soldati gettarono le alabarde precipitandosi sul vecchio ma s'accorsero presto che non era un affare facile impadronirsi di lui a parecchie riprese egli si sbarazzò dei due assalitori e non fu che dopo una lunga lotta che riuscirono ad afferrarli i polsi e ridurlo all'impotenza ma loro stessi erano in uno stato miserando con le uniformi lacerate e sporche si erano appena rialzati fieri della loro vittoria quando una voce severa e il lampo di una lama brillò davanti ai loro occhi forzandoli a lasciare la preda era il capitano de catenat che finito il suo servizio si era trovato a passar di lì al momento della scena alla vista del vecchio aveva trasalito violentemente e snodando la spada si era precipitato in avanti con una tal furia che non solo i due uomini lo lasciarono ma indietreggiando per evitare la punta minacciosa dell'arma sdrucciolarono cadendo a terra uno sull'altro canaglie urlò de catenat che cosa significa ciò i due soldati si erano rialzati vergognosi scusate capitano disse uno di loro salutando è un ugonotto che ha ingiuriato la guardia reale la sua domanda è stata respinta dal re ciò nonostante rifiutava ad andarsene de catenat era pallido di collera dunque quando un cittadino francese si presenta per implorare giustizia dal suo re deve essere maltrattato da due vigliacchi come voi in fede mia lo vedremo trasse dalla tasca un piccolo fischio d'argento alla cui stridula chiamata a corsero dal corpo di guardia un sergente e una mezza dozzina di soldati i vostri nomi domandò se veramente il capitano andrea menier e il vostro nicola clopper sergente arrestate questi uomini si capitano rispose il sergente un vecchio soldato di conde e turen fate che siano processati oggi su quale accusa capitano per avere maltrattato un vecchio e rispettabile cittadino venuto per presentare una supplica al re ha confessato egli stesso ad essere ugonotto gridarono insieme i colpevoli il sergente fece un moto quasi impercettibile come dubbioso del risultato del processo devo mantenere questa accusa capitano no disse decatinat colto da una felice ispirazione io li accuso di aver abbandonato le loro armi durante il servizio ed essersi presentati con le loro uniformi sporche stracciate così va meglio rispose il sergente con la libertà che gli dava il suo privilegio di veterano per tutti i fulmini avete disonorato le guardie una bella punizione vi insegnerà che le alabarde sono state fatte per essere tenute in mano e non per gettarle come strumenti inutili dietro front march il piccolo gruppo dei soldati circondando i due colpevoli ritornò al corpo di guardia condotto dal sergente lugonotto si era tenuto in disparte grave e serio senza un segno di approvazione o di gioia a questo subitaneo cambiamento di fortuna ma quando i soldati disparvero egli si avvicinò al giovane ufficiale e gli strinse calorosamente la mano a morì non speravo di incontrarti neppure io zio che motivo può avervi condotto a versailles le ingiustizia che si commettono a mio riguardo a morì i cattivi inveiscono contro di noi e a chi possiamo noi indirizzarci per aiuto se non al re il giovane ufficiale scosse la testa il re è buono egli disse ma non vede il mondo che attraverso le lenti che gli sono tenute davanti non avete niente da sperare da lui egli ha rifiutato sdegnosamente di ascoltarmi vi ha chiesto il vostro nome sì e io glielo ho dato ho capito disse a morì in fede mia se i miei parenti sono giunti a rivolgersi al re per chiedere giustizia credo che presto presto la mia compagnia sarà privata del suo capitano il re non conosce la nostra parentela ma davvero nipote mio mi domando come tu puoi vivere in questa casa di baal senza prosternarti davanti ai falsi idoli io servo la mia fede nel cuore il vecchio scosse la testa gravemente tu segui un sentiero difficile e il pericolo e le tentazioni sono ai tuoi piedi non va bene a morì camminare col signore eppure vivere insieme ai persecutori del suo popolo zitto zio fece il giovane con un moto di impazienza sono un soldato del re e non mi occupo di queste cose purché viva nella via dell'onore e muoia facendo il mio dovere non mi importa il resto dunque ti contenti di vivere nei palazzi mangiare di buone pietanze e portare di belli abiti disse lugonotto con amarezza quando la mano dei malvagi si aggrava pesantemente sui tuoi fratelli e il paese è pieno di pianti e di singhiozzi ma che c'è dunque chiese l'ufficiale un po interdetto da quel linguaggio biblico in uso fra i calvinisti di quel tempo venti soldati al comando di un certo capitano d'albert che è da lungo tempo un flagello per israele hanno invasa la mia casa il capitano claudio d'albert e i dragoni di langedoc ho già un affaretto da regolare con lui sì e anch'io ho ragione di lagnarmi di quel vigliacco che cosa ha fatto i suoi uomini si sono rovesciati in casa mia come un flagello non c'è più un posto libero egli si è impadronito della mia camera e là con le scarpe sulle mie seggiole di cuoio con la pipa in bocca e una bottiglia di vino accanto beve bestemmia che è un orrore egli ha battuto il mio domestico pietro e mi ha gettato in una cantina perché lo spingevo indietro quando già ubriaco egli voleva abbracciare la tua cugina dele ma scalzone ad ogni accusa le guance del giovane si erano arrossate e le sopracciglia grottate ma all'ultima la sua collera non ebbe più limite e trascinò vivamente il suo compagno attraverso i viali del parco i pochi cortigiani che incontravano guardavano con sorpresa quella strana coppia ma l'ufficiale era troppo assorto nei suoi piani di vendetta per fare attenzione a loro con passo rapido essi proseguirono il cammino passando presso una vasca dove una dozzina di delfini sputavano acqua sopra un gruppo di tritoni poi si inoltrarono in un viale d'alberi giganteschi che sembravano nati là da secoli e che in realtà erano stati trapiantati da saint germain e fontainebleau a forza di cure e di lavori incredibili all'estremità di questo viale essi trovarono finalmente un piccolo cancello per il quale uscirono dalla villa reale il vecchio era ansante per quella corsa singolare come siete venuto zio chiese l'ufficiale in una vettura dov'è la ha presso l'albero ma tu m'accompagna morì non è vero perbacco da quello che mi dite più che tempo che io venga ci vuole un uomo con una spada in casa vostra ma che cosa vuoi fare voglio dire una parola a questo capitano d'alberi ti giudicavo male nepote mio quando dicevo che il tuo cuore non era per israele poco mi importa di israele replicò decatinato con impazienza io so soltanto che se piacesse alla mia dele di adorare il fulmine come un selvaggio o di indirizzare le sue innocenti preghiere a mani tu vorrei ben conoscere l'uomo che oserebbe impedirglielo ecco la vettura cucchiere frustate i cavalli 5 lire di mancia se passate la barriera prima di un'ora non era cosa facile correre tanto in quel tempo in cui le strade erano cattivissime e le carrozze prive di molle ma il cucchiere aveva due solide bestie e non le risparmiò mentre si avanzavano rapidamente la polvere bianca turbinava dietro a loro l'ufficiale batteva nervosamente le dita sul vetro interrompendosi di tanto in tanto per lanciare una breve domanda al suo compagno quando è successo questo ieri sera e dov'è adele ora a casa e quel dal ber anche lui come l'avete lasciata sola con lui per venire a versailles e la è chiusa chiave in camera sua ma che cos'è una serratura e il giovane ebbe un gesto di furore al pensiero della propria impotenza anche pietro è là non può essere d'alcun aiuto e amo screen questo è meglio è un uomo costui almeno a vederlo sua madre apparteneva alla nostra religione faceva parte di quelle pecorelle che fuggirono subito davanti ai lupi quando fu evidente che il re minacciava israele e lì parla francese eppure non ha l'apparenza ad uno dei nostri anche le sue maniere sono diverse ha scelto un brutto tempo per la sua visita forse essa nasconde qualche saggio disegno e l'avete lasciato in casa sì egli era in compagnia di quel dal ber fumando e raccontando gli strane storie che aiuto aspettarsi da questo straniero in un paese a lui ignoto avete fatto male zio a lasciar così la mia dele e se nelle mani di dio a morì speriamolo ah non vedo il momento d'arrivare mise fuori la testa fra i nuvoli di polvere sollevati dalle ruote e la grande città gli si parò davanti come sommersa in un vapore azzurrognolo dal quale emergevano le due torri di notre dame con la guglia di saint jacques e tutta una foresta di campanili monumenti di una devozione otto volte centenaria presto le mura di cinta divennero visibili essi oltrepassarono la barriera e la vettura si inoltrò sull'astrico lasciando il lussemburg a destra e a sinistra gli invalidi l'ultima opera di colbert una brusca svolta li condusse sulle rive del fiume e dopo aver passato il ponte nuovo e gli imponenti edifizi del louvre entrarono in un labirinto di strade strette ma importanti che si estendevano verso il nord il giovane ufficiale teneva sempre la testa fuori della portiera ma un'enorme carrozza dorata che li precedeva li impediva di vedere e non fu che quando un allargamento della via permise loro di oltrepassarla che egli pote scorgere la casa verso la quale essi si dirigevano era circondata tutta all'intorno da una folla immensa capitolo sesto una casa in rivolta la casa del mercante uguonotto era un edificio alto stretto che faceva angolo fra la via san martino e quella di biron si componeva di quattro piani ed aveva un aspetto grave ed austero come il suo proprietario con un tetto a punta e delle grandi finestre a losanghe cinque scalini di pietra conducevano alla porta bassa e scura il piano superiore serviva di magazzino dove si ammassavano le merci ma il secondo e il terzo erano forniti di balconi con delle forti balaustrate di legno allorché lo zio e il nipote furono saltati fuori dalla vettura si trovarono in mezzo ad una folla di gente che si spingeva e si urtava col mento per aria e gli occhi fissi verso i piani superiori il giovane ufficiale seguendo la direzione dei loro sguardi vide cosa che per un momento lo fece rimanere muto ed immobile dallo stupore dalla terrazza più alta pendeva con la testa ciondoloni un uomo indossante l'uniforme azzurra dei dragoni del re non aveva né cappello né parrucca e il capo dai capelli corti dondolava 50 piedi al di sopra del suolo il suo viso voltato dalla parte della strada era ad un pallore mortale e i suoi occhi erano chiusi come spaventato dall'orribile posizione in cui si trovava sulla balaustrata del balcone stava chinato un giovane tenendo il soldato per le gambe però la sua faccia non era diretta verso la vittima ma a mezza voltata al di sopra della spalla come per tenere in rispetto un gruppo di militari che si affollavano all'apertura della finestra dietro a lui esitando ad avanzarsi intimoriti dall'aria di sfida del giovane ad un atto la folla si mosse agitata e diede in un'esclamazione il giovane aveva lasciato una gamba e il dragone era ora sospeso per un solo piede mentre l'altro si agitava disperatamente nel vuoto egli cercava ad attaccarsi al muro ma le mani non incontravano nessun punto d'appoggio ed egli proseguiva ad urlare con tutta la forza dei polmoni rimettimi su figlio del diavolo rimettimi su egli gridava vuoi tu dunque assassinarmi aiuto aiuto mi sento morire volete alzarvi capitano disse la forte chiara voce del giovane in eccellente francese ma con un accento che risuonava strano agli orecchi della folla ma sì per bacco sì allora comandate ai vostri uomini d'andarsene via bruti imbecilli volete vedermi in pezzi andatevene vi dico andatevene ed ora possiamo intenderci disse il giovane quando i soldati furono scomparsi con un movimento brusco egli sollevò la sua vittima che poteva ferrare il cornicione della terrazza ebbene come vi trovate adesso non mi lasciate per carità non mi lasciate state tranquillo vi tengo forte allora rialzatemi un momento capitano siete in una posizione buonissima per parlare rimettetemi in piedi ve ne prego signore ve ne prego aspettate avete troppa furia mi dispiace che troviate incomodo il discorrere così con le gambe in aria ah mi volete assassinare al contrario sto per rialzarvi che dio vi benedica ma soltanto a certe condizioni sono accordate sto per cadere voi lascerete questa casa voi e i vostri uomini e non disturberete più questo vecchio e questa fanciulla lo promettete o sì lo prometto ce ne andremo parola d'onore parola d'onore però rialzatemi non tanto presto avete l'intelligenza più sveglia in questa posizione io non conosco le leggi del paese e forse questa cosa non è permessa dovete promettermi che non avrò alcuna noia in conseguenza di questo episodio nessuna nessuna ve lo giuro ma rialzatemi benissimo allora su con una scossa rialzò il malcapitato che si aggrappava la balaustrata e lo lanciò rudemente sul balcone dove egli rimase per un istante stordito mentre delle esclamazioni di giubilo partivano dalla folla calcata nella strada il capitano si rimise in piedi a fatica e rientrò in casa con un urlo di rabbia mentre questo piccolo dramma si svolgeva di sopra il moschettiere riavuto dal primo stupore si era fatto largo attraverso la gente e seguito dallo zio era arrivato davanti alla porta di casa l'uniforme di guardia del re era di per sé stessa un passaporto e la figura del vecchio catinat era conosciuta nel quartiere tanto che tutti si tiravano da parte per lasciarli passare la porta si spalancò davanti a loro e il vecchio pietro apparve nel corridoio oscuro torcendosi le mani oh padrone padrone egli gridava è orribile è infame essi l'uccideranno ma chi quel bravo signore d'america si udiva al piano superiore uno strepito spaventoso di urli bestemmie e mobili fracassati il soldato e lugonotto si slanciarono per le scale e in quel punto stesso un grande orologio a pendolo venne ruzzolando di scalino in scalino ad infrangersi ai loro piedi come mitraglia di ferro e di legno subito dopo quattro uomini così strettamente uniti da non formarne quasi che uno rotolarono in basso venendo a cadere sul vestibolo dove rimasero a lottare dibattendosi rialzandosi feroci e danzanti così avvinghiati gli uni agli altri era difficile distinguere qualche cosa si vedeva soltanto che uno di loro era vestito di panno nero e che gli altri che si aggrappavano a lui erano tre soldati del re questi duravano fatica a domare il loro avversario che ogni volta che riusciva a rimettersi in piedi li trascinava da una parte all'altra del corridoio come avrebbe fatto un orso dei cani attaccati ai suoi fianchi un ufficiale precipitatosi dietro ai lottatori allungò la mano per afferrare l'uomo alla gola ma la ritrasse subito bestemmiando perché i denti bianchi avevano incontrato il pollice e morso senza pietà mettendo in bocca il dito ferito e gli snudò la spada ed era per passarla attraverso il corpo del suo avversario disarmato quando de catenat si slanciò avanti afferrandogli il polso miserabile gridò pallido d'ira la subitanea apparizione di un ufficiale delle guardie del re ebbe un effetto magico sui combattenti dal bear retrocesse d'un passo e tenendo sempre il pollice in bocca abbassò l'arma guardando con aria cupa il nuovo arrivato la sua lunga faccia era sconvolta dalla collera e gli occhietti neri gli lucevano di furore di vendetta insoddisfatta i suoi uomini avevano lasciato la loro vittima e stavano allineati affannando maledettamente mentre il giovane si appoggiava contro il muro e scuoteva la polvere dal suo abito nero passando lo sguardo dai suoi assalitori al suo difensore avevo già un conticino da regolare con voi dal bear disse de catenat tirando fuori la spada sono in servizio d'ordine del re brontolò l'altro non ne dubito in guardia signore sono in servizio vi ripeto va bene va bene in guardia ma io non ho ragione di battermi con voi davvero de catenat fece un passo avanti e con la mano aperta lo colpì violentemente in volto mi pare che ora ne avrete una maledizione urlò il capitano allarmi dragoni olà scendete arrestate quest'uomo ed impadronitevi del prigioniero olà in nome del re alla sua chiamata una mezza dozzina di soldati scesero in fretta le scale mentre gli altri tre s'avanzavano verso il loro primo avversario ma questi fece un salto da una parte prese il pesante bastone che teneva in mano il vecchio mercante e andò a mettersi vicino al moschettiere allontanate questa canaglia e battetevi da gentiluomo esclamò de catenat davvero un bel gentiluomo la cui famiglia vende il panno vigliacco voglio ricacciarvi in gola queste parole egli si slanciò e vibrò contro dal ber un colpo di spada che l'avrebbe passato da parte a parte se l'arma pesante di un dragone non avesse nello stesso tempo colpito spezzandola quella più leggera del moschettiere con un grido di trionfo il suo nemico si precipitò su di lui con la spada sguainata ma il giovane straniero con un colpo di bastone fece volare l'arma che saltò in aria e ricadde a terra con un rumore secco intanto uno dei soldati sulla scala aveva tirato fuori una pistola e tenendola a poca distanza dalla testa di de catenat stava per regolare definitivamente il combattimento quando un vecchietto che era salito dalla strada e aveva osservato con un sorriso pieno di interesse lo svolgersi della lotta s'avanzò ad un tratto comandando a tutti di posare le armi con tono così risoluto così severo ed autoritario che tutte le punte delle sciabole toccarono insieme la terra come se si fossero trovati all'esercitazione infedemia signori infedemia esclamò con uno sguardo severo dall'uno all'altro era un vecchietto svelto magro come una ciuga con dei lunghi denti sporgenti ed un'enorme parrucca dai riccioli cadenti che nascondevano in parte il collo scarno e le spalle strette indossava un gran mantello di velluto grigio e degli stivali altissimi che col piccolo cappello a tricorno l'istato d'oro gli davano un'apparenza militare dall'espressione di tutto il suo volto come dal tono naturale di comando si riconosceva facilmente un personaggio importante infatti il nome del minuscolo gentiluomo che si trovava in quel momento in casa del lugonotto era ben noto in francia come all'estero chi dunque fra quelli lì riuniti non conosceva l'ultimo dei grandi nobili di francia il più valoroso dei suoi capitani l'amato conde il vincitore di rocroix e l'eroe della fronta alla vista di quel volto austero i dragoni e il loro capo rimasero immobili con gli occhi spalancati mentre decatinat alzava in segno di saluto il troncone della sua spada esclamò il vecchio soldato guardandolo con attenzione voi eravate come sul dreno eh io conosco la vostra faccia capitano ma allo stato maggiore del re era con turen ero al reggimento di piccardi altezza decatinat è il mio nome bene bene ma voi signore chi diavolo siete il capitano d'albert altezza dei dragoni azzurri di languedoc passavo nella mia carrozza e vi ho veduto dondolante nell'aria con la testa in basso ma se ho ben capito quel giovane vi ha rialzato a certe condizioni e gli ha giurato di lasciare la casa esclamò lo straniero nonostante questo appena l'ho rimesso in piedi ha spinto i suoi uomini contro di me ed abbiamo ruzzolato tutti insieme le scale e mi pare che non abbiate lasciato gran cosa dietro a voi osservò con de con un sorriso guardando i frantumi che coprivano il pavimento è così che avete mantenuto la vostra parola capitano d'albert io non potevo trattare con un ugonotto e un nemico del re disse il dragone in tono cupo potevate trattare mi sembra poi non potevate osservare il trattato e perché non l'avete lasciato andare signore quando eravate il più forte ho creduto alla sua parola dovete essere molto fiducioso ho l'abitudine di trattare con gli indiani ah e credete che la parola di un indiano non valga di più di quella di un ufficiale dei dragoni del re non lo credevo un'ora fa con de prese una presa di tabacco e col fazzoletto di trina scosse quello caduto sul suo manto di velluto siete di una costituzione molto forte signore disse egli guardando le larghe spalle e il petto sviluppato dello straniero venite dal canada suppongo ci sono stato signore ma io dimoravo a new york con de tent e non la testa un'isola no signore una città in quale provincia nella provincia di new york la capitale allora no albani è la capitale e come mai parlate così speditamente la nostra lingua mia madre era di sangue francese da quanto tempo siete a parigi da un giorno e cominciate già a gettare dalla finestra la gente del paese di vostra madre dava noia ad una giovinetta signore io l'ho pregato di smettere allora tratto fuori la spada e mi avrebbe ucciso se non gli fossi saltato alla gola egli ha chiamato in aiuto i suoi uomini e per tenerli lontani ho minacciato di precipitarlo nella strada se facevano un passo eppure quando l'ho lasciato in libertà tutti si sono di nuovo gettati su di me e non so come sarebbe andata a finire se questo gentiluomo non fosse venuto in mio soccorso e avete fatto bene siete giovane ma non mancate di risorse sono stato allevato nei boschi signore se laggiù esistessero molte persone del vostro stampo il mio amico frontenac avrebbe molto da fare prima di fondare l'impero di cui egli parla che dite in vostra discolpa capitano d'alber ordini del re altezza ah vi ha dato l'ordine di molestare le fanciulle non ho ancora sentito dire che sua maestà abbia commesso il delitto di trattare duramente una donna ebbe un piccolo riso secco e tirò su un'altra presa di tabacco gli ordini sono altezza di usare tutti i mezzi per indurre questa gente ad abbracciare la vera fede davvero mi sembrate un famoso apostolo e un bel campione di una santa causa disse conde in aria sardonica osservando la faccia brutale del soldato conducete via i vostri uomini signore e non ardite mai più porre il piede sulla soglia di questa casa ma l'ordine del re altezza obbedite il re saprà per bocca mia che gli ho lasciato dei soldati e che ritrovo dei briganti neppure una parola di più andate signore portate con voi la vostra vergogna e lasciate qui il vostro onore il bel vecchio dall'espressione ironica si era cambiato in un momento in un fiero soldato dal volto severo e dagli occhi pieni di fuoco dal ber retrocesse davanti a quello sguardo e dando un ordine ai suoi uomini essi discesero in fretta con un rumore di scarpe e un tintinio di sciabole altezza disse il vecchio uconotto avanzandosi ed aprendo una delle porte che andavano sulle scale siete stato davvero il salvatore di israele non volete degnarvi di riposare sotto il mio tetto e prendere un bicchiere di vino prima di continuare la vostra strada conde rialzò i sopraccigli sentendo quel linguaggio biblico poi si inchinò cortesemente all'invito ed entrò nella stanza guardando intorno la magnificenza decorativa con le pareti e il soffitto finamente dipinti il pavimento elucente il vasto caminetto scolpito era in verità una sala degna di un palazzo la mia carrozza mi aspetta disse e non posso fermarmi a lungo non mi avviene spesso di lasciare chantilly per venire a parigi e ringrazio la provvidenza che guidandomi da questa parte mi ha permesso di rendere servizio ad un onestuomo quando una casa innalza come insegna un ufficiale dei dragoni con le gambe all'aria confesserete che è difficile continuare la strada senza chiedere ciò che succede ma temo che come ugonotti non avrete mai pace qui in francia la legge è dura per noi infatti e sarà sempre peggio se le voci che circolano sono vere mi stupisce che restiate in questo paese il mio commercio e il mio dovere mi trattengono qui in fede mia ognuno è giudice dei propri affari non sarebbe più prudente di piegare alla tempesta e lugonotto fece un gesto d'orrore bene bene non ho voluto offendervi dov'è la bella fanciulla che è stata la causa di tutto questo chiasso dov'è adele pietro chiese il mercante al vecchio servo che portava sopra un vassoio d'argento una bottiglia e dei bicchieri l'avevo chiusa in camera mia padrone e dov'è ora eccomi padre mio disse la giovinetta entrando ed andando ad abbracciare il vecchio spero che quei cattivi uomini non ti avranno fatto del male no no figlia mia nessuno di noi ha dovuto soffrirne grazie all'intervento di sua altezza il principe di conde qui presente adele alzò gli occhi e li riabbassò subito davanti allo sguardo interrogatore stupito del vecchio soldato che dio ricompensi vostra altezza e la mormorò nella confusione il sangue le affluì alla faccia e la fece apparire più bella ancora con l'ovale delicato del volto i grandi occhi grigi l'ondulazione dei capelli lucenti le cui tinte calde facevano spiccare i piccoli orecchi di madreperla e l'alabastro del collo con de stesso che aveva conosciuto tutte le bellezze famose di tre corti successive durante 60 anni rimase in estasi davanti alla figlia del lugonotto e signorina voi mi fate adesso sentire che nella mia vita ci sono 40 anni di troppo egli si inchinò con un sospiro quel sospiro che era in voga allor quando buckingham venne agli sponsali d'anna d'austria e che la dinastia dei cardinali toccava l'apice della potenza la francia avrebbe difficilmente fatto senza questi 40 anni altezza anche così pronta la risposta vostra figlia signore avrebbe del successo a corte che dio ce ne liberi altezza e lei pura buona perbacco questo non è un complimento per la corte ma voi signorina dovete annoiarvi qui in questa immensa casa buia senza altra distrazione che la vista assai monotona della via san martino non vi piacerebbe vivere in mezzo alla bella società udire della buona musica vestirvi con degli abiti smaglianti sono felice ad essere insieme a mio padre in qualunque luogo egli sia rispose la fanciulla impadronendosi della mano del vecchio non domando niente di più credo che faresti bene a salire nella tua camera dele disse il mercante il principe nonostante l'età era sempre pericoloso presso le donne egli si era avvicinato a lei e le aveva messo la mano scarna sul braccio mentre i suoi occhietti neri brillavano d'una luce inquietante ma che esclamò mentre ella si affrettava ad obbedire non avete niente da temere per la vostra piccola colomba signore il falco per quanto avido alle ali troppo stanche per afferrare la preda ma in verità mi accorgo che è buona come bella non potrebbe essere più perfetta se scendesse direttamente dal cielo la mia vettura mi attende signori vi auguro di cuore una buona giornata e con un inchino dignitoso egli uscì a passetti affrettati con la sua andatura di vecchio canimede dalla finestra decatinato lo vite salire nella stessa carrozza freggi d'oro che aveva loro sbarrato la via quando tornavano da versai in fede mia esclamò egli volgendosi al giovane americano noi dobbiamo gratitudine al principe ma mi sembra che siamo ancora più obbligati verso voi avete messo a rischio la vita per mia cugina e senza il vostro colpo di bastone dal berm avrebbe infilzato con la spada la vostra mano signore ci sono dei servigi che un uomo non dimentica potete davvero ringraziarlo a morì aggiunse il vecchio ugonotto che rientrava dopo aver accompagnato il suo illustre ospite fino alla vettura egli si è eletto a campione degli afflitti e a protettore dei deboli abbiate la mia benedizione amos green perché un mio proprio figlio non avrebbe potuto far più di quello che avete fatto voi un estraneo ma il loro giovane ospite pareva più imbarazzato dai loro ringraziamenti che dalle sue avventure il suo volto liscio l'espressione del quale mostrava fermezza ed energia arrossì come quello di un fanciullo ho una madre e due sorelle al di là del mare disse timidamente e voi rispettate le donne per amor loro noi rispettiamo sempre le donne laggiù forse perché ne abbiamo poche non potete comprendere che cosa significhi esserne privi ho passato dei mesi interi a cacciare sui laghi conducendo la vita ad un selvaggio nelle capanne degli irochesi e degli algonquin dimenticando quello che sia vivere e parlare allora quando ritornavo ad albani dove la mia famiglia abitava in quel tempo e sentivo le mie sorelle cantare accompagnandosi al piano e mia madre ci raccontava della francia della sua giovinezza di tutto ciò che i suoi avevano sofferto per la fede che si credeva in quella vera allora ho capito quello che sia una donna e come ella rappresenti la parte più pura e migliore della creazione in verità tutte le donne devono della riconoscenza ad un giovane così prode ed eloquente disse a dele catenat che aveva udito la fine del discorso e gli aveva per un momento dimenticata la propria timidezza parlando liberamente con calore ma alla vista della fanciulla arrossì di nuovo ed abbassò gli occhi ho trascorso una gran parte della vita tra i boschi e gli disse e là si parla così poco che si finisce col perderne l'abitudine è per questo che mio padre mi ha mandato in francia non voleva che rimanessi un semplice cacciatore e un commerciante e quanto tempo vi tratterrete a parigi chiese l'ufficiale finché effraim lavage verrà a prendermi chi è effraim lavage il capitano del golden rot e il vostro bastimento quello di mio padre era diretto a bristol adesso a rouen e deve tornare a bristol a caricare quando sarà pronto effraim lavage verrà a prendermi a parigi ed io ripartirò con lui e come vi piace parigi il giovane sorrise mi avevano detto che era una città piena d'animazione e in verità dal poco che ne ho visto stamani credo anch'io che sia il luogo più animato del mondo perbacco esclamò decatinata avete sceso queste scale molto animatamente con un orologio a pendolo per staffetta ed uno spicinio di ferri e di legno dietro a voi non avete ancora visto nulla della città solo quello che ho potuto scorgere iersera attraversandola per venire qui è meravigliosa ma non potevo respirarci mi pareva che mi mancasse l'aria new york pure è una grande città si dice che conti 3.000 abitanti e che possa fornire 400 soldati ciò nonostante da qualunque parte si può contemplare l'opera divina gli alberi il cielo lo splendore del sole sulla baia e sui fiumi ma qui non si vede che pietra e legno legno e pietra da qualsiasi punto si guardi dovete essere proprio molto forti per conservare la salute in un luogo simile noi pensiamo invece che voi dovete essere fortissimo per viver così in mezzo alle foreste e sui fiumi disse la fanciulla ma come fate per dirigervi in quelle immense pianure deserte dove non c'è nessuno per guidarvi e voi dunque come fate per ritrovare la strada in mezzo a questo labirinto di case in quanto a me spero che la notte sia serena e perché per vedere le stelle almeno quelle non cambiano posto appunto per questo se posso vedere le stelle sono sicuro di ritrovare questa casa nel giorno contrassegnerò col mio coltello e battenti delle porte perché mi sarebbe troppo difficile di riconoscere il cammino con tanta gente che passa e ripassa continuamente decatinat diede in una risata in fede mia troverete parigi più divertente che mai se avete l'intenzione di segnare il vostro passaggio sui battenti delle porte come lo fareste sugli alberi di una foresta sarà meglio che abbiate una guida per i primi tempi così zio se disponete di due cavalli potrò condurre il mio amico a Versailles dove presto sarò di servizio nuovamente passerà qualche giorno con me a veder ben altro spettacolo che quello che può offrirgli la via san martino che ne dite signor green sarò felice di uscire in vostra compagnia se possiamo lasciarsi cura la casa o non temete disse lugonotto l'ordine del principe di condè ci sarà una salvaguardia per diversi giorni vado a dire a pietro di sellare i cavalli ed io corro ad approfittare del poco tempo di cui dispongo aggiunse il moschettiere andando a raggiungere Adele nel vano della finestra capitolo settimo il nuovo mondo l'antico il giovane americano fu presto pronto ma decatinata si indugiò fino all'ultimo minuto quando finalmente si staccò mal in cuore dalla sua fidanzata si accomodò la cravatta spolverò il suo bel mantello ed esaminò con occhio critico l'abito nero del compagno dove l'avete comprato chiese a new york prima di partire ma va bene per il colore che è di moda ma il taglio lascia molto a desiderare so soltanto che non mi par vero di riprendere la mia comoda giacchetta da cacciatore e questo cappello dunque non si portano con la tesa così spiovente datemi qua che cerchi di rimetterlo in stato possibile prese il feltro e rialzandolo da una parte lo appuntò con una fibbia dorata che si tolse dalla sottoveste ora avete un'aria marziale disse sorridendo tuttavia anche passando sopra al mantello e alle ghette perché non avete al fianco una spada posso prendere il mio fucile da caccia mio dio vi arresterebbero per un bandito o anche un coltello di male in peggio no no senza spada ma anche senza fucile aspettate permettetemi di rifarvi il nodo della cravatta così ed ora sono a vostra disposizione partiamo essi formavano davvero uno strano contrasto mentre traversavano di galoppo le vie strette e popolate della grande città decatinat maggiore di cinque anni del suo compagno coi lineamenti fini e delicati dall'andatura disinvolta i baffi fieramente rialzati il corpo svelto e pur vigoroso che risaltava maggiormente nello splendido abbigliamento era proprio il tipo della grande nazione cui apparteneva il suo nuovo amico ben sviluppato forte coi capelli biondi e gli occhi azzurri dal volto ardito ed energico era alla sua volta un tipo non meno perfetto di quella razza indomita che impegnava le più terribili battaglie e conseguiva le più gloriose vittorie piegando la natura ribelle alla propria volontà che cos'è quel grande edificio laggiù domandò questi mentre raggiungevano in un'immensa piazza è il louvre uno dei palazzi del re ed egli vi abita no egli ora è a versailles strano un uomo che possiede due case simili due ma egli ne ha tante altre saint germain marlì fontaine bloc lunghi e a che scopo non si può abitare in tutte nello stesso tempo no ma si può andare dall'una all'altra secondo il proprio capriccio è un magnifico edificio ho visto il seminario di san sulpice a montreal e credevo che non esistesse un altro simile ma che cos'è in paragone a questo siete stato a montreal conoscete dunque la fortezza sicuro anche voi ci sono stato di guarnigione e così pure a quebec vedete bene che non siete il solo uomo dei boschi in parigi perché ho menato anch'io vita selvaggia per mesi di seguito e non mi dispiacerebbe ricominciare gli occhi di amos brillarono di piacere constatando che il suo compagno e lui avevano qualche cosa di comune e lo assediò di domande fino a che attraversando il fiume giunsero alla porta sud della città lungo le mura delle file sterminate di uomini facevano l'esercitazione chi sono chiese egli guardandoli con curiosità sono i soldati del re ma perché così numerosi attendono un nemico no siamo in pace con tutti disgraziatamente in pace allora perché tutti quegli uomini per essere pronti alla guerra il giovane scosse la testa con sorpresa potrebbero benissimo tenersi pronti a casa loro nel nostro paese ogni uomo ha il suo fucile nell'angolo del focolare ed è sempre pronto alla battaglia senza perdere il suo tempo così quando tutto è in pace il nostro re è potente e ha molti nemici e perché ha nemici perché se li è procurati allora non sarebbe meglio far senza di lui l'ufficiale scosse le spalle continuando simili discorsi disse egli prima di sera ci rinchiuderebbero alla bastiglia o a ven san dovete sapere che egli si è fatto questi nemici servendo il paese cinque anni or sono segnò un trattato di pace anima per il quale egli toglieva i paesi bassi spagnoli sedici fortezze poi si è impadronito di strasburgo e luxemburgo e infine ha represso i genovesi cosicché molti lo assalirebbero se lo sapessero debole e perché ha fatto tutto questo perché è un gran re e per la gloria della francia ma che cosa avete che cosa cercate lo straniero scese da cavallo di un salto si corvò al suolo fissando attentamente la polvere poi con passo rapido e furtivo si mise a correre zigzag per la strada attraversò un fosso e rimase a spiare all'apertura di una siepe con le narici dilatate l'occhio brillante il volto esprimente un'intensa eccitazione è pazzo mormorò de catinat afferrando la briglia del cavallo senza cavaliere parigi gli ha fatto perdere la testa ma che cosa diavolo fate costa con quegli occhi stralunati un daino è passato di qui disse l'altro a voce bassa indicando l'erba del fosso ho scoperto le sue orme che conducono a quel bosco almeno se avessi con me il fucile potremmo seguirle e portare al vecchio signore un po di selvaggina per l'amor di dio risalite a cavallo supplicò de catinat spaventato ho paura che vi succeda qualche malanno prima di potervi ricondurre sano e salvo in via san martino e che male ho fatto chiese amos green rimontando in sella con un salto mio povero amico questi boschi sono le bandite del re e voi parlate tranquillamente di uccidere i suoi daini come se vi trovaste sulle rive del michigan delle bandite vi saranno dai nidomati un'espressione di sommo disgusto passò sul suo volto poi dando di sprone al cavallo si slanciò ad un tal galoppo che de catinat dopo aver in vano cercato di raggiungerlo dovette gridargli di fermarsi è proibito correre così per le strade esclamò tutto ansante è proprio uno strano paese disse lo straniero perplesso mi sarà forse più facile ricordarmi ciò che è permesso stamattina per esempio preso il fucile per colpire un piccione che volava sopra i tetti nella strada e il vecchio pietro malevato l'arma con un'aria spaventata come se avessi voluto uccidere per lo meno un ministro e poi c'è anche quel povero signore a cui non vogliono lasciar dire neppure le sue preghiere de catinata si mise a ridere presto imparerete le nostre usanze disse egli questo è un paese molto popoloso e se ognuno galoppasse o tirasse colpi di fucile a suo piacere potrebbero risultarne di gravi danni ma guardate qui a destra in mezzo a quegli alberi guardate il nuovo palazzo del re che ve ne pare e si divertiva ad osservare le espressioni di meraviglia ed ammirazione che si seguivano sul volto del compagno dunque che ve ne pare gripe te mi pare che la più bella opera di dio è in america e quella dell'uomo in europa e in tutta l'europa non c'è un palazzo come questo né un gran re come quello che vi abita credete che potrò vederlo chi il re no no non mi sembrate fatto per vivere alla corte e saprei rendergli il dovuto onore come che saluto li fareste gli stringerei rispettosamente la mano domandandogli notizie della sua salute e di quella della sua famiglia parola d'onore penso che questo saluto li farebbe più piacere di tanti inchini e di tante false proteste di devozione però mio caro figlio dei boschi credo sarà meglio per voi che evitiate i sentieri pericolosi della corte ma che cosa c'è mi sembra una vettura di corte una nuvola di polvere bianca che da qualche momento veniva loro incontro lungo la strada era adesso così vicina che della carrozza che l'alzava si distinguevano lo scintillio delle dorature e la livrea rossa dei postiglioni i due cavalieri si tirarono da parte per lasciare la strada libera la carrozza passò lentamente trascinata da due magnifici sauri ed essi poterono scorgere una bella figura di donna i cui occhi si posarono sul loro un momento dopo dietro un ordine breve il cocchiere fermò i cavalli ed una mano fine bianca fece il loro segno di avvicinarsi è la signora di montespan la donna più terra della francia sussurrò de catenat ci invita ad andare a parlarle venite e fate come me egli toccò con gli sproni il cavallo gli fece fare una giravolta che lo condusse presso la carrozza ed alzando il braccio si tolse il cappello e si inchinò fino al collo della sua cavalcatura saluto che il compagno imitò benché un po' goffamente ah capitano disse la dama in tono poco amabile ci ritroviamo la fortuna mi è sempre stata favorevole signora eccettuata questa mattina è vero ma imposto un dovere ben penoso e voi l'avete adempiuto in un modo indegno come potevo fare altrimenti signora la dama ebbe un sorriso d'amarezza e la sua bella faccia prese un'aria di disprezzo voi credevate che io non avessi più influenza sul re vi siete immaginato che il mio regno fosse finito e senza dubbio avete pensato ad accaparrarvi il favore della nuova stella per il primo insultando l'antica ma signora potete risparmiarvi le vostre proteste io giudico dagli atti e non dalle parole pensavate dunque che le mie attrattive fossero così svanite e la mia bellezza del tutto scomparsa o avrei dovuto essere cieco per pensarlo cieco come un gufo a mezzogiorno aggiunse amos green con enfasi la signora de montespan aggrottò le sopracciglia guardando il suo strano ammiratore il vostro amico dice almeno quello che pensa realmente lui alle quattro di oggi vedremo se ci sono altri della sua stessa opinione e in questo caso guai a coloro che presero un'ombra passeggera per una nube durevole ella lanciò un nuovo sguardo cattivo all'ufficiale ed ordinò al cocchiere di riprenderla corsa andiamo venite gridò de catinat seccamente al suo compagno fisso a bocca aperta sulla ventura che si allontanava non avete mai visto una donna mai una simile a questa certo mai una che avesse la lingua così pungente lo giurerei disse de catinat e una faccia così bella per quanto ancora via san martino ci sia una figura deliziosa mi sembrate un conoscitore di bellezze benché abbiate sempre vissuto tra i boschi si sono stato così poco in compagnia delle donne che quando mi trovo in presenza di qualcuna di loro provo sempre qualche cosa di dolce di tenero e di santo alla corte potrete trovare dame tenere e dolci ma cercherete molto amico mio prima di trovarne una santa questa qui mi rovinerà se lo può e soltanto perché ho fatto il mio dovere è tanto difficile vivere in questa corte quanto scendere le montagne della china avendo un precipizio a destra uno a sinistra e forse anche uno davanti a noi i nostri precipizi sono le donne eccone una che vorrebbe farmi passare dalla sua parte e credo alla fine dei conti che sia la parte più sicura avevano oltrepassato il cancello del palazzo e un largo viale si allungava davanti a loro pieno di vetture di cavalieri nei boschetti vicini passeggiavano di belle signore con delle acconciature magnifiche in mezzo alle aiuole di fiori l'acqua delle fontane irradiata dal sole le faceva trasparire come in uno scintiglio di brillanti una di loro s'avanzò vivamente appena decatenate comparve era la signorina nanon la confidente della signora de mantenon come son contenta di incontrarvi capitano e le esclamò vi aspettavo con impazienza madama desidera di parlarvi il re viene da lei alle tre non abbiamo più che venti minuti ho saputo che siete andato a parigi e mi sono messa qui per attendere il vostro ritorno vengo subito a de brissac che fortuna incontrarti un grosso ufficiale passava vestito della stessa uniforme egli si volse subito e venne sorridendo verso il suo camerata a morì hai trottato molto a giudicarne dalla polvere che copre il tuo mantello veniamo direttamente da parigi ma sono impegnato ti presento il mio amico il signor amos green te lo affido per un poco perché gli è straniero arriva dall'america e sarà felice di vedere ciò che tu potrai mostrargli egli dormirà in camera mia ti lascio anche il mio cavallo consegnalo al palafreniere grazie e gettando la briglia al suo camerata decatinata strinse la mano di amos green salto giù dal cavallo e seguì con rapido passo la giovane nel palazzo capitolo ottavo il nuovo astro gli appartamenti occupati dalla dama che aveva già preso un se alto posto alla corte di francia erano umili come la sua condizione quando le furono assegnati ma con quel tatto raro e quella modestia che la distinguevano ella non aveva cambiato in niente il suo modo di vivere con la prosperità e si guardava bene dal provocare l'invidia e la gelosia facendo sfoggio di ricchezza e di potenza nell'estrema ala del palazzo e lontano dai saloni reali erano le due o tre camerette sulle quali gli occhi della corte da prima poi quelli della francia e infine del mondo intero dovevano un giorno essere rivolti la giovane vedova del poeta scarron fu qui vi relegata allorché la marchesa di montespan l'aveva chiamata alla corte quale istitutrice dei figli del re e qui vi ella abitava anche oggi che aveva aggiunto al suo nome di francesca d'obignè il titolo di marchesa de mentenon e la pensione la possessione omonima accordata le dal favore reale era là che ogni giorno il re andava a passare qualche ora trovando nella conversazione di una donna intelligente e virtuosa un piacere che nessuno dei belli spiriti della sua corte riusciva a procurargli era là che bisognava ricercare come già negli splendidi saloni della montespan la corrente delle idee delle tendenze del giorno con tanta cura studiate e seguite da coloro che volevano mantenersi il favore del re la politica della corte era davvero semplicissima se il re si dava la devozione tutti prendevano il libro da messa e la corona se si abbandonava la dissolutezza tutti si mostravano più dissoluti di lui ma guai a colui che si fosse dato al piacere quando avrebbe dovuto confessarsi e pregare o che avesse mostrato una faccia triste quando quella del re era ridente il giovane ufficiale aveva appena scambiato qualche parola con quella dama perché ella si compiaceva ad isolarsi e non appariva in pubblico che alle ore delle preghiere fu dunque con un sentimento di curiosità e di inquietudine insieme che gli seguì la sua confidente attraverso un dedalo di corridoi e di gallerie in cui l'arte e la ricchezza erano state profuse a larga mano la ragazza si fermò finalmente davanti alla porta della camera volgendosi verso il compagno madama desidera parlarvi di ciò che è avvenuto stamani e la disse vi consiglio di non accennare alla vostra religione perché è l'unica cosa su cui ella sia inflessibile alzò la mano come per dar più forza a questo avvertimento e dopo aver leggermente bussato aprì la porta signora il capitano decatinat e l'annunziò fate entrare la voce era ferma ma ad un suono dolce e melodioso obbedendo all'invito decatinat si trovò in una stanza non più grande e appena meglio ammobiliata di quella che gli abitava però si notava in tutto l'insieme la mano di una donna dai gusti semplici ma raffinati la mobilia di cuoio stampato il tappeto soffice i quadri di un'arte squisita rappresentanti soggetti sacri la tappezzeria dei colori chiari e graditi tutto dava un'impressione a metà religiosa a metà femminile ma dolce e carezzevole in verità la luce attenuata l'alta statua bianca della vergine in una piccola edicola con una lampada rossa accesa le davanti l'inginocchiatoio di quercia con sopra il libro di preghiere a taglio rosso davano alla stanza l'aspetto di una cappella privata piuttosto che di un salottino da signora da ciascuna parte del caminetto era una piccola poltrona di velluto verde una per madama l'altra riservata al re sopra un tavolino posto fra le due sedie era la paniera dal lavoro col ricamo quando il moschettiere entrò la signora sedeva all'altra estremità della stanza voltando le spalle alla luce era la sua posizione favorita benché ci fossero poche donne della sua età che avessero meno ragione di temere il sole le sue abitudini di vita attiva le avevano conservato una pelle delicata e liscia che avrebbe potuto destar l'invidia in qualunque giovane bellezza ella aveva un portamento da regina grazioso e benevolo dei gesti ed attitudini di una dignità naturale e la voce come abbiamo già detto dolce e melodiosa i suoi lineamenti erano nobili piuttosto che belli di una classica purezza di linee con una fronte ampia e bianca la bocca piccola esprimeva una sensibilità delicata ed aveva due grandi occhi grigi seri e calmi capaci di riflettere ogni commozione dell'animo dal gaio brillare della gioia al rapido lampo della collera l'espressione abituale del suo volto era però un'alta serenità e in questo ella presentava il più forte contrasto con la rivale la cui bella faccia rifletteva sempre l'impressione del momento ora calma e radiosa ora cupa e triste come un lembo di cielo durante un tempo incerto la signora de montespan la sorpassava in spirito e vivacità ma il buon senso e la salda intelligenza della più vecchia fra le due poteva forse in fin dei conti trionfare decatenate non ebbe il tempo d'osservare questi particolari sentiva soltanto d'essere in presenza ad una bella donna i cui occhi pensosi erano fissi su lui scrutandolo attentamente credo d'avervi già visto signore non è vero sì signora ho avuto l'onore di accompagnarvi una volta o due ma non ho mai avuto la fortuna di rivolgervi la parola la mia vita trascorre così calma e ritirata che temo di non conoscere quello che c'è di migliore di più degno alla corte è la sventura di un luogo simile il male si presenta da se stesso agli occhi e non si può ignorarlo mentre che il bene si nasconde nella sua modestia di modo che si dubita perfino della sua esistenza avete già servito nell'esercito si signora nei paesi bassi sul reno e nel canadà nel canadà a quale più nobile ambizione potrebbe avere una donna di quella di far parte della gentile congregazione fondata dalla beata maria dell'incarnazione da san giovanna lebera montreal che felicità ad essere una di quelle dolci suore le quali non interrompono la loro opera benedetta di convertire i pagani che per consacrarsi ad un dovere più nobile ancora rendere cioè la salute e la forza i soldati del signore feriti nella lotta contro satana queste parole d'entusiasmo suonavano strane all'orecchio di decatinato che ben conosceva la misera e terribile vita che trascinavano le povere suore sempre minacciate dalla povertà dalla fame e dal coltello e si domandava come quella donna che aveva i suoi piedi tutti i beni della terra potesse invidiare così la loro sorte sì sono ammirevoli e gli disse brevemente ricordandosi del consiglio della signorina nanon e temendo di inoltrarsi in un sentiero pericoloso e senza dubbio avrete avuto la fortuna di vedere il santo vescovo laval sì signora ho visto il vescovo laval e spero che i francescani tengano forte contro i gesuiti ho sentito dire signora che i gesuiti sono più potenti a quebec e gli altri a montreal e chi è il vostro direttore spirituale signore decatinato capì che non poteva fare a meno di scoprirsi non ne ho signora ahimè è una cosa molto comune il non averlo pure io non saprei dirigere i miei passi sul sentiero difficile che percorro se non ne avessi uno chi è dunque il vostro confessore non ne ho appartengo alla religione riformata la dama ebbe un gesto d'orrore e una subitanea durezza apparve sulla sua faccia come alla corte e l'esclamò perfino presso la persona del re decatinato era piuttosto indifferente in materia di fede e teneva la sua religione più per tradizione di famiglia che per forte convinzione ma fu colpito nel suo amor proprio vedendosi considerato come se avesse confessato un vizio vi ricorderete signora osservò altamente che i membri della mia religione non soltanto hanno lealmente difeso il trono di francia ma lo hanno anche posseduto dio l'ha permesso per i suoi saggi disegni e nessuno può saperlo meglio di me il cui nonno teodoro di obignè ha fatto tanto per porre la corona sulla testa del grande enrico ma gli occhi di enrico s'aprirono alla vera luce prima della sua morte e io prego o con tutto il cuore prego che venga lo stesso dei vostri e la si alzò e gettandosi sul suo inginocchiatoio nascose il volto fra le mani per qualche minuto durante i quali l'oggetto delle sue preghiere rimase un po imbarazzato in mezzo alla camera non sapendo bene se doveva riguardare quell'attenzione come un insulto come un favore un colpo battuto alla porta fece rialzare la dama e la sua fedele confidente apparve il re nel primo vestibolo signora disse ella sarà qui fra cinque minuti sta bene state fuori e fatemi sapere quando arriva ed ora signore continuò quando furono di nuovo soli ditemi avete rimesso il mio biglietto al re stamattina sì signora e a quello che ho capito non è stato permesso alla marchesa di montespan di entrare al gran lever è vero signora ma illa ha aspettato il re nella galleria sì signora e gli ha strappato la promessa di andare a trovarla oggi sì signora non vorrei obbligarvi a farmi delle confidenze che vi sembrassero un'infrazione al vostro dovere ma io lotto in questo momento contro un terribile nemico per una grande causa mi comprendete decatinata si inchinò allora che cosa voglio dire mi immagino che state lottando per ottenere il favore del re contro la dama che avete ricordata vi assicuro che non penso affatto a me stessa combatto contro il demonio per l'anima del re è la stessa cosa signora la dama sorrise se il corpo del re fosse minacciato potrei chiamare in aiuto le sue guardie fedeli ma quando si tratta di qualche cosa di molto più importante ho ancora più il dovere di proteggerlo ditemi dunque a che ora il re deve andare dalla marchesa alle quattro signora grazie mi avete reso un servizio e non lo dimenticherò il re viene madame disse la signorina nanon introducendo la testa nell'apertura della porta allora partite capitano passate da questa stanza e vi troverete nel corridoio esterno e prendete questo libro è il trattato della fede cattolica di bossuet ha ricondotto molte pecorelle all'ovile e spero potrà farvi del bene addio decatinat si diresse verso l'altra stanza e al momento d'entrarci si voltò indietro la dama gli volgeva le spalle e teneva la mano alzata sopra il caminetto seguendo il suo movimento egli vide ciò che essa stava facendo ella rimetteva indietro la grande lancetta del pendolo capitolo nono il re si diverte il capitano decatinat era appena scomparso da una porta che l'altra fu aperta dalla signorina nanon e il re entrò la marchesa di mentenon salzò con un sorriso grazioso e fece una profonda riverenza ma il volto del suo visitatore non si rischiarò per rispondere a questa accoglienza egli si lasciò cadere sopra una poltrona con le labbra strette e la fronte corrugata ecco un brutto complimento disse ella col tono allegro che sapeva prendere quando voleva strappare il re alle sue idee nere la mia povera camera così triste ha già gettato un'ombra su voi no è il padre lascese l'arcivescovo di mo che mi stanno dietro continuamente perseguitandomi con le loro prediche sui miei doveri i miei peccati e minacciandomi sempre col fuoco dell'inferno alla fine delle loro esortazioni e che vogliono da vostra maestà che io manchi alla promessa che ho fatto nel salire sul trono e che mio nonno aveva fatto prima di me che io revochi le dito di nant e che scacce dalla francia gli ugonotti ah ma vostra maestà non deve inquietarsi su questo soggetto voi non vorreste che io facessi una cosa simile non è vero no se ha dolore a vostra maestà avete forse conservato qualche tenerezza per la religione della vostra infanzia no sire ho in orrore l'eresia eppure non vorreste che fossero cacciati dovete pensare sire che l'onnipotente può toccare i loro cuori e ricondurli sul retto sentiero nello stesso modo in cui ha cambiato il mio non è meglio lasciar tutto nelle sue mani in fede mia esclamò luigi rasserenandosi ecco un buon argomento vedremo come vi risponderà il padre l'ascese è terribile di venir minacciato dalle fiamme eterne perché non si vuol rovinare il proprio regno i tormenti eterni ho visto un uomo che era stato rinchiuso alla bastiglia per 15 anni il suo volto era come un libro terribile su cui ogni ruga segnava ciascuna ora dei tormenti patiti ma che cosa non deve essere l'eternità egli rabbrividì e i suoi occhi risempirono di terrore a questo pensiero le grandi ragioni di stato avevano poco potere sull'anima sua come dal lungo tempo si erano accorti coloro che lo circondavano ma era sempre pronto a cedere al quadro degli orrori dell'oltre vita perché pensare a queste cose sire disse la dama con la sua voce dolce e calda che avete da temere voi che siete il figlio primogenito della chiesa credete dunque che sarò salvo certamente sire ma ho peccato molto peccato voi stessa me l'avete detto è il passato sire chi è senza alcuna macchia voi avete respinto la tentazione vi siete così meritato il vostro perdono vorrei che la regina fosse ancora al mondo mi troverebbe un uomo migliore anch'io lo vorrei sire ed ella saprebbe che devo a voi questo cambiamento o francesca senza dubbio voi siete il mio angelo custode che ha preso forma umana come ringraziarvi di ciò che avete fatto per me egli si curvò un po' avanti e le prese la mano ma a quel contatto un fuoco subitaneo si accese nei suoi occhi e con l'altro braccio egli l'avrebbe abbracciata se ella non si fosse alzata in furia per evitare la stretta sire e la disse col volto severo e rigido avete ragione francesca avete ragione sedetevi prego saprò contentarmi e sempre a questo trapunto i miei operai del gobelen dormiranno sui loro allori egli prese un'estremità del lavoro mentre essa dopo avergli lanciato uno sguardo inquieto sedeva di nuovo proseguendo a lavorare sì sire è una scena di caccia nelle foreste di fontainebleau un cervo a dieci corna vedete con la muta e un gruppo di dame e cavalieri vostra maestà ha cavalcato stamani no come avviene francesca che il vostro cuore sia di ghiaccio dio volesse che lo fosse davvero sire siete andato a caccia dunque no ma certo l'amore non ha mai fatto battere cotesto cuore inflessibile eppure siete stata moglie infermiera sire non moglie guardate quella dama nel parco mi sembra che sia madame gella non sapevo che fosse tornata da chantilly ma il re non voleva essere distratto dal suo soggetto allora non avete amato scarron continuò era vecchio mi hanno detto e zoppo come i suoi versi non parlate male di lui sire gli ero riconoscente lo rispettavo e l'onoravo ma non lo avete amato perché sire cercate di penetrare i segreti del cuore di una donna non l'avete amato francesca ho adempito verso lui al mio dovere il vostro cuore non è dunque mai stato toccato dall'amore non me lo domandate sire non ha mai avuto fremiti risparmiatemi sire ve ne supplico ma bisogna bene che ve lo domandi perché la mia tranquillità dipende dalla vostra risposta le vostre parole mi affliggono profondamente francesca non avete mai provato neppure un poco di quel grande amore che mi arte qui dentro egli si alzò con le mani tese lo sguardo supplichevole ma ella si ritrasse ancora siate certo di una cosa sire ed è che se anche vi amassi come mai alcuna donna ha amato un uomo preferirei gettarmi dalla finestra e morire piuttosto che farvelo conoscere con una parola o d'un gesto e perché francesca perché sire è la mia più alta speranza sulla terra ed essere stata prescelta per elevare il vostro spirito verso cose più nobili spirito di cui nessuno meglio di me conosce la grandezza e la generosità il mio amore è dunque cosa civile avete troppo abusato dei piaceri della vita e gli anni passano sire e si avvicina il giorno in cui sarete chiamato a rendere conto delle vostre azioni e dei vostri pensieri più intimi vorrei che consacraste il tempo che vi rimane a consolidare la chiesa a dare un nobile esempio ai vostri sudditi e a riparare al male da voi fatto nel passato il re si lasciò ricadere sulla poltrona mandando un sospiro sempre la stessa canzone e gli disse siete più severa del padre la chiesa e di bossuet no no e la disse allegramente con quel tatto raro che le era ingenito io vi ho annoiato mentre voi vi abbassavate ad onorare della vostra presenza la mia umile cameretta è una vera ingratitudine e sarebbe una giusta punizione se mi lasciaste domani nella mia solitudine togliendomi così tutta la gioia della mia giornata ma ditemi sire come vanno i lavori a marlì sono ansiosa di sapere quando la grande fontana andrà in azione funziona già e benissimo però mozar ha sbagliato ho fatto di lui un bravo architetto ma ho ancora molto da insegnargli gli ho mostrato il suo errore stamani ed egli ha promesso di ripararlo e quanto costerà il cambiamento sire qualche milione ma avremo una vista splendida dalla parte di mezzogiorno ho comprato da quel lato altri ettari di terreno perché c'è là tanta povera gente che abita in casa impossibili e non siete montato a cavallo stamani sire non mi ci diverto più una volta il mio sangue bolliva al suono del corno al rumore dello zoccolo di un cavallo ma adesso tutto mi stanca anche la caccia al falco anche non caccerò più ma sire avete bisogno di distrazioni che c'è di più sciocco di una distrazione che ha cessato di distrarvi non so come sia avvenuto quando ero fanciullo e che fuggivamo da una città all'altra e la fronda era in guerra contro di noi e parigi in rivolta quando il trono e la nostra stessa vita erano in pericolo il mondo mi sembrava così bello così nuovo così pieno di attrattive ora che la pace è perfetta ora che la mia voce è la prima in francia e quella della francia la prima dell'europa tutto è triste cupo noioso a che mi serve di aver davanti a me tutti i piaceri quando nessuno più mi seduce il vero piacere si ira in noi stessi nella serenità dell'anima nella tranquillità della coscienza e poi invecchiando è naturale che i nostri pensieri siano più gravi se non fosse così dovremmo farci dei rimproveri perché significherebbe che non abbiamo approfittato delle lezioni dell'esperienza forse avete ragione ma pure triste e sconfortante di non trovare piacere a nulla battono alla porta chi è è la mia damigella di compagnia che c'è signorina il signor cornell per far la lettura a sua maestà disse la fanciulla prendo la porta ah sì sire sapendo quanto poco attraente sia la conversazione di una donna ho pregato uno più abile di me di venire ad intrattenervi aspettavo veramente il signor asin ma è caduto da cavallo e mi manda il suo amico invece sua posso farlo entrare come volete signora come volete rispose il re in tono di suprema indifferenza ad un cenno della signorina nanon un omettino magro con una faccia intelligente dai lunghi capelli grigi entrò nella stanza fece tre profonde riverenze e andò a sedersi sulla cima di una sedia che gli fu indicata la signora de mentenon sorrideva facendo dei gesti al poeta per incoraggiarlo mentre il re si distendeva sulla poltrona con aria rassegnata una tragedia una commedia o una pastorale comica chiese timidamente cornell no non una pastorale è graziosa rappresentata non letta perché ha più attrattiva per gli occhi che per gli orecchi il poeta si inchinò assentendo e neppure una tragedia signore disse la signora de mentenon alzando gli occhi dal suo lavoro il re ha anche troppi gravi pensieri per essere ancora più preoccupato desidero che lo divertiate sì sentiamo una commedia concluse luigi non ho più riso di cuore dopo la morte del povero moliere a vostra maestà possiede un gusto sicuro disse il poeta cortigiano se avesse voluto consacrarsi alla poesia ci avrebbe in breve tutti i sorpassati luigi sorrise perché nessuna adulazione era troppo esagerata per dispiacerli come avete insegnato la guerra ai nostri generali e l'arte ai nostri architetti avreste sospinto a più alti ideali poveri poeti ma marte sdegna a dividere gli umili lauri d'apollo sì ho avuto a momenti la coscienza di possedere una certa disposizione alla poesia disse il re con compiacenza benché in mezzo alle cure dello stato non abbia avuto il tempo come voi dite di dedicarmi alle arti più gentili ma avete spinto gli altri a fare ciò che avreste pur fatto così bene voi stesso avete creato dei poeti come il sole fa spuntare dei fiori quanti non ne contiamo molierbo allora sì né tant'altri minori scarron così spiritoso e mordace a santa vergine che cosa ho detto la signora de mentenon aveva posato il suo lavoro e fissava uno sguardo di indignazione sul poeta che si divincolava sulla cima della sedia sotto il rimprovero di quei severi occhi grigi credo signor cornell che fareste meglio a cominciare la lettura disse il re seccamente sì sì re devo leggere dario chi è questo dario chiese il re la cui istruzione era stata così trascurata dalla politica astuta del cardinal mazzarino che ignorava tutto ciò che non aveva osservato personalmente dario fu re di persia sire e dov'è la persia è un regno dell'asia dario non è più il re no sire egli combatté contro alessandro il grande ah ho sentito parlare d'alessandro un famoso re un gran generale non è vero al pari di vostra maestà egli regnava saggiamente e conduceva i suoi eserciti alla vittoria ed era re di persia avete detto no sire di macedonia era dario il re di persia il monarca grottò le sopracciglia perché soffendeva la minima contraddizione mi pare che non conosciate troppo bene il soggetto e confesso che non mi interessa affatto scegliete qualche cos'altro gradireste il mio falso astrologo sì quello cornell cominciò la lettura della sua commedia mentre le dita bianche e delicate della signora de mentenon correvano sul trapunto di tanto in tanto ella levava la testa per guardare prima l'orologio poi il re che se ne stava disteso sulla poltrona con un fazzoletto di trina sul viso mancavano 20 minuti alle 4 ma ella aveva messo indietro la lancetta di mezz'ora dunque erano le 4 e 10 un momento un momento gridò il re ad un tratto c'è qualche cosa che non va bene il penultimo verso zoppica era una delle sue debolezze di posare a critico e il poeta prudente doveva accettare le sue correzioni per quanto assorte gli sembrassero quale verso sire è una fortuna di trovare qualcuno che ci avverta di un errore rileggete il passaggio e si quand je lui di le secrete mon am avec one de righeur et le tratté madame da ma façon de vivre suivant mon humeur un autre ou et bientôt le presente mon coeur sì il terzo verso ha un piede di più non l'avete osservato signora no ma temo di essere un povero critico vostra maestà ha ragione disse cornell senza rossire dalla menzogna noto il passaggio e lo correggerò lo sentivo che non andava bene se non scrivo io stesso pure me ne intendo un verso sbagliato mi fa male al timpano e la medesima cosa mi succede con la musica benché la conosca appena sono capace di distinguere una nota discordante mentre lulli non se ne accorge gli ho spesso mostrato degli errori di questo genere nelle sue composizioni e l'ho sempre convinto che avevo ragione non stento a crederlo sire disse cornell che aveva ripreso il libro e si disponeva a proseguire la lettura quando improvvisamente fu battuto alla porta maestà c'è il ministro signor de louvois annunziò la signorina nanon che entri rispose luigi signor cornell vi siamo grati per ciò che avete letto ma gli affari di stato ci costringono ad interrompere la vostra commedia spero di avere il piacere di sentire il resto un altro giorno e gli sorrise con quella grazia che faceva dimenticare a coloro che gli vivevano dintorno tutti i suoi difetti con quella grazia che faceva di lui la personificazione della dignità e della gentilezza il poeta col libro sotto il braccio uscì chietamente dalla stanza mentre il celebre ministro grande imponente dal grosso naso aquilino e la pesante parrucca entrò salutando i suoi modi erano d'una cortesia esagerata ma il volto altero esprimeva troppo chiaramente il suo disprezzo per quell'umile camera e per la donna che l'abitava e l'aveva coscienza del sentimento che li provava per lei ma seppe tuttavia dominarsi e non ebbe né uno sguardo né una parola in risposta all'ostilità manifesta del ministro il mio modesto appartamento è davvero oggi troppo onorato disse il alzandosi il signor de louvois vorrà adattarsi su questo panchetto poiché non ho altra sedia più conveniente da offrirgli in questa cameretta da bambole ma io forse disturbo se dovete parlare al re di affari di stato mi ritirerò nel mio salottino no niente affatto signora disse il re desidero che restiate qui che cosa c'è louvois è giunto un messaggero d'inghilterra con dei dispacci maestà rispose il ministro per la sua corpulenza scomodamente seduto sul piccolo panchetto sono mal disposti contro di noi laggiù e si parla ad una rivolta la lettera di lord sanderland domanda se in caso che gli olandesi prendessero le parti dei malcontenti il suo re potrebbe contare sull'aiuto della francia naturalmente conoscendo le intenzioni di vostra maestà ho risposto di sì senza esitare che cosa avete risposto ho detto sì re che poteva contare su noi il re divenne rosso dalla collera ed afferrò le molle con un movimento come se avesse voluto battere con esse il ministro la signora de maintenon balzò dalla sedia e gli pose dolcemente la mano sul braccio per calmarlo egli getto via le molle ma gli occhi folgoravano ancora di sdegno quando fissò l'uvoa come avete potuto usare e gli gridò ma sì re vi domando come avete usato dunque voi vi permettete di rispondere così senza consultarmi quante volte devo ripetervi che lo stato sono io io solo che tutto deve partire da me e che non rispondo delle mie azioni che davanti a dio chi siete voi uno strumento il mio strumento e vi permettete di agire senza la mia autorità credevo di conoscere le vostre intenzioni sire balbettò l'uvoa la cui alterezza era caduta e che aveva il volto bianco come la camicia voi non siete qui per immaginare le mie intenzioni ma per consultarle ed ubbidire ad esse perché dunque ho tenuto in disparte la mia antica nobiltà ed ho affidato gli affari del mio regno a degli uomini qui non mi sono ignoti nella storia della francia a degli uomini come colbert e voi me ne fanno un rimprovero il duca de saint simon l'ultima volta che venne alla corte disse che il nostro era un governo borghese e dà ragione ma io l'ho voluto così perché sapevo che i nobili vogliono pensare con la loro testa mentre i miei soli pensieri debbono imperare nella francia se però i miei ministri borghesi ricevono dei messaggi e vi rispondono allora io sono davvero da compiangere ve l'ho detto anche ultimamente l'uvoa vi prendete troppa libertà da agire senza consultarmi state bene attento e che io non abbia mai più a lagnarmi di una tale mancanza il ministro umiliato subiva questi rabbuffi immobile con la testa bassa e il mento appoggiato al petto il re borbottò ancora qualcosa con la fronte corrugata poi a poco a poco si rasserenò perché i suoi accessi di collera erano per il solito tanto brevi quanto violenti ed improvvisi tratterrete il messaggero l'uvoa disse egli infine con voce calma sì sire e vedremo domani in consiglio che risposta potremo dare al lord sunderland sarebbe forse preferibile non promettere troppo gli inglesi sono sempre stati una spina per noi se potessimo lasciarli alle loro difficoltà interne che li terrebbero occupati per un pezzo noi saremmo più liberi per disfarci di quel principe olandese la loro ultima guerra civile è durata dieci anni e non ci occorre davvero tanto tempo per estendere i nostri confini al di là del reno è l'uvoa i vostri eserciti sono pronti sire e il giorno in cui darete il segnale ma la guerra è molto costosa come vanno le nostre pubbliche finanze non siamo molto ricchi sire ma ci sarebbe un mezzo sicuro di procurarsi prontamente il denaro si parlava stamani degli ugonotti chiedendoci se resterebbero o no nel nostro regno cattolico se fossero cacciati e lo stato confiscasse i loro beni a suo profitto vostra maestà diverrebbe subito il sovrano più ricco d'europa ma stamani vi siete opposto a questa misura non ci avevo ben riflettuto sire dite piuttosto che il padre lascese bossuet non avevano ancora avuto il tempo di convertirvi alle loro idee replicò luigi seccamente ah l'uvoa non in vano ho vissuto tutti questi anni in una corte è una parola d'ordine che passa di bocca in bocca finché arriva al re quando i miei buoni padri della chiesa si sono messi in testa ad ottenere qualche cosa ritrovo le loro tracce ad ogni passo ma non mi lascerò forzare contro la mia ragione a far del male a coloro che qualunque sia il loro errore sono pur sempre dei sudditi che dio mi ha dati io neppure vorrei che gliene faceste sire balbettò l'uvoa confuso l'accusa del re era così vera che egli non aveva avuto il coraggio di protestare non conosco che una sola persona proseguì luigi fissando la signora di mente non che non abbia ambizioni che non desideri né ricchezze né onori e che per conseguenza non possa essere spinta compromesse a sacrificare i miei interessi è per questo che io stimo altamente l'opinione di questa persona egli sorrise alla dama pronunziando queste parole mentre il ministro le lanciava uno sguardo pieno della gelosia che gli erodeva il cuore era mio dovere di indicarvi questo mezzo sire non come un consiglio ma come una possibilità disse egli alzandosi temo di aver abusato troppo del tempo prezioso di vostra maestà e vi chiedo il permesso di ritirarmi e con un leggero saluto alla dama ed una profonda reverenza al re egli uscì dalla stanza l'uvoa diventa insopportabile osservò il re appena fu scomparso se non fosse un eccellente servitore mi sarei già sbarazzato di lui su tutto vuol dare il suo parere l'altro giorno mi contraddiceva affermando che una delle finestre del trianon era più piccola dell'altra ho fatto venire le notre a misurarle e naturalmente avevo ragione io ma vedo che sono le quattro bisogna che me ne vada il mio orologio ritarda di mezz'ora sire mezz'ora il re parve per un momento costernato ma poi si mise a ridere in questo caso egli disse posso restare ancora e potrò accertare con la coscienza tranquilla che è colpa dell'orologio e non mia spero che non si tratti di cosa di molta importanza sire fece la dama con un lampo di trionfo negli occhi no davvero affari di stato no no era soltanto l'ora in cui mi ero proposto di castigare la condotta ad una persona presuntuosa ma forse è meglio così la mia assenza sarà più eloquente di ogni discorso e spero di non rivedere mai più quella persona alla mia corte ma che cosa c'è la porta si era spalancata bruscamente e la marchesa di montespan splendida nella sua collera stava lì in faccia a loro capitolo 10 un'eclissi a versailles la signora de mentenon possedeva un grande impero su se stessa ed uno spirito pieno di risorse si alzò subito con l'aria di chi vede finalmente arrivare la persona da lungo tempo attesa e col sorriso sulle labbra e la mano tesa fece qualche passo in avanti come siete amabile e la disse la signora de montespan rimase immobile facendo i più grandi sforzi per contenersi per non manifestare la collera che bolliva in lei era pallida teneva le labbra strette gli occhi fissi di tanto in tanto mandavano lampi terribili per un istante le due donne le più belle della francia rimasero l'una di faccia all'altra come misurandosi poi la marchesa de montespan senza occuparsi della mano tesa della sua rivale si volse al re che la guardava severamente temo d'essere importuna sire certo il vostro arrivo signora è un po brusco perdonatemi sire ma ho sempre avuto l'abitudine di entrare dall'istitutrice dei miei figli senza essere annunziata per quanto mi riguarda siete sempre la benvenuta disse la sua rivale con una calma perfetta non ho mai pensato che fosse necessario di chiedervene il permesso rispose l'altra freddamente allora lo farete per l'avvenire signora disse il re con severità vi ordino formalmente dimostrare in ogni circostanza il più grande rispetto verso questa dama a verso questa dama ripete illa con un gesto sprezzante gli ordini di vostra maestà sono legge per noi ma non bisogna che dimentichi chi è questa dama perché non si sa sempre chi sia colei che vostra maestà si degna di onorare e potrei confondermi oggi è la amante non ieri era la fontage domani a chi può dire chi sarà domani e l'era superba eretta nel suo orgoglio nella sua audacia colpetto sollevato con gli occhi azzurri dardeggianti sul suo reale amante per quanto incollera egli la guardava meno severamente e l'ammirava nel suo furore geloso che ben donava la sua altera bellezza non avete niente da guadagnare signora con l'insolenza non è la mia abitudine sire eppure trovo insolenti le vostre parole la verità è spesso presa per insolenza alla corte di francia sire basta signora vi prego di lasciare la stanza devo prima ricordare a vostra maestà che mi aveva fatto l'onore di fissarmi un appuntamento per questo dopo pranzo prometteste di venire da me alle quattro non dubito che vostra maestà mantenga la sua parola nonostante le attrattive che possono trattenerla qui sarei venuto signora ma questo orologio come potete constatare ritarda ad una mezz'ora e il tempo è scorso senza che me ne accorgessi supplico vostra maestà di non tormentarsi per questo adesso ritorno in camera mia un'ora o l'altra è lo stesso vi ringrazio signora ma questo colloquio non è stato tanto piacevole da farmene desiderare un secondo allora vostra maestà non verrà preferisco di no nonostante la promessa signora mancherete dunque alla vostra parola silenzio signora è cosa intollerabile intollerabile davvero gridò la marchesa furiosa abbandonando ogni ritegno o non ho paura di voi sire vi ho amato ma non vi ho mai temuto vi lascio qui vi lascio con la vostra coscienza e con la vostra dama confessore ma prima d'andarmene sentirete ancora una parola di verità siete stato spergiuro a vostra moglie siete stato spergiuro alla vostra amante e adesso mi accorgo che siete spergiuro a voi stesso e con una riverenza piena di indignazione e disprezzo e la uscì a testa alta dalla camera il re balzò dalla poltrona come se una vipera l'avesse morso dalla sua piccola moglie dalla lavalier più gentile ancora egli non aveva mai udito un simile linguaggio gli pareva di aver ricevuto un colpo terribile si sentiva scosso umiliato stordito da una sensazione nuova che odore era questo che per la prima volta si mischiava all'incenso che gli veniva continuamente tributato e all'improvviso fu invaso da una collera grande contro quella donna che aveva usato alzar la voce contro di lui che ella fosse gelosa ed insultasse la sua rivale era scusabile e non era che un complimento per lui ma che essa si rivolgesse contro lui come se fossero semplicemente uomo e donna invece che monarca e suddita questo era troppo diede un grido di rabbia e si precipitò verso l'uscio sire esclamò la signora de mentenon e la fece due passi avanti e posò la mano sul braccio del re vado da lei e perché sire per proibirle di ripresentarsi alla corte ma sire avete sentito è orribile lasciatemi andare ma non potreste scriverle no no voglio vederla e spalancò la porta o sire siate fermo allora e la lo seguì con lo sguardo ansioso mentre egli si inoltrava nel corridoio con passo rapido i gesti di collera poi rientrò nella sua camera e lasciandosi cadere sull'inginocchiatoio e la nascose la testa fra le mani e pregò per il re per se stessa e per la francia de catinat il moschettiere aveva intanto mostrato al suo nuovo amico tutte le meraviglie del grande palazzo e questi aveva esaminato tutto attentamente criticando o ammirando con una franchezza assoluta ed un gusto impeccabile naturale ad un uomo la cui vita era trascorsa libera in mezzo alle opere più belle della natura ciò che l'aveva più che altro colpito e riempito d'ammirazione e di stupore era il castello con la sua immensità la sua altezza lo splendore delle pietre dei marmi bisogna che conduca qui effra in lavage e gli ripeteva altrimenti non vorrà mai credere che possa esistere al mondo un edificio simile più imponente di new york e boston riuniti de catinat aveva di nuovo lasciato l'americano in custodia del maggiore de brissac perché era giunta l'ora del suo secondo turno si era appena messo al suo posto nella galleria quando fu sorpreso di vedere arrivare il re senza scorta nel seguito il suo volto delicato era contratto e sfigurato dalla collera e le labbra strette indicavano come stesse per prendere una grave decisione ufficiale di guardia chiamò in tono breve si represente come ancora voi capitano de catinat siete di servizio da stamani no si re il secondo turno va bene ho bisogno di voi ai vostri ordini sire c'è un subalterno qui sì c'è il luogotenente della tremuil benissimo lo metterete al vostro posto e andrete voi stesso dal signor di vivon conoscete il suo appartamento sì sire se non c'è mettetevi in cerca di lui e fate di trovarlo prima di un'ora bene sire gli trasmetterete quest'ordine alle sei egli deve trovarsi nella sua carrozza alla porta orientale del palazzo ci troverà sua sorella la signora de montespan egli è incaricato di condurla al castello del petiburg sì sire de catinat alzò la spada in atto di saluto e partì subito per compiere la sua missione il re percorse il corridoio ed aprì una porta che dava in una magnifica anticamera dove trovò un piccolo negro in livrea di velluto guarnita di pagliette d'argento la vostra padrona è là è tornata ora sire voglio vederla scusate sire ma hanno giurato tutti di farmi arrabbiare gridò il re incollerito e prendendo il paggio per il colletto di velluto lo lanciò dall'altro lato della camera poi senza battere aprì la porta ed entrò nel salotto della dama era una stanza alta spaziosa ben diversa da quella dalla quale egli era uscito tre ampie finestre occupavano tutta una parete e attraverso le tende di seta rossa il sole filtrava una luce dolce e attenuata grandi candelabri d'oro brillavano fra gli specchi sul muro e lebrun aveva prodigato tutta la ricchezza del suo pennello sul soffitto in cui luigi stesso nella parte di giove lanciava i suoi fulmini sopra un gruppo di titani il color di rosa era il dominante della tappezzeria e della mobilia di modo che la stanza intera aveva i riflessi dolcissimi dell'interno di una conchiglia rischiarata come in questo momento un eroe di leggenda non avrebbe potuto sognarne una più bella per la sua principessa all'altra estremità del salotto sopra un divano con la faccia nascosta fra i cuscini coi suoi bei capelli biondi disciolti sul collo d'avorio era stesa la donna che il re veniva a scacciare dalla corte ella si era un po sollevata al rumore della porta che si apriva e scorgendo il re si alzò di scatto correndo verso lui con le mani tese gli occhioni azzurri velati dalle lacrime con un'espressione d'umiltà e di tenerezza sul suo bel volto a sire e l'esclamò sorridendo fra le lacrime in un impeto di gioia dunque vi ho mal giudicato vi ho disconosciuto crudelmente voi avete mantenuto la promessa volevate soltanto mettere a prova il mio amore o come ho io potuto dirvi simili parole come ho potuto affliggere questo cuore nobile grande voi venite ad assicurarmi che mi avete perdonata non è vero sire e la protese le braccia nell'attitudine confidente di un fanciullo che reclama come a lui dovute le carezze della madre ma il re la respinse con un gesto pieno di collera tutto è finito per sempre fra noi disse con durezza vostro fratello vi aspetta alle sei alla porta orientale del palazzo la riceverete i miei ordini e la parcollò come se l'avesse colpita lasciarvi e la gridò bisogna che lasciate la corte la corte ma con tutto il cuore subito ma voi a assire mi chiedete l'impossibile non chiedo comando signora poiché avete abusato della vostra situazione la vostra presenza alla corte è divenuta intollerabile i re di tutta l'europa riuniti non hanno mai usato parlarmi come voi avete fatto oggi mi avete insultato nel mio stesso palazzo io luigi il re tali cose non si fanno due volte la vostra insolenza vi ha trasportata troppo oltre avete giudicato debolezza la mia indulgenza convincetevi che vi siete ingannata stasera alle sei lascerete Versailles per sempre i suoi occhi mandavano fiamme e la sua piccola persona sembrava crescere nella violenza della sua indignazione mentre ella retrocedeva con una mano sugli occhi quasi per sottrarsi a quello sguardo irato oh sono stata cattiva mormorò singhiozzando lo so lo so sono lieto signora che vi degnate riconoscerlo come ho potuto parlarvi così io che non ho ricevuto da voi che del bene io insultarvi voi che siete l'autore di tutta la mia felicità oh sire perdonatemi perdonatemi per l'amor di dio perdonatemi luigi aveva il cuore naturalmente buono si sentiva commosso e il suo orgoglio era lusingato dall'avvilimento di quella donna così bella ed altera le sue altre favorite avevano accettato tutto da lui senza ribellarsi ma questa era stata così fiera così inflessibile fino al giorno in cui aveva sentito la mano del padrone egli scosse la testa e benché il suo sguardo si fosse raddolcito posandosi su lei fu con voce ferma che rispose è inutile signora avevo preso questa decisione già da lungo tempo e la vostra condotta di oggi non ha fatto che affrettarla bisogna che lasciate il palazzo lascerò il palazzo ma dite che mi perdonate oh sire non posso sopportare la vostra collera essa mi annienta non sono abbastanza forte per resisterle non è soltanto all'esilio che mi condannate ma alla morte pensate ai nostri lunghi anni d'amore sire e ditemi che mi perdonate ho abbandonato tutto per voi sire il marito l'onore è tutto o non vorrete dunque attutire la vostra collera per me mio dio egli piange son salva son salva no no signora esclamò il re passandosi la mano sugli occhi vedete la debolezza dell'uomo ma vedrete pure la fermezza del sovrano in quanto i vostri insulti ve li perdono volentieri se questo può rendervi più felice nel vostro ritiro ma ho da compiere dei gravi doveri verso il mio popolo il primo è di dargli il buon esempio ora noi non ci siamo mai occupati di ciò ed è giunto il tempo di passare in rivista la nostra vita trascorsa e di prepararci a quella avvenire oh sire mi affliggete siete nel fiore degli anni e parlate come se foste già vecchio fra quattro cinque lustri avranno forse ragione quelli che pretendono che l'età abbia prodotto un cambiamento nella vostra vita ma il retta salì chi è che lo dice gridò con rabbia oh sire scusate ma è sfuggito senza volerlo dimenticatelo nessuno lo dice nessuno voi mi nascondete qualche cosa chi ha detto questo non me lo chiedete sire avete detto che si pretende che siano gli anni e non la religione che mi hanno fatto cambiare il genere di vita chi lo dice oh sire sono delle voci che corrono e non vale la pena di raccoglierle sono delle stolte chiacchiere per occupare gli ozzi dei cortigiani chiacchiere luigi divenne scarlato sono dunque tanto invecchiato voi mi conoscete da vent'anni osservate dunque in me un gran cambiamento per me sire siete sempre l'uomo amabile e bello che seppe conquistare il cuore di madame gella tonnei charente il re sorrise guardando la splendida creatura che gli stava davanti per la verità disse egli devo confessare che anche madame gella tonnei charente è quasi la stessa però è necessario che ci separiamo francesca se questo può contribuire alla vostra felicità sire mi ci assoggetterò dovesse anche costarmi la vita o eccovi divenuta ragionevole non avete che ad indicarmi il luogo del mio ritiro sire pettiburg charni o il mio convento di san giuseppe che importa dove il fiore appassisce quando il sole si è per sempre distolto da lui almeno il passato mi appartiene ed io vivrò nel ricordo dei bei giorni trascorsi quando nessuno si sbarrava fra noi due quando il vostro immenso amore era tutto per me sola siate felice sire siate felice e non pensate più alle sciocche chiacchiere della gente la vostra vita è nell'avvenire la mia nel passato addio sire addio el gettò le braccia in avanti gli occhi le si oscurarono di lacrime barcollò e sarebbe caduta se luigi non si fosse precipitato e non l'avesse presa fra le sue braccia la bella testa ricadde sulla spalla del re che sentì sulla guancia l'alito caldo e sotto le narici il sottile profumo dei capelli a un tratto le sue palpebre batterono rapidamente i suoi grandi occhi azzurri si fissarono languidi su lui supplichevoli appassionati con una espressione di preghiera e di sfida insieme con tutta l'anima nello sguardo fece egli un movimento o fu lei chi potrebbe dirlo ma le loro labbra si incontrarono in un lungo bacio poi in un altro e i piani e le risoluzioni di luigi si involarono come foglie d'autunno al primo venticello non avrete il coraggio di scacciarmi non è vero no no ma non dovete irritarmi francesca vorrei piuttosto morire che cagionarvi una piccola pena o sire vi ho visto così raramente in questi ultimi tempi e vi amo tanto questo mi ha reso pazza e poi quella donna terribile chi dunque o non voglio parlare male di lei per amor vostro sarò gentile perfino con lei con la vedova del poeta scarron sì sì siate gentile non voglio scene qui ma voi resterete con me sire ella gli circondò il collo con le braccia flessuose poi l'allontano da sé un momento per contemplarlo amorosamente poi la tirò di nuovo sul suo cuore non mi lascerete più mio sovrano adorato è tanto che non siete venuto qui la dolce faccia la tinta rosea della stanza la calma del crepuscolo invadente tutto contribuiva a creare un'atmosfera di sensualità luigi si lasciò cadere sul divano accanto a lei resterò disse e quella carrozza alla porta orientale del palazzo sire sono stato duro con voi francesca perdonatemi avete della carta e una penna perché possa controordinare ecco tutto qui sire sulla tavola o anch'io da scrivere un biglietto se permettete sire vado un istante nell'anticamera ella scivolò fuori della stanza con un lampo di trionfo negli occhi era stata una lotta terribile ma tanto più gloriosa la vittoria prese un foglietto di carta rosea dalla sua scrivania e vi scrisse queste poche parole se la signora di mente non avesse qualche messaggio per il re potrà trovarlo nella camera della marchesa di montespan fece l'indirizzo della sua rivale e lo mandò insieme all'ordine del re per mezzo del suo piccolo paggio negro capitolo undicesimo il sole riappare per più di una settimana il re rimase fedele al suo nuovo capriccio la sua vita proseguì come il solito con la sola variazione che gli passava più spesso il dopo pranzo negli appartamenti della signora di montespan che nella modesta camera della signora di mantenon e in conseguenza di questa ripresa subitanea degli antichi amori i suoi abiti persero un poco dei loro cupi colori il nero e il grigio cederono il posto a delle tinte più tenere più gaie il lilla e il roseo riapparvero una piccola trina d'oro guarniva i suoi capelli mentre che il suo inginocchiatoio rimaneva vuoto tre giorni di seguito nella cappella reale egli camminava più svelto e faceva girare il suo bastone con un movimento più rapido come per gettare una sfida a coloro che avevano veduto nel suo cambiamento di vita i primi sintomi della vecchiaia la signora de montespan lo conosceva bene se gli lanciava con astuzia quella insinuazione anche la corte seguendo l'esempio del re ridivenne allegra i saloni cominciarono a riprendere il loro antico splendore ritornarono alla luce i begli abiti e lettrine meravigliose che erano state relegate in fondo agli armadi nella cappella burda lup predicava davanti alle panche vuote ma un ballo nel parco fu accolto con entusiasmo e tutta la corte vi assistette l'anticamera della montespan era ogni mattina affollata da uomini e donne in cerca di favori mentre l'appartamento della sua rivale rimaneva assolutamente deserto ma il partito della chiesa i campioni del clericalismo ed anche della virtù non si sgomentarono oltre misura per questa ricaduta i gravi occhi dei prelati seguirono luigi nella sua scappata come i cacciatori seguono nella pratteria gli sgambetti di un cerbiato il quale si crede libero mentre ogni sentiero è chiuso da una rete così egli era prigioniero come se fosse steso davanti a loro con le membra legate essi sapevano bene che presto una malattia un dispiacere una parola intesa per caso l'avrebbero ricondotto al pensiero della morte ravvolgendolo di nuovo in quei terrori superstiziosi che in lui sostituivano la religione essi aspettavano dunque e preparavano in silenzio i loro piani per accogliere il figlio al prodigo fu a questo scopo che il suo confessore padre l'ascese e l'arcivescovo di mo bossuet si recarono una mattina dalla signora di mente non con una sfera in mano e la cercava di insegnare la geografia al duca di men e al piccolo conte di toulouse i quali avevano ereditato dal padre la versione allo studio e dalla madre l'odio per la disciplina non pertanto il suo tatto meraviglioso e la sua pazienza inesauribile le avevano acquistato l'amore e la fiducia dei due piccoli principi ed era una delle pene maggiori della signora di montespan il vedere che non soltanto il suo reale amante ma anche i suoi stessi figli trascuravano lo splendore e la ricchezza delle sue sale per passare il tempo nel modesto appartamento della rivale la signora di mente non interruppe la lezione con gran gioia dei suoi scolari e ricevette gli ecclesiastici col misto d'affezione e rispetto dovuto a coloro che erano non solo degli amici suoi personali ma anche i luminari della chiesa cattolica li obbligò a sedersi sulle due poltroncine riservando a sé lo sgabello l'affanno degli ultimi giorni aveva gettato sul suo volto un pallore che lo affinava quasi spiritualizzandolo eppur mantenendo la sua espressione solita di dolce serenità vedo mia cara figlia che avete avuto dei dolori disse bossui guardandola con benevolenza ma con occhio scrutatore sì vostra grazia ho passato la notte scorsa a pregare dio ad allontanare da noi questa prova eppure non avete alcuna ragione di temere signora ve lo assicuro altri possono credere che abbiate perduto la vostra influenza ma noi che conosciamo il cuore del re pensiamo diversamente passeranno alcuni giorni alcune settimane al massimo e di nuovo gli occhi della francia si volgeranno a voi i sopraccigli della signora di mente non si contrassero e la guardò il prelato come se le parole di lui le fossero dispiaciute vi assicuro disse ella che l'orgoglio non mi ha attraviata non c'è nulla di personale nell'afflizione del mio cuore che mi importa il potere tutto quello che desidero è una cameretta il raccoglimento necessario alle mie preghiere e la certezza ad essere al riparo dal bisogno che cosa posso domandare di più se mi addoloro non è per me ma per il re per quell'anima nobile che potrebbe volare tanto in alto e che invece strisce in basso come un'aquila impedita nel suo volo potente da qualche peso che la trascini a terra è per lui e per la francia che piango e prego tutto questo figlia mia non è che ambizione era il gesuita che aveva parlato la sua voce suonava chiara e fredda e i suoi occhi grigi sembravano leggere in fondo all'anima di lei forse avrete ragione padre dio mi guardi dall'avere troppa stima di me stessa eppure non credo di essere ambiziosa il re nella sua bontà ma offerto dei titoli io li ho rifiutati del denaro non l'ho accettato egli mi ha chiesto dei consigli sugli affari di stato e mi sono ostenuta dal darglieli dov'è dunque la mia ambizione nel vostro cuore figlia mia ma non è un'ambizione peccaminosa ditemi non vorreste condurre il re al bene darei la vita per questo eccola dunque la vostra ambizione il vostro più vivo desiderio sarebbe quello di veder la chiesa regnare pura e serena sul regno di vedere i poveri soccorsi i cattivi convertiti e il re dar l'esempio di ogni virtù le guance della signora di mente non si colorirono e di suoi occhi brillarono al quadro che quelle parole evocavano o ecco una grande gioia davvero disse ella e più grande ancora quella di sapere che siete voi stessa la causa di tutto che la vostra influenza ha portato la benedizione sul re e sul paese morirei per questo vogliamo da voi qualche cosa forse più difficile dovete vivere per questo e la guardò l'uno e l'altro interrogando figlia mia disse bossuet solennemente con la lunga mano stesa l'anello pastorale scintillante alla luce del sole il momento è venuto di parlare apertamente la chiesa lo comanda nessuno deve sapere quello che ci diremo oggi ricordateci ve ne prego come due confessori per i quali il vostro segreto è inviolabile dico segreto ma non è tale per noi che leggiamo nei cuori umani voi amate il re monsignore e la trasalì e il sangue montò le sue guance pallide voi amate il re monsignore padre mio disse ella supplichevole volgendo altrove lo sguardo non è vergogna l'amare figlia mia sarebbe vergogna il cedere all'amore ve lo ripeto voi amate il re comunque non glielo mai detto e non glielo direte mai vi strapperei la lingua piuttosto ma riflettete figlia mia un simile amore in un'anima come la vostra può essere un dono che dio va fatto in vista di qualche saggio disegno se il re trovasse in voi una qualche tenerezza se scoprisse un qualche segno che la sua affezione ha trovato un eco nel vostro cuore potrebbe darsi che la vostra ambizione si effettuasse e che luigi guidato dalla vostra nobile indole si avviasse sulla strada della virtù tutto ciò potrebbe derivare da quest'amore che voi tenete nascosto come se portasse le stigmate dell'onta la signora di mente non si sollevò guardando ora il prelato ora il prete con espressione d'orrore non vi comprendo e la balbettò non è possibile che voi mi consigliate di il gesuita si era alzato e la dominava con la sua alta figura figlia mia noi non consigliamo nulla che sia indegno del nostro ministero parliamo nell'interesse della chiesa e questo interesse domanda che voi sposiate il re sposare il re la piccola camera le girava dintorno sposare il re è la nostra speranza vediamo in voi una seconda giovanna d'arco che salverà la francia ed il re la signora di mente non tacque per pochi momenti era ridivenuta calma e i suoi occhi erano fissi sul suo lavoro mentre la mente rifletteva la probabilità ad un simile avvenimento ma è impossibile e le esclamò infine ciò non avverrà mai e perché quando mai un re di francia sposato una delle sue suddite tutte le principesse d'europa gli tendono la mano la regina di francia deve essere di sangue reale è un ostacolo facile a superarsi e poi ci sono le ragioni di stato se il re riprende moglie è per formarsi delle alleanze potenti per aggiungere qualche provincia al suo regno che ho io da portargli dov'è la mia dote e rise forzatamente volgendosi ai due interlocutori come per implorare una smentita la vostra dote figlia mia consiste nei doni che avete ricevuti dal cielo il re ha abbastanza denaro ed assai esteso dominio in quanto allo stato come potrebbe essere meglio servito che dalla sicurezza ad allontanare per sempre il re da certe scene quali si vedono oggi in questo palazzo se fosse vero ma pensate padre mio pensate a quelli che lo circondano il delfino suo fratello i ministri sapete come ne saranno scontenti e come vorranno in ogni modo impedirlo no no è un sogno inconseguibile padre mio il volto dei due ecclesiastici si oscurò a questa obiezione come se l'avesse infine menzionato il vero ostacolo figlia mia disse il gesuita gravemente per questo rimettetevi all'opera della chiesa può darsi che anche noi abbiamo un qualche potere sull'animo del re e l'useremo per condurlo sul retto sentiero anche contro la volontà dei membri della sua famiglia in quanto a voi l'amore e il dovere vi indicano una sola via e la chiesa può contare su voi non è vero fino all'ultimo respiro padre mio e voi potete fare assegnamento sulla chiesa e la vi servirà se in cambio vorrete servirla o se lo potessi lo potete finché esisterà nel regno l'eresia non vi sarà pace nel riposo per i fedeli essa è la piccola macchia di muffa che non strappata a tempo guasterà il frutto intero e che vorreste padre gli ugonotti devono abbandonare il nostro paese bisogna che siano cacciati il re esita ancora ma l'uvoa è già dalla nostra parte e se voi siete con noi la vittoria sarà nostra ma padre mio pensate come essi sono numerosi ragione di più per sbarazzarsene e pensate anche alle loro sofferenze se vengono scacciati il rimedio è nelle loro mani sì ma non posso fare a meno di compiangerli il padre lasces e l'arcivescovo scossero la testa la natura li aveva fatti buoni e caritatevoli ma il cuore si impietrisce quando la grazia della religione si cambia in odio di setta avete dunque pietà dei nemici di dio no no se sono davvero i suoi nemici ne dubitate è possibile che il vostro cuore abbia conservato una sola scintilla d'affetto per l'eresia della vostra giovinezza no padre mio ma non posso dimenticare che il mio babbo e mio nonno essi hanno espiati i loro peccati ma dunque la chiesa si è ingannata sul vostro conto voi negate d'accordarle il primo favore che vi domanda vorreste accettare il suo aiuto e le rifiutate il vostro la signora di mantenon si alzò in aria risoluta ebbene ella disse voi siete più saggi di me nelle vostre mani sono rimessi gli interessi della chiesa farò quello che mi consigliate lo promettete lo prometto i due visitatori alzarono insieme le mani giunte quasi in rendimento di grazie è un giorno benedetto esclamarono e le generazioni a venire lo riconosceranno per tale e la sedette mezzo stordita dalla prospettiva che si apriva davanti a lei ambiziosa era sempre stata come il gesuita aveva indovinato ambiziosa del potere che le avrebbe permesso di lasciare il mondo in migliore condizione di quando c'era entrata e già aveva potuto soddisfare questa ambizione in una certa misura perché più di una volta aveva imposto la sua autorità al re ed al paese ma sposare il re sposare colui per il quale ella avrebbe volentieri fatto il sacrificio della vita colui che ella amava ad un amore puro e nobile quale mai donna ne aveva provato per un uomo davvero ciò superava ogni sua speranza ella conosceva sé e conosceva pure il re quando fosse sua moglie riuscirebbe a mantenerlo nella via del bene allontanandolo dalle cattive influenze ne era sicura non sarebbe stata una debole maria teresa ma piuttosto come il prete aveva detto una nuova giovanna d'arco assunta a condurre al bene la francia e il suo re e se a questo scopo indurisse il cuore contro gli ugonotti la colpa se esisteva sarebbe di coloro che le imponevano questa condizione piuttosto che sua propria la moglie del re l'anima sua entusiasta e il cuore pieno d'amore balzavano a questo pensiero ma a tanta gioia successe una reazione di dubbio e di scoraggiamento non era un sogno il suo come potevano quei due uomini esser sicuri di dirigere le azioni del re il gesuita lesse i suoi timori sul suo volto e rispose senza darle tempo di formularli la chiesa mantiene la sua parola figlia mia siate pronte a mantenere la vostra quando sarà il momento ho promesso padre mio dunque bisogna mettersi subito all'opera voi rimarrete nelle vostre stanze tutta la sera sì padre il re esita già ho parlato con lui stamani l'anima sua era piena di disperazione e di paura a orrore dei suoi peccati ed è adesso nel calore del suo primo pentimento che possiamo meglio piegarlo ai nostri fini andrò da lui uscendo di qui e quando gli avrò parlato egli correrà da voi non è in vano che ho studiato il suo cuore per vent'anni ed ora addio vedrete gli effetti delle nostre premure e vi ricorderete della promessa essi si inchinarono profondamente ed uscirono lasciandola i suoi pensieri un'ora trascorse poi un'altra mentre seduta sulla poltrona con lavoro davanti a sé ma con le mani abbandonate sulle ginocchia e l'aspettava il suo destino la sua sorta era fissata ed essa era impotente a cambiarla a poco a poco la luce diminuì il crepuscolo si diffuse poi calò la notte ed ella rimase immobile nell'oscurità qualche volta un passo risonava al di fuori e il suo sguardo si volgeva ansioso alla porta i suoi occhi grigi si illuminavano d'un lampo di gioia che si spengeva nella delusione ad un tratto un passo rapido fermo imperioso la fece balzare in piedi con le guance accese e il cuore in sussulto la porta si aprì e alla grigia luce del corridoio e la scorse sulla soglia la graziosa figura del re sire un momento e la signorina nanona accenderà la lampada non la chiamate disse egli entrando e richiudendo la porta dietro a sé preferisco l'oscurità essa mi impedisce di vedere i rimproveri che devono esprimere i vostri occhi se siete tanto buona da non pronunziarli rimproveri sire io non ve ne faccio l'ultima volta che vi ho lasciata fu con buoni propositi francesca ho cercato di metterli in pratica ma non ho potuto non ho potuto mi ricordo che voi mi avevate avvertito sono stato pazzo a non seguire il vostro consiglio siamo tutti deboli e mortali sire chi non ha fallito o sire soffro nel vedervi così egli restava in piedi presso il caminetto col volto nascosto fra le mani e dal suo respiro e la comprese che piangeva tutta la sua pietà si concentrò su quell'uomo silenzioso e pentito la cui figura si distingueva appena nella quasi oscurità della stanza con un gesto di simpatia e la avanzò la mano posandola per un istante sulla manica di velluto il re la ferrò vivamente fra le sue ed ella non fece alcun tentativo per ritirarla non posso più vivere senza di voi francesca e gli esclamò io sono l'uomo più solo del mondo più solo di chi vivesse sulla cima di un'alta montagna chi ho per amico su chi posso contare gli uni cercano l'interesse della chiesa gli altri quello della loro famiglia il maggior numero non si preoccupa che del suo proprio interesse voi sola mamate veramente francesca voi siete il mio angelo custode il buon padre dice la verità più io sono vicino a voi e più sono lontano dal male ditemi francesca mi amate voi vi amo dal lungo tempo sire la sua voce era bassa ma chiara la voce di una donna che ha in orrore la civetteria lo speravo francesca eppure provo una gioia immensa a sentirvelo dire so che la ricchezza e gli onori non vi tentano e che per voi avrebbe più attrattive un convento che un palazzo pure vi domando di restare al palazzo e di regnarvi francesca volete essere mia moglie dunque l'ora era venuta e la rimase senza rispondere per un momento un momento solo prima di prendere la grande risoluzione ma perfino quel momento fu troppo lungo per la pazienza del re non volete francesca gridò con un fremito d'ansietà nella voce possa dio farmi degna ad un tale onore sire disse ella ed io giuro qui che se il cielo raddoppia il numero dei miei anni ogni ora della mia vita sarà consacrata a rendervi sempre più felice ella era caduta in ginocchio e il re tenendole ancora la mano si inginocchiò al suo fianco e giuro anch'io disse egli che voi sarete ora e sempre l'unica donna mia così essi fecero il loro doppio giuramento in quella camera invasa dall'ombra in quella postura genuflessi con la mano nella mano giuramento solenne al quale ambedue rimasero per sempre fedeli capitolo dodicesimo il re riceve seppe la signorina nanon la confidente della signora de mantenon qualche cosa di questo colloquio oppure il padre l'ascese con la furberia che caratterizza il suo ordine giudicò che il miglior mezzo di impedire al re di cambiare la sua risoluzione fosse di propagare la notizia in qualunque modo fosse avvenuto il giorno dopo tutta la corte ne era informata e non si parlava che della disgrazia dell'antica favorita e del matrimonio combinato fra il re e l'istitutrice dei suoi figli ne corse la voce sommessamente la mattina al petit lever se ne ebbe la conferma la grande entrée ed era il soggetto di tutte le conversazioni quando il re uscì dalla cappella le sete dai vivaci colori e gli spennacchi vistosi dei cappelli furono riposti di nuovo in fondo agli armadi e riapparvero gli abiti severi e le acconciature cupe scuderie e la calprened cederono il posto ai libri d'ammessa e a san tommaso d'aquino bordalù che aveva predicato alle panche per una settimana intera vide la cappella stivata di dame di gentiluomini devotamente assorti nelle loro orazioni a mezzogiorno tutti alla corte sapevano la notizia ad eccezione della signora di montespan che sgomenta dall'assenza del suo amante se era sdegnosamente chiusa nella sua camera e ignorava così la nuova voce luigi nel suo egoismo innato era talmente uso a giudicare ogni avvenimento dal solo lato che lo riguardava personalmente che non gli passò mai per la testa l'idea che la sua famiglia potesse opporsi alla sua risoluzione non gli aveva sempre mostrato un'obbedienza assoluta come gli era in diritto d'esigere fu dunque molto sorpreso quando suo fratello gli fece chiedere un'udienza particolare nel dopo pranzo e gli si presentò senza quel sorriso compiacente quell'aspetto umile coi quali aveva l'abitudine di comparire in faccia a lui messier era una curiosa parodia del fratello maggiore più piccolo di statura portava dei tacchi altissimi che lo alzavano non aveva nell'insieme né quella grazia squisita che distingueva il re né quella mano e quel piede eleganti che formavano la delizia degli scultori abbastanza corpulento si dondolava camminando e portava un'enorme parrucca nera i cui riccioli gli coprivano le spalle il suo volto era più lungo di quello del re ed il suo naso più prominente benché avesse in comune con lui i grandi occhi scuri che avevano ereditati ambedue da Anna d'Austria portava un vestito sovraccarico di nastri il petto coperto di croci di decorazioni di gioielli e a bandoliera il largo gallone azzurro dell'ordine dello spirito santo i cui capi si riunivano in un grosso fiocco attaccata al quale era la spada dall'impugnatura guarnita di diamanti ebbene signore mi sembrate oggi meno allegro del solito disse il re con un sorriso il vostro abito riluce ma la fronte cupa spero che madame e il duca di chartre siano in perfetta salute sì sì stanno benissimo ma sono tristi come me e per la stessa causa davvero e quale sì re ho mai mancato ai miei doveri verso voi mai filippo mai rispose il re posando affettuosamente la mano sulla spalla del fratello allora perché questa mancanza di riguardo da parte vostra verso me filippo sì sì re ve lo ripeto una mancanza di riguardo noi siamo di sangue reale come le nostre mogli voi avete sposato l'infante di spagna io la principessa di baviera la mia prima moglie era una principessa inglese come possiamo introdurre in una casa che ha contratto di tali unioni la vedova ad uno scribacchino gobbo il cui nome è messo in ridicolo da tutta l'europa il re era rimasto dapprima stupito ma la sua collera scoppiò improvvisa con violenza perbacco gridò perbacco dicevo che eravate un fratello eccellente ma temo di aver parlato troppo presto dunque voi avete l'ardire di criticare la scelta che ho fatto sì sì re e con qual diritto col diritto che ho di vegliare sull'onore della famiglia che è mio come vostro come urlò il re inferocito non avete ancora appreso che io sono in questo regno la sorgente dell'onore e che chiunque mi piaccia ad onorare diventa per questo solo fatto onorabile se io giudicassi opportuna di alzare fino a me uno sgualdre nella della via poissonier non sapete che più altri personaggi della francia si stimerebbero felici di inchinarsi davanti a lei no non lo so gridò suo fratello con l'ostinatezza d'un debole d'un timido spinto agli estremi è una mancanza di riguardo verso me e verso mia moglie vostra moglie ho il più grande rispetto per elisabetta di baviera ma in che cosa è la superiore ad una dama il cui nonno era il migliore amico ed il compagno d'armi d'enrico il grande ed ora basta non intendo discutere su questo argomento andatevene e non mi ricomparite davanti finché non vi siate persuaso di non occuparvi dei miei affari in ogni caso mia moglie non la riconoscerà ghignò messier e siccome il fratello s'avanzava minaccioso verso lui egli si rivolse ed uscì dalla stanza in fretta quanto almeno glielo permettevano la sua corpulenza e i suoi alti tacchi ma il re non doveva quel giorno godere un po di quiete se ieri gli amici della signora di mentenon si erano raccolti intorno a lei oggi i suoi nemici non stavano oziosi messier era appena scomparso che un giovane si precipitò nella sala la polvere che ricopriva il suo ricco abito indicava che aveva fatto un lungo viaggio era pallido con i capelli castano chiari e i suoi tratti offrivano una somiglianza sorprendente con quelli del re ad eccezione del naso che era sfigurato dalla sua giovinezza il re aveva sorriso vedendolo ma aggrottò nuovamente le ciglia quando il giovane si gettò i suoi piedi esclamando oh sire risparmiateci questo dolore risparmiateci questa umiliazione vi supplico di riflettere prima di effettuare un progetto che porterà a noi e voi al disonore il re si allontanò da lui e si diede a passeggiare in largo e in lungo per la stanza ma è intollerabile egli gridò anche mio figlio come se non fosse abbastanza dal fratello avete fatto lega con lui luigi messier vi ha insegnato la vostra parte il delfino si rialzò e fissò orditamente il padre non ho visto mio zio disse egli mi trovavo a medon quando ho saputo quella notizia quella terribile notizia e sono salito a cavallo galloppando fino a qui per supplicarvi di riflettere prima di trascinare così in basso la nostra casa siete insolente luigi non ho intenzione di esserlo sire ma pensate che mia madre era una regina e sarebbe davvero strano che la mia matrigna fosse una il re fece con la mano un gesto d'autorità che gli fermò la parola sulle labbra silenzio urdinò potreste pronunziare delle parole che ci separerebbero per sempre non ho io dunque il diritto che ha il più umile dei miei sudditi di seguire la sua propria inclinazione nei suoi affari privati questo non è un vostro affare privato sire ciò che fate ricade sulla vostra famiglia le vostre gesta hanno aggiunto novella gloria al nome dei borboni non vogliate adesso oscurare questa gloria sire me ne scongiuro in ginocchio parlate come uno stolto esclamò il re furioso mi propongo di sposare una dama virtuosa e bella appartenente ad una delle più antiche famiglie nobili di francia e voi parlate come se avessi intenzione di fare qualche cosa di vile e di inaudito che le rimproverate a questa dama d'essere la figlia di un uomo i cui vizi erano ben conosciuti da tutti d'avere un fratello di cattiva reputazione d'essere la stessa un'avventuriera la vedova di uno scribacchino deforme e d'occupare al palazzo una situazione servile a questa libera risposta il re aveva più volte picchiato i piedi in terra con impazienza ma alle ultime parole la sua collera esplose furibonda e voi osate e gli gridò con occhi fiammeggianti chiamare servile l'occuparsi dei miei figli ma non c'è una condizione più elevata in tutto il regno ritornate subito a me don signore e non vi azzardate mai più ad aprire bocca su questo soggetto partite vi dico il giorno in cui dio volendo sarete il sovrano di questo paese potrete pretendere il diritto d'agire secondo la vostra volontà ma fino allora vi proibisco di intromettervi negli affari di chi è vostro padre e insieme vostro re il giovane sinchinò e si diresse con dignità verso la porta al momento d'aprirla egli si rivolse l'abate fenelone è venuto con me sire desiderate vederlo uscite uscite urlò il re con ira continuando a misurare la stanza a passi precipitosi il delfino uscì e al suo posto entrò un prete lungo e magro d'una trentina d'anni dall'aspetto nobile distinto e dal portamento disinvolto e deferente che dà l'abitudine di vivere alla corte il re si fermò squadrandolo con aria interrogativa buongiorno abate fenelone disse egli posso domandarvi il motivo di questo colloquio sire in molte occasioni avete avuto la bontà di chiedere il mio umile consiglio ed anche di esprimere la vostra soddisfazione per averlo ricevuto e bene e bene e bene fece il sovrano con un crescendo di impazienza se le voci che corrono sono vere sire voi attraversate in questo momento una crisi in cui un consiglio imparziale vi potrebbe essere prezioso ho bisogno di dirvi basta basta non tante parole gritò il re siete stato mandato qui per dispormi contro la signora di mentenon sire non ho ricevuto da questa dama che delle cortesie la stimo e l'apprezzo più di qualunque altra in francia in questo caso abate sarete ben lieto di sapere che mi propongo di sposarla arrivederci mi incresce di non disporre di più tempo per dedicarlo a questa trenta conversazione ma sire quando sono in un dubbio abate il vostro consiglio mi è prezioso ma in questa occasione fortunatamente sono ben deciso buongiorno il re si era adesso calmato e si trovava in una disposizione di spirito sarcastica ancora più temibile per i suoi avversari l'abate nonostante la sua facilità di parola e la sua fertilità di risorse non trovò niente da rispondere camminò all'indietro facendo tre profonde riverenze secondo il cerimoniale di corte ed uscì ma il re ebbe appena il tempo di riprendere fiato i suoi assalitori sapevano d'aver vinto spesso con la persistenza e speravano anche questa volta di trionfare l'uvoa fece il suo ingresso nella stanza con la sua andatura maestosa la sua aria altera la sua enorme parrucca e la sua figura aristocratica ebbene l'uvoa che c'è ancora chiese il re con impazienza un nuovo affare di stato in questo momento non esiste che un solo affare di stato sire ma è di una tale importanza da sorpassare tutti gli altri e quale dunque il vostro matrimonio sire lo disapprovate o sire potrei fare altrimenti fuori di qui signore non voglio che mi si tormenti più oltre come osate rimanere quando vi ordino di ritirarvi il re furibondo fece un passo verso il ministro ma l'uvoa con un gesto rapidissimo tirò la spada dal fodero luigi retrocesse impaurito e stupefatto ma era l'impugnante cognatura non la punta dell'arma che gli veniva presentata passatemela attraverso il cuore sire esclamò il ministro cadendo in ginocchio tutto tremante d'emozione non voglio vivere per vedere oscurarsi la vostra gloria mio dio gridò il re gettando l'arma e portandosi le mani alle tempie ma è una cospirazione per farmi impazzire avete giurato tutti di tormentarmi non è che un matrimonio segreto e non lede in alcun modo gli affari dello stato capite che domandate di più l'uvoa si rialzò e rimise la spada nel fodero vostra maestà è proprio deciso chiese egli decisissimo allora non aggiungo altro ho fatto il mio dovere e gli uscì abbassando la testa tristemente tuttavia il suo cuore era più leggero perché aveva la parola del re che la donna da lui odiata non sederebbe mai sul trono di regina di francia benché sposa del sovrano questi attacchi ripetuti se non avevano scossa la risoluzione di luigi lo avevano però esasperato al massimo grado una tal forza d'opposizione era cosa nuova per quell'uomo la cui volontà era l'unica legge del regno così era molto di cattivo umore quando il maggiordomo introdusse il venerabile padre lasces suo confessore vengo a farvi i miei auguri di felicità sire disse il gesuita e a congratularmi di tutto cuore per la scelta che avete fatta e che assicurerà il vostro riposo in questa vita e nell'altra finora non mi ha procurato nella felicità né il riposo rispose il re in tono irritato non sono mai stato tanto seccato in vita mia la corte intera mi si è gettata davanti in ginocchio per sopplicarmi di cambiare le mie intenzioni il gesuita lo guardò inquieto coi suoi profondi occhi grigi per buona fortuna vostra maestà ha una volontà ferma e non cambia tanto facilmente come essi credono no no non ho ceduto d'un palmo ma converrete che è noioso aver tutti contro un altro all'infuori di me non avrebbe saputo resistere bisogna mostrare fermezza sire satana è furibondo vedendo che li sfuggite e mette in moto tutti i suoi emissari per cercare con ogni mezzo di riprendervi ma il re non si lasciava tanto presto consolare davvero padre mio mi sembra che non abbiate troppo rispetto per la mia famiglia mio fratello mio figlio l'abate fenelon e il ministro della guerra ecco gli emissari a cui alludete allora vostra maestà ha anche più merito per aver loro resistito avete agito nobilmente sire siete degno degli elogi e delle benedizioni della santa chiesa confido che tutto vada per il meglio padre mio disse il re gravemente sarò felice di vedervi più tardi ma per il momento ho bisogno di raccogliermi e desidero rimaner solo il padre lasces lasciò il re dubitando delle sue intenzioni era evidente che gli assalti ripetuti l'avevano reso incerto e oscillante che succederebbe se fossero fatti altri tentativi per distoglierlo dalla sua risoluzione bisognava ad ogni costo giocare una grossa carta per decidere immediatamente la partita perché ogni giorno di ritardo era la probabilità di vincere agli avversari l'arcivescovo di mo aspettava nell'anticamera con poche parole il padre lascesa lo informò del pericolo della situazione e studiò con lui i mezzi per farvi fronte ambe due si recarono subito dalla signora de mentenon e l'aveva infine abbandonato le sue tristi vesti vedovili e indossava un semplice abito di seta bianca guarnito di trine più in armonia con le sue rose e speranze un solo diamante scintillava fra le trecce dei suoi capelli neri quel cambiamento la trasformava e la faceva parer più giovane e più bella e la si alzò scorgendoli e lesse subito sui loro volti il drammarico avete delle cattive notizie e le esclamò no no figlia mia rispose il vescovo ma dobbiamo vegliare contro i nostri nemici che vorrebbero allontanare il re da voi se lo potessero e la si rasserenò udendo ricordare il suo amante a voi non lo conoscete e gli ha giurato e mancherà la sua parola potete esserne certi ma il gesuita non condivideva la sua assoluta fiducia i nostri avversari sono numerosi e potenti osservò scuotendo la testa anche se il re riman fermo sarà tormentato ad ogni minuto e troverà la vita insopportabile bisogna finirla e come padre mio il matrimonio deve avvenire senza indugio subito si stanotte se possibile o padre voi chiedete troppo il re non la consentirà mai sarà lui che lo proporrà e perché perché noi lo forzeremo è il solo modo di far cessare l'opposizione quando la cosa sarà compiuta l'accetteranno per amore o per forza e che volete che faccia padre mio che rinunziate al re che io rinunzi a lui e lei impallidì orribilmente sbarrando sul prete sui grandi occhi pieni di stupore è il miglior partito a cui appigliarsi signora a padre mio avrei potuto farlo un mese fa la settimana scorsa anche anche ieri mattina ma adesso o ne morirei non temete nulla signora seguite i nostri consigli andate subito dal re ditegli che avete saputo essere egli stato molto tormentato per cagion vostra che non potete sopportare il pensiero d'essere cagione di dissensi nella sua famiglia che per conseguenza lo sciogliete dalla sua promessa e che vi ritirerete dalla corte per sempre devo andare subito sì senza perdere un momento e la si gettò sulle spalle uno scialle segue il vostro consiglio disse siete più saggi di me ma se mi prendesse in parola no statene certa non lo farà è un rischio terribile il fine ne vale ben la pena andate figlia mia e che la benedizione del cielo scenda su di voi capitolo tredicesimo il re ha un'idea il re si era rinchiuso nel suo gabinetto assorto nelle sue tristi riflessioni e pensando al modo di mettere in esecuzione il suo progetto pur costringendo alla calma l'opposizione che sembrava così forte e generale ad un tratto un leggero colpo fu battuto alla porta e subito dopo comparve davanti a lui nella semi oscurità invadente la donna che era oggetto dei suoi pensieri e lì si alzò vivamente le tese la mano con tal sorriso che l'avrebbe rassicurata se l'avesse dubitato della sua costanza francesca voi qui ecco finalmente una visita piacevole la prima oggi temo sire che abbiate avuto dei dispiaceri ne ho avuti davvero francesca ma vengo a proporvi un rimedio efficace e quale lascerò la cortesire e voi non penserete più a quello che è passato fra noi sono stata portatrice di discordia dove volevo portare la pace lasciate che io mi ritiri a saint sir o all'abbazia di fonte vrol così voi non dovrete più fare per me nessun sacrificio il re divenne mortalmente pallido ed afferrò il suo scialle con mano tremante come se temesse di vederla metter subito ad effetto la sua risoluzione no francesca e gli gridò con voce supplichevole non è possibile non parlate sul serio non è vero il cuore mi si spezza l'idea di abbandonarvi sire ma non posso sopportare il pensiero che per causa mia voi vi allontaniate dalla vostra famiglia e dai vostri ministri andiamo dunque non sono io il re non posso agire come mi piace senza preoccuparmi di loro no no francesca non dovete lasciarmi voglio che restiate sempre con me e che siate mia moglie egli poteva appena parlare dall'agitazione e le teneva ancora lo scialle come per trattenerla gli era stata cara fino allora ma ancor più adesso mentre credeva alla possibilità di perderla e la capì la sua forza e ne usò fino all'estremo qualche mese deve passare prima del nostro matrimonio sire e durante questo intervallo voi sarete esposto a tutte le noie come posso essere felice sapendomi per tanto tempo la causa di tormenti per voi e per chi aspettare tanto francesca anche un giorno sarebbe troppo sire se voi dovete soffrire per colpa mia credetemi è meglio separarci mai io non voglio che mi abbandoniate perché dovremmo attendere anche un giorno francesca io sono pronto voi pure perché non sposarci subito subito o sire sì lo desidero l'ordino ecco la mia risposta a coloro che pretendono di farmi cambiare opinione non lo sapranno che quando tutto sarà compiuto allora vedremo chi oserà trattare mia moglie in altro modo che col più profondo rispetto ci sposeremo segretamente francesca stasera stessa manderò un fedele messaggero a prendere l'arcivescovo di parigi e dovessi aver la francia intera contro di me giuro che questi non partirà prima d'averci uniti indissolubilmente davanti a dio è la vostra volontà sire sì e leggo nei vostri occhi che è anche la vostra non perdiamo un momento francesca è dio che mi ha ispirato quest'idea per ridurre tutti al silenzio tornate nei vostri appartamenti amica mia più cara e fedele quando ci rivedremo sarà per stringere fra noi un legame che nessuno mai più potrà sciogliere ogni incertezza era scomparsa dalla fisionomia del re nell'ardore della sua nuova risoluzione passeggiava in su e giù per la stanza col volto sorridente gli occhi splendenti di gioia poi suonò un piccolo campanello d'oro alla cui chiamata corse bontem il suo cameriere particolare che ore sono bontem quasi le sei sire luigi riflette per qualche secondo sapete dov'è il capitano de catinat era al palazzo sire ma ho sentito che voleva ritornare a parigi stasera solo ha con sé un amico chi è quest'amico un ufficiale delle guardie no sire è uno straniero dell'altra parte del mondo dell'america se ho ben capito uno straniero tanto meglio andate bontem e conducetemeli tutti e due purché non siano partiti sire vado a vedere egli corse via e dopo una decina di minuti si trovava di nuovo nel gabinetto del re ebbene sono stato fortunato sire erano già in sella quando li ho raggiunti e dove sono aspettano gli ordini di vostra maestà nell'anticamera fatili entrare bontem e che nessuno sia ammesso qui neppure il ministro prima che essi mi abbiano lasciato per de catinat un'udienza col re era una cosa assai frequente per i doveri del servizio non di meno si stupì assai quando seppe da bontem che anche il suo amico era compreso nell'invito stava appunto dando all'americano qualche consiglio sul modo di comportarsi quando bontem riapparve e li introdusse alla presenza del monarca amos green entrò nel gabinetto particolare del più gran sovrano della cristianità con un sentimento misto di curiosità e di timidezza la magnificenza dell'anticamera nella quale aveva aspettato i velluti le dorature i quadri la folla degli ufficiali e delle guardie vestite splendidamente tutto aveva eccitato la sua immaginazione e si era preparato a contemplare una qualche meravigliosa figura abbigliata incoronata a quale degno centro di quell'ambiente quando i suoi occhi caddero sopra un uomo semplicemente vestito un po più basso di lui non poteva fare a meno di guardarsi intorno per vedere se quegli fosse veramente il monarca o qualche altro di quella infinita schiera di cortigiani che si frapponevano fra lui e il mondo esterno però il riverente saluto del suo compagno gli fece capire che quegli era davvero il re così si inchinò egli pure con gran rispetto buonasera capitano de catinat disse il sovrano con un sorriso amabile mi hanno detto che il vostro amico è straniero qui spero signore che avrete trovato nel nostro paese di che interessarvi e divertirvi sì maestà ho visto la vostra città ed è meravigliosa il mio amico mi ha fatto visitare il vostro palazzo coi suoi boschi e i suoi giardini quando tornerò al mio paese avrò molto da raccontare delle magnificenze del vostro regno parlate la nostra lingua eppure non siete canadese no sì re sono delle province inglesi il re guardava con interesse quel giovane americano dall'apparenza robusta dai tratti energici dall'attitudine franca e disinvolta e gli ritornavano in mente le parole di frontenac certo se egli era un tipo della sua razza in quelle province esisteva davvero un popolo indomito che era meglio avere per amico che per nemico ma in quel momento il re aveva altro da pensare che alla politica si affrettò dunque a dare i suoi ordini a de catinat andrete stasera a parigi per mio servizio il vostro amico può accompagnarvi in due c'è più sicurezza per compiere una missione di stato desidero però che aspettiate prima di partire l'oscurità completa bene sire che nessuno venga a sapere il vostro messaggio ed assicuratevi che non siate seguiti conoscete l'abitazione dell'arcivescovo arlet a parigi sì sire gli ordinerete di far attaccare immediatamente di trovarsi a mezzanotte alla porta settentrionale del palazzo che nulla lo trattenga tempesto bel tempo bisogna che egli sia qui stanotte è cosa di somma importanza il vostro ordine li verrà trasmesso sire benissimo addio capitano addio signore spero che conserverete un buon ricordo del vostro soggiorno in francia e con un gesto della mano unito a quel sorriso grazioso che li conquistava tutti i cuori il re accomiatò amabilmente i due amici capitolo quattordicesimo l'ultima carta la signora de montespan era rimasta ritirata nei suoi appartamenti un po inquieta per la sparizione del re ma non voleva dare a vedere la sua ansia col mostrarsi alla corte o col informarsi di quello che accadeva mentre rimaneva così nell'ignoranza del subitaneo e completo naufragio della sua fortuna ella aveva però un agente attivo ed energico che seguiva con la massima attenzione tutte le fasi degli avvenimenti il signor de vivon che la disgrazia della sorella minacciava nei suoi propri interessi ardito per natura senza scrupoli pieno di risorse non era uomo da perdere una partita senza giocarla fino alla fine con tutta la furberia l'energia di cui era capace appena giunta a lui la voce delle intenzioni matrimoniali del re si era stabilito nell'anticamera e nulla gli sfuggiva non le desolate figure di mensier del delfino non la visita del padre l'ascese e di bossuet alla signora de mentenon non l'aria di trionfo di costei quando uscì dalle stanze del re vide poi bontem correre alla ricerca di decatinat e del suo amico udì finalmente il primo dar loro l'ordine di tener pronti i cavalli fra un'ora per mezzo di una spia che teneva fra i servi aveva saputo che nelle camere della signora di mentenon regnava un'agitazione insolita che la signorina nanon era mezza pazza dalla gioia e che due sarte di corte erano state chiamate in tutta fretta ma quando apprese da un domestico che si stava preparando una camera per l'arcivescovo di parigi allora comprese come il pericolo fosse grande e imminente la signora di montespan aveva passato il dopo pranzo distesa sopra un divano profondamente afflitta tentava di leggere e gettava via il libro lontano si accingeva a scrivere e subito stracciava la carta mille sospetti e mille timori l'agitavano che faceva il re già ieri si era mostrato un po freddo ed oggi non era venuto affatto era uscito forse o meglio essa aveva perduto un'altra volta il suo impero su lui oh no non poteva essere questo ella si rivolse e guardò nello specchio che le stava davanti la stanza era brillantemente illuminata e sul sofà rosso cupo la sua bella figura vestita di bianco risaltava meravigliosamente appoggiata sul gomito ella ammirava la tinta profonda dei suoi occhi con le loro lunghe ciglia la bianca curva del suo collo il perfetto vale della sua faccia ella si esaminò con cura attentamente ma non pote scorgere alcuna traccia del tempo no aveva sempre in la sua bellezza se il re l'aveva amata una volta perché non dovrebbe amarla sempre o sciocchezza le sue paure certo egli era indisposto e forse presto verrebbe una porta che si apriva e un passo rapido nell'anticamera era lui o almeno un domestico con un suo biglietto no era suo fratello che entrava con l'aspetto di un uomo che porta cattive notizie chiuse a chiave la porta poi traversò la sala e chiuse anche l'altra che comunicava col salottino siamo sicuri dalle indiscrezioni così disse elianzando sono corso qui perché ogni secondo è prezioso avete notizie del re nessuna si era alzata e lo fissava pallida e tremante è venuta l'ora d'agire francesca l'ora in cui tutti i morte mar si sono mostrati forti e invincibili non vi abbattete al colpo che vi minaccia ma preparatevi a lottare che c'è mormorò in la fatica il re sta per sposare la signora di mente non la governante la vedova scarron ma è impossibile è certo sposare voi dite sposare si vuole sposarla ella alzò le braccia con un gesto di disprezzo e diede in una risata rumorosa vi spaventate troppo facilmente fratello mio disse ella ah non conoscete ancora la vostra sorellina se non foste mio fratello forse potreste apprezzarmi al mio giusto valore datemi un giorno un giorno solo e voi vedrete luigi l'altero luigi trascinarsi ai miei piedi e domandarmi perdono dell'insulto vi assicuro che non può spezzare i legami che la vincono a me non chiedo che un giorno per riconquistarlo ma non potete averlo perché il matrimonio a luogo stanotte siete pazzo carlo ne sono sicuro in poche parole le raccontò tutto quello che aveva veduto e saputo ella l'ascoltava con un furore represso coi pugni chiusi e le labbra strette ma egli aveva detto il vero parlando dei mortemar erano d'una razza che ricercava la lotta e al momento dell'azione erano più che mai da temersi l'odio più che il dolore le riempiva il cuore ascoltando il fratello e tutta l'energia della sua natura si concentrava per affrontare la crisi voglio andare da lui gridò correndo verso la porta no no francesca credetemi rovinereste tutto sono stati dati ordini severi alle guardie perché nessuno si è introdotto dal re ma io insisterò per passare credetemi è peggio che inutile io ho parlato con l'ufficiale di servizio e l'ordine è assoluto o farò in modo di passare no non lo dovete egli le sbarrò il passo so che è inutile e non voglio che mia sorella diventi il ridicolo della corte cercando di penetrare per forza nella camera di un uomo che la respinge a queste parole le fiamme le salirono al volto ed ella si fermò indecisa se avessi soltanto un giorno carlo sono sicura che lo ricondurrei a me egli subisce l'influenza di quel gesuita che si immischia di tutto e quella di bossuet mi par di vederli agitare le fiaccole infernali davanti ai suoi occhi come si agita una torcia davanti al toro per allontanarlo ah se potessi mandare all'aria i loro piani quella donna quella maledetta donna quella vipera velenosa che ho riscaldata nel seno ah vorrei piuttosto saperlo morto che sposo di lei no no questo matrimonio non si farà carlo vi dico che non si farà darei tutto il mio patrimonio per impedirlo quanto volete dare ella lo guardò stupita come volete che vi compri no ma voglio comprare gli altri ah vedete dunque una probabilità di salvezza sì una sola ma il tempo stringe e ho bisogno di denaro quanto non è mai troppo tutto quello che potrete darmi con mani tremanti e l'apri un armadio segreto nel muro dove la nascondeva quello che aveva di prezioso suo fratello scorse un ammasso scintillante di gioielli rubini smeraldi brillanti una confusione di scintille una ricca messa e raccolta dalla generosità del re durante più di 15 anni da una parte erano tre cassette sovrapposte ella aprì l'ultima era piena fino all'orlo di luigi d'oro prendete quello che volete disse ella ed ora qual è il vostro piano presto egli prese l'oro a piene mani e se ne empì le tasche le monete sdrucciolavano fra le sue dita ruzzolando sul pavimento ma egli non se ne occupava il vostro piano e la ripete bisogna impedire all'arcivescovo di venire qui così il matrimonio sarà rimesso a domani e voi avrete il tempo d'agire ma come impedirlo c'è alla corte una dozzina di buone spade che si possono comprare con meno denaro di quello che io ne abbia in una tasca c'è la touche il giovane tuberville il vecchio maggiore despar raymond de carnac e i quattro latour io li radunerò e andrò ad aspettare sulla strada un agguato all'arcivescovo no ai messaggeri o perfetto siete la perla dei fratelli se il messaggio non arriva a parigi siamo salvi andate andate non perdete un momento caro carlo va bene francesca ma quando ci saremo impadroniti di loro che ne faremo rischiamo la testa in quest'affare dopo tutto sono i messaggeri del re e non possiamo passar loro le spade attraverso il corpo no non ci sarebbe perdono per questa colpa ma pensate che prima che la cosa sia scoperta io avrò riacquistato il mio potere sul re sì ma quanto durerà il più saggio partito è di custodirli in un luogo sicuro e dove ho un'idea c'è il castello del marchese de monte spana portillac di mio marito precisamente del mio più mortale nemico o carlo non parlate sul serio al contrario il marchese era a parigi ieri e non è ancora tornato avete l'anello con il suo stemma e la cercò fra i suoi gioielli e prese un cerchio d'oro con una gemma incisa questa sarà la chiave che ci aprirà la porta quando il buon marcello l'intendente lo vedrà tutti i sotterranei e le prigioni del castello saranno a nostra disposizione del resto non abbiamo la scelta non c'è altro luogo in cui possiamo custodirli con sicurezza e quando mio marito ritornerà sarà un po sorpreso di trovarvi dei prigionieri ed il compiacente marcello passerà un brutto quarto d'ora ma tutto si sbrigherà presto in una settimana al più ed io ho tanta fiducia in voi sorellina da essere sicuro che avrete finito la conquista sei prima ed ora non una parola di più ogni minuto è prezioso addio francesca vi manderò stasera un messaggero per farvi conoscere il risultato della nostra impresa la prese fra le braccia teneramente la baciò e fuggì via dopo la partenza del fratello la signora de montespan passò ore interminabili a misurare la stanza coi pugni stretti gli occhi sfolgoranti di collera consumandosi d'odio e di gelosia per la sua rivale le dieci le undici mezzanotte ed ella aspettava ancora ardente di impazienza tendendo l'orecchio in attesa del messaggero che doveva portarle la sospirata notizia e la sentì finalmente un passo rapido avvicinarsi un colpo battuto alla porta dell'anticamera e delle parole scambiate col suo paggio tremante di commozione e la si precipitò e prese la stessa il biglietto dalle mani del cavaliere non c'erano che poche parole scritte in gran fretta sopra un pezzo di carta sgualcita ma bastarono per ricolorire le sue guance per far tornare il sorriso sulle sue labbra era la scrittura di suo fratello e diceva l'arcivescovo non verrà stanotte capitolo quindicesimo i messaggeri del re de catinat aveva ben compreso l'importanza della missione che gli veniva affidata la premura con cui il re gli aveva ingiunto il segreto la sua agitazione la natura dei suoi ordini tutto confermava le voci che cominciavano a circolare alla corte conosceva abbastanza l'ambiente pieno di intrighi e di rivalità per comprendere che la sua missione era delicata ed esigeva delle grandi precauzioni aspettò dunque che la notte fosse venuta prima di dar l'ordine al palafreniere di condurre i due cavalli ad una delle cancellate del parco mentre poi vi si recava insieme al suo amico e gli fece al giovane americano un rapido schizzo della situazione attuale della corte e della possibilità che la loro spedizione notturna potesse assumere le proporzioni di un avvenimento storico mi piace il vostro re disse amos green e sono contento di rendergli un servizio è un po' mingerlino per essere il capo di una grande nazione ma all'occhio da padrone se lo si incontrasse solo in una foresta del main lo si riconoscerebbe subito per un uomo differente dagli altri ho piacere che riprenda moglie benché la sua sia una casa immensa da dirigere per una donna decatinata sorrise all'idea che si faceva il suo compagno dei doveri di una regina siete armato chiese non avete né spada né pistola no quando non porto il mio fucile è inutile che mi carichi da altri oggetti che non ho mai imperato a maneggiare ho il coltello ma perché questa domanda perché possiamo trovarci in pericolo come molti hanno interesse che questo matrimonio non avvenga tutti i più alti personaggi del regno lo avversano se potessero impedirci di compiere la nostra missione impedirebbero il matrimonio almeno per stasera ma credevo che fosse un segreto non esistono segreti in una corte il delfino e il fratello del re i loro amici sarebbero felici se noi precipitassimo nella senna prima di raggiungere il palazzo dell'arcivescovo ma chi è là una figura indistinta apparve vagamente nell'oscurità sul viale che essi percorrevano mentre si avvicinavano una lampadina colorata che dondolava ad un albero gettò la sua luce sull'uniforme azzurra di un ufficiale delle guardie era il maggiore de brissac del reggimento di decatinato dove andate domandò questi a parigi maggiore ci vado anch'io fra un'ora se volete aspettarmi andremo in compagnia mi dispiace ma è per un affare urgente e non posso perdere un minuto va bene buonasera e buon viaggio è un uomo da fidarsi il vostro amico maggiore chiese amo screen dando un'occhiata indietro franco leale come l'acciaio in tal caso devo dirgli una parola l'americano fece di corsa qualche passo indietro mentre decatinato l'aspettava fremendo per questo ritardo inutile passarono cinque minuti prima che il suo compagno lo raggiungesse frattanto l'ardente sangue del soldato francese bolleva di collere di impazienza credo che sarà meglio vi recchiate a parigi solo con tutto il vostro comodo amico mio disse egli io vado per il servizio del re e non posso ritardare per i vostri capricci scusate rispose l'altro quietamente avevo qualche cosa da dire al maggiore e molto probabilmente non lo rivedrò più in sella dunque esclamò il moschettiere aprendo il cancello del parco giacomo avete ben governato i cavalli si capitano rispose l'uomo che teneva le briglie degli animali in cammino allora amico green e di galoppo non ci fermeremo che a parigi il palafreniere li seguì con lo sguardo sorridendo ironicamente vedremo se vi fermerete borbottò fra i denti andandosene vedremo caro capitano vedremo per poco più di un miglio i due amici galopparono uno accanto all'altro senza inciampi il vento si alzava dall'occidente il cielo si era coperto di grosse nuvole grigie che correvano rapide lasciando di tanto in tanto intravedere un quarto di luna anche durante questi brevi intervalli di luce la strada ombreggiata da folti alberi restava scura ma quando la luna era nascosta durava in fatica a distinguer la via che ve ne pare di questa strada domandò de catinat a un tratto mi sembra che molte carrozze l'abbiano attraversata oggi come vedete forse l'impronta delle ruote certo perché no ma se io ostento a veder la strada amos green rise di cuore se aveste viaggiato la notte per i boschi come ho viaggiato io disse quando anche la minima luce può scoprirvi al nemico sapreste far uso dei vostri occhi allora sarebbe meglio che cavalcaste dinanzi ed io vi seguirei così holà che cosa c'è ora si era udito uno schianto come di qualche cosa che si rompesse e l'americano aveva barcollato sulla sella è caduto un ferro della staffa potreste ritrovarlo sì ma ne farò senza continuiamo seguitarono a galoppare così l'uno dietro all'altro ma cinque minuti dopo si udì un secondo rumore sospetto e l'ufficiale rotolò giù dalla sella al suolo però non lasciò le redini e in un batter d'occhio fu in piedi presso la testa del cavallo bestemmiando come solo un francese sa farlo mille milioni di fulmini e gli gridò ma che cosa succede anche la vostra cinghia si è spezzata due simili disastri in pochi minuti non è possibile non è possibile no che ciò provenga da puro caso osservò l'americano gravemente saltando a terra guardate anche l'altra cinghia è tagliata e non resiste che per un filo anche la mia lo sento mettendoci sopra la mano avete l'esca accendiamo una torcia no no chi è nelle tenebre è sicuro ci vediamo abbastanza anche le mie redini sono tagliate così pure le mie abbiamo fortuna ad essere arrivati fin qui senza romperci il collo chi diavolo ci ha giocato questo tiro non può essere che quel mascalzone di giacomo aveva i cavalli in custodia ah per bacco gliela farò pagar cara al mio ritorno a versailles ma perché abbia fatto questo e si capisce egli non è stato che lo strumento di coloro che volevano impedirci di arrivare a parigi o almeno di ritardare il nostro arrivo può darsi ma ci deve essere qualche altra ragione avrebbero dovuto immaginarsi che sapevamo cavalcare anche senza sella avranno sperato che ci rompessimo il collo questo poteva avvenire ad uno ma non certo all'altro messo in guardia dalla sorte del primo insomma quale credete che sia il loro scopo esclamò decatinat impazientito concludete sbrigatevi perché non abbiamo tempo da perdere ma l'americano non era uomo da lasciare il suo freddo metodico modo di parlare e di riflettere se essi non hanno potuto credere di riuscire a fermarci continuò egli tranquillamente qual era dunque il loro intendimento certo quello di farci ritardare ma perché volevano questo che importava loro che arrivassimo un'ora più presto più tardi per l'amor di dio interruppe decatinat con impeto amos green continuò il suo ragionamento con una calma imperturbabile e perché volevano farci ritardare non vedo che una sola ragione per dar tempo ad altri di precederci e fermarci è così capitano scommetto che è così perbacco potreste aver ragione disse decatinat pensoso e che proporreste di fare tornare indietro e prendere un'altra strada è impossibile bisognerebbe ritornare a medon e allungheremo il nostro viaggio ad una decina di miglia meglio arrivare un po più tardi che non arrivare affatto non ci lasceremo deviare da semplici supposizioni a un miglio di qui è la strada che conduce a saint germain cambieremo lì il nostro itinerario ma se non arrivassimo fin lì se qualcuno ci sbarra la via sapremo come trattarlo vorreste combattere dunque sicuro come anche contro una dozzina di uomini per esempio anche contro cento per il servizio del re amos green scosse le spalle suppongo che non avrete paura ma sì ho molta paura comprendo che ci si batta quando non lo si può evitare ma mi sembra da sciocchi andare a gettarsi volontariamente in un insidia quando si può farne a meno fate come vi piace rispose decatinat in collera mio padre era un gentiluomo proprietario di mille iugeri di terreno e suo figlio non intende indietreggiare quando è al servizio del re mio padre replicò amos green era un mercante proprietario di mille pellicce di scang e suo figlio sa riconoscere uno sciocco quando ne vede uno siete un insolente signore gridò il moschettiere regoleremo quest'affare a tempo opportuno intanto io proseguo per la mia missione voi potete ritornarvene a versailles se lo preferite egli salutò con una gentilezza esagerata saltò sul cavallo e si rimise in cammino amos green ebbe un istante d'esitazione poi rimontò a cavallo e raggiunse presto il compagno ma questi non era affatto di temperamento conciliativo e continuò a galoppare col collo teso senza rivolgere uno sguardo né una parola all'americano a un tratto scorse nell'oscurità qualche cosa che lo fece sorridere in lontananza fra gli alberi neri scintillavano un'infinità di piccoli punti gialli erano i lumi di parigi vedete disse egli stendendo il braccio ecco la città la strada di saint germain deve essere dietro questa curva la prenderemo per evitare ogni pericolo bene ma non dovreste correre con codesta velocità la sella può staccarsi da un momento all'altro ma siamo quasi arrivati eccola la strada di saint germain diede di sprone al cavallo ed ambedue voltarono di galoppo l'angolo della via nell'atto della voltata cavalli e cavalieri rotolarono al suolo decatinat spariva quasi sotto l'animale mentre il suo compagno lanciato venti passi in avanti rimase steso immobile in mezzo alla strada capitolo sedicesimo l'imboscata il signor de vivon aveva abilmente preparato la sua imboscata con una vettura chiusa e una banda di scellerati aveva lasciato il palazzo una mezz'ora prima dei messaggeri del re giunto all'incrocio della strada aveva dato l'ordine al cocchiere di deviare un poco affidandogli in custodia e cavalli poi aveva messo un uomo della banda in sentinella sopra una piccola altura con l'ordine da accendere un lume appena scorgesse i due corrieri una solida corda era stata fissata al tronco di un albero al segnale convenuto l'altra estremità era stata attaccata ad un altro pino in faccia sbarrando così la strada ad una ventina di centimetri da terra i cavalieri non potevano accorgersi dell'ostacolo così i cavalli inciamparono e caddero pesantemente trascinandoseli seco in un momento i banditi che si erano nascosti fra gli alberi si precipitarono su di loro con la spada sguainata ma le loro vittime non fecero un movimento decatinata era steso inerte respirava fatica aveva una gamba sotto il corpo del cavallo un filo di sangue gli scorreva sulle guance pallide cadendo a goccia sulle spalline d'argento amos green non era ferito ma era caduto con tal violenza da rimanerne stordito il signor de vivon accese una lanterna ed illuminò i volti dei due giacenti cattivo a fare maggiore despar disse egli all'uomo che era accanto a lui credo che siano morti ambe due andiamo dunque perbacco non si moriva così presto quando ero giovane io rispose l'altro avanzando la sua testa grigia sono caduto da cavallo una ventina di volte ma eccetto un osso due rotti non mi son mai fatto alcun male della touche passate la spada sotto la terza costola dei cavalli tanto non son più buoni a nulla qualche nitrito di spasimo e il rumore sordo delle teste ricadenti al suolo indicarono che le due povere bestie avevano finito di penare dov'è la tour domandò il signor de vivon achille la tour ha studiato medicina montpellier dov'è eccomi monsignore non sta a me di vantarmi ma so tenere una lancetta come una spada e i malati hanno perso molto il giorno in cui mi sono arruolato chi ha bisogno delle mie cure questo qui sulla strada il soldato si curvò su amo screen ha poco tempo da vivere disse me ne accorgo dalla sua respirazione che cos'ha una restrizione dell'epigastrio le parole scientifiche mi vengono naturalmente alle labbra ma il caso è difficile a spiegare in termini ordinari sarà meglio passargli il pugnale nella gola perché la sua fine è vicina no se ambite alla vita esclamò il capo se muore senza ferite noi non possiamo essere accusati vediamo l'altro l'uomo si chinò su decatinat e gli mise la mano sul cuore il soldato mandò un sospiro aprì gli occhi e si guardò intorno con l'aria di chi non sa dove sia né come si trovi là de vivon che si era calato il cappello sugli occhi e nascosta la parte inferiore del volto nel suo mantello prese la sua fiaschetta e fece ingoiare al ferito qualche goccia di liquore dopo un momento i colori ritornavano alle guance del moschettiere il lampo della vita riapparve nei suoi occhi ma era ancora stordito e poteva appena tenersi in piedi bisogna che vada a parigi fece ansante bisogna che vada a parigi sono al servizio del re se mi fermate rischiate la testa non ha che una sgraffiatura disse l'ex medico allora tenetelo bene e prima di tutto portate il morente nella vettura la lanterna non gettava che un debole chiarore così che green era rimasto nell'oscurità mentre essi si occupavano di decatinato essi si rivolsero verso il luogo dove era steso il giovane ma non lo trovarono più era scomparso i briganti rimasero per un istante sbalorditi mentre la luce della lampada illuminava i loro cappelli piumati e le loro truci figure poi si lasciarono sfuggire una sfilata di imprecazioni de vivon afferrò la gola il medico e gettandolo a terra l'avrebbe strangolato se gli altri non li avessero separati cane bugiardo gridò è questa la vostra abilità l'uomo è fuggito e noi siamo perduti sono gli spasimi dell'agonia borbottò l'altro stropicciandosi il collo vi dico che era l'omicino non può essere andato lontano è vero esclamò de vivon non può essere andato lontano egli non ha né armi né cavallo voi despare de carnac fate buona guardia questo vi raccomando che non ci scappi voi la tour e voi tuberville a cavallo e andate ad aspettare alla porta di mezzogiorno se entra a parigi è costretto a passare di là se lo acchiappate attaccatelo al cavallo e conducetelo al luogo del nostro convegno in ogni caso poco importa quello che farete di lui è uno straniero e non è qui che per caso adesso conducete l'altro in vettura e filiamo prima che sia dato l'allarme i due uomini si slanciarono alla ricerca del fuggitivo e de catinat fu trascinato per forza e gettato nella carrozza che aspettava sulla strada di saint germain tre dei cavalieri precedettero il cocchierebbe l'ordine di seguirli e de vivon dopo aver spedito un messaggero con un biglietto per la sorella formò la retroguardia col resto della banda l'infelice ufficiale aveva adesso interamente recuperato i sensi e si trovava piedi e mani legate nell'interno di quella prigione che si muoveva lentamente per la strada la caduta l'aveva stordito la gamba fortemente contusa dal peso del cavallo gli doleva ma la ferita alla fronte non presentava alcuna gravità e il sangue aveva già cessato di sgorgare però le sue sofferenze morali erano più grandi delle sue sofferenze fisiche lui un vecchio soldato abituato alle insidie della guerra andare a gettarsi in un'imboscata simile il re l'aveva scelto fra tanti per affidargli una missione segreta ed egli non aveva saputo adempirla si era lasciato prendere senza neppure tirar fuori la spada ed era stato prevenuto prevenuto da un giovane che non conosceva nulla della corte e che non era stato guidato che dal suo istinto naturale de catinat si abbandonò disperato sui cuscini della carrozza ma a questa crisi di disperazione successe un ritorno alla riflessione che si accorda così bene all'impetuosità dei francesi perché lamentarsi di ciò che ormai era accaduto assai meglio pensare al modo di rimediarvi a most green fuggito c'era da sperare costui conosceva l'oggetto della sua missione e la sua importanza è vero che non era pratico di parigi ma un uomo capace di trovare la sua strada la notte attraverso le foreste del main non sarebbe imbarazzato a trovare una casa così conosciuta come quella dell'arcivescovo di parigi un pensiero improvviso attraversò la mente di de catinat e rinnovò le sue apprensioni le porte della città si chiudevano alle otto di sera ed erano ora quasi le nove gli sarebbe stato facile a lui la cui uniforme era un passaporto di farsi aprire e passare ma come farebbe a most green uno straniero e un borghese eppure nonostante l'impossibilità che intravedeva egli si attaccava alla vaga speranza che un essere d'energie e di risorse come il suo amico saprebbe scogitare il modo di levarsi d'impiccio poi pensò alla fuga se ci riuscisse forse arriverebbe ancora tempo per addempiere al suo messaggio chi erano quegli uomini che lo tenevano prigioniero non avevano detto una parola che potesse fargli indovinare per chi essi agivano messie il delfino essi soli potevano essergli emissari egli aveva riconosciuto uno della banda il maggiore despar uomo la cui spada era sempre a disposizione della borsa meglio fornita dove lo conducevano alla morte forse allora perché saranno presi la pena di farlo rinvenire pieno di curiosità e gli guardò fuori dalla portiera un cavaliere stava ad ogni lato della carrozza cercò di riconoscere il luogo in cui si trovavano e siccome il cielo si era rischiarato pote scorgere a destra l'aperta campagna con gruppi d'alberi qua e là mentre a sinistra ma molto più lontano i lumi di parigi scintillavano come stelle dunque non andavano né dalla parte della capitale né verso versailles poi si mise a calcolare le sue probabilità di fuga gli avevano levato la spada era dunque disarmato legato e custodito da una dozzina d'uomini almeno ce ne erano tre davanti sulla via illuminata dal lume della luna poi uno da ogni parte e dal rumore dei cavalli argomentava che almeno sei fossero dietro la vettura esattamente dodici col cocchiere evidentemente non poteva pensare ad ingannare la vigilanza di una scorta così numerosa mentre alzava la testa i suoi occhi traversarono il vetro che chiudeva il davanti della vettura e ciò che vide lo colpì d'orrore sul dorso del cocchiere rosseggiava una larga macchia di sangue intorno a uno strappo nell'abito proprio sotto alla spalla sinistra decatinata si chiedeva come quell'uomo potesse tenersi a cassetta con quell'orribile ferita e frustare così violentemente il cavallo con le mani rosse di sangue coagulato tese il collo per cercare di vedere il suo volto ma il largo cappello calato sulla fronte gli copriva quasi interamente la faccia erano giunti in un punto in cui la strada seguitava in linea retta un piccolo sentiero di traverso discendeva zig zag il pendio rapido di una collina nella direzione della senna i tre cavalieri di scorta continuarono a trottare sulla strada maestra quando con gran stupore di decatinata la vettura voltò bruscamente con uno sbalzo che la fece quasi trabaltare e si diede a scendere la collina con una rapidità vertiginosa e spaventosa i cavalli galoppanti follemente e il cocchiere in piedi frustandoli infuriato il pesante veicolo rimbalzava e ricadeva con cigolii sinistri mentre il prigioniero scosso fra i due sedili vedeva ora ad una portiera ora ad un'altra i pioppi danzanti sulla strada e davanti a lui il cocchiere infernale che brandiva furiosamente la sua frusta con la mano insanguinata ed urlava le sue bestie impazzite nonostante quella corsa sfrenata i cavalieri della retroguardia seguivano da vicino la vettura e il galoppo dei loro cavalli si faceva sempre più distinto ad un tratto decatinato scorse presso la portiera la testa truce di despard e lo scintillio d'una canna di pistola al cavallo despard al cavallo tuonò una voce autoritaria il colpo partì uno degli animali fece un salto convulsivo e la carrozza si sollevò da una parte ma il cocchiere urlava e frustava le bestie più volentemente che mai mentre l'equipaggio continuava a discendere con dei lanci orribili la strada faceva ora una curva brusca e là a meno di cento passi da loro la senna scorreva fredda e tranquilla al lume della luna il cocchiere non ebbe un minuto d'esitazione e spinse gli animali spaventati nel fiume appena sentirono il freddo dell'acqua i cavalli si impennarono ed uno di loro cadde la palla di despard aveva colpito giusto rapido come il lampo il cocchiere saltò da cassetta e si gettò nel fiume ma i cavalieri li furono subito addosso ed una mezza dozzina di mani l'afferrarono prima che potesse mettersi a nuotare e lo ricondussero a riva nella lotta il suo largo cappello era caduto e decatinat poteva vedere il suo volto grandio era amos green capitolo diciassettesimo la prigione di porti yak i banditi non restarono meno sorpresi di decatinat quando dopo aver tolto all'uomo che aveva incatturato i suoi abiti da postiglione riconobbero in lui il messaggero che avevano creduto perduto una salva di esclamazioni e di ingiurie si rovesciò su di lui per mille fulmini gridò uno è l'uomo che quello stupido di latur voleva darci per morto ma come qui e dov'è stefano arnold egli l'ha ucciso non vedete sull'abito il taglio del pugnale sì e guardate il colore della sua mano egli l'ha ucciso e ne ha preso il cappello e la tunica viva dio esclamò il vecchio despar non ho mai avuto una gran simpatia per il povero stefano ma ho vuotato con lui più di una bottiglia di vino e mi incarico di vendicarlo passiamogli intorno al collo queste redini ed appicchiamolo ad un albero molte mani stavano già sfippiando i finimenti del cavallo morto quando de vivon si fece largo in mezzo al piccolo gruppo e con brevi parole impedì loro ogni violenza se lo toccate mettete a rischio la vita disse egli ma ha assassinato stefano arnold sistemeremo più tardi quest'affare stasera è l'inviato del re l'altro è al sicuro sì eccolo là legate bene quest'uomo e mettetelo accanto a lui sbarazzate la bestia morta dai finimenti e bardate nel vostro cavallo de carnac bene ora montate a cassetta e guidate non siamo lontani dalla nostra meta il cambio si effettuò rapidamente amo screen fu gettato nella vettura accanto a decatinat e l'equipaggio risalì con gran fatica alla costa ripida che aveva disceso così precipitosamente l'americano non aveva aperto bocca dopo il suo arresto ed era rimasto impassibile con le braccia concerte sul petto mentre si discuteva la sua morte quando si trovò solo col suo compagno riacquistò la parola per lagnarsi che la fortuna lo aveva tradito quei maledetti cavalli brontolò infuriato uno dei nostri cavalli in america si sarebbe immerso nell'acqua come un'anatra quante volte ho fatto attraversare la baia di hudson alla mia vecchia giumenta sagamore se ci riusciva a passare il fiume avevamo la strada libera fino a parigi mio caro amico disse decatinat posando le mani legate su quelle del suo compagno mi perdonate di avervi così maltrattato a versailles ma non ci ho più neppur pensato avevate mille volte ragione ed io ero come voi avete detto uno sciocco un vero sciocco avete agito nobilmente con me ma come faceste non sono mai rimasto tanto sorpreso come quando vi ho riconosciuto amos green si mise a ridere mi immaginavo quale sarebbe la vostra meraviglia riconoscendo il cocchiere che vi conduceva quando sono caduto da cavallo sono restato immobile un po per riprendere fiato e molto perché giudicavo più prudente fare il morto con tutte quelle spade intorno a me poi quando m'hanno lasciato per occuparsi di voi mi sono calato nel fosso ho attraversato la strada all'ombra degli alberi e giunto alla vettura ho capito che c'era un solo mezzo da esservi utile il cocchiere si voltava a tratto dal rumore ho preso il coltello gli sono saltato alla gola e montando sulla ruota anteriore l'ho reso muto per sempre come neppure un grido non ho vissuto in vano fra gli indiani e poi l'ho gettato nel fosso e mi sono vestito dei suoi panni però non l'ho scorticato mio dio ma che dite certe cose non si fanno che dai selvaggi infatti ho pensato che forse non era in uso nel paese e me ne sono astenuto avevo appena preso le redini che tutta la banda è ritornata e vi hanno rinchiuso nella vettura io non avevo paura di essere riconosciuto ma temevo di sbagliare strada e questo li avrebbe subito messi in sospetto mi hanno tolto di imbarazzo mandando avanti tre cavalieri come staffetta e tutto è andato bene finché vedendo questa strada traversa mi è venuta l'idea di prenderla ci sarebbe riuscito di fuggire se quel cretino non avesse ferito un cavallo e se queste bestie stupide non avessero avuto paura dell'acqua il moschettiere strinse ancora le mani dell'amico siete un bravo e leale compagno gli disse ed ora che facciamo chiese l'americano non so chi siano questi uomini né dove ci condurranno certo ai loro villaggi per bruciarci decatinate rise malgrado la sua inquietudine credete d'essere sempre in america egli osservò queste cose sono impossibili in francia mi pare però che in francia siano lesti ad impiccare la gente non mi sento sicuro mi immagino che ci condurranno in qualche luogo solitario dove ci terranno prigionieri finché l'affare sia scoperto ebbene dovranno prendere le loro precauzioni perché potrebbero trovarci pronti alla lotta quando verranno a cercarci che volete dire per tutta risposta l'americano si dimenò un istante e dopo una scossa finale alzò le mani rese libere in faccia al suo compagno meravigliato che dio vi benedica ma è la prima cosa che si insegna ai ragazzi nelle capanne indiane mi sono sbarazzato di corde ben più forti di queste datemi le mani con qualche scossa abile allentò i nodi e decatinata si trovò le mani libere i piedi ora vedranno così che è molto più facile prenderci che tenerci ma in questo momento la vettura rallentò la corsa e il rumore dei passi dei cavalli che la precedevano cessò ad un tratto gettando un'occhiata attraverso il finestrino i prigionieri videro un'enorme costruzione nera che si elevava davanti a loro tanto alta e larga che l'oscurità la volgeva da ogni parte si fermarono in faccia all'ingresso e le lanterne della carrozza illuminarono una grande porta di ferro munita di numerosi chiavistelli nella parte superiore era una piccola apertura quadrata dalla quale essi videro apparire una torcia da prima e poi una faccia barbuta che cercava di distinguere che cosa avveniva de vivon alzandosi sulle staffe avvicinò la testa all'inferriata ma i prigionieri non poterono afferrare una parola della conversazione che gli tenne col portiere videro soltanto che gli mostrava un anello d'oro e che a quel segnale la faccia barbuta si rasserenò facendo segni d'assenso un istante dopo la testa disparve la porta girò cicolando sui cardini e la vettura si inoltrò sotto la volta seguita da de vivon lasciando fuori gli altri componenti della banda un gruppo di trucci figuri circondò l'equipaggio e i prigionieri furono tirati fuori abbastanza villanamente alla luce delle torce essi distinguevano dei massicci muri e delle torri merlate un uomo grosso barbuto lo stesso che avevano visto all'inferriata stava in mezzo agli uomini armati dando gli ordini alla prigione superiore simon comandò egli mettete due pagliericci un pane e dell'acqua finché avremo gli ordini del padrone non so chi sia il vostro padrone disse decatinata ma domando a voi con qual diritto egli ardisce arrestare due messaggeri del re viaggianti per il suo servizio per san dionisio se il mio padrone ha giocato un tiro al re non ha fatto che rendergli un po della sua moneta rispose l'uomo sghignazzando ma non più discussioni portateli via simone voi mi risponderete di loro fu inutile che decatinata si arrabbiasse e minacciasse dei più severi castighi tutti coloro che avevano preso parte al suo arresto e li fu trascinato per forza lungo un corridoio scuro dietro ad un omino con una lanterna e un mazzo di chiavi avevan loro legato i piedi nuovamente di modo che non potevano avanzare che a piccoli passi passarono tre gallerie e tre porte che si rinchiudevano subito dietro a loro poi salirono una scala di pietra dai gradini consumati e finalmente li spinsero in una piccola cella gettando loro dietro un po di paglia un minuto dopo la chiave fu girata nella serratura ed essi furono lasciati alle loro meditazioni e non erano davvero gaie queste meditazioni per un povero ufficiale delle guardie del re un colpo di fortuna aveva fatto la sua posizione a corte e un altro colpo lo rovinava ora avrebbe un bel affaticarsi a dar ragioni per spiegare il suo insuccesso egli conosceva bene il suo reale padrone molto generoso quando i suoi ordini erano obbediti altrettanto inesorabile quando non si riusciva ad eseguirli aveva in orrore un uomo disgraziato quasi più di uno negligente decatinat era prostrato da uno scoraggiamento profondo pensando alla sua brillante carriera spezzata per sempre e poi c'era la sua famiglia a parigi la sua dolce adele il suo vecchio zio che era stato un padre per lui chi li proteggerebbe nelle loro noie ora che egli aveva perduto il potere chi avrebbe potuto metterli al riparo dalle persecuzioni quanto tempo trascorrerebbe prima che essi fossero esposti nuovamente alle brutalità di d'albert e dei suoi dragoni egli strinse i pugni a quel pensiero e si gettò con un gemito sul pagliericcio appena visibile nella luce diffusa che lasciava penetrare l'unica finestra ma il suo energico compagno non si era per niente abbandonato alla disperazione appena la porta si era richiusa si liberò dalle corde e si mise ad esplorare i muri e il pavimento per rendersi conto della loro posizione il suo esame terminò con la scoperta di un minuscolo camino in un cantuccio e di due enormi pezzi di legno che sembravano messi apposta per servire di guanciali ai prigionieri assicuratosi che il camino era troppo stretto anche per passarci la sola testa egli spinse i due pezzi di legno verso la finestra e mettendoli uno sull'altro e montandoci sopra poter raggiungere le sbarre che la guarnivano posò un piede sopra un'ineguaglianza del muro e riuscì ad alzarsi abbastanza per vedere nella corte che avevano appunto lasciato scorse la vettura di de vivon uscire dal portone e udì il rumore dei passi dei cavalieri che si allontanavano l'intendente e i suoi accoliti erano spariti le torce erano spente e eccetto il passo misurato di due sentinelle a venti piedi al di sotto di lui tutto era silenzioso nel vasto castello nella posizione incomoda in cui si trovava quei muscoli del braccio tesi pure il suo sguardo percorreva pieno di ammirazione di stupore la lunga fila di mura merlate irte di torri e torrette che sorgevano altere fredde alla luce della luna la finestra era larga abbastanza da permettergli di passarci il corpo se non ci fossero state le sbarre di ferro egli le scosse vi si appoggiò sopra con tutto il suo peso ma erano grosse come il suo pollice e solidamente incastrate nella pietra cercò di scalzarle col coltello ma il muro era duro resistente e il coltello li girò in mano senza nessun risultato però forse col tempo gli sarebbe riuscito a toglierle si lasciò ricadere a terra e stava riflettendo al modo di tirarsi d'impiccio quando la sua attenzione fu attirata da un gemito del compagno sembrate ammalato amico mio disse egli ammalato di spirito mormorò l'altro ah maledetto sciocco che sono stato questo pensiero mi fa impazzire avete qualche cosa che vi sgomenta chiese amos green sedendo sopra i pezzi di legno che cosa c'è dunque il moschettiere fece un movimento di impazienza che cosa c'è come potete domandarmelo quando sapete meglio di me il risultato negativo della mia missione la volontà del re era che l'arcivescovo di parigi lo sposasse stanotte e la volontà del re è legge ah mio dio mi immagino il re che sta aspettando ansiosamente nel suo gabinetto la signora de mentenon già pronta nel suo abito bianco e li sento parlare di quel disgraziato di decatinat di nuovo egli nascose la testa fra le mani in preda alla disperazione io vedo tutto questo disse l'americano con una gran calma e qualche cos'altro che cosa vedo l'arcivescovo che da loro la benedizione nuziale l'arcivescovo ma siete pazzo può darsi ma io lo vedo è impossibile che sia andato al palazzo al contrario c'è giunto una mezz'ora fa decatinat balzò in piedi al palazzo e gli gridò chi dunque gli ha portato il messaggio io disse amos green capitolo diciottesimo una notte di sorprese se l'americano aveva sperato di arricare al compagno stupore gioia annunziandogli così laconicamente quella notizia rimase molto deluso perché decatinata si avvicinò a lui con un volto esprimente simpatia e dolore e gli pose con dolcezza la mano sulla spalla mio caro amico e gli disse sono stato egoista non ho pensato che alle mie noie dimenticando quello che avete sofferto per me quella caduta da cavallo vi ha scosso più di quanto crediate stendetevi sulla paglia e procurate di dormire vi dico che l'arcivescovo è a versai interruppe amos green impazientito sì ma sì lo so proseguì l'ufficiale cercando di calmarlo c'è senza dubbio spero che non soffrirete forti dolori l'americano agitò in aria e pugni stretti mi credete pazzo esclamò e per il fuoco eterno mi farete diventare pazzo davvero se vi dico che l'arcivescovo è al palazzo non intendo affatto scherzare vi ricordate quando vi ho lasciato per dire una parola al vostro amico il maggiore fu la volta del moschettiere di mostrarsi agitato ebbene gridò afferrando il braccio del compagno ebbene quando da noi si manda un esploratore nei boschi se l'affare ne va la pena se ne manda sempre un secondo ad un'ora diversa in modo che l'uno l'altro ritorni vivo è il metodo in uso dei popoli rochesi e converrete che ha del buono mio dio credo che mi abbiate salvato non importa però che mi sloghiate un braccio per questo ho raggiunto il maggiore gli ho chiesto di passare dalla casa dell'arcivescovo arrivando a parigi e poi e poi gli ho fatto vedere questo pezzo di gesso se ci siamo stati gli ho detto vedrete una gran croce bianca dalla parte sinistra della porta se non c'è croce tirate il campanello e pregate l'arcivescovo di recarsi a versailles al più presto possibile senza alcun indugio il maggiore è partito un'ora dopo di noi sarà arrivato a parigi alle 10 e mezzo l'arcivescovo prevenuto si è messo subito in cammino ed è giunto al palazzo una mezz'ora fa cioè verso le 12 e mezzo ma che cosa fate avete perduto la testa il giovane americano aveva ben ragione di sgomentarsi dell'effetto prodotto dalle sue parole la sua natura fredda e calma era infatti incapace delle rapide e violente variazioni del fiero ed impetuoso francese decatinata si era messo a ballare intorno alla piccola cella sollevando braccia e gambe come un vero pazzo mentre la luna rifletteva le sue contorsioni sulla parete alla fine si gettò fra le braccia del compagno abbracciandolo e stringendolo vivamente al petto con delle proteste di gratitudine e delle esclamazioni interminabili ah se potessi far qualche cosa per voi egli esclamava se potessi far qualche cosa per voi lo potete distendetevi su cotesta palli e dormite e quando penso che vi ho maltrattato ah vi siete preso una solenne rivincita per l'amor di dio coricatevi e dormite decatinata era davvero spossato da tutte le angosce della giornata e in quell'ultima commozione sembrava aver esaurito tutto ciò che gli rimaneva di forza fisica appena disteso le sue palpebre si chiusero e presto si addormentò vedendo inconfuso l'americano seduto a terra al lume della luna con le gambe incrociate ed intento a tagliare furiosamente col suo lungo coltello uno dei pezzi di legno il giovane ufficiale era talmente stanco che mezzogiorno era già suonato e il sole brillava allegramente in un cielo senza nubi quando si svegliò ritrovandosi sulla paglia con una volta di pietra al di sopra della testa si guardò intorno con aria smarrita ma subito gli avvenimenti del giorno precedente li ritornarono alla mente la sua missione il tranello la prigione e balzò in piedi in un attimo il suo compagno che sonnecchiava in un angolo si drizzò al primo movimento con la mano sul coltello guardando pieno di diffidenza verso la porta a siete voi disse credevo che fosse l'uomo è venuto qualcuno qui si hanno portato due pani ed una boccia d'acqua stamattina presto quando mi preparavo a riposarmi un poco e che ha detto nulla era il piccolo moro quello che chiamavano simone ha posato tutto in terra e se n'è andato penso che se ritorna gli impediremo di lasciarci e perché così ci dirà dove siamo e che vogliono fare di noi ma che ci importa poiché la nostra missione è compiuta non importerà a voi forse i gusti non si discutono ma importa moltissimo a me non sono abituato a star rinchiuso in un buco come un orso nella gabbia aspettando non si sa che cosa non sto bene qui parigi è già un luogo in cui non si respira ma lo preferisco a questa tana ho bisogno d'aria e voglio uscire bisogna avere un po di pazienza amico mio non sono del vostro parere mi piace più prendere una sbarra di ferro e qualche caviglia aprì la giacchetta e mostrò al compagno sorpreso un pezzo di ferro arrugginito e tre pezzetti di legno tagliati a punta dove li avete presi è il mio lavoro della notte questa sbarra è la traversa superiore dell'inferriata mi c'è voluta una bella fatica a levarla ma eccola qui in quanto alle caviglie l'ho tagliate da questo legno e perché farne ecco guardate il numero uno va qui dove ho fatto questo buco fra le pietre poi con l'altro pezzo di legno ho costruito una specie d'asse che si può fissare solidamente in questi due crepacci in modo da poter sopportare il peso di un uomo le altre due caviglie vanno in questi fori sotto ad essa bene ora potete salire su quest'asse e guardare dalla finestra senza troppo faticarvi provate decatinat salto su e guardò curiosamente attraverso l'inferriata non conosco questo luogo disse scuotendo la testa deve essere uno dei tanti castelli sparsi intorno a parigi ma quale e chi ha interesse di trattarci così se potessi vedere lo stemma ah eccone uno laggiù nel centro di quella finestra ma non lo distingo bene amos mi pare che abbiate la vista più acuta della mia guardate se vi riesce a decifrare quello scudo sì ci vedo perfettamente mi fa l'effetto di tre tacchinotti sopra un barile probabilmente tre merli sopra una torre sono le armi dei provence de hauteville ma non possono essere loro non posseggono un castello nelle vicinanze di parigi no non so dove ci troviamo per scendere si appoggiò ad una sbarra e con sua sguardate gridò ah ve ne accorgete ora l'ho staccata durante la notte come col coltello no con la traversa il coltello non avrebbe resistito rimetto subito la sbarra perché di giù potrebbero accorgersi che è staccata e lo sono tutte no ma lo saranno stanotte voi lavorerete con questa mentre io potrò servirmi della traversa saremo proprio due buoni a nulla se non riuscissimo a far piazza pulita prima di giorno anche ammettendo che potessimo arrivare fino nella corte che faremo dopo ogni cosa a suo tempo amico mio non c'è ragione di rimanere indefinitamente sul kennebec perché non si sa come attraversare il pen o lo scott in ogni caso c'è più aria nel cortile che qui e quando saremo saltati giù dalla finestra ci occuperemo del resto i due amici non osarono continuare il lavoro durante il giorno per tema ad essere sorpresi dal carceriere od osservati dal di fuori mangiarono il loro pane e bevero l'acqua con l'appetito di uomini che sono stati più di una volta privi anche di un nutrimento così frugale appena venne la notte si misero al lavoro era scoppiato un uragano e pioveva dirotto ma ci vedevano benissimo mentre l'ombra proiettata dagli archi della finestra impediva loro di essere visti prima di mezzanotte avevano staccato un'altra sbarra e la terza cominciava a cedere quando un lieve rumore fece loro volger la testa e scorsero il carceriere in piedi in mezzo alla cella che li guardava a bocca aperta decatinat lo vide per primo in un batter d'occhio gli fu sopra con la spranga ma l'uomo si precipitò verso la porta e la chiuse vivamente dietro a sé proprio nel momento in cui l'utensile dell'americano passava fischiando accanto a lui per andare a cadere nel corridoio i due camerati si guardarono il moschettiere alzò le spalle e l'americano si mise a fischiettare fra i denti ora è inutile continuare disse decatinat tanto vale quest'occupazione che un'altra rispose amos se avessi mirato un po più in basso non se la cavava speriamo che gli venga un accidente o che si rompe il collo scendendo le scale non ho più arnese ma con due altri colpi della vostra sbarra avremo finito ah mio dio temo che abbiate ragione che siamo spacciati una grande campana si era messa a suonare a distesa nel castello e un gran rumore di voci e di passi si udiva sullo scalone di pietra delle chiavi giravano nella serratura ordini brevi venivano dati da una voce severa tutto questo strepito subitaneo nel bel mezzo della notte tranquilla indicava evidentemente che l'allarme era dato amos green si buttò sedere sul pagliericcio con le mani in tasca e decatinat si appoggiò contro il muro in attesa di ciò che stava per succedere cinque minuti passarono poi altri cinque senza che nessuno apparisse il rumore continuava nel cortile nel castello ma il corridoio che conduceva alla loro cella restava silenzioso e deserto in fede mia voglio levare anche quella sbarra disse finalmente l'americano alzandosi e andando verso la finestra almeno sapremo che cosa significa questo fracasso si arrampicò sulla finestra e guardò fuori venite qui gridò eccitato al compagno c'è qualche altra cosa in giro e credo che siano troppo preoccupati per pensare a noi decatinat salì accanto a lui e guardò nel cortile un enorme bracere era stato acceso ad ogni angolo e una folla d'uomini andava e veniva con delle torci ardenti il giallo chiarore delle fiamme si agitava sui muri grigi rischiarando ad intervalli le alte torri che spiccavano sul cielo nero poi ad un tratto un soffio di vento abbassava le fiaccole tanto da lasciare appena vedere i volti di coloro che le tenevano la porta principale era spalancata ed una vettura stava ferma davanti ad essa proprio in faccia alla loro finestra le ruote della carrozza erano coperte di fango e i cavalli stanchi e fumanti come se avessero fatto un viaggio lungo e faticoso un uomo con un cappello piumato avvolto in un mantello scese dalla vettura tirandosi dietro un'altra persona ci fu una lotta un grido e le due figure disparvero nel castello poi l'equipaggio ripartì le torce e i braceri furono spenti il portone si richiuse e tutto ritornò nel silenzio ebbene mormorò decatinat hanno forse preso un altro messaggero del re e lasceremo il posto libero qui fra poco osservò a mosgrin se ci lasciano un po tranquilli non ci resteremo a lungo mi domando dove sarà andato il carceriere vada dove vuole purché non si avvicini a noi datemi la sbarra si mise a lavorare con furia ma ad un tratto si fermò e tese l'orecchio per mille fulmini esclamò qualcuno batte dall'altra parete ascoltarono ambedue ed udirono distintamente un rumore sordo di martelli e lo stridere di seghe al di là del muro che cosa faranno dunque non posso immaginarmelo non li vedete no sono troppo vicini al muro lasciate provar me sono più sottile di voi passò la testa e mezze spalle attraverso l'apertura e rimase in questa posizione finché il suo compagno credendo che non riuscisse a discendere lo tirò per una gamba stanno costruendo qualche cosa ci sono quattro uomini con una lanterna o che cosa potranno costruire ma una specie di capanna mi pare intanto non possiamo fuggire con quei quattro uomini sotto la nostra finestra è impossibile ma possiamo finire il nostro lavoro il rumore del ferro era soffocato dal fracasso che facevano gli operai occupati al di sotto di loro alla fine l'ultima sbarra cedette ed egli la tirò ad agio ad agio a sé proprio nel momento in cui egli la toglieva una testa grossa con una massa di capelli ispidi apparve all'altezza della finestra amos green fu talmente sorpreso da questa brusca apparizione che lasciò cadere la sbarra che rimbalzò sul davanzale della finestra e precipitò da basso di fuori malaccorto strillò una voce dal di sotto è così che tieni gli arnesi mille milioni di fulmini tu mi hai colpito una spalla ma che cos'hai dunque mi hai buttato addosso il tuo arnese io non ho buttato nulla idiota vuoi farmi credere che le sbarre di ferro cadano dal cielo ti dico che mi hai lasciato cadere sulla spalla il tuo arnese ti lascerò cadere un pugno sul muso appena nascendo silenzio buoni a nulla disse severamente una terza voce se il lavoro non è finito allo spuntar del giorno l'avrete da far col padrone il rumore dei martelli e delle seghe riprese con più vigore la testa passava e ripassava davanti al finestrino ma senza mai guardare attraverso il foro nero che gli si apriva davanti i primi albori cominciavano a spandersi nel cortile quando il lavoro fu terminato e gli operai se ne andarono i prigionieri allora si arrischiarono ad arrampicarsi per vedere ciò che era stato fatto durante la notte ma quello che videro tolse loro il respiro era un patibolo quando si furono un po rimessi amos green disse credo sia tempo di sortir di qui è inutile tutto il nostro lavoro rispose decatinata tristemente qualunque sia il nostro destino e mi sembra abbastanza orribile bisogna sottomettervi si da prodi zitto amico mio la finestra è libera bisogna servirsene è inutile ecco una truppa d'uomini armati dall'altra parte della corte una truppa quest'ora sì ed eccone altri che arrivano guardate laggiù verso la porta centrale ma in nome del cielo che cosa significa questo il portone in faccia a loro si spalancò per dar passaggio ad una strana processione da prima veniva una dozzina di camerieri a due a due con la lavarda in mano e indossanti la stessa livrea color marrone dietro a loro si avanzava una specie di gigante dalla lunga barba con una larga scura e sulla spalla sinistra con le maniche della camicia di grossa tela rialzate fino al gomito poi un prete che leggeva delle preghiere sul suo breviario e subito dopo una donna vestita di nero con la testa coperta da uno scialle che le nascondeva il viso vicino a lei camminava un uomo alto dall'aspetto altero dai lineamenti duri e con un gran naso a becco d'aquila portava un berretto di velluto guarnito da una penna fermata da una fibbia in diamanti che scintillava alla pallida luce del mattino ma i suoi occhi neri brillavano d'uno splendore più vivo delle pietre sotto i sopraccigli e dardeggiavano lampi sinistri e minacciosi 12 altri servitori in livrea color marrone chiudevano quello strano corteggio la donna si sentì mancare ai piedi del patibolo ma l'uomo che le era vicino la rialzò con una spinta così brusca che le inciampò contro l'ultimo scalino e sarebbe caduta se non si fosse aggrappata al braccio del prete giunta sulla piattaforma i suoi occhi incontrarono il terribile ceppo e la mandò un grido disperato e retrocesse ma l'uomo la spinse di nuovo e due del seguito la ferrarono ognuno per un braccio e la trascinarono avanti o maurizio maurizio e le implorò non sono pronta alla morte o perdonatemi maurizio se volete esser perdonato maurizio maurizio ella si dibatteva per afferrare la sua mano la sua manica ma l'altro restava immobile con la mano sull'impugnatura della spada e gli occhi fissi su lei folgoranti di un'espressione di durezza e di gioia feroce alla vista di quell'orribile faccia la preghiera le morì sul labbro tanto valeva chiedere pietà alla pietra ella si rivolse e lasciò cadere lo scialle che la ricopriva ah sire e lei esclamò sire se poteste vedermi ora e a quel grido e alla vista di quel bel volto decatinate che aveva seguito tutta la scena parve colpito dal fulmine perché quella donna che stava là presso il ceppo era stata la più potente la più spiritosa la più bella donna di francia francesca de montespan ieri ancora la favorita del re capitolo diciannovesimo nel gabinetto del re nella notte in cui tante così strane avventure capitavano i suoi messaggeri il re era solo nel suo gabinetto al di sopra della sua testa ardeva una lampada profumata sorretta da quattro amorini di cristallo sostenuti da catene d'oro scendenti dal soffitto i mobili demano incrostati d'argento il ricco tappeto di la savonière le sete di tour le tappezzerie dei gobelen le guarnizioni d'oro e le preziose porcellane di sevres tutto ciò che la francia poteva produrre di migliore era riunito fra quelle quattro pareti e in mezzo a tutta quella opulenza sedeva il padrone col mento appoggiato sulla mano i gomiti sulla tavola gli occhi fissi l'aria pensosa ed assorta benché fissasse i suoi sguardi sul muro egli non vedeva nulla di ciò che lo circondava tutto il suo passato gli ritornava alla mente rimpiangeva la sua giovinezza trascorsa per sempre degli accessi di gotta delle vertigini inquietanti venivano ad ogni istante a ricordargli che era vicino al declinar della vita e in tutto questo tempo egli non si era fatto un amico un vero amico non uno solo né alla famiglia né alla corte né nell'intero paese ad eccezione della donna che egli stava per sposare ma costei era sincera buona franca dignitosa con lei egli poteva sperare di cancellare con la gloria degli anni che gli restavano ancora da vivere gli errori e le follie del passato se almeno l'arcivescovo non tardasse a venire egli potrebbe essere ben sicuro di possederla per sempre un colpo fu battuto alla porta e bontem si mostrò sulla soglia l'arcivescovo è arrivato sire bene bontem pregate la signora di voler venire qui e mandatemi subito il ministro della guerra dopo un poco l'uvoa entrava altero e maestoso il re gli disse desidero che siate il mio testimone l'uvoa testimone di che cosa sire del mio matrimonio il ministro ebbe un sussulto come sire di già ora fra cinque minuti bene sire il disgraziato cortigiano fece ogni sforzo per sorridere prendere un aspetto allegro ma a vedersi costretto a contribuire perché la sua nemica diventasse la moglie del re era proprio il colmo dell'amarezza frattanto i preparativi si erano rapidamente ultimati nella piccola camera in cui ardeva una lampada rossa davanti alla statua della vergine francesca de mentenon stava in mezzo alla stanza indossava uno splendido abito di broccato bianco guarnito d'argento e di trine appunto da lençon tre donne andavano e venivano intorno a lei abbassandosi rialzandosi ritoccando qua e là aggiungendo uno spillo rifacendo un fiocco e allontanandosi per giudicare dell'effetto là disse la sarta dando un ultimo punto ad una rosetta di seta mi pare perfetto vostra ma signora voglio dire non tengo molto all'acconciatura io osservò la dama però voglio che mi trovi ben vestita o la signora è facile a vestire la signora è ammirabilmente ben fatta quale abito non parrebbe bello con una figura come cotesta che collo che braccia che vita la difficoltà comincia quando bisogna rifare il corpo nello stesso tempo che l'abito per esempio la principessa carlotta elisabetta è piccola e tanto grossa pare incredibile ci vuole per lei molta più stoffa che per la signora eppure è assai più bassa ma la signora di mentenon non ascoltava il che rio della sarta i suoi occhi erano fissi sulla vergine e le sue labbra mormoravano una preghiera supplicandola di renderla degna degli alti destini ai quali era chiamata così subitaneamente un colpo leggero alla porta venne ad interrompere la sua preghiera è bontè madame disse la signorina nanon dice che il re è pronto allora non facciamolo aspettare venite signorina e che dio benedica l'atto che stiamo per compiere il piccolo gruppo si riunì nell'anticamera del re e di lì si diresse verso la cappella particolare davanti camminava il maestoso arcivescovo tutto compreso dell'importanza della sua funzione col dito fra le pagine del suo messale alla rubrica de matrimonis presso a lui era il suo elemosiniere e due piccoli servitori di corte in cappa bianca e mantelletto rosso portanti delle torci accese il re e la signora de mentenon camminavano l'uno accanto all'altra lei calma riservata con gli occhi bassi lui con le guance un po rosse lo sguardo nervoso e furtivo come chi ha coscienza di traversare una delle grandi crisi della vita dietro a loro in un silenzio solenne seguiva un piccolo corteggio i testimoni cioè il magro e silenzioso padre l'ascese e louvois il cui sguardo maligno non abbandonava la sposa il marchese di charmaran bontem e la signorina nanon le torce gettavano una luce giallastra sulla comitiva mentre s'avanzava lentamente attraverso i corridoi e i saloni che conducevano alla cappella il re guardava nervosamente i ritratti dei suoi antenati e dei suoi parenti che ornavano le pareti nel momento in cui passava davanti a quello della regina defunta maria teresa egli trassalì ed ebbe un gesto d'orrore mio dio mormorò e l'ha corrugato le glia mi ha sputato in faccia la signora demente non gli posò levemente la mano sul braccio non è nulla sire sussurrò con voce carezzevole è il tremolio della luce sulla pittura quella voce produsse su lui l'usato effetto l'espressione stravolta degli occhi scomparve e prendendo la mano della sua futura sposa nelle sue si rimise risolutamente in marcia qualche minuto più tardi essi erano davanti all'altare e furono pronunziate le parole che dovevano unirli per sempre mentre ritornavano agli appartamenti reali furono colmati di auguri e di congratulazioni la signora al cui dito scintillava il nuovo anello di sposa si mostrava sempre calma e sorridente ma il sangue le affluiva con forza le tempie e pareva che tutto le ripetesse regina di francia ora regina 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 se nonché un'ombra subitanea oscurò la sua gioia e una voce mormorò al suo orecchio ricordate la vostra promessa alla chiesa e la sussultò e voltandosi scorse accanto a sé la pallida faccia del gesuita la vostra mano è ghiacciata francesca disse luigi andiamo cara siamo restati troppo tempo qui dentro e fa freddo capitolo ventesimo le due francesche la signora de montespan dopo aver ricevuto la lettera di suo fratello si era ritirata per riposare con l'animo assai tranquillo e la conosceva molto a fondo luigi e ben sapeva che l'ostinazione negli scherzi era una delle sue caratteristiche e quando voleva una cosa doveva essere quella ad ogni costo frattanto in serata non si sarebbe sposato di certo ed ella avrebbe avuto tutto il giorno dopo davanti a sé e se non fosse riuscita a far crollare i piani del re allora doveva aver proprio perduto il suo fascino e la sua bellezza la mattina di poi si vestì con un'accuratezza eccessiva indossò il suo nuovo abito di velluto verde si mise la splendida collana di perle non dimenticò la polvere odorosa e il tenue strato di rossetto né il neo accanto alla fossetta della gota fece tutto con la sveltezza di un guerriero a cui vengono date le armi per una sfida d'onore benché tutta la corte ne fosse informata la signora de montespan non aveva ricevuto nessuna notizia del grande evento della notte precedente perché ormai per la sua alterigia e la sua lingua pungente era rimasta senza amici si trovava ancora nel suo salottino dando un ultimo tocco alla sua acconciatura quando il paggio le annunziò che il re l'attendeva nel salone ella poteva appena credere a questa inattesa fortuna si era tormentata il cervello tutta la mattina per pensare in qual modo avrebbe potuto giungere fino a lui ed ora egli stesso stava là ad aspettarla dopo aver dato un ultimo sguardo allo specchio si affrettò ad andargli incontro quando la signora de montespan entrò e li stava con le spalle volte verso la porta guardando una pittura di snyder ma al rumore che la fece entrando si girò e fece un passo verso lei ella era corsa innanzi con un piccolo grido di gioia col volto raggiante di bellezza e d'amore ma egli fece un gesto così decisivo con la mano che la fece indietreggiare le braccia le caddero sui fianchi e rimase a guardarlo fissamente con le labbra tremanti esprimendo una profonda angoscia e un gran timore c'era nello sguardo di lui un'espressione inconsueta e già qualche cosa le mormorava nel fondo della sua anima che oggi non avrebbe vinto siete voi in collera con me sire esclamò il re era venuto con l'intenzione di parlarle bruscamente dell'avvenuto suo matrimonio ma vedendola così in tutta la sua bellezza in tutto il suo amore non si sentì coraggio abbastanza lasciamoglielo far sapere da altri pensò lo saprà sempre troppo presto inoltre avrebbe evitato una scena cosa che gli aborriva il suo compito era in ogni modo sempre difficile tutto ciò gli attraversò la mente in un baleno ed ella contemporaneamente lesse in quegli occhi bruni che la guardavano fissa fissa voi avete qualche cosa che esitate a palesarmi dio benedica il cuore gentile che sa far tacere la lingua crudele no no signora disse luigi io non sarò crudele non posso scordare che da molti anni il vostro ingegno e la vostra bellezza hanno aglietato la mia vita e la mia corte ma le circostanze cambiano signora ed io ho verso il mondo dei doveri che sono in opposizione con le mie inclinazioni personali per diverse ragioni io credo sia meglio accettare l'accomodamento di cui parlammo l'altro giorno cioè che vi ritiriate da voi stessa dalla corte ritirarmi sire per quanto tempo per sempre signora ella lo guardò fissamente col volto pallido i pugni stretti non è necessario dirvi continuò il re che io farò tutto il possibile per rendere piacevole il vostro ritiro quanto occorrerà per il vostro mantenimento sarà fissato da voi stessa un palazzo sarà costruito per voi in qualsiasi parte della francia preferirete purché sia almeno a 20 miglia di distanza da parigi una tale condizione ossire come potete pensare che tutto ciò possa compensarmi della perdita del vostro amore la favorita era completamente abbattuta se egli avesse parlato con collera essa avrebbe sperato di riguadagnare il suo cuore come altre volte ma a quel portamento gentile e pur fermo era nuovo in lui ed ella sentì che nulla al mondo potrebbe ormai smuoverlo dal suo proposito la freddezza del re la irritò ma si sforzò ancora di soffocare la sua passione e di conservare l'umile attitudine finora tenuta che poco si addiceva al suo temperamento orgoglioso e vehemente lo sforzo però fu ben presto superiore a lei stessa signora aggiunse il re ho molto riflettuto su questo soggetto e bisogna che sia come ho detto non c'è altra via di mezzo poiché dobbiamo dividerci la separazione sarà bene che avvenga subito credetemi la cosa non è piacevole nemmeno per me ho ordinato a vostro fratello di tener pronta la carrozza alla postieria per le nove poiché ho pensato che voi desideraste ritirarvi a notte inoltrata per nascondere la mia vergogna alla corte che non mancherà di deridermi ciò è ben pensato sire e non di meno forse era anche questo un dovere poiché oggi parlate tanto di doveri è vero signora è vero lo confesso vi ho profondamente offesa ma credetemi sono pronto a farne ammenda andiamo non guardatemi così severamente vi prego e facciamo in modo invece che il nostro ultimo colloquio lasci nella nostra memoria un dolce ricordo un dolce ricordo in un attimo ella perse tutta la gentilezza e umiltà e la sua voce prese un suono di disprezzo e di collera un dolce ricordo potrà esserlo per voi che vi liberate della donna di cui avete rovinata la vita e che potete trovarne un'altra nei saloni della vostra corte per farvi dimenticare la vostra perfidia ma per me condannata a languire in qualche paese di provincia scacciata da mio marito disprezzata dalla mia famiglia divenuta lo scherno della francia lontana da tutto ciò che può dare un prestigio alla vita e dall'uomo per amor del quale ho tutto sacrificato non sarà davvero un dolce ricordo potete esserne certo il re vide lo sguardo di collera lanciatogli ma si sforzò di contenersi dopo un simile alterco fra l'uomo più superbo e la donna più orgogliosa di tutta la francia era necessario che uno dei due cedesse ed egli sentendo che toccava a lui si mostrò ancora gentile nonostante che la sua natura imperiosa si ribellasse non avete niente da acquistare signora disse il re usando parole che non sono convenienti né alle vostre labbra né alle mie orecchie e converrete che in questo momento io prego mentre potrei comandare e che invece di trattarvi come un mio suddito vi tratto come un'amica oh siete davvero troppo buono sire le nostre relazioni che datano da vent'anni e più bastano appena a spiegare questa vostra indulgenza debbo davvero esservi riconoscente per non avermi fatto uscire dal vostro palazzo fra due file di moschettieri sire come posso ringraziarvi per questa gentilezza e in così dire fece una profonda riverenza sorridendo ironicamente le vostre parole sono amare signora il mio cuore è amaro sire su via francesca siate ragionevole ve ne supplico abbiamo lasciato ambedue la gioventù dietro noi questa allusione alla mia età è veramente graziosa sulle vostre labbra ah ma voi svisate le mie parole non parlerò più allora molto probabilmente sarà questa l'ultima volta che ci vediamo non avete niente da domandarmi prima che me ne vada buon dio e le esclamò ma è questo un uomo ha egli un cuore sono queste le labbra che così spesso hanno ripetuto di amarmi sono questi gli occhi che si fissavano tanto profondamente nei miei potete dunque cacciar via una donna la cui vita è stata così collegata alla vostra come abbandonereste il palazzo di saint germain quando ne aveste pronto uno più magnifico e questa è la conclusione di tutti quei giuramenti di tanti dolci bisbigli di tante promesse andiamo signora ciò è doloroso per ambedue doloroso dov'è il dolore nella vostra faccia io ci vedo la collera perché ho osato dirvi la verità ci vedo la gioia perché sentite di aver compiuto il vostro compito vile ma dov'è il dolore ah quando io me ne sarò andata lontana sarete contento non è vero e potrete così ritornare dalla vostra governante signora sì sì non crediate di spaventarmi che importa a me di quello che potete farmi ma io so tutto non sono cieca dunque avreste voluto anche sposarla voi il discendente di san luigi ed ella la vedova scarron la miserabile che ho raccolta per carità in casa mia ah come rideranno i vostri cortigiani quanti versi scarabocchieranno i poetastri e quanta maldicenza prodigheranno i più spiritosi voi naturalmente non udite queste cose ma i vostri amici sinceri possono bene accorarsene la mia pazienza è al termine gridò il re furiosamente vi lascio signora è per sempre ma la collera della signora de montespan era ormai al colmo si pose fra la porta il re con gli occhi lustri la faccia rossa e piegata un po in avanti battendo nervosamente sul tappeto la piccola scarpa di seta bianca voi avete fretta sire senza dubbio e la vi aspetta lasciatemi passare signora ma qual delusione avete avuta stanotte non è vero povero sire ah e per la governante che colpo grandio che colpo non arcivescovo non matrimonio tutto il bel piano andato in fumo ciò è stato crudele dite luigi guardò con stupore il bel volto furioso e l'idea che il dolore le avesse tolto il senno li attraversò la mente altrimenti che cosa significavano quelle strane parole non arcivescovo era indegno da parte sua parlare così duramente ad una donna tanto afflitta bisognava calmarla e soprattutto allontanarsi di lì io vi ho affidato la custodia di un gran numero dei miei gioielli di famiglia disse egli vi prego di conservarli come un piccolo pegno dei miei sentimenti sperava di farle piacere di calmarla ma non aveva ancora finito di parlare che il aperto il suo scrigno segreto gettò ai piedi del re una quantità di pietre preziose queste risuonarono e ruzzolarono sul pavimento con dei riflessi rossi verdi e gialli e rimbalzarono contro le pareti sprizzando i colori dell'arcobaleno saranno per la governante se l'arcivescovo verrà una buona volta esclamò la signora di montespan il re fu sempre più convinto che l'avesse perso la ragione e volendo tentare un mezzo supremo aprì la porta a metà e dette un ordine a voce bassa pochi minuti dopo un giovanetto dai lunghi capelli biondi che scendevano sulla giacchettina di velluto nero entrò nella stanza era il figlio minore della signora de montespan il conte di toulouse ho pensato che desideraste dirgli addio signora disse luigi e la restò con lo sguardo inebetito come procurando di indovinare e subito comprese che insieme all'amante avrebbe perduto anche i figli e intravide quell'altra donna che sarebbe restata con essi e che avrebbe conquistato il loro affetto mentre essa sarebbe lontana da loro allora tutto ciò che c'era di cattivo in lei si scatenò e per un istante fu come il re l'aveva creduta addirittura pazza se suo figlio non doveva essere per lei non sarebbe stato per nessuno un pugnale ornato di pietre preziose si trovava fra i suoi tesori a portata di mano e la lo prese si precipitò sul fanciullo che indietreggiò luigi gettò un grido e si slanciò per arrestarla ma un'altra mano era stata più pronta della sua una donna era entrata dalla porta aperta ed era riuscita ad impadronirsi del pugnale ci fu un momento di lotta fra le due donne ambe due ammirabilmente belle e il pugnale cadde ai loro piedi luigi lo raccolse prontamente e prendendo suo figlio per la mano uscì dall'appartamento francesca de montespan indietreggiò tremando fino al canapè sul quale si lasciò cadere per vedersi dinanzi il volto severo dell'altra francesca della donna che le incontrava sempre come un'ombra ad ogni passo della sua vita io vi ho salvata signora da un'azione che voi per la prima avreste rimpianta salvata siete voi che mi ci avete spinta la signora de montespan si era alzata e stava appoggiata contro la spalliera del mobile tenendo le mani dietro le palpebre quasi chiuse sugli occhi lampeggianti e le labbra semi aperte questa era la vera francesca de montespan molto diversa da quell'umile dolce francesca la bella conquistatrice del re la signora de mentenon si era fatta un taglio alla mano nella lotta e il sangue colava dalle sue dita ma nell'una nell'altra avevan tempo di occuparsene sì riprese francesca de montespan siete voi che mi avete spinta a ciò voi che io ho raccolta quando sapevate appena dove trovare un pezzo di pane per non morire di fame che cosa possedevate voi niente niente eccetto un nome che era lo scherno d'europa e che cosa vi ho dato io tutto voi lo sapete che io vi ho dato tutto denaro condizione l'entrata alla corte per mezzo mio avete ottenuto tutto e adesso mi schernite signora io non mi burlo di voi vi compiango invece dal fondo del cuore compiangermi voi a una morte mar compianta dalla vedova scarron la vostra pietà può andare a raggiungere la vostra gratitudine la vostra reputazione noi sappiamo ciò che esse valgono le vostre parole mi addolorano ho tutto il diritto di credere che voi non siate sensibile no quando la mia coscienza è tranquilla la coscienza non vi rimprovera dunque le vostre infamie non ho mai avuto l'intenzione di farvi del male davvero ah miserabile che cosa ho io dunque fatto il re è venuto da me per assistere alle lezioni dei bambini si è trattenuto ha parlato ha domandato la mia opinione su questo su quello dovevo io tacere ne sono io responsabile siete voi che l'avete allontanato da me sarei altera davvero se avessi la coscienza di ricondurlo sulla retta via così voi confessate di avermi rubato l'amore del re virtuosissima vedova io ho sempre avuto per voi una profonda riconoscenza siete stata e assai me l'avete ricordato la mia benefattrice non l'ho mai dimenticato un minuto però non nego di aver detto al re quando mi consultava che il peccato è il peccato e che sarebbe più degno di lui spezzare i legami colpevoli che lo avvincevano per contrarne degli altri quelli del dovere la vostra ipocrisia mi stomaca se voi pretendete di essere una monaca perché non siete là dove stanno le monache no voi vorreste avere insieme i vantaggi di questo mondo e dell'altro vi ha bisogno a tutto ciò che la corte può dare e intanto imitate i modi del chiostro ma io non cado nella vostra rete conosco il fondo del vostro cuore come vedo voi ero una donna onesta e ciò che ho fatto l'ho fatto in faccia al mondo voi voi vi nascondete dietro i vostri preti il vostro inginocchiatoio e i vostri libri di preghiere e credete di ingannarmi come ingannate gli altri gli occhi grigi della sua rivale scintillarono per la prima volta e fece un passo in avanti con la bianca mano un po alzata per protestare dite pur di me quel che vi piace esclamò ella ne farò lo stesso conto dello sciocco chiacchierio del vostro pappagallo nell'anticamera ma non toccate ciò che è sacro ah se voleste soltanto innalzare vostri pensieri verso queste cose se consentiste a piegare il capo e a vedere prima che sia troppo tardi qual vita indegna voi avete condotta fino adesso che cosa non avreste potuto fare la sua anima era nelle vostre mani se vi foste occupata di elevare il suo spirito se l'aveste condotto per sentieri più alti se aveste avuto cura di sviluppare tutto ciò che c'è di buono e di nobile in lui il vostro nome sarebbe stato onorato e benedetto nel castello come nel tugurio ma no voi l'avete trascinato nel fango avete corrotta la sua gioventù l'avete allontanato dalla sua moglie gli avete impedito di essere veramente un uomo un simile esempio partendo da lui ha fatto commettere mille delitti a coloro che lo han preso per modello e di tutti questi delitti voi sola siete la responsabile state attenta signora in nome di dio state attenta prima che sia troppo tardi nonostante tutta la vostra bellezza può darsi che non restino a voi come a me che pochi anni di vita allora quando i capelli saranno bianchi quando il volto sarà solcato di rughe quando il lampo degli occhi sarà spento ah iddio abbia pietà dell'anima di francesca de montespan la sua rivale aveva finalmente abbassata la testa restò un istante silenziosa domata per la prima volta in vita sua ma ben presto la sua natura sdegnosa riprese il sopravvento rialzò la faccia con un moto di ironia e di sfida vi ringrazio ho però il mio confessore disse francesca de montespan non crediate di gettarmi della polvere negli occhi io vi conosco vi conosco anche troppo al contrario sembrate conoscermi molto meno di quello che credete se mi conoscesse così bene ditemi vi prego chi sono tutta l'amarezza e l'odio della sua rivale risuonarono nelle parole della risposta voi siete disse francesca de montespan la governante dei miei figli e l'amante segreta del re vi ingannate rispose la signora de mente non con una gran calma sono stata la governante dei vostri figli e sono la moglie legittima del re capitolo ventunesimo l'uomo nella carrozza spesso la signora de montespan soleva simulare uno svenimento quando desiderava disarmare la collera del re spesso un abbraccio di lei riusciva a vincere ma adesso sentiva di essere impotente ella non poteva dubitare della verità di ciò che aveva udito c'era nello sguardo calmo nella voce tranquilla della sua rivale qualche cosa che affermava pienamente la signora de montespan restò un momento stordita anelante quasi soffocata poi ad un tratto con un grido lamentevole cadde svenuta ai piedi della sua rivale francesca de mente non si chinò e la rialzò c'era veramente un'espressione di dolore di pietà nei suoi occhi mentre considerava il volto pallido appoggiato sul suo seno privo di ogni fierezza e di ogni odio che alcune lacrime bagnavano con una piega intorno alle labbra così da somigliare a un bambino che s'addormenta dopo aver pianto molto la signora de mente non la dagiò sul canapè avendo cura di porle sotto la testa un cuscino di seta poi riunì insieme tutti i gioielli che erano caduti sul tappeto e li chiuse in uno scrigno mettendo la chiave in un luogo visibile agli occhi della signora de montespan quindi suonò il campanello all'appello del quale venne il piccolo paggio nero la vostra signora è indisposta dissella andate a chiamare le sue cameriere poi dopo averle fatto tutto quello che poteva uscì dal gran salone silenzioso dove la sua bella rivale era distesa fra le trine e i velluti simile a un fiore dal gambo troncato senza speranza di riacquistare il primitivo splendore appena la signora de montespan ebbe ripreso i sensi rimandò le sue cameriere e restò appoggiata con le palme sul viso disfatto pensando al suo triste avvenire ella non poteva più restare in quel palazzo ciò era certo non soltanto perché così voleva il re ma perché ella non avrebbe trovato ormai che miseria e scherno in quella corte dove aveva regnato padrona suprema è vero che un'altra volta aveva usurpato il posto alla regina ma questa volta non poteva essere così perché la sua rivale era una donna molto differente dalla povera maria teresa mite e buona no il suo coraggio era sparito del tutto e la doveva accettare la disfatta e partire si alzò dal divano sentendosi invecchiata di dieci anni le restavano moltissime cose da fare e pochissimo tempo disponibile aveva gettato le sue pietre preziose ai piedi del re in un momento di collera ma ora che l'amore se n'era andato sarebbe stato insensato perdere anche i gioielli se cessava ad essere la più potente donna di francia poteva ancora però essere la più ricca avrebbe avuto naturalmente una pensione rilevantissima poiché luigi era sempre generoso di più possedeva il bottino che aveva accumulato durante gli anni del suo impero i gioielli le perle l'oro i quadri i gingilli e tutto ciò rappresentava parecchi milioni di lire imballò da se stessa tutto ciò che poteva portarsi via facilmente e affidò al suo fratello la cura del resto tutto il giorno lavorò con un'attività febbrile per occupare la sua mente e per dimenticare la sua sconfitta e la vittoria della sua rivale la sera tutto fu pronto ed ella dette l'ordine che le si spedessero le casse a pettiburg ritiro da lei prescelto una mezz'ora prima del tempo fissato per la partenza un giovane cavaliere a lei sconosciuto fu introdotto nel salone veniva da parte di suo fratello il signor de vivon disse egli è dolente che la notizia della vostra partenza si sia diffusa per tutta la corte poco mi importa signore rispose ella con tutta la sua fierezza di una volta e gli dice signora che i cortigiani potrebbero riunirsi alla porta di ponente per vedervi partire che ci sarà la signora de negli la contessa de chambord la signorina de rohan e francesca de montespan ebbe un gesto di collera e di orrore al pensiero che poteva toccarle una tal dimostrazione lasciare questo palazzo dove era stata più che regina sotto gli occhi sprezzanti e i sarcasmi amari di tanti nemici personali dopo tutte le umiliazioni che aveva subite in quella giornata sarebbe stato il colmo dell'affronto ella non poteva risolversi dite a mio fratello signore che gli sarei molto riconoscente se volesse prendere nuove disposizioni affinché la mia partenza sia ignorata egli mi ha mandato qui per dirvi che è già tutto fatto se volete seguirmi ah e fra quanto tempo subito io sono pronta alla porta di ponente allora no alla porta di levante la vettura aspetta e dov'è mio fratello noi andiamo a prenderlo al cancello del parco perché questo perché gli stalle vedette se fosse notato presso la carrozza tutto sarebbe scoperto va bene allora signore se volete prendere il mio mantello e questa cassetta possiamo partire subito essi uscirono insieme e presero i corridoi meno frequentati la signora de montespan sentiva battere il suo cuore ad ogni rumore che ella udiva nelle gallerie deserte ma la fortuna la favorì non incontrò nessuno e si trovò ben presto alla piccola porta di levante due grosse flemmatiche guardie svizzere stavano appoggiate sui loro moschetti da ciascuna parte dell'uscita e la luce della lampada sospesa al di sopra della porta cadeva sulla vettura che attendeva la signora de montespan lo sportello fu aperto un cavaliere avviluppato da un mantello nero le offrì la mano poi prese posto in faccia a lei e il legno discese il viale principale al trotto dei suoi due cavalli ella non rimase sorpresa vedendo quest'uomo sedersi in faccia a lei poiché era abituata ad essere accompagnata così egli aveva preso il posto che doveva in seguito occupare suo fratello fin qui non c'era niente di strano ma passati dieci minuti senza che l'uomo si fosse mosso o avesse pronunziato una parola ella alzò la testa e procurò di distinguere il suo volto egli aveva il cappello tanto abbassato sugli occhi e la parte inferiore del viso talmente nascosta dalle pieghe del mantello che ella non pote scorgere che due occhi fissi nei suoi sentendosi allora invasa da una forte inquietudine pensò di rompere il silenzio certamente signore disse ella noi abbiamo già passato il cancello dove dovevamo prendere mio fratello il suo compagno non rispose non si mosse e la credette che a cagione del rumore della carrozza non avesse inteso signore ripete allora vi faccio osservare che abbiamo già passato il cancello del parco nessuna risposta ella ebbe un brivido chi mai poteva essere quest'uomo taciturno poi le venne in mente che fosse muto forse siete infermo disse e non potete parlare se questa è la causa del vostro silenzio potreste almeno muovere la vostra mano ed io comprenderei egli restò inerte e muto allora ella fu presa ad un tratto da un folle terrore cominciò a gridare e si alzò per abbassare il vetro e aprire lo sportello ma una mano d'acciaio le strinse il polso e la forzò a sedersi però l'uomo non si era mosso dal suo posto e non aveva detto una parola la vettura continuò a camminare pesantemente con rumore essi erano già lontani da Versailles si faceva sempre più scuro dense e nubi coprivano il cielo e di tanto in tanto si sentiva di lontano il rumore del tuono la signora si era rannicchiata nel cantuccio della carrozza tremante i suoi occhi spalancati dalla paura non abbandonavano l'uomo seduto in faccia a lei era una donna coraggiosa ma questa situazione strana inquietante dopo le emozioni della giornata scuoteva tutti i suoi nervi se egli almeno avesse detto qualche cosa e l'avrebbe preferito delle minacce a questo silenzio che la spaventava e che bisognava rompere ad ogni costo signore disse ella ci deve essere qualche sbaglio io non so con qual diritto mi impedite di aprire lo sportello e di dare i miei ordini al cocchiere egli non rispose vi ripeto signore che ci deve essere uno sbaglio questa è la carrozza di mio fratello il signor de vivon ed egli non è uomo da permettere che si tratti sua sorella così scortesemente alcune gocce di pioggia battevano contro i vetri della carrozza le nubi si facevano sempre più scure essa quasi non scorgeva più l'uomo immobile ma a cosa ancora più terribile per lei adesso l'era divenuto addirittura invisibile allora cominciò a gridare con quanta forza aveva ma le sue grida non ebbero migliore effetto delle sue parole signore supplicò avanzando le mani e prendendolo per il mantello voi mi spaventate voi mi atterrite non vi ho fatto mai nessun male che motivo avete di far soffrire così una donna infelice o parlatemi in nome di dio parlatemi la pioggia continuava a battere sui vetri e nessuna parola uscì dalle labbra dell'uomo forse voi non sapete chi sono continuò essa sforzandosi di prendere il tono della sua solita autorità questo scherzo potrebbe costarvi caro io sono la marchesa di montespan e non dimentico un'ingiuria se voi frequentate la corte dovete sapere che ho qualche influenza presso il re voi potrete portarmi via in questa carrozza ma io non sono una persona tale da sparire senza che alcuno se ne preoccupi se voi a mio dio abbiate misericordia ad un tratto un lampo inondò di una luce livida all'interno della carrozza ed ella pote scorgere il volto dell'uomo poco distante dal suo con gli occhi lustri e i tratti convulsi di un riso silenzioso e in quel volto freddamente feroce e la conobbe l'uomo che temeva più di tutti al mondo suo marito maurizio esclamò maurizio siete voi sì mia cara sposina sono io eccoci nuovamente riuniti dopo tanto tempo o maurizio come mi avete spaventata perché non mi avete parlato perché era così dolce trovarmi là nel silenzio e pensare che vi avevo tutta per me senza nessuno fra noi dopo tanti anni a mia cara moglie come ho atteso quest'ora con impazienza io ho avuto dei torti verso di voi maurizio molti torti perdonatemi della nostra famiglia non si perdona mia cara francesca non è piacevole trovarsi insieme dopo tanto a fare una passeggiata in carrozza e in quale carrozza è come quella che ci riportò dalla cattedrale dove voi mi giuraste fedeltà eterna così graziosamente io sedevo qui come seguo adesso e voi sedevate costì io prendevo la vostra mano così la stringevo e miserabile mi avete slogato il polso mi avete rotto il braccio o no di certo mia piccola moglie e poi vi ricordate siccome dicevate di amarmi alla follia io mi chinavo sulle vostre labbra e aiuto aiuto infame mi avete tagliato la bocca mi avete ferita col vostro anello ma egli non dette ascolto alle sue grida disperate e le si precipitò addosso colpendole il volto brutalmente ella si era gettata in ginocchio con la testa nascosta nei cuscini ma egli continuava canito a colpirla a caso nell'oscurità i colpi risuonavano a volte con un rumore sordo quando la mano incontrava il cuoio del sedile a volte con un suono secco quando batteva sul legno dove si feriva a sangue ma nella rabbia non sentiva il dolore ah vi ho fatto stare zitta adesso disse egli alla fine una volta io chiudevo la vostra bocca coi baci ma il mondo cammina francesca e i tempi cambiano così la perfidia entra nel cuore delle donne e il desiderio della vendetta in quello degli uomini voi potete uccidermi se volete e la balbettò lo farò disse egli semplicemente la vettura continuava a camminare traballando sulla stretta strada di campagna il temporale era cessato ma da lontano si udiva ancora il rombo del tuono la luna brillava illuminando le grandi pianure fiancheggiate da pioppi rischiarando con la sua luce fredda il profilo della donna sprofondata sul sedile della carrozza e quello del suo terribile compagno questi stava adesso appoggiato con le braccia incrociate sul petto e gli occhi fissi sulla donna che gli aveva amareggiato tutta la vita dove mi conducete domandò ella finalmente a portiac mia cara e perché a portiac che cosa volete farmi voglio far tacere per sempre quella lingua perfida e mentitrice non voglio che essa inganni altri uomini volete assassinarmi dunque chiamate ciò come volete voi avete un cuore molto duro il mio vero cuore l'avevo dato ad una donna o i miei peccati sono davvero puniti lo saranno di certo non posso far niente per espiare la mia colpa io ve la farò espiare voi avete una spada al vostro fianco maurizio perché non mi uccidete subito se non l'ho già fatto è perché ho una buona ragione quale ve lo dirò a portiac io ho il diritto dell'alta media e bassa giustizia la io sono il padrone il giudice condanno ed eseguo è un privilegio che mi dà la legge nemmeno il vostro pietoso re potrà vendicarvi poiché il diritto mi appartiene ed egli non può opporvisi senza acquistarsi molti nemici e così dicendo egli scoppiò in una risata all'idea del piano che aveva combinato mentre ella tremando in tutta la sua persona nascose il volto fra le mani per evitare quello sguardo in cui brillava la perfidia e pregò dio di perdonarle i peccati della sua vita così il marito e la moglie senza dirsi più niente avendo in cuore l'uno l'odio l'altra il timore arrivarono al castello di portiac capitolo ventiduesimo il patibolo di portiac fu così che a morì decatinate damo screen poterono vedere dalla finestra della loro prigione la vettura che conduceva la prigioniera come pure il gran lavoro della notte la strana processione della mattina e fu così che scorsero sotto la finestra francesca de montespan condotta a morte e ne udirono la voce disperata quando la mano pesante del boia la prese per le spalle e la trascinò in ginocchio davanti al ceppo ella si dibatteva mandando grida di terrore ma l'uomo alzò la scura e tese il braccio per prendere la lunga capigliatura dai riflessi dorati e recidere la testa della sua vittima quando ad un tratto restò immobile per la sorpresa ed infatti ciò che scorgeva era proprio da farlo restare stupito dalla piccola finestra quadrata che si apriva in faccia a lui un uomo si era slanciato con la testa in avanti e cadendo sulle mani si era alzato in piedi in un batter d'occhio e lì fu seguito quasi subito da un secondo che cadde più pesantemente ma si rialzò con sveltezza l'uno aveva l'abito azzurro guarnito d'argento delle guardie del re l'altro aveva lo scuro costume dei borghesi ambe due tenevano in mano una corta stanga di ferro arrugginita nell'uno nell'altro pronunziò una parola ma il soldato si gettò sul boia ed alzò il braccio nel momento in cui egli stava per colpire la sua vittima si udì uno scricchiolio il boia mandò un grido terribile lasciò cadere la scure portò le mani alla testa fece due o tre passi storcendosi sulla piattaforma e cadde come un masso sul pavimento della corte rapido come il lampo decatinata raccolse la scure e piantandosi davanti a montespan con l'arma in alto e gli occhi minaccianti a noi due disse il marchese rimase così stupefatto al primo momento che fu incapace di pronunziare una parola egli comprese adesso che questi stranieri venivano a mettersi fra lui e la sua preda impossessatevi di questi uomini gridò egli volgendosi verso il suo seguito un istante disse decatinat con voce che intimava l'attenzione voi vedete dalla mia uniforme chi sono guardia del corpo di sua maestà incaricato di una missione speciale toccarmi vuol dire toccare il re pensateci vili urlò montespan prendetelo ma gli uomini armati esitarono poiché il timore del re diffondeva una grande ombra su tutta la francia decatinat vide la loro indecisione e ne approfittò questa donna è la favorita del re disse gli e voi rischiate la vostra testa se toccate soltanto una ciocca dei suoi capelli sta a voi il decidere se per obbedire a questo pazzo furioso volete trovarvi le ossa rotte o sentirvi bruciare le mani nell'olio bollente chi sono questi uomini marcello gridò il marchese fuori di sé sono dei prigionieri eccellenza dei prigionieri quali prigionieri i vostri eccellenza chi ha dato l'ordine di condurli qui voi stesso la scorta aveva il vostro anello con lo scudo gentilizio non ho mai visto questi uomini c'è qualche stregoneria qui sotto ma essi non mi provocheranno nel mio proprio castello e non si interporranno fra me e mia moglie no perbacco essi non lo faranno impunemente andiamo marcello stefano giovanni gilberto pietro voi che avete mangiato il mio pane avanti vi dico i suoi occhi furiosi percorsero le file ma non incontrarono che delle teste abbassate nessuno si mosse mandando allora un orribile bestemmia tirò fuori la sua spada e si precipitò sulla moglie che giaceva svenuta presso il patibolo decatinata si slanciò per proteggerla ma marcello l'intendente aveva già ferrato il suo padrone per la vita montespan pazzo di collera i denti stretti e la bava alle labbra tentò di svincolarsi dalla stretta e impugnando la spada per la lama se ne servì come di uno stiletto e gliela vibrò attraverso la barba fino alla gola marcello mandò un grido e cadde all'indietro mentre il sangue sgorgava fiotti dalla ferita ma prima che il suo assassino potesse ritirare l'arma decatinata l'americano aiutati da una dozzina dei soldati stessi di montespan lo arrovesciarono sulla piattaforma e amos green lo incatenò così solidamente che non poté più muoversi i suoi servi parlavano già di condurlo al ceppo destinato alla moglie poiché marcello era assai amato ed essi volevano vendicare la sua morte quando ad un tratto echeggiò per l'aria un suono di trombe decatinata alzò la testa come un cane all'appello del padrone avete sentito amos è il suono della guardia via alla porta maggiore voi abbassate i ponti levatoi andate e sbrigatevi se non volete pagare le colpe del vostro padrone abbiamo evitato una carneficina disse poi volgendosi ad amos davvero io lo vidi proprio nel momento in cui stava per reciderle la testa ancora un attimo ed ella sarebbe morta ma è una bella donna e sarebbe stato un peccato farla morire così intanto prese l'ampio mantello nero di montespan e ne fece un guanciale che pose sotto la testa di francesca sempre svenuta egli era ancora chino su lei quando il ponte levatoio si abbassò e un momento dopo una truppa di cavalieri entrò nella corte con un gran rumore d'armi a capo di essi era un uomo di bella presenza vestito con l'uniforme delle guardie con un cappello guarnito da un enorme pennacchio di piume ondeggianti con lunghi guanti di pelle di bufalo e una sciabola che scintillava ai raggi del sole si avanzò fino al patibolo e percorse con lo sguardo il gruppo che aveva davanti a sé il volto di decatinat si rischiarò quando lo scorse e gli fu subito accanto de brissac decatinat come mai siete qui ero prigioniero ditemi de brissac avete consegnato il messaggio certamente e l'arcivescovo è venuto sì e il matrimonio è stato celebrato come era fissato ed è per questo che questa povera donna fu costretta a lasciare il palazzo me l'ero immaginato spero che non avrà patito alcun male siamo arrivati a tempo amos e dio per salvarle la vita guardate suo marito là accanto a lei egli è un vero demonio brissac lo credo ma anche un angelo sarebbe come lui se trattato come egli lo è siamo stati noi a legarlo così egli ha ucciso un uomo ed io l'ho ridotto così non siete davvero restato inerte come avete saputo che eravamo qui io non lo sapevo allora non siete venuto per cercarci no siamo venuti a cercarla signora in qual modo suo marito avrà potuto menarla con sé suo fratello doveva condurla via nella propria carrozza montespan l'ha saputo ed è riuscito ad attirarla invece nella sua che aspettava ad un'altra porta quando vivò si è accorto che ella non arrivava e che i suoi appartamenti erano vuoti ha indovinato ciò che era successo si era riconosciuto le armi di montespan sulla carrozza e il re mi ha ordinato di correre a porti yak con la mia truppa al più presto possibile voi sareste arrivato troppo tardi se un caso strano non ci avesse condotti qui non so davvero chi ne sia stato la causa ma ciò si chiarirà più tardi ora si tratta di sapere che cosa faremo noi io ho i miei ordini devo accompagnare la signora a pettiburg e tutti quelli che l'hanno maltrattata saranno tenuti prigionieri qui aspettando il beneplacito del re che confisca nello stesso tempo il castello nel quale io lascerò alcuni dei miei uomini ma voi decatinate non avete niente da fare adesso niente soltanto ho una gran voglia di recarmi a parigi per vedere ciò che è successo in casa di mio zio ah sì c'è una graziosa cugina laggiù nella strada san martino ebbene io vi ho fatto un favore portando il vostro messaggio vorrete fare altrettanto per me volentierissimo e dove a versailles il re è impaziente di sapere il risultato della nostra spedizione e tocca a voi a dirglielo poiché senza di voi e il vostro amico avremmo avuto una cattiva notizia da dargli in due ore sarò là avete dei cavalli i nostri sono stati uccisi ne troverete qui nelle scuderie prendete migliori poiché avete perduto i vostri al servizio del re il consiglio era buono decatinate chiamò amos green e andarono insieme nelle scuderie mentre de brissac dava l'ordine di disarmare i soldati di montespan e indicava il posto a ciascuno dei suoi uomini per guardare il castello e il suo proprietario un'ora dopo i due amici galoppavano sulla strada di versailles respirando a pieni polmoni l'aria del mattino che sembrava loro ancora più fresca dopo quella malsana che avevano respirato nella torre lontano dietro loro un piccolo pinnacolo scuro sporgente al di sopra di un boschetto di alberi indicava il castello che essi avevano lasciato mentre sull'estremo orizzonte allevante brillava una luce vivace della quale il sole nascente irradiava il magnifico palazzo che era la loro meta capitolo ventitresimo la caduta di decatinate due giorni dopo il mattino del re della signora de mentenon si tenne nella modesta camera di questa una riunione il risultato della quale doveva cagionare miserie indescrivibili a centinaia di migliaia di brava gente era venuto il tempo in cui la chiesa esigeva che la signora de mentenon mantenesse la promessa fatta le sue guance palli dei suoi occhi pieni di tristezza mostravano come erano stati vani i suoi sforzi per far tacere il suo cuore e resistere agli argomenti di quelli che la circondavano ella conosceva bene gli ugonotti di francia e chi poteva conoscerli meglio di lei che apparteneva ad una famiglia ugonotta ed era stata educata nella loro religione e la conosceva la loro pazienza la loro nobiltà la loro indipendenza la loro tenacia quale speranza c'era che potessero conformarsi al desiderio del re se la loro religione cessava di essere tollerata e se essi persistevano a restarvi fedeli avrebbero forse dovuto abbandonare la patria o risolversi ad accettare una vita peggiore della morte a manovrare sui vascelli del re o a lavorare al mantenimento delle strade della francia era un'alternativa terribile per una popolazione così numerosa che formava da sé sola una piccola nazione e la cosa più angosciosa per la signora de mentenon era il dover ella stessa a spingere il re contro i suoi poveri fratelli ella aveva dato la sua parola ed era venuto il tempo di mantenerla l'eloquente vescovo bossuet louvois il ministro della guerra e il famoso gesuita il padre l'ascese ciascuno prodigava gara argomenti sopra argomenti per vincere le esitazioni del re presso di loro stava in piedi un altro piccolo prete così scarno e pallido da credere che si fosse alzato allora dal letto di morte ma i suoi grandi occhi neri brillavano di una luce selvaggia i suoi denti stretti e le sopracciglia riunite indicavano in lui una risoluzione terribile e indomabile la signora de mentenon china sul suo lavoro trapungeva le sete senza pronunziare una parola mentre il re con la testa appoggiata sulla mano ascoltava come chissà l'inutilità di ogni resistenza certo di essere obbligato ad accettare la decisione presa sulla piccola tavola c'era un foglio di carta con l'inchiostro e la penna era l'ordine di rivocazione e non vi mancava che la firma del re per farne la legge del paese e così padre voi siete d'avviso che se io schiaccio l'eresia assicurerò la mia salvezza nell'altro mondo domandò il re avrete meritato una ricompensa è questa pure la vostra opinione monsignor vescovo certo sire e voi abate di shayla il piccolo prete prese la parola per la prima volta un vivo rossore salì alle sue guance pallide ed ebbe uno sguardo ancora più brillante nei suoi occhi incavati io non posso dirvi che la vostra salvezza sia certa sire bisognerebbe saperne più di quello che io so per affermarlo ma indubitabile è la vostra dannazione se non agite il re si alzò con collera e guardò il prete aggrottando le sopracciglia voi avete un modo di parlare al quale non sono abituato disse in un affare di questo genere sarebbe crudele lasciarvi nel dubbio e non parlarvi francamente vi ripeto che la salvezza della vostra anima in gioco l'eresia è un peccato mortale migliaia di eretici potrebbero volgersi alla chiesa se voi date la vostra parola e queste migliaia di peccatori dipendono da voi quale speranza per essi se voi non tornate sulla retta via mio padre mio nonno hanno tollerato gli eretici allora a meno che non abbiano avuto una grazia speciale da dio vostro padre vostro nonno bruciano in questo momento nelle fiamme dell'inferno insolente esclamò il re sire niente mi impedirà di dire ciò che è vero foste anche 50 volte re che cosa mi importa di un uomo quando so di parlare per il re dei re guardate sono queste le membra di chi ha paura di proclamare la verità con un brusco movimento rialzò le ampie maniche del suo abito e scoprì due braccia addirittura scheletrite le ossa ricoperte ed una pelle trasparente increspata e screpolata erano nodose come i rami degli alberi secchi lo stesso louvois l'uomo più duro della corte e gli altri due preti ebbero ribrezzo di quelle membra deformi egli le alzò di sopra della sua testa e volse gli occhi lustri verso il soffitto il cielo mi ha scelto prima d'oggi per testimoniare la fede esclamò egli mi avevano detto che ha bisognava del sangue per nutrire la giovane chiesa del siam ed io sono andato nel siam mi hanno aperto il corpo mi hanno crocifisso hanno disarticolato le mie ossa le hanno spaccate e mi hanno finalmente lasciato credendomi morto ma dio ha soffiato di nuovo in me il soffio della vita affinché io possa servire di aiuto in questa grande opera della rigenerazione della francia il re l'interruppe le vostre pene abate disse luigi vi danno ogni diritto sulla chiesa e su me che sono il suo speciale campione protettore che cosa consigliereste allora abate a proposito di quegli ugonotti che rifiutano di convertirsi essi si convertiranno esclamò de shayla con uno strano sorriso sulla faccia essi devono sottomettersi o perdersi che importa se verranno gettati nel fango quando noi potremo avere una sola chiesa in tutto il paese i suoi occhi profondi splendirono ferocemente e scosse con una stizza selvaggia le sue mani ossute la crudeltà con la quale siete stato trattato non vi ha dunque insegnato ad essere più pietoso verso gli altri riprese il re pietoso verso degli eretici no sire i miei dolori mi hanno insegnato che il mondo e la carne non sono nulla e che la più vera carità verso gli altri è di prendere la loro anima qualunque sia il rischio per il loro corpo vile io saprei redimere l'anima di questi ugonotti anche se dovessi fare della francia un immenso macello l'ardore selvaggio e le parole vehementi del prete avevano evidentemente fatto una profonda impressione su luigi egli nascose la testa fra le mani e restò qualche tempo immerso nelle sue riflessioni sire disse dolcemente il padre l'ascese non c'è bisogno di ricorrere alle misure violente di cui ha parlato il buon abate come vi ho già detto tutti i vostri sudditi hanno per voi un tale amore che la sola espressione del vostro desiderio basterà a ricondurre alla santa chiesa le pecorelle smarrite vorrei crederlo padre mio vorrei crederlo ma che cosa c'è il suo cameriere aveva aperta la porta il capitano decatenato è qui sire e chiede di vedervi immediatamente fatelo entrare disse e il suo volto si rischiarò come se una felice idea gli avesse attraversato la mente adesso vedremo fino a qual punto possiamo fare assegnamento sulla fezione dei miei sudditi il capitano delle guardie entrò e si fermò presso la porta con la mano alla fronte con tutta la tranquillità di un uomo a suo fatto a quel cerimoniale che notizia avete capitano sire il maggiore de brissac mi ha mandato a dirvi che egli ha occupato con le sue guardie il castello di portillac che la signora è sana e salva e che suo marito è vostro prigioniero luigi e sua moglie si scambiarono un rapido sguardo di sollievo va bene disse gli a proposito capitano voi mi avete servito in diverse occasioni da qualche tempo e sempre con buon successo mi si dice l'uvoa che la sal è morto di vaiuolo morì ieri sire allora vi prego di dare quel posto vacante al signor decatinat lasciatemi essere il primo a congratularmi con voi della vostra promozione maggiore decatinat baciò la mano che il re gli tendeva possa io mostrarmi degno della vostra bontà sire voi farete tutto per servirmi non è vero la mia vita è vostra sire va bene allora metterò subito a prova la vostra fedeltà io sono pronto per qualunque prova non sarà molto dura voi vedete questo foglio di carta sulla tavola è un ordine che tutti gli ugonotti del mio regno dovranno abbandonare la loro religione sotto pena di essere esiliati o imprigionati ora io spero che molti dei miei sudditi fedeli che sono in errore su questo punto vi rinunzieranno sapendo che io ne ho chiaramente espresso il desiderio sarebbe una gran gioia per me di vedere che non mi sono ingannato nelle mie speranze poiché sarebbe per me un immenso dolore l'usare la forza contro un francese mi ascoltate sì sire il giovane era divenuto mortalmente pallido egli aveva affrontato la morte una dozzina di volte ma mai si era sentito nel cuore una tale commozione voi pure siete ugonotto se non mi sbaglio sarei felice da prendere dalle vostre stesse labbra che anche in questo caso vi siete affrettato a obbedire agli ordini del re come sempre il giovane ufficiale esitava non per alcuna intima incertezza ma per il significato stesso di quello che doveva dire egli sentiva che la fortuna gli toglieva in un istante tutto ciò che gli aveva dato nel passato il re aggrottò le sopracciglia le sue dita battevano impazientemente la tavola mentre guardava l'ufficiale che stava davanti a lui con la testa bassa perché riflettersi lungamente domandò egli voglio innalzarvi ancora di più quando si portano le spalline di maggiore a 30 anni si può ben sperare di essere maresciallo a 50 ho fatto il vostro passato farò il vostro avvenire che cosa potete domandare di più niente sire all'infuori del vostro servizio perché questo silenzio allora perché non mi date la certezza che domando non posso sire non potete è impossibile io perderei la mia tranquillità di spirito il rispetto di me stesso se sapessi di aver abbandonato la religione dei miei padri per conservare la mia posizione o conquistare la ricchezza siete pazzo da una parte avete tutto ciò che un uomo può desiderare che avete dall'altra il mio onore è dunque un disonore abbracciare la mia religione sarebbe un disonore per me abbracciarla senza credervi col solo scopo dell'interesse ebbene credeteci ahimè sire un uomo non è padrone della sua credenza la fede è una ingenita virtù che non si può avere a volontà in fede mia padre disse luigi con un sorriso pieno d'amarezza volgendosi al suo confessore bisognerà andare a cercare dei cadetti per la mia casa nel vostro seminario poiché i miei ufficiali si fanno teologi e casisti dunque per l'ultima volta rifiutate voi d'obbedirmi o sire protestò decatinato avanzandosi con le braccia tese e gli occhi pieni di lacrime ma il re l'arrestò con un gesto non ho bisogno di proteste disse io giudico un uomo dai suoi atti rifiutati sì o no non posso sire vedete disse luigi volgendosi di nuovo verso il gesuita non sarà tanto facile come credete quest'uomo è ostinato è vero ma gli altri cederanno più facilmente il re scosse la testa vorrei sapere ciò che debbo fare disse signora io sono certo che voi mi darete un buon consiglio avete inteso tutto ciò che è stato detto che cosa mi consigliate ella non alzò gli occhi dal suo lavoro ma rispose con voce chiara e ferma voi stesso avete dichiarato di essere il figlio primogenito della chiesa ora se il figlio diserta che cosa faranno gli altri ed è vero ciò che ha detto l'abate voi mettete in gioco la vostra anima se tollerate questo peccato d'eresia ci sono delle regioni in francia disse bossuet nelle quali si può viaggiare un giorno intero senza vedere una chiesa e dove tutti dei nobili e più miseri appartengono alla maledetta religione come per esempio nelle seven dove gli abitanti sono rudi come le loro montagne dio protegge i preti che dovranno ricondurre simile gente sulla retta via chi potremo mandare per una missione così pericolosa l'abate di shayla tese subito le sue mani scarnite dicendo me sì re me mandate me io non vi ho mai domandato nessun favore ne ve ne domanderò mai ma io sono l'uomo capace di piegare quella gente dio protegge il popolo delle seven mormorò luigi gettando sul volto emaciato e gli occhi scintillanti del fanatico uno sguardo misto di rispetto e di disgusto va bene abate aggiunse a voce alta voi andrete nelle seven forse in quell'istante il selvaggio prete ebbe il presentimento di quella mattina in cui accasciato in un cantuccio della sua casa incendiata 50 pugnali ruppero inferociti contro il suo corpo si nascose la testa fra le mani e un tremito lo scosse in tutta la persona poi si rialzò e incrociando le braccia ritornò la sua attitudine impassibile luigi prese la penna e attirò il foglio vicino a sé siete dunque tutti del medesimo pensiero disse gli voi arcivescovo voi padre mio voi signora voi abate e voi luvoa se faccio del male che dio me ne faccia scontare la pena ma che cosa c'è di nuovo decatinat aveva mosso un passo in avanti con le mani tese la sua natura ardente e impetuosa li fece ad un tratto dimenticare di essere un umile suddito vide davanti a sé una folla innumerevole di uomini di donne di fanciulli della sua stessa religione tutti incapaci di dire una parola per difendersi e volgendo gli occhi verso il re esclamò non firmate sire non firmate voi vivreste per desiderare che la vostra mano si fosse disseccata prima di aver preso cotesta penna io lo so sire ne son certo pensate a tanta gente senza difesa ai bambini alle giovanetti e i vecchi e i deboli la loro fede la loro vita sarebbe lo stesso che domandare alle foglie di cambiare il ramo sul quale crescono essi non cambieranno la loro credenza tutto ciò che voi potrete sperare sarà di trasformare degli uomini onesti in ipocriti e perché lo fareste essi vi rispettano vi amano non fanno male a nessuno sono orgogliosi di servirvi di lavorare per voi per la grandezza e la gloria del vostro regno ve ne supplico sire riflettete prima di firmare un ordine che porterà la miseria e la desolazione fra tanta gente il re aveva ascoltato senza muoversi la ringa del soldato in difesa dei suoi correligionari e restò un momento incerto ma i suoi lineamenti si indurirono nuovamente quando si ricordò di essere stato egli stesso impotente a vincere l'ostinazione di quel giovane la religione della francia deve essere quella del suo re disse egli e se i miei ufficiali rifiutano d'obbedirmi io ne troverò di più fedeli voi louvoa darete il brevetto di maggiore al capitano di belmont va bene sire e l'ufficio del signor decatinat potrà essere trasferito al luogotenente labadoier va bene sire mi scacciate dal vostro servizio io voglio al mio servizio uomini più obbedienti le braccia di decatinat caddero inerti lungo il corpo e la testa si abbassò sul petto poi quando comprese la rovina di tutte le speranze della sua vita e la crudele ingiustizia con la quale era stato trattato mandò un grido di disperazione e si precipitò fuori della stanza col viso inondato di lacrime si recò subito alla scuderia dove il placido amo screen stava fumando la sua pipa mentre osservava i cavalli con occhio di conoscitore che cosa c'è di nuovo domandò egli togliendosi la pipa dalla bocca e lanciando in alto una nuvola di fumo questa spada esclamò il soldato io non ho più il diritto di portarla e la spezzo ebbene io spezzerò anche il mio coltello se ciò può farvi piacere e rendervi un po di calma e anche queste aggiunse decatinat strappando le sue spalline d'argento bisogna toglierle amos cominciava a sgomentarsi andiamo amico ditemi le vostre pene e guardiamo di trovare un rimedio a parigi a parigi esclamò il soldato io sono perduto ma posso forse giungere ancora in tempo per salvarli i cavalli presto l'americano comprese che era avvenuta una subitanea calamità e aiutò il suo compagno i palafrenieri a sellare i cavalli un'ora dopo circa si fermarono davanti all'alta casa frontoni della via san martino decatinat saltò a terra e si slanciò per le scale mentre amos lo seguiva senza abbandonare la sua calma ordinaria il vecchio ugonotto e la sua bella figliola erano seduti da una parte del caminetto essi si alzarono con lo stesso slancio la giovanetta per gettarsi con un grido di gioia nelle braccia del fidanzato il vecchio per stringere la mano a suo nipote dall'altra parte della stufa era seduto un uomo dalla fisionomia strana con la barba i capelli grigi un gran naso prominente e due piccoli occhi chiari e vivaci che brillavano sotto delle enormi sopracciglia teneva in bocca una pipa e su di un vassoio accanto a lui era posata una bottiglia di vino il suo volto lungo e magro era solcato di rughe che si stendevano a forma di ventaglio agli angoli degli occhi e la pelle aveva il colore di una vecchia noce portava una giacchetta turchina e dei larghi pantaloni rossi macchiati di catrame sui ginocchi delle calze di lana grigie e delle grosse scarpe le cui punte quadrate erano ornate di grandi fibbie d'acciaio in un cantuccio vicino a lui un cappello con un gallone d'argento sbiadito su un bastone di quercia de catenat era troppo preoccupato per osservare quel personaggio singolare ma amos green mandò un grido di gioia scorgendolo e gli corse incontro la faccia abbronzata sorrise tanto da mostrare una fila di denti anneriti dal tabacco e senza alzarsi avanzò una gran mano rossa della forma e della grandezza ad una pala di media dimensione e capitano efraim esclamò amos in inglese chi avrebbe immaginato di trovarci qui catenat ecco il mio vecchio amico il capitano efraim che mi ha condotto in francia ci siamo ormeggiati giovanotto disse lo straniero con quella voce languida che gli abitanti della nuova inghilterra avevano ereditata dai loro antenati i puritani inglesi e quando farete vela appena avrete messo il piede sul ponte se la provvidenza ci manda vento e marea e voi amos che cosa avete fatto tutto va bene ho molte cose da raccontarvi spero che vi sarete tenuto lontano dalla loro diavoleria cattolica sì sì efraim e non avete avvicinato nessuna donnina no no ma che cosa avete adesso i bianchi capelli del vecchio si erano rizzati dalla rabbia e i piccoli occhi grigi scintillarono sotto il folto ciuffo amos seguendo il loro sguardo vide che de catenat era seduto col braccio intorno alla vita di adele che appoggiava la testa sulla spalla di lui ah si è mai visto una simile cosa andiamo andiamo efraim certo che anche da noi si possono vedere simili cose senza trovarvi nessun male mai amos in nessun paese devoto zitto ho visto molte persone farsi la corte a new york ah new york ma io ho detto in nessun paese devoto non posso rispondere per new york o virginia sono sicuro che a boston o a salem non si vedono davvero e scosse la testa guardando la coppia colpevole mentre i due uomini continuavano la loro conversazione in inglese de catenat raccontava brevemente ai suoi tutto ciò che era successo il suo rinvio dal servizio del re e l'ingiusta legge promulgata contro gli ugonotti di francia adele con l'istinto angelico della donna non si preoccupava che del suo fidanzato e delle disgrazie che la salivano ma il vecchio vacillò quando seppe la revocazione dell'editto e restò tutto tremante guardandosi intorno con gli occhi smarriti che sarà di me disse che sarà di me io sono troppo vecchio per ricominciare la vita non temete zio disse de catenat ci sono altri paesi oltre la francia ma non per me no no io sono troppo vecchio che fare dove andare e si torceva le braccia dalla disperazione ma che cosa è successo amos domandò il marinaio io non intendo ciò che essi dicono ma vedo che egli ha innalzata la bandiera d'allarme lui e i suoi sono obbligati ad abbandonare il paese e frame e perché perché sono protestanti e il re non vuol tollerare la loro religione e frame lavage s'avanzò subito verso il vecchio cui strinse la mano magra con le sue grosse dita ossute c'era in questa rude stretta una simpatia fraterna che sollevò il coraggio del vecchio mercante come nessuna parola avrebbe potuto farlo dite a quest'uomo amos che io lo porterò lontano di qui fece egli rivolgendosi al suo compatriotta ditegli che noi abitiamo un paese dove egli vivrà tranquillo dove tutti praticano liberamente la loro religione dove bisogna andare fino a baltimora per trovare dei papalini ditegli che se vuol venire il golden rod attende con l'ancora a fondo il suo carico a bordo diteli ciò che vi parrà ma che si risolva allora è meglio partir subito disse decatinat quando amos gli ebbe tradotto le parole del vecchio l'ordine verrà promulgato stasera e domani sarebbe forse troppo tardi ma i miei affari disse il mercante prendete tutto ciò che avete di prezioso e lasciate il resto val meglio perdere una parte che il tutto e la libertà va avanti alle ricchezze la partenza fu così decisa la sera stessa cinque minuti prima della chiusura delle porte un gruppo di cinque persone tre a cavallo e due in una vettura chiusa uscita a parigi erano le prime foglie travolte dall'uragano i primi di quei fuggitivi che si dovevano vedere nei mesi successivi su tutte le strade di francia affrettantisi verso le frontiere in numero sufficiente per trasformare l'industria e modificare il carattere dei popoli vicini come gli israeliti di un tempo essi erano stati cacciati dalle loro case dietro il comando di un re irato che anche dopo averli esiliati attraversava di mille ostacoli il loro cammino e come costoro non c'era nessuno fra questi che potesse sperare di raggiungere la terra promessa senza un penoso viaggio se privo di denari e di amici noi però possiamo seguire questo piccolo gruppo di amici nel loro avventuroso viaggio e vedere la sorte che toccò loro in quel gran continente restato incolto per così lungo tempo seminato soltanto col cattivo germe dell'umanità ma che andava adesso finalmente animandosi di una vita veramente gloriosa parte seconda nel nuovo mondo capitolo primo la partenza del golden road i fuggiaschi avevano potuto precedere la notizia della revocazione dell'editto grazie alla loro pronta risoluzione quando verso lo spuntar del giorno passarono dall'uvier videro un cadavere nudo sopra un mucchio di letame ed una guardia notturna disse loro che quello era il corpo di un ugonotto morto impenitente ma un avvenimento così insignificante non poteva recar nessun cambiamento nella legge a ruen tutto era tranquillo e la sera stessa e frame lavage imbarcò i suoi amici e quel poco che si avevano potuto salvare a bordo del suo golden road era un piccolo battello di 70 tonnellate al più ma offriva un rifugio giudicato sufficiente in tempi nei quali tanta gente si avventurava in mare con delle semplici barche preferendo affrontare la collera dell'oceano piuttosto che quella del re tosto che ebbe salpato il golden road si abbandonò alla corrente del fiume concludeva poco la luna non era piena e soffiava un buon grecaletto ma il fiume torceva serpeggiava e talmente in certi punti girava che pareva di navigare indietro piuttosto che in avanti nei tratti diritti si alzava la maestra e si correva ma per lo più era necessario calare le lance e rimorchiare il battello faticosamente allora tomlinson di salem pilota e sei rudi marinari della nuova inghilterra sudando maledettamente sotto i loro cappelloni di palma affannavano sui remi amos green decatinat e anche il vecchio mercante ebbero il loro compito quando si accorsero che i marinai abbisognavano di un aiuto tosto che apparvero i primi raggi del sole le rive si allontanarono da ogni parte e frame lavage aspirò la brezza marina e si mise a misurare a gran passi il ponte il vento era quasi cessato ma soffiava abbastanza per navigare dolcemente dov'è la ragazza e gli domandò è nella mia cabina disse amos green ho pensato che un po di riposo le avrebbe giovato dove dormirete voi allora via via uno stretto pagliericcio e un lenzuolo di scorza di legno sono stati sufficienti per me durante tanti anni che cosa potrei domandare di meglio di questo soffice ponte di abete bianco e della mia coperta da viaggio va bene il vecchio il suo nipote possono andare nei due vani sotto stiva ma voi dovete parlare a quel giovinotto amos io non voglio scandali a bordo non intimità né nascondigli né sciocchezze avete capito è stato un peccato dover partire così all'improvviso altrimenti essi sarebbero già stati sposi ella è una buona ragazza e frame ed egli è un gentiluomo per quanto i loro costumi siano completamente differenti dai nostri non sembrano prendere la vita così sul serio come noi e forse godono di più non ho mai sentito dire che noi siamo venuti in questo mondo per godere disse il vecchio puritano scuotendo la testa la valle dell'ombra della morte non mi sembra adattata per un campo di divertimento noi siamo in questa vita soltanto per perfezionarci ed essendo cattivi fin dalla nostra nascita abbiamo abbastanza da fare per emendarci senza bisogno di occuparci anche del piacere mi sembra che il bene e il male sia tutto mescolato qui disse amos come il grasso e il magro in un insaccato di porco ammirate la natura guardate il cielo e l'acqua e come tutto è bello molte volte stando seduto nel bosco a fumare la mia pipa io gustavo la bontà del tabacco e contemplavo estatico la bellezza di tutto ciò che mi circondava sentendo nel mio cuore che dio aveva creato tutto per renderci la vita più felice voi amos avete troppo pensato nel bosco disse efraim lavage guardandolo fissamente non date troppa vela alla vostra nave e non abbiate troppa fiducia nella vostra sapienza ma che cos'è il vecchio mercante non mi sembra tranquillo infatti costui era sempre stato appoggiato al baluardo guardando con la faccia triste e gli occhi stanchi il solco che la prua lasciava dietro di sé e che cava quanto si fossero allontanati da parigi adele era tornata su in coperta senza far conoscere i timori e le inquietudini che sentiva nel suo cuore prese fra le sue mani quelle fredde del vecchio per riscaldarle e gli bisbigliò all'orecchio dolci parole d'affetto e di conforto noi siamo sempre nelle mani di dio mormorò egli ma è una cosa terribile adele sentire la stretta delle sue dita venite con me zio disse decatinat passando il braccio sotto quello del vecchio è molto tempo che non riposate e voi adele ve ne prego andate a dormire mia cara il viaggio è stato assai penoso andate per farmi piacere e quando vi risveglierete la francia e le vostre pene saranno molto lontane da voi subito che il padre e la figlia ebbero lasciato il ponte decatinata si diresse verso la poppa dove si trovavano amos green e il capitano sono felice che essi siano scesi da basso amos disse gli poiché temo che avremo da incontrare molte difficoltà perché vedete quella strada bianca che costeggia la riva destra del fiume da una mezz'ora circa ho già scorto due volte alcuni cavalieri correre di galoppo sui loro cavalli e si andavano verso quella città che si vede laggiù con i campanili a punta quella città è un flair non possono essere che dei messaggeri del re per galoppare così guardate eccone un terzo sulla linea bianca che serpeggiava attraverso le verdi praterie si poteva distinguere infatti un punto nero che si muoveva con rapidità spariva dietro un bosco d'alberi e riappariva di nuovo correndo nella direzione della città il capitano lavage prese il suo cannocchiale e lo diresse verso il cavaliere sì sì disse egli dopo una certa osservazione è un soldato non c'è dubbio vedo l'uccichio della spada che porta a sinistra credo che presto si solleverà un po di vento e così noi potremo mostrare le nostre spalle a qualsiasi bastimento nelle acque francesi ma una cannoniera e un vascello armato ci avrebbero bentosto raggiunti decatinat benché parlasse poco l'inglese aveva però imparato in america a comprenderlo abbastanza bene e guardando ansiosamente amos green disse io temo di cagionare delle noie immense a questo coraggioso capitano e dubito che la perdita del suo bastimento e del suo carico sarà la ricompensa di averci accolti così amichevolmente domandategli se non credesse più opportuno farci sbarcare alla riva destra laggiù a tramontana col nostro denaro potremmo arrivare fino ai paesi bassi efraim lavage guardò il suo passeggero con gli occhi pieni di pietà e disse giovanotto mi accorgo che comprendete quello che dico vi avverto allora che quando io mi sono messo in testa di fare una cosa la faccio tutti quelli che hanno navigato con me potrebbero dirvelo io stringo la barra del mio timone e seguo la mia strada dritta per quanto tempo piace a dio avete capito decatinat accennò di sì benché in verità la metafora del marinaio gli avesse lasciato un senso molto vago della sua opinione noi passeremo attraverso quella città continuò il capitano fra dieci minuti sapremo se avremo qualche cosa da temere ma mentre andiamo avanti voglio raccontarvi una storia che vi dimostrerà quale specie di uomo vi abbia imbarcati io parlo di vent'anni fa quando navigavo sullo speedwell un brigantino mercantile di 60 tonnellate e stavo fra boston e jamestown trasportando al mezzogiorno arnesi e pelli e ritornando con tabacco in gran quantità una notte soffiavo un vento fresco di mezzogiorno e noi ci affrettavamo ad ammainare le vele due miglia levante del capo mei a un tratto cademmo in mare dopo aver tentato di risalire nel vascello la mattina ero ancora nell'acqua aggrappato a una tavola galleggiante ma avevo fame sete ed ero stanco quando a cinque passi da me vidi un gran pesce lungo come la tavola sulla quale ero aggrappato vi assicuro che non sarebbe stata una cosa piacevole per voi trovarvi con le gambe nell'acqua e con una simile bestia pronta a mordervi le dita dei piedi mio dio esclamò il soldato francese e non vi ha mangiato efraim lavage sorrise pensando a quel giorno io mangiai lui disse che cosa esclamò amos è un fatto vero io avevo in tasca un coltello come questo cominciai a tirar calci per tenere intanto il mostro lontano poi tagliai la tavola fino a che l'ebbi ridotta punta acuta da una parte allora cessai di tirar calci e lo aspettai e lì infatti mi venne incontro appena mi fu vicino gli avventai la tavola nella bocca e gli gettai il coltello nel ventre e gli tentò di spezzare la tavola coi denti ma io continuai a conficcargliela con quanta forza avevo in gola finché non riuscì a forargli in diversi punti il ventre e poi ebbene pochi momenti dopo era già morto allora gli avvolsi alla coda un nodo scorsoio servendomi di un po di corda che era attaccata alla tavola stessa e dopo molti sforzi riuscì a raggiungere il battello con la mia preda conquistata così coraggiosamente sapete poi che cosa feci me lo mangiai in una settimana bevendo soltanto la pioggia che cadeva sul mio vestito e terminato che lo ebbi ero divenuto così grasso da non poter più salire sugli alberi del brigantino ecco di che cosa è capace e frame lavage amico mio mentre il vecchio marinaio raccontava la storia rievocando le sue reminiscenze non aveva osservato il cielo che si era coperto ad agio ad agio di dense nuvole e il capitano le seguiva adesso con un'espressione negli occhi con l'aria di chi cerca mentalmente la soluzione di un problema difficile si trovavano in faccia don flair circa ad un miglio di distanza dalla costa alcuni bastimenti e diversi brigantini erano ancorati nel porto e un'intera flotta di barche da pesca vogava per arrivare presto alla diga del resto tutto era calmo sulla riva al di sopra della quale sventolava la bandiera bianca coi gigli d'oro i fuggiaschi si erano avvicinati almeno di un quarto di miglio al piccolo forte ed avevano virato di bordo il vento marino li spingeva vivamente verso il largo decatinat dalla parte posteriore del naviglio esaminava la terra e cominciava già a pensare che i suoi timori fossero senza fondamento quando a un tratto vide qualche cosa che glieli fece rinascere ancora più forti una gran barca nera veniva dalla parte del molo manovrata da dieci paia di remi che facevano un cerchio di schiuma intorno ad essa una piccola bandiera bianca sventolava dalla parte di poppa e i raggi del sole facevano riflettere il rame di una pesante carronata posta sul davanti era una cannoniera carica di uomini e dallo scintillio che si mandavano così illuminati dal sole si poteva argomentare che fossero armati fino ai denti il capitano diresse il cannocchiale sul battello e allungò le labbra scuotendo la testa poi guardò nuovamente le nuvole sono trenta uomini disse che percorrono tre nodi mentre noi ne percorriamo due voi signore toglietevi quell'abito turchino ci arrecherete delle noie dio veglierà sui suoi se essi sapranno aiutarsi un poco anche da sé aprite questi boccaporti tomlinson va bene dove sono john sturt e iran jefferson che si tengano pronti a richiuderli ad un mio fischio la barra tribordo e avanti a tutta forza adesso amos e voi tomlinson venite qui ho da dirvi una parola i tre uomini restarono indietro a parlare fra loro voltandosi di tanto in tanto per gettare un'occhiata ai loro persecutori che li avrebbero presto raggiunti di già si potevano distinguere i volti dei soldati seduti a poppa e il fuoco dell'esca che il cannoniere teneva in mano olà gridò un ufficiale e aggiunse in buon inglese fermate o tiriamo ma chi siete voi e che cosa volete esclamò efraim lavage con una voce che si sarebbe udita dalla riva noi veniamo in nome del re per cercare un gruppo di ugonotti che si sono imbarcati a rouen sulla vostra nave abbassate la vela di trinchetto e fermate comandò il capitano una scala d'arriva adesso è presto così eccoci pronti per riceverli la manovra fu eseguita e il vascello restò immobile alzandosi abbassandosi sull'onda la cannoniera venne a porsi lungo la riva col cannone di bronzo appuntato sul nostro vascello e i soldati col dito appoggiato sul grilletto dei loro moschetti pronti a far fuoco essi alzarono le spalle sorridendo quando videro che i loro avversari erano soltanto tre uomini senza armi l'ufficiale un giovane con i baffi radi come quelli di un gatto si arrampicò vivamente sul ponte con la spada in mano montate con me voi due comandò voi sergente restate là in cima alla scala e legatela a quel gancio voi altri in basso tenete gli occhi ben aperti e tenetevi pronti a far fuoco voi caporale lemoine venite con me chi è il capitano di questa barca sono io disse Efraim lavage con un tono di sottomissione voi avete tre ugonotti a bordo tre ugonotti io non lo so ho visto che avevano fretta di partire e dal momento che essi pagavano il loro tragitto non mi sono occupato d'altro c'è un vecchio la sua figliuola e un giovane della vostra età con una specie di livrea in uniforme l'uniforme delle guardie del re sono proprio quelli che cerchiamo e volete condurli con voi certamente povera gente me ne dispiace per loro anche a me ma gli ordini sono ordini ed io debbo eseguirli capisco ebbene il vecchio è giù e dorme nella sua cabina la giovinetta eppure in un'altra il giovane coricato là nella stiva dove siamo stati obbligati a metterlo non essendoci posto altrove coricato avete detto il meglio che possiamo fare è di prenderlo senza che se ne accorga ma credete di poterlo fare da solo egli è disarmato è vero ma all'aspetto di un giovane vigoroso sarà necessario far salire una ventina dei vostri uomini l'ufficiale riflette un istante ma l'osservazione del capitano aveva ferito il suo amor proprio venite con me caporale disse gli scendete la scala e andate dritto davanti a voi egli è là fra due balle di panno disse Efraim Lavage con un sorriso di scherno agli angoli della bocca il vento soffiava adesso fra il corbame e le sardie vibravano come le corde di un'arpa Amos Green trascuratamente andò a mettersi accanto al sergente francese che custodiva la scala mentre Tomlinson il pilota con un secchio d'acqua in mano scambiava qualche parola in cattivo francese con l'equipaggio della cannoniera l'ufficiale scese con precauzione la scala che conduceva alla stiva seguito dal caporale la cui testa si trovava proprio a livello del ponte quando l'altro aveva raggiunto l'ultimo scalino scorse egli qualcosa sul viso di Efraim Lavage o ebbe paura di trovarsi nell'oscurità il fatto è che un dubbio gli attraversò la mente risalite caporale gridò egli risalite è meglio che restiate su e io credo che sia meglio star giù disse il puritano che comprese il gesto dell'ufficiale e dando un calcio nel petto del soldato lo fece ruzzolare con la scala sull'ufficiale contemporaneamente detta il suo fischio d'allarme e in un istante il boccaporto fu rimesso a posto e solidamente assicurato con delle sbarre di ferro il sergente si era voltato vivamente al rumore che aveva fatto il boccaporto ricadendo ma Amos Green che lo teneva d'occhio lo prese di peso e lo gettò in mare nello stesso momento un colpo di scure tagliò la gomena la vela fu rimessa al posto e un secchio d'acqua salata inondò il cannoniere spengendo così la sua esca e infradiciando le armi una grandine di palle fischiò attraverso il corbame del barco ma senza fargli nessun male perché era impossibile ai soldati di prendere di mira il battello così mosso dalla maretta il brigantino filava adesso spinto da un buon vento che gonfiava le sue vele la cannonata fece fuoco finalmente e cinque piccoli fori nella vela mostrarono come essi avessero mirato troppo in alto un secondo colpo non arrivò nemmeno al legno e mezz'ora dopo un piccolo punto nero all'orizzonte era tutto quello che si poteva scorgere della cannoniera di Honflair la bassa costa della Normandia a poco a poco scomparve completamente il golden road era in pieno mare il capitano Efraim Lavage passeggiava sempre sul ponte col volto più cupo del solito ma un raggio di soddisfazione brillava nei suoi occhi io sapevo che il signore avrebbe vegliato sui suoi disse gli con un tono soddisfatto siamo assai lontani adesso e non troveremo più un pezzo di terra fra noi e le tre colline di boston voi dovete esser sazio dei vini francesi amos scendete e gustate un po della vera birra di boston capitolo secondo prime vittime per due giorni il golden road restò fermo per la troppa bonaccia presso il capo la agne la mattina del terzo giorno però un buon vento si alzò dal levante e presto la terra non fu più che una vaga linea che si confondeva con le nuvole accumulate all'orizzonte liberi adesso sul vasto oceano con la brezza marina sul volto cominciavano a respirare e a credere di lasciare per sempre dietro a sé ogni traccia del proprio paese io ho paura per mio padre a morì disse adele mentre essi stavano insieme appoggiati contro il bastingaggio con gli occhi fissi all'orizzonte sulla piccola macchia che indicava la terra di francia che essi non dovevano più rivedere ma egli è fuori pericolo adesso è al riparo dalle leggi crudeli ma io temo che non vedrà mai la terra promessa che cosa volete dire adele mio zio è forte pieno di salute o a morì il suo cuore aveva le radici nella via san martino alla sua età non si resiste più ai dolori dell'esilio parigi e i suoi affari erano il suo mondo ma egli si abituerà alla sua nuova vita dio voglia ma temo che sia troppo vecchio per sopportare un simile cambiamento lo credo colpito al cuore resta per delle ore intere a guardare dalla parte della francia e le lacrime li scorrono sulle gote i suoi capelli ancora grigi la scorsa settimana sono adesso tutti bianchi anche decatinat aveva osservato che il corpo robusto del vecchio ugonotto si era curvato che le rughe diventavano più profonde sul viso severo e che la testa gli cadeva più pesantemente sul petto egli si affrettava però a calmare i timori di adele dicendole che la traversata lo rimetterebbe quando la giovinetta mandò un grido di sorpresa tendendo il dito verso un punto del mare dalla parte di poppa era così bella in quell'istante coi suoi neri capelli leggermente mossi dal vento con un lieve rosore sulle pallide guance per l'eccitazione che egli rimase statico a guardarla tutto compreso della grazia e della dolcezza di lei guardate esclamò ella c'è qualche cosa che galleggia laggiù egli guardò nella direzione che adele indicava ma sul principio non vide niente nello stesso tempo però amos green aveva seguito la direzione del braccio della giovinetta ed aveva cercato ciò che attirava la sua attenzione capitano e frame gridò egli c'è un canotto laggiù il marinaio inglese prese il cannocchiale e guardò con attenzione sì disse egli è un canotto ma è vuoto deve venire dalla costa è molto facilmente stato trascinato alla deriva mettete la barra al vento signor tomlinson ho appunto bisogno di una barca un minuto dopo il golden road aveva virato di bordo e correva verso il punto nero che continuava a galleggiare sulle onde quando furono più vicini poterano scorgere qualche cosa che pendeva dalle tavole è una testa d'uomo esclamò amos green io credo disse e frame lavage dando un'occhiata severa ad amos che fareste meglio a far scendere la giovinetta nella sua cabina in mezzo ad un silenzio solenne avvicinarono al canotto il battello era una piccola barca troppo larga per la sua lunghezza e così chiata da essere stata costruita evidentemente per la navigazione nei fiumi sotto i banchi giacevano tre persone un uomo vestito come un artigiano rispettabile una donna appartenente alla medesima classe e un bambino di circa un anno la barca era piena d'acqua fino a metà il fanciullo e la donna volgevano la faccia al fondo l'uomo supino col viso terrio il mento volto verso il cielo gli occhi bianchi dalla bocca spalancata mostrava la lingua cartocciata come una foglia secca da prua rannicchiato su se stesso tenendo un remo nella mano increspata stava un omiciatolo vestito di nero la sua testa riposava su un libro aperto una delle sue gambe si drizzava stecchita al di sopra delle tavole col calcagno a contrasto dello scalmo tale era lo strano gruppo sballottato dalle larghe onde verdi dell'oceano atlantico il golden road mise la lancia in mare e i disgraziati naufraghi furono ben presto trasportati sul ponte non si trovò la minima traccia di viveri né nessun altro oggetto all'infuori del remo e della bibbia aperta sulla quale posava la testa dell'omiciatolo vestito di nero l'uomo la donna il fanciullo erano già morti da un giorno almeno e dopo le consuete preghiere furono gettati in mare da principio pareva che anche l'omiciatolo vestito di nero fosse morto ma amos si accorse di un debole battito del cuore allora lo avvolsero in una coperta calda e lo distesero al piede dell'albero della nave poi li introdussero a forza in gola alcune gocce di rum e si misero a stropicciarlo vigorosamente finché la debole scintilla di vita che era ancora in lui si rianimò durante questo tempo e fra in lavage aveva fatto salire sul ponte i due prigionieri di on fleur essi erano molto abbattuti quando uscirono dalla loro prigione e rividero dopo tanto tempo la luce del giorno voi mi scuserete capitano disse il marinaio ma capite bene bisognava che vi portassi via con me o che mi lasciassi portar via da voi ora siccome sono aspettato dall'altra parte della costa laggiù a boston io non potevo perdere tempo per la strada l'ufficiale alzò le spalle non rispose che cosa preferite proseguì efraim venire con noi in america o ritornare in francia ritornare in francia se riesco a ritrovare la mia strada o bisogna che ritorni in francia non fosse che per dire una parola a quell'idiota di cannoniere egli ha fatto tutto quello che ha potuto ma gli abbiamo gettato un secchio d'acqua sulla miccia e sulla polvere allora capirete ma ecco la francia laggiù guardate la vedo la vedo ah se vi potessi essere c'è un canotto qui potete prenderlo mio dio che felicità caporale lemoine venite partiamo subito aspettate si è mai visto un uomo imbarcarsi così signor tomlinson mettete in quel canotto un barile d'acqua con una scatola di conserve e un pacchetto di biscotti iran jefferson portate due remi andrete assai velocemente con questo vento all'asco ma non potrete essere là prima di domani sera se il tempo continua così i due francesi furono ben presto provvisti di tutto ciò che era loro necessario e si spinsero verso il largo salutati dalle grida di buon viaggio la vela di trinchetto fu rimessa al posto e il golden road volse il suo buon presso verso l'ovest per parecchie ore poterono scorgere il canotto galleggiante sulle onde ma esso scomparve a poco a poco e con lui scomparve l'ultimo anello della catena che li univa al mondo che essi lasciavano dietro di sé durante questo tempo l'uomo adagiato contro l'albero della nave aveva mosso le palpebre e aprendo gli occhi guardava intorno a sé con una certa dignità e autorità il vecchio catenat si avanzò vivamente e inginocchiandosi appoggiò la testa del naufrago sul suo braccio è uno dei fedeli esclamò è uno dei nostri pastori il signore invia la sua benedizione sul nostro viaggio ma l'uomo sorrise dolcemente scosse la testa io temo di non fare questo viaggio con voi poiché il signore mi chiama per un viaggio più lontano al quale sono pronto sono infatti il pastore del tempio di segni e quando ho appreso l'ordine del cattivo re mi sono imbarcato con due fedeli sperando di raggiungere l'inghilterra ma subito il primo giorno un'ondata portò via uno dei nostri remi e tutto ciò che era nella barca il nostro pane il nostro barile d'acqua non ci rimase che la speranza in dio e allora egli chiamò a sé l'uno dopo l'altro prima il bambino poi la donna e poi l'uomo io restai ma sento che le mie ore sono contate e poiché voi pure siete fedeli posso io esservi utile prima di morire il mercante scosse la testa ma ad un tratto un pensiero li attraversò la mente e col volto raggiante di gioia corse verso amos e gli disse qualche parola all'orecchio amos sorrise e si diresse verso il capitano è tempo disse efraim lavage rigidamente allora fu chiamato decatinat appena gli ebbero partecipato la loro idea il giovanotto diede manifesti segni di gioia e corse a trovare adele nella sua cabina la ragazza tra salì e arrossì abbassando il volto commosso ma il suo cuore esultava e siccome c'era poco tempo da perdere e sul solitario mare si offriva l'uomo che poteva effettuare i loro progetti da tanto tempo accarezzati il giovane dal cuore coraggioso e la donna dal cuore puro si inginocchiarono davanti al pastore moribondo che alzò il braccio scarno per benedirli e mormorò debolmente le sacre parole che dovevano unirli per sempre spesso adele nei suoi sogni di giovinetta si era vista inginocchiata presso all'altare con amorì nel tempio di via san martino mai le era passato per la mente che un giorno si sarebbe sposata così in mezzo al mare la scena aveva di che impressionare tutti coloro che erano presenti gli alberi della nave ingialliti le vele gonfie il luogo tanto volubile quanto singolare la faccia emaciata e le labbra smorte dell'ufficiante i lineamenti serie malinconici del vecchio mercante che inginocchiato sosteneva il pastore moribondo decatinata nella sua uniforme turchina giallogore immacchiata il capitano lavage col viso duro rivolto verso le nubi e amos green con le mani in tasca e un raggio di gioia negli occhi celesti dietro loro infine la lunga figura di tomlinson e il piccolo gruppo dei marinai della nuova inghilterra con i loro visi gravi e abbronzati e i loro cappelli di foglie di palma appena la commovente cerimonia fu terminata decatinata e la giovine sposa sederono insieme presso le sartie scorrendo con gli occhi la distesa interminabile delle verdi onde tutto è così strano e così nuovo disse adele e il nostro avvenire sembra così vago e così scuro come queste nuvole che si addensano davanti a noi se ciò dipende da me rispose egli il vostro avvenire sarà gaio e brillante come il sole che il paese che ci ha scacciati è lontano da noi ma c'è dall'altra parte un altro paese più bello a cui ogni soffio di vento ci avvicina sempre più la libertà ci aspetta là e noi portiamo laggiù la nostra giovinezza e il nostro amore che cosa vogliamo di più così essi continuarono a parlare mentre il sole ad agio ad agio scendeva dietro la linea dell'orizzonte la notte si avvicinava e le stelle comparivano nel cielo al di sopra delle loro teste ma avanti che fossero scomparse di nuovo il piccolo pastore disigni aveva trovato il riposo eterno a bordo del golden road capitolo terzo l'ultimo porto per tre settimane il vento si mantenne a levante o a maestrale soffiando fresco e qualche volta anche quasi furiosamente il golden road procedeva gaiamente con tutte le vele spiegate di modo che verso la fine della terza settimana amos ed efraim lavage contavano i minuti che li dividevano ancora dal loro paese per il vecchio marinaio abituato a lasciarlo e a cosa meno importante ma amos che non se n'era mai allontanato fino allora non poteva contenere la sua impazienza egli restava per lunghe ore seduto sul ponte con la pipa in bocca e gli occhi fissi davanti a sé sulla linea del cielo non è bene amico disse il capitano efraim posando la sua grossa mano sulla spalla di amos pensar tanto al proprio paese quando siamo in mare è un sentimento che non si può reprimere rispose amos ed io provo ora qualche cosa che non ho mai provato lo credo riprese efraim io sono stato nell'acqua da che ho capelli in capo e nei porti più commerciali sempre molto lontano eccetto i due anni che rimasi a terra per gli affari del re filippo non mi sono distaccato dall'acqua salata di un palmo e posso dirvi che non ho mai conosciuto un miglior tragitto di quello che riconduce in patria quello che mi pare strano è che voi troviate il vostro cammino così facilmente senza mai niente che vi guidi sarei molto imbarazzato a efraim a trovare l'america siamo già lontani da tramontana amos da circa 15 giorni abbiamo visto il capo la agne e secondo i miei conti domani toccheremo terra ah domani e che cosa ci sarà il monte desert il capo code la lunga islanda no no noi siamo nella latitudine di san lorenzo ma con un vento come questo basterà un giorno per conducere al mezzogiorno o due al più ancora pochi di questi viaggi e potrò comprarmi una casettina in green lane a tramontana di boston da dove io possa veder la baia contemplare il mare e scorgere i bastimenti andare e venire così finirò la mia vita in pace ogni giorno amos nonostante l'ammonimento del suo amico continuava a guardare fisso verso la parte da dove fra non molto tempo avrebbe visto apparire il suo paese decatinate adele erano occupati a preparare tutte le cose per il vecchio che essendo divenuto molto debole non poteva quasi far più niente da se stesso intanto le notti divenivano molto fredde e avvenne che una sera dopo il tramonto del sole il golden road fu sorpreso da una densa nebbia gialla frequente in quei paraggi essa divenne così densa che a bordo si poteva appena scorgere il trinchetto i pennoni e la vela triangolare erano addirittura invisibili il vento veniva da maestrale il brigantino piegava sotto l'impeto del vento fin quasi a toccare l'acqua col bordo il pilota si inquietava sul ponte e i suoi quattro compagni tremavano rincantucciati sotto il bastingaggio tutto ad un tratto uno di loro si alzò in piedi e mandò un grido tendendo l'indice in aria mentre un enorme muro bianco sortiva improvvisamente dall'oscurità all'estremità del bonpresso nel medesimo istante il bastimento dette una scossa terribile rompendo di netto i due alberi come fossero state due canne secche cospargendo il ponte di un miscuglio di cordami di tela e di frantumi di legno poco mancò che il pilota non restasse ucciso per la caduta dell'albero maestro mentre i due dei suoi uomini erano precipitati da un boccaporto e un terzo si era fracassata la testa contro la patta dell'ancora tomlinson si alzò e corse verso la parte più lesa del bastimento dove un marinaio tentava di liberarsi con gli occhi sbalorditi dal mezzo di un ammasso di vele a brandelli e di pezzi di legno era un buio fitto come dentro un forno e intorno alla barca non si distingueva che la schiuma bianca delle onde il pilota guardava con disperazione intorno a sé tutto quell'ammasso di rovine quando voltandosi si trovò a faccia col capitano e frame lavage mezzo vestito ma sempre calmo e impassibile un iceberg disse gli annusando l'aria ghiacciata non l'avete sentito amico tomlinson ho sentito sia un gran freddo ma lo attribuivo alla nebbia queste montagne galleggianti di ghiaccio sono sempre circondate da nebbia e il signore soltanto nella sua saggezza sa quel che fa già che esse sono molto pericolose per i poveri marinai l'acqua sale a vista d'occhio signor tomlinson la prua comincia già ad affondare il resto dell'equipaggio era salito rapidamente sul ponte e uno dei marinai disponeva le pompe ci sono tre piedi d'acqua esclamò egli e ieri sera le pompe erano asciutte iran jefferson e john morton alle pompe gridò il capitano signor tomlinson sciogliete la lancia e guardate se può servire benché io tema che abbia sofferto nel colpo la lancia grande a due panche sfondate gridò un marinaio il piccolo canotto allora è in tre pezzi il pilota si strappava i capelli ma e frame lavage sorrise come fosse divertito dal ricordo di una coincidenza dov'è amos green eccomi capitano e frame che cosa posso fare e io gridò la voce di decatinat adele suo padre erano stati avvolti di grosse coperte e messi al riparo dal vento dite ai marinai di manovrare alle pompe disse il capitano ad amos in quanto a voi prendete una lanterna e guardate se vi riesce di accomodare la lancia per una mezz'ora amos green picchiò segò e ristoppò mentre le pompe manovravano con un rumore secco e regolare lentamente molto lentamente la prua del brigantino si affondava mentre la poppa si alzava ebbene amo se questa lancia domandò il capitano con voce calma non avete che poco tempo può galleggiare adesso benché non sia del tutto rattoppata va bene mettetele in mare signor tomlinson imbarcate dentro tutto ciò che potrà contenere di provviste venite con me iran jefferson il marinaio il capitano si discesero nella lancia e si avviarono a prua il capitano scosse la testa quando vide la gravità dell'avaria tagliate la vela di trinchetto e fatela passare qui tomlinson ed amos green eseguirono quell'ordine quale altezza d'acqua c'è nelle pompe domandò efraim lavage cinque piedi e mezzo allora il battello è perduto continuate a pompare avete voi tutte le provvigioni signor tomlinson sono pronte capitano passatele qui la barca non galleggerà che per un'ora o due non vedete la montagna di ghiaccio la nebbia si alza a tribordo dietro gridò uno degli uomini sì ecco la montagna di ghiaccio a un quarto di miglio sotto vento la nebbia si era dissipata ad un tratto e la luna brillò di nuovo sul mare solitario e sugli avanzi di quel naufragio vicino a loro come una grande vela bianca si drizzava l'enorme blocco di ghiaccio contro il quale il battello si era spezzato muovendosi lentamente alla mercè delle onde bisogna raggiungerla disse il capitano efraim è la sola speranza di salvezza fate scendere la signora e suo padre nella lancia prima di tutto dite loro di star calmi amos e che dio ci protegga così adesso mettete il barile la cassa e tutto ciò che troverete via imbarchiamoci tutti è tempo quando tutti furono al loro posto il capitano efraim prese una corda che pendeva dal bastimento ed un salto fu a bordo ritornò con un pacco di vestiti che gettò nella lancia allargo comandò venite giù allora efraim lavage va a fondo col suo battello disse gli tranquillamente amico tomlinson non è la mia abitudine di ripetere un ordine due volte allargo il pilota scostò la piccola imbarcazione puntandosi contro le tavole del barco amos e decatinat mandarono un grido di terrore ma i marinai presero i loro remi e navigarono verso la montagna di ghiaccio amos amos potete permettere ciò gridò decatinat il mio onore non mi permette di lasciarlo morire sarebbe un rimorso per tutta la vita tomlinson voi non l'abbandonerete andate a bordo e costringetelo a venire via non c'è nessuno al mondo capace di forzarlo a fare ciò che non vuole ma può cambiare intenzione egli non cambia mai intenzione ma non potete lasciarlo così voi dovete almeno restare nelle vicinanze e raccoglierlo la lancia fa acqua come uno staccio disse il pilota io voglio prima condurla alla montagna di ghiaccio così se potremo sbarcare vi lascerò là e tornerò a riprendere il capitano un po di forza amici miei più presto arriveremo più presto potrò tornare indietro ma non avevano fatto 50 braccia che adele mandò un grido mio dio il bastimento affonda il brigantino infatti sommergendosi sempre più ad un tratto con un rumore di tavole che si spezzano aveva affondato la prua nell'acqua come un uccello di mare quando si tuffa mandò un lungo rumore di risucchio e disparve sotto le onde con un movimento brusco la lancia virò di bordo e ritornò indietro con quanta forza fu possibile a quei bravi marinai ma tutto era tranquillo e calmo sul luogo del disastro non restava nemmeno un frammento del vascello naufragato per indicare dove il golden road aveva trovato il suo ultimo porto essi restarono un lungo quarto d'ora a guardare da tutte le parti sotto il chiaro di luna ma non poterono scorgere la minima traccia del capitano puritano finalmente risolvettero di riprendere il cammino verso il loro triste rifugio silenziosi e col cuore oppresso il blocco di ghiaccio era la sola speranza che restasse loro poiché l'acqua inondava sempre più la lancia mentre si avvicinavano videro con terrore che la parte in faccia loro era un muro di ghiaccio di 60 piedi di altezza senza una spaccatura dove poter posare il piede la montagna di ghiaccio formava un enorme blocco di circa 50 passi di lunghezza da ogni lato essi speravano però che la parte opposta sarebbe stata più accessibile levando sempre l'acqua dalla lancia girarono l'angolo ma si trovarono di nuovo davanti ad un'altra scogliera di ghiaccio continuarono a girare era sempre lo stesso muro a picco non restava che una sola parte da esplorare ed essi sapevano che la loro vita dipendeva da quel risultato poiché anche la lancia affondava ad agio ad agio uscirono dall'ombra per entrare nella luce della luna rischiarante uno spettacolo che nessuno di essi avrebbe mai potuto dimenticare il muro che si drizzava davanti a loro era pure a picco e le mille faccette del ghiaccio scintillavano sotto la luce argentina della luna nel centro però a livello dell'acqua c'era un'enorme screpolatura che indicava il luogo dove il golden road frangendosi aveva staccato un grosso blocco e preparato così al prezzo della sua rovina un rifugio per quelli che portava gli spigoli dentellati di quella caverna erano d'un verde smeraldo la cui tinta andava oscurandosi fino al turchino per finire in un foro scuro ma non fu la bellezza di quella grotta né la sicurezza di trovare un rifugio che portò un grido di gioia su tutte le labbra i naufragati avevano scorto seduto su una punta di ghiaccio e fumando tranquillamente la sua pipa il capitano efraim lavage in persona per un momento credettero fosse la sua ombra tuttavia il suono della sua voce dimostrò loro che era proprio lui ma di pessimo umore amico tomlinson disse gli quando vi dico di andare verso una montagna di ghiaccio io intendo che vi andiate direttamente senza divertirvi a passeggiare sull'oceano non è colpa vostra se non sono gelato e ciò sarebbe accaduto se non avesse avuto per riscaldarmi un po di tabacco secco e un acciarino senza fermarsi per rispondere ai rimproveri del suo capitano il pilota accostò l'orlo della montagna di ghiaccio dove il brigantino aveva formato una specie di piattaforma in pendio sulla quale essi incalzarono la lancia il capitano lavage prese i suoi vestiti asciutti disparve nel fondo della caverna e riapparve ben presto più riscaldato e più di buon umore furono prese dalla lancia le coperte e fu aperta la cassetta dei biscotti noi siamo stati in pena per voi efraim disse amus green ed io avevo il cuore grosso pensando che non avrei più potuto rivedervi dovreste conoscermi meglio amus ma come avete fatto a venire qui io credevo che foste stato trascinato al fondo dal risucchio del naviglio è il terzo battello col quale vado a fondo ma non è ancora riuscito a nessuno di tenermi giù intanto sono io pure molto contento di rivedervi poiché temevo che la scialuppa fosse affondata e adesso che cosa faremo prendete cotesta vela e formate un ricovero per la signora dopo ceneremo e dormiremo come meglio potremo non c'è niente da fare per questa notte e ce ne sarà invece molto domani mattina capitolo quarto l'isola galleggiante amus green fu svegliato al mattino da una mano che si posava sulla sua spalla e balzando in piedi trovò de catinat rito davanti a lui i naufraghi aggruppati intorno alla scialuppa erano immersi in un profondo sonno dopo le fatiche della notte i primi fulgori del sole apparivano proprio al di sopra della linea dell'acqua ed era uno scintillio scarlatto e giallo su tutto il mare azzurro e nella grotta mai nessun palazzo di fata fu più magnifico di quel rifugio ondeggiante ma né amos né de catinat avevano il tempo di indugiarsi nella novità e nella bellezza di quello spettacolo il volto del francese era grave e il suo amico l'essere inquietudine nei suoi occhi che cosa c'è dunque domandò la montagna di ghiaccio se ne va a pezzi andiamo via se è solida come un'isola l'ho esaminata guardate quella fesso in fondo alla grotta due ore fa potevo appena introdurvi il dito adesso potrei passarci benissimo vi dico che il blocco si divide in due amos si diresse verso il fondo della caverna e vide come diceva il suo amico una larga fessura che si prolungava nella massa del blocco prodotta probabilmente dal colpo delle onde o dall'urto terribile del bastimento egli svegliò il capitano efrain e gli mostrò il pericolo noi siamo perduti se non abbiamo un'uscita d'acqua nel nostro scafo disse questi la montagna si scioglie più presto di quello che avrei creduto videro allora che i muri di ghiaccio i quali sotto la luce della luna sembravano perfettamente compatti erano in realtà striati di profonde fessure dalle quali l'acqua penetrava continuamente l'enorme massa era solcata di piccoli canali e si poteva benissimo udire il rumore dell'acqua che gocciolava e scorreva nell'oceano ehi gridò amos che cosa c'è che cosa c'è non avete udito niente no potrei giurare di aver udito chiamare impossibile noi siamo tutti qui il capitano efrain si mise la mano al di sopra degli occhi ed esaminò l'oceano il vento era completamente caduto adesso e il mare si stendeva all'infinito senza nessun'altra cosa visibile all'occhio se non che una grande mole nera galleggiante presso il luogo dove il golden road era sparito dobbiamo essere sul passaggio di qualche nave disse il capitano parlando a se stesso ci sono dei pescatori di merluzzo ma noi siamo troppo a mezzogiorno per loro non dobbiamo però essere a più di 200 miglia da port royal in arcadia e siamo sulla strada dei battelli di commercio del saint laurent se avessi qui tre pini di montagna amos e un centinaio di piedi di tela collocherei lassù un albero con una vela capace di portarci diritti diritti nella baia di boston ma che cosa c'è amos il giovane americano tendeva l'orecchio con la testa china in avanti gli occhi fissi come un uomo che cerca di distinguere un suono e lì stava per rispondere quando decatenate mandò un grido e tese il dito verso il fondo della grotta guardate la fessura adesso essa pariva allargata al punto che non era più fessura ma un vero corridoio attraversiamola disse il capitano non potremo andare che dall'altra parte andiamoci non di meno e lì passò il primo e gli altri due lo seguirono a forza di sdrucciolare e di inciampare finirono col raggiungere l'altra facciata della montagna galleggiante e si trovarono su una specie di piattaforma qualche passo al di sopra dell'acqua il lavoro di disgregazione della montagna di ghiaccio si era fatto molto più presto di quello che essi avevano supposto e la fessura del ghiaccio aveva formato una successione di piani irregolari fino alla cima essi salirono quegli scalini e qualche minuto dopo erano ad una sessantina di piedi sopra il livello del mare da dove potevano abbracciare una vista di una cinquantina di miglia ma in tutta questa distesa non videro che il riflesso del sole sulle onde il capitano e frame fischiò fra i denti non abbiamo fortuna disse amos green guardava da ogni parte non ci capisco niente mi era proprio sembrato ma ascoltate gli squilli vibranti di una marcia militare risuonarono nell'aria del mattino con un grido di sorpresa i tre uomini si gettarono col mentre a terra e sporsero il collo al di sopra del precipizio un gran vascello era appunto a qualche metro dal piede della montagna essi potevano scorgere tutta la lunghezza del suo ponte la fila dei cannoni risplendenti nel sole e gli uomini dell'equipaggio che andavano e venivano una piccola squadra di soldati di marina faceva gli esercizi sulla parte posteriore della nave ed era l'appello venuto di là che aveva fatto trasalire i naufraghi le grida che partirono dal vascello sotto di loro fecero capire che i naufraghi pure erano stati scorti senza perdere un momento scivolarono di scabrosità in scabrosità lungo il pendio e si precipitarono nella grotta dove anche i loro compagni erano stati sorpresi alla metà della triste colazione da quel suono di trombe in un minuto la lancia fu rimessa in mare e caricata di tutto ciò che essi possedevano dopo una gagliarda remata essi ebbero oltrepassato una delle punte della montagna di ghiaccio e si trovarono sotto la poppa di una bella corvetta il cui padiglione bianco era cosparso di gigli dorati di francia alcuni istanti dopo la loro lancia era tirata a bordo ed essi si trovarono sul ponte del san cristoforo nave della marina reale trasportante il marchese di déonville nuovo governatore generale del canadà alla sua sede capitolo quinto nella baia di quebec il san cristoforo aveva lasciato la rochelle tre settimane avanti in compagnia di qualche altra barca da guerra trasportando 500 soldati destinati a rinforzare le guarnigioni sul san lorenzo la piccola flotta navigò di consenso per qualche giorno ma i due legni si erano separati in seguito al cattivo tempo il san cristoforo aveva a bordo una compagnia del reggimento di quersi gli ufficiali di bordo saint valier il nuovo vescovo del canadà e il suo seguito tre padri francescani e cinque gesuiti destinati alla fatale missione degli rochesi una mezza dozzina di signore che andavano a raggiungere i loro mariti due suore orsoline dieci o dodici giovanotti che l'amore delle avventure attirava al di là dei mari e infine una ventina di ragazze dell'arion venute con la certezza di trovare marito grazie a qualche metro di tela e a qualche oggetto d'uso che formavano la dote che il re regalava alle sue umili pupille introdurre in una simile società un gruppo di indipendenti della nuova inghilterra un puritano di boston e tre ugonotti di francia era in verità avvicinare una fiaccola ad un barile di polvere però ognuno era così occupato di sé che quasi nessuno notò i naufraghi 30 soldati si erano ammalati di febbre e così i preti come le monache avevano abbastanza da fare con essi deonville il governatore era un piccolo uomo magro ex ufficiale dei dragoni che passeggiava tutto il giorno sul ponte leggendo i salmi di david e passava la metà delle sue notti con delle carte distese sotto gli occhi a studiare i mezzi di distruggere gli irochesi che corrodevano la sua provincia i giovani e le signore stavano corteggiandosi le ragazze sbirciavano i soldati di quersi e il vescovo saint valier leggeva l'uffizio faceva delle conferenze al suo clero l'inghilterra e la francia erano in pace in quel momento benché i rapporti fossero alquanto tesi fra il canadà e new york credendo i francesi e non senza ragione che fossero gli inglesi che lanciavano contro di loro i demoni di cui essi dovevano ad ogni istante respingere gli urti e frame e i suoi uomini furono dunque accolti amichevolmente a bordo del vascello ma questo era così ingombro di gente che essi ebbero a trovarsi un posto da se stessi come meglio poterono i decatinat avevano ricevuto una migliore accoglienza perché lo stato di debolezza del vecchio e la bellezza della sua figliuola avevano suscitato l'interesse del governatore l'ufficiale durante il viaggio aveva cambiato la sua uniforme in un abito di colore scuro di modo che niente in lui indicava un profugo dell'esercito salvo forse il suo portamento militare il vecchio decatinat era adesso così debole da non poter nemmeno rispondere alle domande che gli si faceva sua figlia non lo lasciava mai e in quanto al soldato l'abitudine della corte l'aveva reso sufficientemente diplomatico per saper dire molte cose senza parlare così il loro segreto fu ben custodito il giorno dopo a quello in cui erano stati raccolti essi riconobbero il capo breton a mezzogiorno e filando rapidamente sotto un buon grecale passarono a largo della punta orientale d'anticosti poi entrarono nell'estuario del fiume san lorenzo di cui distinguevano appena di qua e di là alla riva su quella destra la più prossima essi scorsero la gola selvaggia del saguenai e il fumo che si elevava dalle capanne che formavano il piccolo stabilimento da pesca di tatusac in mezzo ad un bosco di pini alcuni indiani nudi in piedi nelle loro piroghe di scorza il viso imbrattato d'argilla rossa circondarono la nave offrendo delle frutta e dei legumi freschi accolti con gioia dai soldati continuando il loro cammino videro il capo della tormenta costeggiarono poi le ricche praterie della signoria di bopre alla val e dopo aver passato l'isola d'orlean apparve loro la striscia del fiume con le cascate di montmorency le stecconate del capo levis e a dritta la famosa rocca col suo diadema di torri e il suo paese ammucchiato alla base centro fortezza della potenza francese in america il cannone tuonò dai bastioni la nave da guerra rispose con le sue cannonate le bandiere salirono e discesero lungo gli alberi e uno sciame di canotti e di piroghe si staccò dalla costa per ricevere il nuovo governatore e trasportare a terra i passeggeri e i soldati il vecchio mercante era peggiorato di giorno in giorno da quando aveva abbandonato la francia le peripezie del naufragio e le angosce della notte passata sulla montagna di ghiaccio avevano finito col togliergli quelle poche forze che ancora gli restavano ma il rumore dei cannoni aprì gli occhi e si sollevò penosamente sul suo guanciale che cosa avete babbo domandò adele che cosa possiamo fare per voi siamo in america adesso ed ecco qui i vostri figli amorì e adele ma il vecchio scosse la testa il signore mi ha condotto fino alla terra promessa disse gli ma non ha voluto che vi entrassi che la sua volontà sia fatta e che il suo nome sia sempre benedetto ma io vorrei almeno come mosè vederla questa terra se non posso mettervi il piede amorì datemi il braccio e conducetemi sul ponte alcuni minuti dopo il vecchio mercante era seduto su un rotolo di cordami col dorso appoggiato all'albero attraverso la folla dei passeggeri egli contemplò il paesaggio continentale disse questo non rassomiglia alla francia non è verde calmo sorridente come lei è una terra nuova innocente che non ha nessun delitto da far dimenticare non lotte non peccati una terra che non ha conosciuto il male e a mano a mano che gli anni passano tutti miserabili senza patria e senza tetto tutti coloro che sono esposti alle persecuzioni all'ingiustizia nel loro paese si volgeranno a questa terra come abbiamo fatto noi io vedo una nazione potente una nazione che si darà per compito di innalzare gli umili piuttosto che esaltare i ricchi che comprenderà la gloria piuttosto nella pace che nella guerra che non si confinerà strettamente nei limiti delle sue frontiere e il cui cuore si associerà a tutte le nobili cause del mondo intero la sua testa si era chinata poco a poco sul petto e le sue palpebre si erano chiuse pesantemente ad ele mandò un grido e gettò le braccia intorno al collo del vecchio e li muore amorì e li muore un padre francescano dal volto duro che stava dicendo il rosario a pochi passi di distanza dal gruppo udì quel grido e si avvicinò prontamente egli muore infatti disse egli guardando il vecchio il cui volto aveva acquistato un colore cenerognolo li furono somministrati i sacramenti domandò poi non credo ne abbia bisogno rispose evasivamente decatinato chi di noi non ne ha bisogno disse il prete severamente e come un uomo può sperare la sua salvezza senza di essi io glieli amministrerò subito ma il vecchio ugonotto aveva riaperto gli occhi e con un ultimo sforzo respinse l'uomo incappucciato di grigio che si chinava su lui ho abbandonato tutto ciò che amavo per non cedere a voi esclamò e adesso credete di vincermi il francescano indietreggiò ad un passo ah disse egli siete ugonotto allora zitto non fate discussioni davanti ad un morente disse decatinato con voce non meno severa di quella del prete davanti ad un morto disse amos solennemente infatti il volto del vecchio si era addolcito le mille rughe che lo solcavano erano sparite come se una mano invisibile vi fosse passata sopra e la testa era ricaduta contro l'albero adele restò immobile con le braccia sempre intorno al collo di suo padre e la guancia appoggiata alla spalla di lui e la era svenuta decatinato prese la sposa nelle braccia e la portò nella cabina di una delle signore che aveva loro mostrato una certa simpatia la morte non era una cosa nuova sul battello poiché dieci soldati erano morti durante la traversata di modo che poche persone si curarono del pellegrino che aveva raggiunto il termine del suo soggiorno mortale tanto più che si era sparsa la voce che si trattava di un ugonotto fu dato subito l'ordine di calarlo nell'acqua e l'ultimo che ebbe ad occuparsi di teofilo catinat fu l'acconciatore di vele che l'avvolse nella tradizionale fascia di tela la cosa fu molto differente però rispetto a coloro che sopravvissero quando tutti i soldati furono sbarcati essi vennero chiamati sul ponte e un ufficiale comunicò loro la decisione presa dal governatore egli era un uomo tarchiato dal viso rosso e apparentemente buono e di un umore allegro ma decatinato si sentì preso da una prensione quando lo vide avanzarsi sul ponte insieme al padre francescano col quale parlava a voce bassa c'era sul volto del frate un sorriso malvagio che non faceva presagire niente di buono per gli eretici si vedrà buon padre si vedrà diceva l'ufficiale con un tono di impazienza rispondendo ad un'ingiunzione del frate anch'io come voi sono uno zerante servitore della chiesa poi indirizzandosi al gruppo e parlando in inglese domandò chiede voi il capitano lavage e frame lavage di boston e il signor amos green amos green di new york e il signor tomlinson john tomlinson di salem e i marinai iram jefferson joseph cooper segre spaulding e paul cascin tutti di massachusetts presenti l'ordine del governatore è che tutti coloro che ho nominati verranno trasbordati immediatamente sul brigantino di commercio speranza quel legno dipinto di bianco che è ancorato laggiù partirà fra un'ora per le province inglesi un mormorio di gioia scoppiò fra i marinai al pensiero di rivedere così presto la loro patria e si sparpagliarono in fretta per raccogliere quel poco che avevano potuto salvare dal naufragio l'ufficiale si mise la lista in tasca e si avanzò verso decatinato che stava appoggiato al bastingaggio voi vi ricordate certamente di me disse gli io non potrei dimenticare la vostra figura benché abbiate cambiato l'uniforme turchina in un abito scuro da semplice borghese decatinato strinse la mano che gli era stata tesa sì io mi ricordo di voi don vil e del viaggio che facemmo insieme al forte frontenac ma non stava a me a richiedere la vostra amicizia ora che la fortuna mi ha abbandonato andiamo andiamo mio caro quando un uomo è stato mio amico una volta lo è per sempre temevo d'altronde che il riconoscermi fosse per voi più male che bene avendo alle costole quell'uomo incappucciato di grigio che straluna gli occhi laggiù dietro a voi voi sapete a qual punto sono le cose con noi qui con i sulpizi a montreal e i gesuiti qui noi poveri diavoli siamo fra l'incudine il martello sono dolentissimo di dover fare una simile accoglienza ad un vecchio amico e ancor più a sua moglie e che cosa vogliono dunque fare voi sarete trattenuto prigioniero a bordo fino a che la nave partirà e ciò avverrà fra una settimana al più e poi sarete ricondotto in francia e consegnato al governatore della rochelle che vi rimanderà a parigi tali sono gli ordini del signor denonville e se non verranno eseguiti alla lettera saremo puniti severamente decatinato mandò un'imprecazione dopo tutti i loro sforzi tutti gli ostacoli superati vedersi ricondotto a parigi oggetto di scherno per i nemici e di pietà per gli amici era un'umiliazione troppo profonda in verità soltanto questo pensiero lo fece arrossire di vergogna meglio slanciarsi nelle acque glauche del fiume che scorreva i suoi piedi ma c'era adele adele che non aveva che lui al mondo sarebbe stato vile indegno ad un uomo d'onore abbandonarla così bonville l'aveva lasciato con qualche parola di simpatia ma il frate continuava a passeggiare sul ponte e due soldati di sentinella passavano e ripassavano a pochi passi da lui col cuore spezzato si mise a guardare gli indiani tinti con le loro penne ficcate nelle capigliature nere e ogni tanto volgeva gli occhi dalla parte della città dove i frontoni torti e i muri anneriti delle case mostravano ancora gli effetti del terribile incendio che qualche anno avanti ne aveva distrutto tutta la parte bassa la sua attenzione fu ad un tratto attirata dal rumore cadenzato dei remi e proprio in quel momento un gran canotto pieno d'uomini passò sotto di lui aveva a bordo gli americani che dovevano essere trasportati sull'altro legno i quattro marinai erano seduti insieme a prua a poppa stavano il capitano efraim lavage e amos green il volto increspato del vecchio puritano si volse più di una volta verso decatinat ma non una parola non un gesto che significasse un addio al povero esiliato egli avrebbe tutto sopportato da parte dei suoi nemici ma a quell'abbandono da parte dei suoi amici dopo tutto quello che aveva sofferto gli sembrò addirittura insopportabile e lasciandosi cadere la testa fra le mani pianse come un fanciullo quando rialzò gli occhi scorse il brigantino speranza che con l'ancora alzata e tutte le vele spiegate partiva uscendo dalla baia di quebec capitolo sesto la voce misteriosa decatinat passò il giorno seguente sul ponte in mezzo al via vai dello scaricamento procurando di confortare la sua cara dele con parole che egli voleva rendere gaie ma che venivano da un cuore pieno di tristezza egli le indicava col dito tutti i luoghi che conosceva la cittadella dove era stato di guarnigione il collegio dei gesuiti la cattedrale del vescovo laval e la casa doberdi la cesnai la sola casa particolare che era restata in colume dopo l'incendio tutto il panorama della vita del canada si svolgeva davanti ai loro occhi lungo lo stretto sentiero costeggiato da palizzate che metteva in comunicazione le due parti della città i soldati con i cappelli sull'orecchio gli abitanti delle coste con i loro abiti grossolani simili a quelli dei loro antenati della normandia o della bretagna i giovani signori venuti dalla francia riconoscibili dai pesanti pennacchi e dal dondolarsi camminando alla moda di versailles si poteva scorgere anche dei piccoli gruppi di cacciatori di fiere di esploratori di boschi vestiti di cuoio con le ghette coi cappelli di pelliccia guarniti di penne d'aquila essi venivano nella città solamente una volta o due l'anno lasciando le mogli indiane e i fanciulli in qualche capanna c'erano anche dei pelli rosse dei selvaggi mikmaks del levante degli abenakis del mezzogiorno e mezzo a tutti si distinguevano gli abiti neri dei gesuiti le sottane scure e larghi cappelli dei francescani tale era il popolo che affollava le strade della capitale di quello strano germoglio di francia che era stato piantato lungo la riva di quel gran fiume a migliaia di leghe dal paese originale regione singolare che si estendeva per una lunghezza di circa 1200 miglia l'intera popolazione bianca di questo potente distretto inclusi soldati preti e guardaboschi con tutte le donne e i fanciulli ascendeva al numero di 20.000 anime e così grande era la loro energia e tali vantaggi del regime sotto il quale essi vivevano che si erano estesi sull'intero continente francesi a tramontana del distretto di british francesi a levante francesi al mezzogiorno insomma francesi da tutte le parti tutto questo decatenata spiegava alla sua adele che abituata alla calma della strada parigina guardava con stupore la città i boschi e le montagne e mandò un grido di terrore allorché una piroga stivata di halcon queen coperti di pelli di animali con dei volti a strisce bianche e rosse passò come una freccia davanti a loro facendo biancheggiare la schiuma sotto i remi poi nel tramonto il fiume si tinse di rosso la vecchia cittadella si fece più indistinta nel crepuscolo e i due esiliati discesero tristemente nella loro cabina qui vi si trovava uno sportello che decatenata lasciava aperto tutto il giorno per rinnovare l'aria pesante e calda che proveniva dalla cucina di bordo quella notte li fu impossibile dormire non faceva che rivoltarsi sotto la coperta pensando al modo di fuggire da quella maledetta barca ma ammettendo anche che fosse riuscito a fuggire con sua moglie dove sarebbero andati tutto il canadà era chiuso per loro gli stabilimenti inglesi avrebbero loro offerto è vero un rifugio però sarebbero essi sicuri di arrivarci se almeno amos green fosse restato fedele ma egli li aveva di già dimenticati del resto per qual ragione avrebbe agito altrimenti non era legato da nessun vincolo di sangue e la sua famiglia l'aspettava laggiù non pertanto decatenata non poteva credere a quell'indifferenza dell'amico continuava ad agitarsi con quelle dolorose dubbiezze quando ad un tratto un fischio modulato che dominava il rumore dell'acqua gli fece tendere l'orecchio forse era qualche barcaiolo o qualche indiano che passava lungo la riva nella sua piroga ma il fischio si fece udire nuovamente più imperativo dell'altra volta allora decatenata si alzò e guardò intorno a sé quel fischio sembrava venire dallo sportello aperto e lì vi mise la testa ma non vide niente all'infuori dell'acqua scura e in lontananza lo scintillio dei lumi della punta levis stava per ritornare sul suo giaciglio quando qualche cosa passò dall'apertura e andò a ruzzolare sul pavimento della cabina egli saltò a terra prese una lanterna attaccata ad un chiodo e dirigendo la luce sul pavimento scorse un oggetto che brillava lo raccattò e riconobbe un piccolo spillo d'oro decatenata trassalì alla vista di quel gioiello era il suo spillo che egli aveva dato ad amos green il giorno in cui erano andati insieme a versailles dunque un segnale amos non l'aveva abbandonato si vestì in fretta e salì sul ponte la notte era nera ed egli non poteva distinguere niente ma i passi regolari che si udivano da prua li provaron che le sentinelle vegliavano si chinò un poco e cercò di distinguere nell'oscurità dopo un istante scorse vagamente l'ombra di un canotto chi è là domandò qualcuno a voce bassa siete voi decatenata sì veniamo a prendervi dio vi benedica amos vostra moglie costi no ma vado a svegliarla va bene ma prima prendete questa funicella adesso tirate sulla scala decatenata prese la funicella che gli veniva lanciata e tirando la se si accorse che era attaccata ad una scala di corta munita di due ganci la mise al posto e scese dolcemente nella parte della barca destinata alle signore siccome non c'era lì nessuna sorveglianza potè pervenire facilmente presso sua moglie alla quale in poche parole spiegò la situazione in meno di dieci minuti Adele fu vestita e dopo aver fatto un piccolo pacchetto di quello che aveva di prezioso uscì dalla cabina andarono insieme sul ponte e si diressero con precauzione verso la parte da dove pendeva la scala vi erano quasi arrivati quando decatenata si arrestò improvvisamente mandando una bestemmia fra loro la scala si drizzava l'imponente figura del padre francescano non c'era da esitare spingendo Adele da una parte decatenata si slanciò sul prete lo prese per la gola in quel movimento il cappuccio cadde all'indietro e invece dei lineamenti rigidi del frate decatenate riconobbe alla luce diffusa ad una delle lanterne di bordo i piccoli occhi grigi e il volto increspato di Ephraim Lavage nello stesso tempo apparve un'altra figura e il francese si trovò nelle braccia di Amos Green tutto va bene sussurrò il giovane esploratore svincolandosi dalla stretta del suo amico il frate è al sicuro nel canotto che si divincola egli ha voluto vedere ciò che succedeva mentre eravate a svegliare vostra moglie così imparerà ad immischiarsi nei fatti altrui vostra moglie qui eccola sbrighiamoci allora perché potrebbe sopraggiungere qualcuno Adele fu calata nella piroga di scorza i tre uomini staccarono la scala e scesero anch'essi per mezzo di una corda poi due indiani manovrando silenziosamente i remi si spinsero a largo e risalirono rapidamente la corrente un minuto dopo una massa scura dietro di loro in mezzo alla quale brillavano debolmente due piccoli punti gialli era tutto quello che essi potevano scorgere del san cristoforo prendete un remo Amos ed io ne prendo un altro disse il capitano Efraim Lavage togliendosi l'abito da monaco io mi sento più sicuro in questa piroga che sul ponte del bastimento credo che abbiamo fatto bene a far così disse Amos e spero signora che vi sentirete tranquilla adesso posso finalmente sapere che cosa è successo e dove siamo domandò Decatinat non pensavate che saremmo tornati a riprendervi non lo speravo ero fuori di me e credevate che potessimo lasciarvi senza una parola vi confesso che ciò mi aveva addolorato profondamente addolorato non volevamo tradirci se ci avessero visto parlare con voi avrebbero avuto dei sospetti e saremmo stati sorvegliati e come faceste per arrivare fino a noi io sapevo dove dormivate il frate avrebbe guastato tutto mentre eravate andato da vostra moglie ma noi lo prendemmo e lo gettammo nella piroga Efraim si vestì dei suoi abiti monastici cosicché poté facilmente aiutarvi senza pericolo ah ma è troppo bello essere liberi un'altra volta che cosa non vi debbo Amos mi aiuterete quando sarò nel vostro paese e dove andiamo adesso noi dobbiamo vogare come meglio possiamo con questa piroga per allontanarci più che sia possibile dalla cittadella di Quebec prima che spunti il giorno perché da quello che ho sentito dire essi tengono molto ad avere un ugonotto prigioniero corpo di bacco vorrei sapere perché non si lascia ad un uomo la scelta di salvare la sua anima come meglio crede se tutti fossero come il vecchio Efraim Lavage che cosa state dicendo di me domandò il capitano soltanto che voi siete un rigido e buon protestante sì grazie a dio il mio motto è libertà di coscienza se non che sopprimerei volentieri certe sette ridicole Amos Green sorrise l'onnipotente sembra passarci sopra passateci sopra anche voi disse egli ah siete giovani ancora e non sapete dovete vivere per ben conoscere ma non perdiamoci in chiacchiere che il tempo fugge tutta la notte remarono senza un minuto di riposo costeggiando la riva meridionale per evitare la forza della corrente essi avanzavano rapidamente poiché Lavage e Damos erano abituati dal lungo tempo a quell'esercizio e i due indiani lavoravano come se la loro vita stessa fosse in gioco un silenzio assoluto regnava sul fiume di tanto in tanto però veniva interrotto dal rumore che faceva l'acqua infrangendosi contro la prua del canotto o dal grido acuto delle volpi nei boschi quando finalmente apparve il giorno essi erano lontani dalla cittadella e da ogni traccia di abitazione umana le foreste vergini nel loro meraviglioso abbigliamento d'autunno scendevano fino alla riva del fiume che presentava in quel luogo un isolotto circondato da una duna di sabbia gialla e formato da un boschetto di folti alberi che mescolavano i ricchi colori del loro fogliame coi fiori smaglianti io sono già passato di qui disse Decatinat mi ricordo di aver fatto un segno sul tronco di quella zalea laggiù a sinistra l'ultima volta che andai col governatore a Montreal era il tempo di frontenac quando il re era il primo e il vescovo il secondo i pelli rosse che fino allora erano restati seduti sulle loro panche simili a delle statue di terracotta alzarono la testa nell'udire il nome di frontenac il mio fratello ha parlato del gran capo bianco disse uno di loro abbiamo sentito il fischio degli uccelli di cattivo augurio egli non passerà più il mare per ritornare verso i suoi figli ecco il gran padre bianco disse Decatinat l'ho visto io stesso nel suo consiglio ed egli ritornerà certamente se il suo popolo avrà bisogno di lui l'indiano scosse la testa rasa il mese dei calori è passato fratello mio disse egli in cattivo francese ma prima che la primavera sia ritornata non ci sarà più un uomo bianco lungo questa riviera coloro che resteranno staranno dietro muri di pietra come le volpi bloccate nelle loro tane perché noi ignoriamo ciò che è successo qui gli irochesi sono dunque in via di far guerra fratello mio essi hanno detto che mangeranno gli uros e dove sono gli urons adesso hanno voltato la loro faccia verso gli eries e dove sono gli eries sono andati a ponente contro gli illinois e chi potrebbe trovare oggi un villaggio illinese hanno alzato la scura e contro gli andastesi il loro nome è sparito dalla terra e adesso ballano e cantano cose che non presagiscono niente di buono per i miei fratelli bianchi dove sono essi dunque l'indiano abbracciò con un gesto della mano tutto l'orizzonte dal levante al e dove non sono essi sono numerosi come le foglie nei boschi e sono rapidi e terribili come il fuoco sull'erba secca delle praterie in fede mia disse decatinato se veramente questi demoni si sono scatenati i miei compatrioti avranno bisogno di chiamare il vecchio frontenac sì disse amos l'ho visto un giorno in cui fui condotto alla sua presenza con alcuni altri che avevano commerciato su ciò che egli chiamava alla terra francese la sua bocca era ermeticamente chiusa e ci guardava come se avesse avuto voglia di fulminarci mi sono accorto che era un capo ed un uomo coraggioso era un nemico della chiesa e l'occhio dritto del demonio in questo paese disse una voce dal fondo del canotto il frate era riuscito a liberarsi della cintura con la quale i due americani l'avevano imbavagliato piegato su se stesso guardava il piccolo gruppo con due occhi neri scintillanti di rabbia si è allargato la museruola disse il marinaio vado a rimettergliela al posto perché condurlo ancora più lontano disse amos è un peso di più da portare e non trovo che la sua compagnia possa esserci utile in alcun modo sbarchiamolo sarà meglio sì là in mezzo e poi nuoti o affoghi gridò il vecchio efrain con entusiasmo no sulla riva per ritrovarlo davanti a noi con le uniformi turchine che egli sarà andato a prevenire sull'isola allora benissimo potrà chiamare i suoi amici quando passeranno così dicendo diressero la barca verso l'isola e deposero a terra il monaco che non disse niente ma lanciò loro uno sguardo di maledizione gli lasciarono una piccola provvigione di biscotti e di farina tanto che potessi aspettare altri soccorsi poi dopo aver passato una curva del fiume essi approdarono in un piccolo recesso dove i cespugli di mirti e di ginepri si spingevano fino alla riva dell'acqua cosparsa di genziane e di erbe balsamiche sbarcarono le loro provvigioni e fecero colazione di un buon appetito parlando dei loro divisamenti per l'avvenire capitolo 7 lungo il fiume essi non erano mal provvisti per il viaggio gloster il capitano del brigantino nel quale gli americani erano partiti da quebec conosceva bene e fra in lavage chi non lo conosceva sulle coste della nuova inghilterra egli aveva perciò accettato una sua cambiale a tre mesi data e gli aveva dato in cambio tre eccellenti fucili una buona quantità di munizioni e abbastanza denaro per i suoi bisogni così egli aveva potuto prendere in affitto la barca e gli indiani e l'aveva provvista di carne e biscotti da mantenerli per circa una decina di giorni per me è come il soffio della vita vedermi accanto un fucile e sentire il profumo degli alberi intorno a me disse amos adesso non ci possono essere che cento leghe da qui ad albani attraversando direttamente la foresta sì ma come potrebbe la donna far cento leghe attraverso la foresta no no aspettiamo e speriamo in dio allora non c'è che una strada noi dobbiamo fare il fiume richelieu e prendere lungo i laghi champlain e saint sacramen è una strada pericolosa disse decatinat che comprese la conversazione dei suoi compagni sarà necessario costeggiare il paese di moavox è l'unica strada credo o questa o niente ed io ho un amico sul fiume richelieu che sono certo ci aiuterà nel nostro viaggio disse decatinat con un sorriso adele mi avete sentito parlare di carlo di lanon signore di santa maria quello che chiamate il duca del canada amori precisamente bene esclamò amos se avete un amico là sarà bene per noi animo ai remi allora affinché quel frate non debba farci alcun male così per una lunga settimana la piccola compagnia vogò sul gran fiume lungheggiando sempre la parte meridionale dove c'era più luce da ambo le parti della corrente i boschi erano folti ma ogni tanto qua e là interrotti da una stretta striscia di terra coltivata a frumento adele guardava con interesse tutta quella bellezza della natura che le si stendeva davanti si vedevano molte case di boscaioli grandi palazzi di signori e in ogni borghetto era un mulino che serviva a due scopi per macinar la farina e per luogo di cannoniera in caso di attacco avendone una volta toccate i canadesi si erano adesso premuniti ed avevano costruito tutte le loro case in modo da potersi ben difendere in qualunque necessità ed erano tutti uniti in un sol pensiero infatti ad ogni passo in quel paese o che il viaggiatore fosse a san lorenzo o a ponente sui laghi o sulle rive del mississippi o a mezzogiorno nel paese dei cero chi avrebbe sempre trovato gli abitanti nello stesso stato di terribile aspettativa e pronti a combattere per la stessa causa ormai gli irochesi come li chiamavano i francesi iroqua o le cinque nazioni come loro stessi si chiamavano erano riusciti ad estendersi sull'intero continente non molti ma erano uniti coraggiosi ed energici il nemico di uno era il nemico di tutti la guerra il loro commercio la crudeltà il loro divertimento riusciti a distruggere diversi popoli e ad impossessarsi di diversi distretti dappertutto erano temuti mai forse nella storia del mondo un così piccolo numero di uomini ha saputo dominare tante contrade per tanto tempo adesso doveva toccare alla colonia francese e gli irochesi attendevano un ordine del loro capo per precipitarsi sul loro e disperderli tale era la situazione quando il piccolo gruppo dei rifugiati remava lungo le rive del fiume cercando il solo sentiero che avrebbe presto potuto condurli in un luogo di pace e di libertà tuttavia ed essi lo sapevano restava una strada pericolosa da percorrere in fondo al fiume Richelieu c'erano ancora delle fortezze francesi che avrebbero potuto tenerli prigionieri e per la piccola compagnia che doveva viaggiare la situazione era molto pericolosa specialmente per i due compagni francesi dai quali gli americani non avrebbero voluto separarsi strada facendo incontrarono diversi viaggiatori che molto volentieri avrebbero parlato con i fuggiaschi ma questi proseguivano non occupandosi dei loro segnali e dei loro saluti e per ora non avevano niente da temere perché remavano dalla mattina alla sera senza mai stancarsi Adele passava da una meraviglia ad un'altra non soltanto per i popoli e le loro abitazioni così strane ma il suo marito e Amos le spiegavano molte cose e gliene accennavano tante altre che da se sola non avrebbe potuto discernere ed ella seduta a poppa della barca non si stancava mai di ammirare così apprendeva ciò che fino allora non aveva mai saputo e si sentiva felice e contenta sull'immenso fiume verde circondata dalle bellezze della natura il sorriso era ritornato sulle sue labbra sul volto aveva un colore di salute che la Francia non era mai riuscita a darle decatinata vedeva questo cambiamento in lei ma la sua presenza lo impensieriva perché egli sapeva che benché la natura avesse fatto tutti questi splendori gli uomini li avevano cambiati in inferno e che un orrore si nascondeva dietro quelle bellezze spesso quando le sedeva accanto la vedeva così bella e così innocente sentiva che non aveva il diritto di esporla ad un simile pericolo e che qualunque fosse stato il loro destino avrebbe fatto meglio forse a ritornare indietro verso Quebec ma pensando alle umiliazioni alle sofferenze del viaggio ad una possibilità di prigione che li avrebbe divisi restò fermo nel suo proposito al settimo giorno si fermarono ad una punta distante soltanto poche miglia dalla bocca del fiume Richelieu dove una gran fortezza il forte Richelieu era stata fabbricata dal signor de Sorel passata questa essi non avrebbero avuto una gran distanza per arrivare fino all'amico di Decatinat il nobile signore che li avrebbe aiutati nel loro viaggio restati tutta la notte su una piccola isola allo spuntar del giorno erano già in piedi per spinger la barca fuori del rifugio sabbioso quando Ephraim Lavage borbottò qualcosa fra i denti e guardò lungo il fiume una gran barca veniva verso di loro remando con grande sveltezza a poppa sedeva una figura scura che si sporgeva in avanti sforzandosi a remare non c'era dubbio era il monaco che essi avevano lasciato dietro i fuggiaschi si guardarono perplessi l'uno con l'altro sarebbe stato meglio averlo tenuto a bordo e averlo adoperato come zavorra disse Ephraim ed ora come potremo andare avanti domandò Decatinat quest'uomo vendicativo chiamerà qualcuno del forte certamente egli è ritornato a Quebec è una barca del governatore lasciatemi pensare disse Amos e si sedette con la testa fra le mani ecco se non è bene andare in su e nemmeno andare in giù non c'è che una strada ed è quella di andare da una parte va bene così Ephraim sì sì se non potete correre bordeggiate ma mi pare che l'acqua sia poco profonda costa non possiamo andare a tramontana allora andremo a mezzogiorno lasciare la barca è la sola nostra salvezza possiamo prendere le scorciatoie attraverso i boschi ed arrivare così vicino alla casa di quell'amico di cui di anzi parlavate il frate perderà le nostre tracce e almeno da parte sua non avremo più niente da temere non c'è altro da fare disse il capitano Ephraim non è piacevole per me andare per terra quando si può andare per acqua ed io non sono stato in un bosco da quando il re Filippo venne nella provincia tocca a voi indicarci la strada Amos e a prendere quella più diretta non è lontano e non impiegheremo molto tempo se la signora sarà stanca a Decatinat procureremo di portarla ah signore voi non potete immaginarvi qual buona camminatrice io sia allora andiamo in pochi momenti essi furono dall'altra parte ed erano sbarcati all'estremità della foresta ognuno prese il fucile le munizioni le poche provvigioni e i miseri bagagli poi dopo aver pagato i due indiani ed aver fatto loro promettere di non dir niente a nessuno del loro divisamento si internarono nel bosco silenzioso capitolo ottavo l'uomo calvo tutto il giorno penetrarono sempre più dentro la foresta camminando separati Amos Green era il primo poi il marinaio poi la signora e da ultimo Decatinat come retroguardia il giovane Amos si avanzava con cautela vedendo e sentendo ciò che i suoi compagni non vedevano e non sentivano e si fermava continuamente per esaminare qualche volta però gli alberi erano così fitti che essi quasi non potevano passare ed erano costretti a farsi strada con gran pena poi nuovamente il bosco si allargava ed allora essi camminavano a lunghi passi in silenzio per far più presto così viaggiarono tutto il giorno attraverso la foresta senza aver mai un indizio del frate quella notte dormirono nel bosco Amos Green aveva acceso un bel fuoco invisibile anche a 12 passi di distanza erano cadute alcune gocce di pioggia così egli con l'esperienza di uomo pratico dei boschi fece due piccole capanne di scorza dolmo una per i due francesi e l'altra per Efraim e per sé strada facendo aveva ucciso un'oca selvatica e questa col resto dei biscotti servì per la loro cena e colazione anche il giorno dopo ripresero il loro viaggio senza incontrare nessuna traccia dei loro simili verso sera però Amos si fermò ad un tratto nel folto di un bosco e tese l'orecchio ascoltate esclamò io non nodo niente disse Efraim nemmeno io aggiunse Decatinat ma io sì esclamò Adele con gioia è una campana avete ragione signora è ciò che essi chiamano la campana dell'Angelus ah sì la sento anch'io adesso esclamò Decatinat ma come può esservi una campana nel centro di una foresta del Canada siamo vicini alla colonna del Richelieu deve essere la campana della cappella del forte del forte San Luigi allora non siamo lontani dalla signoria del mio amico stanotte dormiremo là dunque se come dite possiamo sperare in lui sì è un uomo strano ma io gli affiderei volentieri la mia vita va bene prenderemo mezzogiorno e ci troveremo così davanti alla sua casa ah odo dei passi abbassatevi fino a terra e non vi muovete fino a che non avremo visto chi cammina attraverso la foresta essi si nascosero tutti e quattro più che poterono dietro i grossi tronchi degli alberi mentre Amos osservava attentamente un momento dopo un uomo uscì dal fitto fogliame ma era così strano che anche Amos restò a guardarlo con immenso stupore un uomo magrissimo e così nero da poter passare per un indiano benché fosse vestito come mai nessun indiano era stato non è un selvaggio bisbigliò Amos né un guardaboschi non ho mai visto un uomo simile nemmeno un viaggiatore né un soldato né un esploratore di boschi disse decatinato non sembra avere nessun compagno di modo che possiamo salutarlo senza timore essi si alzarono dal loro nascondiglio e si trovarono così in faccia a costui invece di mostrarsi sorpreso di trovarsi in presenza ad estranei in un simile luogo egli si avanzò e andò il loro incontro ad un tratto però il suono della campana si fece nuovamente udire ed egli si tolse il cappello e piegò la testa in segno di preghiera un grido di terrore partì non soltanto da Adele ma da loro tutti dopo ciò che si presentò ai loro occhi il cocuzzolo della testa dell'uomo era sparito non un segno di capelli o di pelle bianca vi era rimasto ma invece un orribile superficie scolorata e grinzosa con una forte linea rossa che girava intorno alla testa fino agli orecchi santo cielo gridò Amos l'uomo ha perduto il suo pericranio mio dio disse decatinato guardate le sue mani egli le aveva unite in atto di pregare due o tre piccoli tronchettini sporgenti in avanti mostravano dove un giorno furono le dita io ho visto in vita mia delle figure strane qualche volta ma mai come questa disse il capitano Efraim era infatti una faccia che essi trovavano sempre più curiosa tanto più gli si avvicinavano eppure malgrado quella terribile apparenza c'era qualche cosa di nobile nel portamento di quell'uomo nell'atteggiamento della sua testa e nell'espressione del suo volto deturpato che anche il vecchio puritano sentì per lui una certa reverenza buonasera figli miei disse lo straniero andando verso loro penso che siate venuti dal forte benché mi sia permesso di osservare che i boschi non sono troppo sicuri per le signore adesso noi andiamo al castello di Carlo della non a Santa Maria disse decatinato e speriamo di arrivare presto in un luogo di sicurezza ma mi dispiace signore di vedere in qual modo terribile siete stato ridotto ah ve ne siete accorto povera gente non sapevano il male che commettevano è davvero curioso che il nostro vile corpo sia legato così strettamente allo spirito di modo che adesso che vorrei correre presto avanti sono costretto a fermarmi e riposarmi su questo ceppo perché i furfanti mi hanno strappato i polpacci delle gambe mio dio che demoni no no non bisogna biasimarli non sarebbe caritatevole sono un povero popolo ignorante e il dio delle tenebre li domina e li spinge al male essi mi misero fra le gambe una certa quantità di polvere da schioppo e le dettero fuoco per questo cammino anche più ad agio del solito benché non sia stato mai molto svelto tant'è vero che anche alla scuola e al seminario mi chiamavano sempre la lumaca chi siete signore e chi vi ha trattato così vergognosamente domandò decatinato non sono che ignazio morà della compagnia di gesù e se anche voi siete mandati fra gli rochesi come missionari saprete certo ciò che c'è da aspettarsi io non ho niente da lamentarmi però sono stato trattato molto meglio di quello che non lo siano stati tanti altri miei compagni dove andate ora domandò amos che era stato molto attento alle parole dell'uomo vado a chebec vedete sono una persona così inutile che finché io non abbia visto il vescovo non potrò far niente di buono intendete di deporre la vostra missione nelle mani del vescovo disse decatinato o no ciò sarebbe una cosa che farei se fossi lasciato a me stesso perché è incredibile come io sia codardo non crederete possibile che un prete di dio possa essere così pauroso come io lo sono qualche volta basta una piccolezza per farmi tremare ma naturalmente i membri dell'ordine non devono abbandonare mai il loro posto è contro i precetti della chiesa che un uomo mutilato adempia i riti così finché non avrò visto il vescovo e avuto la sua dispensa sarò ancora più inutile che mai e che cosa farete dopo o dopo certamente ritornerò al mio gregge dall'irochesi è là il mio posto amos disse decatinato io ho passato la mia vita fra persone coraggiose ma credo che questa sia la più coraggiosa che abbia mai incontrata davvero disse amos ma voi siete estenuato padre noi abbiamo ancora un po di oca fredda e un po di cognac ah figlio mio se prendessi anche la più piccola cosa non potrei più camminare ma non avete né fucile né cibo come potete vivere così il dio ha posto abbastanza cibo in questa foresta per un viaggiatore che non mangia molto come me che cosa portate sulla vostra schiena domandò amos è la mia chiesa ho tutto qui tenda tabernacolo cotta tutto io non posso rischiarmi a celebrare il servizio divino da me stesso senza la dispensa ma certamente questo venerabile uomo vorrà solennizzare la funzione più santa amos tradusse tutto ad efraim che stava in piedi ad ascoltare decatinato però osservò che si erano troppo attardati e che se volevano arrivare a destinazione prima di notte bisognava andare avanti avete ragione figlio mio disse il mutilato questo povero popolo ha già abbandonato il suo paese e in pochi giorni le foreste saranno affollate avrei da domandarvi un favore qual è quello di ricordarvi che ho lasciato un dizionario delle lingue irochese francese fatto da me stesso se non potrò più averlo possa almeno qualcun altro approfittare del mio lavoro lo dirò al mio amico stasera ma che cosa sono con queste gran pitture padre e perché le portate attraverso i boschi l'omiciatolo le mostrò al gruppo dei profughi e disse una è la dannazione di un'anima e l'altra la salvezza di un'altra è ben fatta questa pittura ma non ha avuto un buon effetto quest'altra è migliore ed ha convertito parecchi peccatori e più di un indiano adesso figli miei se dovete andare lasciate prima che io vi benedica e allora accadde una cosa strana poiché la bellezza dell'animo di quell'uomo sfolgorò attraverso tutte le meschine diversità di setta e quando egli alzò la mano per benedirli tutti e quattro quei protestanti si inchinarono compreso il vecchio Efraim Lavage addio dunque disse egli quando essi si furono alzati possa la purezza di santa Eulalia essere in voi e possa Sant'Anna di Bopré aiutarvi nei momenti di pericolo così lo lasciarono e la figura grottesca ed eroica andò lontano attraverso i boschi con la sua tenda le sue pitture e il suo povero corpo mutilato capitolo nono il signore di santa maria lasciando alla loro destra il forte di san luigi da dove le campane avevano suonato i fuggiaschi si avanzarono nel bosco più velocemente che poterono perché il sole era già basso nel cielo e fra non molto sarebbe stato buio ma ad un tratto scorsero davanti a loro una lunga striscia d'acqua turchina e videro un largo fiume che correva con gran velocità al mare se fossero stati in Francia sarebbe apparso come un fiume magico ma essi ormai erano abituati a quei paesaggi Amos e Decatinat ebbero un fremito di gioia perché sapevano che quella era la strada diritta che li conduceva l'uno a casa e l'altro alla pace e alla libertà di faccia al fiume era il terribile paese degli irochesi i fuggiaschi continuavano ad andare avanti quando ad una certa distanza videro dei soldati siamo amici gridò Decatinat da dove venite domandò una sentinella invisibile da Quebec e dove andate a visitare il signor carlo della non signore di santa maria va bene siamo sicuri d'ulut essi hanno anche una signora insieme vi saluto signora in nome di mio padre due uomini erano usciti dai cespugli uno dei quali poteva passare per un vero indiano se non avesse parlato benissimo il francese era un giovane alto molto nero con gli occhi scuri ed una bocca come soltanto gli indiani hanno l'altro era indubbiamente un puro francese attempato grave imponente e con la faccia fiera e ardente scuserete le nostre precauzioni disse gli non possiamo mai sapere quale espediente adottino questi furfanti per ingannarci temo signora che avrete avuto un lungo e penoso viaggio la povera Adele che era sempre stata rinomata per la sua eleganza nella strada di san martino osava adesso appena guardare i suoi miseri abiti ella aveva sopportato fatiche pericoli con la faccia sorridente ma non poteva sopportare di mostrarsi così a degli estranei mia madre sarà molto contenta di ricevervi e di provvedere a tutto ciò di cui potrete aver bisogno disse gli prestamenti avendo indovinato il pensiero di lei ma io signore vi ho visto prima d'oggi anch'io esclamò Decatinat il mio nome è Amorì Decatinat voi siete certo Achille della Nonne di Santa Maria e venivate di frequente a Quebec insieme con vostro padre sì sono io rispose il giovanotto sorridendo in modo strano ma mi meraviglio che abbiate esitato a riconoscermi per il solo motivo che ultimamente ero vestito differente da ora Decatinat si ricordava infatti di costui come uno della giovane nobiltà che soleva venire alla capitale una volta l'anno per informarsi della moda di Versailles e per poche settimane vivere fastosamente come si conveniva al suo ceto ma adesso egli era molto diverso noi abbiamo una vita per le foreste e una per le città disse il giovane della Nonne benché mio padre non desideri così e porti Versailles con sé in qualunque luogo egli vada voi lo conoscete da molti e molti anni signore e non è necessario che vi spieghi minutamente le mie parole ma è tempo di farvi riposare e di condurvi a casa due uomini vestiti da castaldi del canadà e che certamente erano soldati apparvero ad un tratto il giovane della Nonne dette loro alcuni ordini ed essi accompagnarono i rifugiati lungo la strada voi non potete conoscere il mio amico qui disse il della Nonne prima di farli partire e accennando l'altra sentinella ma sono certo che il suo nome non vi riesce nuovo egli è Gresolondulut Amos e Decatinat guardarono ambedue con gran curiosità e di interesse il famoso capitano degli esploratori di boschi un uomo che aveva passato l'intera vita spingendosi verso ponente sempre a ponente dicendo poco scrivendo niente ma sempre il primo dove era un pericolo da incontrare e una difficoltà da superare ed egli faceva tutto ciò per il puro amore della natura e delle avventure e con si poca ambizione che non si era mai curato di descrivere i suoi viaggi e nessuno sapeva dove era né dove si era fermato tale l'uomo che si trovava adesso lungo la sponda del Richelieu Amos e Decatinat compresero che la sua presenza in quel luogo aveva un sinistro significato e che il posto che Gresolond aveva scelto era quello dove minacciava il pericolo che cosa pensate di quei fuochi che si vedono laggiù Duluth domandò il giovane della non l'avventuriere stava fumando a pipa con la massima indifferenza non mi piacciono disse sono dunque gli rochesi sì bene almeno questo prova che sono dall'altra parte del fiume prova che sono da questa parte che cosa Duluth gettò via la pipa gli rochesi sono da questa parte disse egli ci vengono incontro e non lo diceste mai come sapete che ci vengono incontro e perché non avete detto niente io non lo sapevo prima di vedere i fuochi laggiù e come questi poterono dimostrarvelo zitto l'indiano potrebbe aver udito disse Duluth con impazienza gli rochesi non fanno nulla senza uno scopo ora essi hanno uno scopo mostrando questi fuochi se fossero dall'altra parte non avrebbero nessuna ragione ad agire così dunque devono aver attraversato il fiume e non potendo andare a tramontana vengono a mezzogiorno verso di noi amos accennò di sì pienamente convinto allora noi siamo in pericolo esclamò della non Duluth confermò con la testa decatinate gettò uno sguardo attraverso l'immensa foresta come era difficile concepire che dietro tutta quella bellezza si nascondesse un pericolo così orribile fu con un gran sospiro di sollievo che egli scorse l'immenso castello del suo amico appena essi ebbero passato il portone la guardia interna lo richiuse mettendo attraverso una grande spranga di legno un gruppetto di uomini donne e fanciulli era radunato intorno alla porta del castello e un uomo sedeva a cavalcioni di una sedia sulla soglia voi conoscete mio padre disse il giovane restringendosi nelle spalle egli non ha mai lasciato il suo castello normanno è il signore della non il più grande uomo il più nobile sangue della normandia adesso sta ricevendo i tributi e i giuramenti annuali dei suoi feudatari e non verrebbe neanche se lo stesso governatore fosse ad attenderlo ma se ciò può interessarvi osservatelo aspettando che abbia finito la sua cerimonia voi signora siate così cortese di seguirmi potrete venire da mia madre la cosa era almeno per gli americani di nuovo genere di modo che furono molto contenti di poter vedere al loro agio mentre essi guardavano un uomo si fece innanzi al circolo e inginocchiandosi sopra un tappeto mise le sue mani fra quelle del signore della non signor di santa maria signor di santa maria signor di santa maria disse gli tre volte io vi porto la fede e l'omaggio che sono obbligato a portarvi a cagione del mio feudo herbert che da uomo di fede ritengo di vostra signoria siate sincero figlio mio siate valoroso e sincero disse il vecchio gentiluomo solennemente poi con un subitaneo cambiamento di voce in nome del diavolo che cosa ha portato la vostra figlia qui una ragazza si era avanzata dal circolo con una grande striscia di scorza di legno sul braccio e sulla quale era un mucchio di pesci morti è l'undicesimo della mia pesca che vi spetta come tributo disse il padre della ragazza ce ne sono 73 nel mucchio e durante il mese ne ho presi 800 zitto esclamò il vecchio credete voi andrea dubois che io voglia guastarmi la salute mangiando 73 pesci in questo modo credete che io e i miei servi e tutti gli altri membri della casa non abbiano altro da fare che mangiare i vostri pesci in seguito pagherete il vostro tributo non più di cinque alla volta dov'è il maggiordomo teorie prendete il pesce state attento che questo cattivo odore non penetri nella stanza azzurra o presso le stanze della mia signora un uomo con la livrea scura si fece avanti portando un gran piatto sul quale mise il mucchio dei pesci bianchi poi ogni feudatario si presentò a consegnare il proprio omaggio e tutti lasciarono una parte delle loro mercanzie per il mantenimento del loro signore la cerimonia era finita e appena il vecchio gentiluomo si alzò suo figlio che era ritornato prese Decatinat per la manica e lo condusse attraverso la folla padre mio disse gli questo è il signor Decatinat che voi avete conosciuto parecchi anni or sono a Quebec il signore fece un segno affermativo e strinse la mano al francese voi siete il benvenuto nei miei stati voi e i vostri servi essi sono miei amici signore questo è il signor Amos Green e questo è il capitano Efraim Lavage mia moglie pure ha viaggiato con me ma il vostro cortese figlio l'ha condotta molto gentilmente dalla vostra signora sono molto onorato davvero esclamò il vecchio inchinandosi mi ricordo molto bene di voi signore mi ricordo anche di vostro padre che servì con me a Rocroa siate il benvenuto e così dicendo abbracciò Decatinat il giovane francese non credeva davvero di trovare una simile accoglienza familiare non abuserò troppo della vostra ospitalità disse gli e credo fra un giorno due di poter riprendere il nostro viaggio diverse stanze saranno messe a vostra disposizione per quanto tempo mi farete l'onore di restare qui non mi capita tutti i giorni di aprire le mie porte ad un uomo come voi ah signore se sapeste come sono contento di poter parlare con un mio uguale qui c'è il governatore l'intendente forse uno o due preti tre o quattro ufficiali ma chi della nobiltà perfino dimentico i miei doveri voi sarete stanchi ed avrete appetito venite su con me e vi farò ristorare il signore disse di aver già cenato ma volendo tener compagnia i suoi convitati finì col mangiare più di Efraim Lavage e di bere più di Duluth e finì col cantare una canzonetta francese di carattere molto libero le parole della quale fortunatamente sfuggirono ad Efraim la signora pranza nel boudoir di mia moglie osservò il vecchio signore terriè portate una bottiglia di frontignac o sentirete che benché fra i selvaggi ne abbiamo del buono anche noi dunque voi venite da Versailles Decatinat che bei giorni ci ho passato anch'io per quanto vecchio non potrò mai dimenticarli il gentiluomo fece domande sopra domande a Decatinat riguardo a tutto ciò che era accaduto a Versailles in quegli ultimi anni e Decatinat mentre i suoi compagni già rossavano nei loro letti si intrattenne fino a notte inoltrata a soddisfare la curiosità del vecchio raccontandogli tutti i più minuti particolari di Versailles Capitolo decimo l'uccisione di Brown Moose i veggiatori avevano già passato due giorni in casa del signore di Santa Maria e molto volentieri vi sarebbero restati ancora ma già l'autunno si inoltrava ed essi sapevano come il ghiaccio e la neve venissero ad un tratto in quei paesi settentrionali e come sarebbe stato impossibile continuare il viaggio in inverno il vecchio gentiluomo aveva mandato le sue scorte per acqua e per terra ma non avevano trovato nessuna traccia degli irochesi per cui Duluth doveva essersi ingannato dall'altra parte però si vedevano spesso dei fuochi e ciò indicava che i nemici non dovevano essere molto lontani i rifugiati erano adesso più forti e più freschi e potevano quindi proseguire il loro viaggio se venisse la neve sarà mille volte più pericoloso disse Amos perché lasceremo dietro delle tracce che qualcuno potrebbe seguire e perché dovremmo temere domandò il vecchio Efraim andiamo Amos impugnate il vostro timone e vedrete che saremo salvi io non ho paura morì e sono del tutto riposata adesso disse Adele noi saremo tanto più felici quando ci troveremo nelle province inglesi poiché anche adesso chi può dirci che il terribile monaco non ci raggiunga con ordini di riportarci a Quebec e a Parigi era infatti possibilissimo che quel francescano vendicativo riuscisse a raggiungerli sulle rive del Richelieu Decatinat riflettendo alle parole di sua moglie sentì che il pericolo non soltanto era possibile ma forse imminente il signore era suo amico ma non poteva disobbedire agli ordini del governatore al giovane francese sembrò ad un tratto di vedersi nella più grande degradazione e miseria meglio tutti i pericoli del bosco che quello ma il vecchio gentiluomo e suo figlio che non sapevano niente delle loro ragioni per tutta quella fretta indicavano a Decatinat l'altra strada e in ciò essi erano appoggiati dal silenzioso Duluth le cui poche parole valevano più di un lungo discorso voi avete visto il mio luogo disse il vecchio signore non è come desidererei ma è così nell'inverno però è molto più piacevole se voi e i vostri camerati volete onorarmi di restare in quanto la signora non dubito che troverebbe il modo di divertirsi e di occuparsi insieme alla mia a proposito Decatinat non le siete ancora stato presentato terriè andate dalla signora e pregatela di scendere da noi Decatinat non era facile alla meraviglia ma restò addirittura sbalordito quando la signora della quale il vecchio parlava sempre con un rispetto esagerato entrò e gli apparvi una vera donna indiana ella era vestita è vero con una grande eleganza ma il colore della sua faccia e la forma della bocca non lasciavano alcun dubbio sulla sua origine mi permetto di presentarvi signor Decatinat disse il signore di Santa Maria solennemente a mia moglie onega della non di Santa Maria castellana di questa signoria come pure del castello d'Andelis in Normandia e degli stati di Varenna in Provenza angelo mio disse poi volgendosi alla moglie ho procurato di persuadere i nostri amici a restare con noi a Santa Maria invece di viaggiare sul lago Champlain almeno lasciate il vostro candido giglio a Santa Maria disse la scura principessa parlando in eccellente francese ed accennando ad ele noi ve la serberemo sana e salva io conosco il mio popolo signore e so che i boschi sono pieni di assassini e non è per niente che le foglie sono del colore del sangue la morte è appiattata dietro ogni albero Decatinat era più commosso dalle parole impressionanti della signora che da qualunque altro avvertimento avuto fino allora non so proprio che cosa fare esclamò egli disperato debbo partire e come posso esporre lei a questi pericoli vorrei volentieri restare qui l'inverno ma dovete credere alla mia parola signore non mi è possibile Deluth che cosa consigliate di fare al mio amico da che egli è costretto a raggiungere le province inglesi prima che venga l'inverno Deluth pensò un poco e poi non c'è che una strada disse alla fine benché anche quella sia pericolosa i boschi sono più sicuri del fiume che è pieno di canotti a cinque leghe da qui c'è la casa bloccata di Poitou noi vi andremo domani attraverso i boschi e vedremo se tutto è sicuro io verrò con voi e vi do la mia parola che se gli rochesi vi sono greso l'ondulut lo saprà dire la signora la lasceremo qui e se troveremo la via sgombra torneremo a prenderla allora nello stesso modo avanzeremo verso verg e voi aspetterete finché non avrete saputo dove sono i distaccamenti di guerra degli rochesi e credo che non staremo molto a saperlo che cosa voi volete dividerci esclamò Adele spaventata è meglio sorella mia disse Onega passando affettuosamente il suo braccio intorno alla vita di Adele voi non potete conoscere il pericolo ma noi lo conosciamo e non vogliamo mandarvi incontro il nostro candido giglio voi starete qui a rallegrarci mentre il gran capo e il soldato francese vostro marito e il vecchio guerriero che sembra così coraggioso e l'altro capo dalle membra simili a un daino selvaggio andranno attraverso i boschi per vedere se tutto va bene prima di farvi inoltrare così fu fissato e Adele sempre protestando fu consegnata alle cure della signora di santa maria mentre decatinato giurava che senza metter tempo in mezzo sarebbe ritornato subito da Poitou per riprenderla il vecchio gentiluomo e suo figlio si sarebbero molto volentieri uniti in quell'avventura ma avevano troppe occupazioni per poterli abbandonare il signore consegnò loro una lettera per Delon il governatore della casa bloccata di Poitou e la mattina presto partirono tutti e quattro sparendo in poco tempo nell'interminabile foresta dalla nonna Poitou correvano soltanto 12 miglia prendendo per il fiume ma attraverso la foresta dove tanti maggiori ostacoli si opponevano la distanza era quasi il doppio essi camminavano uno dietro l'altro con le armi pronte ed ascoltando il più lieve rumore verso mezzogiorno erano più che alla metà di strada e si fermarono un momento per mangiare un po di pane e del formaggio poiché Duluth non permise di accendere il fuoco essi non sono molto lontani bisbigliò Duluth e sono sicuro che ora hanno attraversato il fiume ah il governatore della bar non sapeva che cosa faceva quando stimolò questi uomini a venirci contro davvero poiché io li ho visti in pace notò Amos ho commerciato a Onondaga e nel paese del Senecas li conoscevo come esperti cacciatori e nobili uomini essi sono bravi cacciatori ma la selvaggina che essi meglio uccidono sono gli uomini o io che ho avuto a che fare con loro li conosco bene voi siete della nuova Inghilterra signore il mio compagno sì io sono di New York ah sì dovevo essermi accorto che trattate i boschi come la vostra casa gli uomini della nuova Inghilterra vanno sulle acque ed uccidono più volentieri pesci che gli animali feroci forse per questo hanno la faccia così trista anch'io sono stato in mare e mi ricordo che diventai così c'è poco vento e così possiamo accender la pipa dio vi scampi signore da una guerra con gli indiani è male per noi ma per voi sarebbe ancora peggio e perché perché noi abbiamo sempre combattuto contro gli indiani fin da principio e li abbiamo sempre presenti quando fabbrichiamo guardate lungo il fiume come ogni casa è costruita ma da voi non ci sono davvero simili fortezze per difendersi una guerra con gli indiani è un purgatorio per il canadà ma per le province inglesi sarebbe un inferno noi siamo amici con gli indiani disse Amos non desideriamo conquistare il vostro popolo ha una ragione di conquistare sebbene dica che non lo desidera osservò dulut noi facciamo un gran rumore ma non viene fuori niente non abbiamo avuto che due grandi uomini nel canadà l'uno il signor della sal che fu ucciso l'anno scorso dai suoi stessi uomini l'altro il vecchio frontenac che avremmo desiderato riavere ma io vedo che voi mi guardate con impazienza signor de catinat e so che contate le ore fino a che saremo nuovamente a santa maria avanti dunque e possa la seconda parte del nostro viaggio essere così tranquilla come la prima per un'ora e più i profughi camminarono attraverso i boschi seguendo i passi di dulut era una giornata splendida ma essi preoccupati come erano non potevano osservare niente di tutta quella bellezza e andavano avanti silenziosamente per arrivare presto al loro destino ad un tratto dulut si chinò e appoggiò l'orecchio sulla terra poi si alzò scosse la testa e continuò ad andare avanti con la faccia seria e guardando attentamente da ogni parte avete udito qualche cosa mormorò amos dulut si mise un dito sulle labbra poi si chinò nuovamente a terra la seconda volta salto su con lo sguardo di un uomo che ha udito ciò che aspettava impazientemente di udire camminiamo disse gli tranquillamente e procediamo come abbiamo fatto fino ad ora che cosa c'è dunque indiani davanti a noi no dietro che cosa fanno ci seguono quanti sono due credo gli amici si voltarono indietro involontariamente per guardare attraverso la folta foresta in un punto fra due pini si vedeva un'unica luce ma all'infuori di quella tutto era scuro e silenzioso non guardate dietro bisbigliò dulut stizzito andate avanti come prima sono nemici sono i rochesi ci inseguono no adesso siamo noi che inseguiamo loro torniamo indietro allora noi si sparirebbero come ombre quanto sono lontani di qui credo duecento passi allora non possono vederci non credo ma non ne son sicuro suppongo che seguano le nostre orme e noi che cosa faremo facciamo un giro e andiamo dietro a loro e così fecero una lunga curva attraverso i boschi poi si voltarono di nuovo e si fermarono queste sono le nostre proprie orme disse dulut sì e due pelle rosse sono passati di qui esclamò amos chinandosi accennando alcuni segni invisibili ad efraim lavage e a decatinat un vero e accorto guerriero ai suoi primi passi nella guerra disse dulut seguiamoli adesso come essi seguivano noi e procuriamo di incontrare una miglior fortuna si incamminò avanti lungo le orme col suo moschetto in mano seguito dagli altri ma non si udiva un rumore non un segno di vita per tutti quei boschi ad un tratto dulut si fermò e posò a terra l'arma essi sono dietro a noi disse dietro a noi sì questo è il punto da dove siamo tornati indietro essi hanno esitato un momento come potete vedere dalle orme dei loro piedi e poi ci hanno seguiti se noi giriamo ancora e acceleriamo il passo potremo raggiungerli no essi stanno sulle difese adesso fermiamoci dietro a questo tronco e guardiamo di spiarli così dicendo dulut si nascose dietro un grande albero e i suoi tre compagni seguirono il suo esempio osservando la foresta che si stendeva intorno a loro soltanto un fuoco brillava ancora fra i due pini ma il resto era silenzioso e scuro decatinata fu scosso da un di eccitazione nervosa passarono dieci minuti e non ebbero più nessun segno di cosa vivente essi sono laggiù in quel folto boschetto bisvegliò dulut a 200 passi di qui li avete visti no e come lo sapete allora ho visto uno scoiattolo uscire dalla sua tana e andare qua e là come se qualche cosa lo avesse spaventato credete che essi sappiano che noi siamo qui essi non possono vederci ma sospettano e temono un agguato non possiamo lanciarci per il bosco no è meglio proseguire il nostro cammino essi ci seguiranno forse sì ma noi siamo quattro ed essi soltanto due e sanno adesso che noi stiamo alle vedette andiamo dietro a questi tronchi dove essi non possono vederci così adesso chiniamoci fino a che non abbiamo passato quel boschetto di ontani e sbrighiamoci perché dove sono due erochesi ce ne possono essere duecento hanno molta distanza grazie a dio che non ho condotto adele esclamò decatinat sì signore è bene per un uomo avere come compagna la sua moglie ma non nei paesi degli rochesi e nemmeno in nessun altro paese degli indiani dunque non conducete con voi la vostra moglie quando viaggiate domandò decatinat sì ma non la lascio viaggiare di villaggio in villaggio ella resta nelle capanne la lasciate dietro di voi al contrario ella è sempre a ricevermi allora ella deve viaggiare precedendovi dulut sorrise senza però dire una parola nuovo villaggio nuova moglie disse egli ma io non ne ho più d'una per ognuno poiché sarebbe vergogna per un francese dare il cattivo esempio mentre i buoni padri tanto si arrabattano a predicar la virtù ah eccoci ad i dammo crack siamo a circa sette miglia da potù allora ci arriveremo prima di notte credo che sarà meglio aspettare a dirlo quando avremo finito il nostro viaggio se gli rochesi non sono molto lontani da qui probabilmente si aggirano adesso nelle vicinanze di potù e l'ultimo passo potrebbe essere il peggiore se non facessimo in modo che questi due non chiamino gli altri essi certamente sono sulle nostre tracce li udite sì non sono molto distanti da noi adesso voglio mostrarvi una piccola astuzia dei boschi che voi certamente non potete conoscere toglietevi le scarpe decatinata se le tolse immediatamente e dulut fece lo stesso mettetevele come se fossero guanti disse dulut ad ephraim lavage e ad amos che in un istante si adattarono le scarpe alle mani potete collocare i vostri moschetti sulle vostre schiene così adesso giù tutti e quattro curvati camminando carponi ciò è eccellente due uomini possono lasciare le tracce di quattro adesso venite con me signore e si nascose dietro un cespuglio spingendo decatinata davanti a sé essi devono oltrepassarci fra pochi minuti bisbigliò poco dopo qualche cosa si mosse e corse da un tronco ad un altro così velocemente che decatinata non poteva vedere se fosse una bestia o di una persona umana a volte era un'ombra a volte erano due poi tutto tornò tranquillo un'altra volta ma dopo un istante uscì da un cespuglio la più terribile creatura che si fosse mai vista nei boschi un capo degli irochesi in arnese di guerra si vedeva benissimo che era un uomo titanico una parte della sua faccia era dipinta di nero giallo e cinabro da rassomigliare ad un cane e l'altra metà come un uccello tanto che guardandolo davanti appariva orribilmente strano era armato di tutto punto e dietro a lui di pochi passi scorsero un giovane di circa 14 anni armato allo stesso modo questi faceva le sue prime armi ma il suo sguardo era quello di un assassino nato così essi avanzavano silenziosi terribili col corpo d'acciaio e le anime di tigre erano proprio in faccia al cespuglio dietro il quale stavano nascosti fuggiaschi quando qualche cosa colpì l'occhio del giovane guerriero che si fermò sospettoso un altro minuto ed egli avrebbe chiamato il suo compagno ma d'ulut saltò fuori e ficcò la sua scura nel cranio del vecchio guerriero decatinata sentì un gran fracasso e vide l'uomo cadere a terra sorridendo orribilmente e muovendo le sue forti membra il giovane guerriero si gettò sul compagno caduto poi si slanciò nel bosco un istante dopo un colpo di fucile risuonò fra gli alberi seguito da un debole lamento è il suo rantolo della morte disse d'ulut incresce di tirare ad un fanciullo ma meglio così che lasciarlo andare mentre egli parlava e fra in edamos vennero verso di loro chi rideva domandò amos era lui rispose d'ulut accennando il morente guerriero che giaceva con la testa in un'orribile pozza di sangue e con l'allegrezza sui lineamenti grotteschi è una loro abitudine di ridere quando sono per morire ah è già morto infatti l'indiano esalava il suo ultimo respiro è un gran capo disse d'ulut è brown moose dei mohawks e l'altro è il suo secondo figlio noi abbiamo sparso il primo sangue ma non credo che sarà l'ultimo perché gli rochesi non permettono che il loro capo già ci ha invendicato era gagliardo e battagliero come potete vedere guardando il suo collo portava infatti una singolare collana che a decatinata sembrò consistere in gusci di fave nere infilate in una corda ma guardando meglio si accorse che erano dita umane sono proprio dita disse d'ulut ognuno rappresenta una vita sono 42 in tutte 18 sono di uomini che ha uccisi in battaglia e gli altri 24 di nemici presi e torturati come lo sapete perché soltanto 18 hanno ancora le unghie se il prigioniero di un irochese vivente si comincia sempre con strappargli le unghie e voi vedete che mancano in 24 decatinata rabbrividi quali erano i demoni che lo avevano spinto verso quel cattivo destino ed era possibile che la sua dele cadesse nelle mani di simili nemici no no certo il buon dio per la causa del quale avevano tanto sofferto non avrebbe permesso una tale infamia e un simile destino era toccato anche a donne affettuose come adele e ad uomini amanti come lui qualche panna nel canadano ricordava simili storie un vago terrore si impossessò di lui per santa eulalia disse d'ulut per un vecchio soldato siete molto pallido signore non sto bene sarei contento di avere un po del vostro cognac eccolo amico io potrei prendere questo cranio così avremo qualche cosa da mostrare al nostro ritorno tenne la testa dell'indiano fra le sue ginocchia e in un minuto con la scura lebbe staccata dal corpo andiamo gridò decatinata volgendo la testa dall'altra parte disgustato si andremo ma voglio prendere anche questo pendaglio e il fucile finalmente essi partirono edulut portò via le sue spoglie andando avanti incontrarono il corpo del giovanotto che giaceva fra i cespugli dove era caduto e continuando il loro cammino vennero ad un torrente che andava a gettarsi nel fiume essi seguiranno le nostre tracce quando scopriranno la morte del loro capo disse d'ulut ma non potranno continuare perché niente come l'acqua fa perdere ogni traccia e adesso resteremo in questo bosco fino a notte poiché abbiamo ancora un miglio da qui al forte poitù sarebbe pericoloso andare avanti così restarono nascosti fra gli olmi d'ulut accoccolato con la pipa fra i denti si abbandonava ogni tanto ad un leggero sonno sempre attento però ad ogni più piccolo rumore i due americani ciarlavano insieme raccontandosi storie della vita passata ma dopo un poco si addormentarono decatinato soltanto rimase sveglio con i suoi mille pensieri che cosa pensava non certo che adele fosse in pericolo non l'aveva lasciata al sicuro la sera dopo al più tardi l'avrebbe rivista contemplando il cielo attraverso il fitto fogliame il suo pensiero andò nella via san martino ricordò quando sedeva sulla gran panca cingendo col braccio la vita della sua cara adele che da se stessa si era paragonata a un topolino e che adesso aveva avuto il coraggio di seguirlo in quel disastroso viaggio poi si rivide a versailles rivide gli occhi scuri del re la bella faccia ardita della de montespan i tratti sereni della signora de mentenon si rivide nel momento in cui si gettò con amos sul boia per difendere la più bella donna di francia tutto ciò era così vivo nella sua mente che fu con un sussulto che ritornò in sé e trovò che la notte era profonda nella foresta americana e che dulut si era già alzato ed era pronto per la partenza siete stato sveglio domandò dulut sì avete udito qualche cosa niente all'infuori del grido della civetta nel mio sonno mi sembra di aver udito una fucilata ad una certa distanza nel vostro sonno sì io odo tanto se dormo quanto se sono sveglio ma adesso dovete seguirmi e vedrete che presto saremo al forte voi avete degli orecchi meravigliosi davvero disse decatinat mentre camminavano attraverso la foresta come avete potuto udire che quegli uomini ci seguivano oggi sulle prime non avevo udito niente le vedeste allora nemmeno allora come potevate sapere che c'erano vidi uno strano ondulamento fra gli alberi dopo che noi eravamo passati dieci minuti più tardi la cosa si ripete conobbi dunque che doveva esserci qualcuno sulle nostre tracce e ascoltai a voi siete davvero l'eroe dei boschi io credo che questi boschi siano affollati di rochesi benché noi abbiamo avuto la fortuna di sfuggir loro un capo come brown moose non partirebbe con un piccolo seguito e nemmeno con un piccolo scopo devono aver l'intenzione di andare sul drescelier sarete contento adesso di non aver condotto la signora ne ringrazio il dio i boschi non saranno sicuri temo finché i ginepri non torneranno in fiore voi dovreste restare a santa maria fino allora a meno che il signore non possa consentirvi parecchi uomini di scorta vorrei piuttosto star sempre là che esporre mia moglie a simili diavoli sì essi sono veri diavoli se i diavoli possono stare sulla terra voi indietreggiaste quando tocca il cranio di brown moose ma se aveste visto tanti indiani quanti ne ho visti io il vostro cuore sarebbe indurito come il mio ed ora ecco laggiù il forte non ci sono buone sentinelle perché sono dieci minuti che aspetto il che va là voi non perveniste a santa maria senza colpo ferire e il delan è pure un vecchio soldato come la non possiamo appena vederci adesso ma laggiù è il luogo velli fa manovrare i suoi uomini egli deve farli manovrare adesso disse amos vedo una dozzina di uomini avanzarsi in linea non c'è una sentinella esclamò duluth ma noi andremo loro incontro e presso sant'anna dirò loro comandante due parole sulla sua indisciplinatezza i quattro si diressero verso la linea degli uomini fermi e silenziosi nell'oscuro crepuscolo essi erano distanti circa 50 passi e ancora nessuno dei soldati aveva alzato una mano o la voce per sfidare il loro avvicinamento ad un tratto la faccia di duluth si oscurò voltò la testa da tutte le parti e guardò il fiume mio dio gridò guardate il forte essi avevano passato il gruppo d'alberi che avrebbe loro nascosto il contorno del forte proprio di faccia ma del forte non appariva più il minimo segno era sparito capitolo undicesimo i sanguinari così inaspettato fu il colpo che anche duluth abituato fin dalla sua infanzia ad ogni pericolo restò scosso e scoraggiato poi con una bestemmia corse in gran fretta verso la linea dei soldati e i suoi compagni lo seguirono appena si furono avvicinati poterono accorgersi che quegli uomini erano tutti morti per un momento i quattro camerati guardarono fissamente in silenzio l'orribile gruppo poi ognuno agì secondo la propria natura decatinat andò a battere contro il tronco di un albero ed estremamente accasciato appoggiò la testa sul braccio duluth cadde in ginocchio e disse qualcosa al cielo scuotendo nervosamente le mani e fraim lavage esaminò il suo fucile mentre amos senza una parola cominciò a girare qua e là per scoprire qualche traccia duluth poco dopo si alzò e decise di ritornare indietro bisogna però essere molto guardinghi disse se non vogliamo perdere la vita e farla perdere a quelli di santa maria santa maria esclamò decatinat c'è pericolo anche a santa maria eh sì da stamani gli irochesi si sono installati fra puatù e santa maria noi siamo proprio venuti loro incontro essi volevano attaccare oggi e brown moose e suo figlio venivano certamente sulle nostre tracce stanotte attaccheranno santa maria è possibile per quanto essendo così pochi non avrei mai pensato che usassero di attaccare torniamo dunque indietro al più presto e avvisiamo quelli di santa maria del pericolo che corrono così essi ripresero il loro viaggio con ben diverso animo della mattina la luna splendeva in cielo ma era per loro di poco aiuto nel buio fitto della foresta per quanto scuro duluth camminava con grande sveltezza e i suoi compagni si accorsero che non prendeva la stessa strada per la quale erano già passati perché ora vedevano alla loro sinistra il gran fiume mentre prima avevano il torrente che andava a gettarsi in esso guardandolo attentamente poterono scorgere delle ombre scure che correvano sull'acqua sono canotti rochesi bisbigliò duluth sono dieci con otto uomini in ognuno duluth si fermò un momento per esaminare il fiume poi si inoltrò di nuovo nella foresta avevano camminato circa un miglio o due quando egli si fermò di nuovo sento dure di legno bruciato disse il fuoco è ad un miglio di distanza io pure lo sento disse amos andiamo a vedere siate guardinghi bisbigliò duluth perché la vostra vita può dipendere dal più piccolo rumore si avanzarono lentamente con cautela verso quel sentore di legno bruciato e trovarono finalmente un luogo da dove potevano vedere senza esser visti non c'è nessuno sussurrò decatinat duluth scosse la testa possiamo esserci ingannati disse stavano per alzarsi quando ad un tratto videro un uomo dall'altra parte poi un secondo un terzo un quarto fino a che la foresta fu piena di uomini dei quali non si contava il numero essi passarono come ombre in silenzio e andarono verso il fiume santo cielo mormorò duluth li avete contati 396 disse amos credo 402 e voi che credevate che fossero soltanto 150 esclamò decatinat ma questa è una nuova banda amos stava per domandare qualche cosa quando un terribile grido e che giò ad un tratto nel bosco torturano le donne disse duluth non possiamo far niente per aiutarle domandò amos ma quello che voi dite è insensato disse duluth essi sono circa 600 e noi siamo quattro corriamo invece a santa maria se non vogliamo che questi diavoli arrivino prima di noi si radunano tutti e prima che spunti il giorno potranno essere anche un migliaio il nostro dovere è di andare ad avvisare i nostri è vero disse amos c'è una cosa che possiamo fare guastare cioè il loro divertimento notturno propose duluth i boschi sono asciutti poiché da circa tre mesi non piove incendiamoli dunque niente di meglio da fare in un momento duluth preparò in diversi punti della foresta delle fastella di arboscelli secchi e vi appicò il fuoco si precipitarono quindi verso santa maria e quando ci furono vicini si voltarono indietro per guardare l'opera di distruzione iniziata va bene disse duluth ah ecco i lumi di santa maria adesso posso ringraziar dio perché sulla mia parola dopo ciò che avevamo trovato a poatù temevo quasi di trovare lo stesso anche a santa maria capitolo dodicesimo il colpo della morte spuntava appena il giorno quando i quattro camerati entrarono nel forte di santa maria i cui abitanti erano tutti intenti a guardare l'immenso incendio che si stendeva da mezzogiorno decatinat corse subito su da adele la quale scendeva già di incontrarlo e si gettarono l'uno nelle braccia dell'altra con un sincero grido d'amore insieme abbracciati scesero nella gran sala dove il vecchio della non con suo figlio stavano alla finestra ammirando il grandioso spettacolo ah signore disse il vecchio sono davvero felice di rivedervi salvo sotto il mio tetto non soltanto per la vostra salvezza ma anche per gli occhi della signora i quali si è permesso ad un vecchio di dirlo sono troppo belli per guastarsi a forza di guardare fissamente verso la foresta avete fatto 40 miglia signor decatinat e sarete certamente stanco quando vi sarete riposato ricordatevi che voglio la rivincita a picchetto dulut era entrato c'è un altro gioco da fare signor di santa maria disse seicento erochesi nel bosco stanno pronti all'attacco il signor de landi può tu è morto e con lui tutto il suo popolo il forte non è che un monte di cenere sono tutti morti avete detto tutti e il forte bruciato del tutto li averete visti quei diavoli vedemmo la traccia di 150 poi ne vedemmo un centinaio nei canotti ed altri 400 nella foresta siete stati fortunati di averli evitati ma essi non hanno potuto evitar noi abbiamo ucciso brown moose e suo figlio e abbiamo incendiato i boschi bene benissimo davvero dulut presumo che sarete stanco non mi stanco tanto facilmente sarei quasi pronto per rifare il viaggio allora forse potreste scegliere pochi uomini e ritornare nei boschi a vedere che cosa fanno quei diavoli fra cinque minuti sarò pronto andreste volentieri anche voi achille sì ci andrò rispose il giovane della non va bene e durante la vostra assenza prepareremo tutto quaggiù signora scusate queste noie che guastano il piacere della vostra visita la prossima volta quando ritornerete nei miei stati spero ci saremo liberati da questi demoni decatinata voi siete un bravo soldato e potrete ben consigliarmi o nega abbi cura della signora fino a che il suo marito ed io ritorneremo il piccolo forte di santa maria era in piena confusione le donne pallide e ansanti si prendevano i loro fanciulli e le cose più preziose dalle quali non volevano dividersi gli uomini discutevano la situazione ed esaminavano le armi i bambini strillavano e tutto ciò formava un quadro penoso a vedersi la scorta di duluth e di achille di lanon era già tornata e dietro l'ordine del vecchio signore i due portoni furono assicurati con fortissime sbarri di ferro i bambini furono rinchiusi nelle stanze a pian terreno con le donne per guardarli gli uomini 52 in tutto erano stati preparati e divisi in diverse parti per difendere il forte i battelli e canotti erano tutti pronti in caso di necessità il prossimo forte san luigi era soltanto a poche leghe dal fiume e della non aveva già mandato un messaggero con le notizie del pericolo alla peggio esso sarebbe stato un luogo nel quale ritirarsi amos green dopo aver lasciato efraim lavage a dormire di un sonno profondo cominciò ad osservare il forte da tutte le parti e pensando alla potenza dei guerrieri rochesi si rattristò vedendo la moglie di decatinat con le altre donne e quei fanciulli non sarebbe meglio mandarle sul fiume suggerì al vecchio signore sarei felice di poterlo fare signor green ma non posso disporre di nessuno dei miei uomini per guardarle e non posso nemmeno mandarle senza una scorta quando sappiamo che i canotti rochesi sono nel fiume avete ragione vi ho messo di stazione qui da questa parte con i vostri amici e 15 uomini signor decatinat volete comandare questa piccola divisione volentieri io starò dalla parte di mezzogiorno dove sembra esserci maggior pericolo duluth starà da tramontana e cinque uomini basteranno per guardare la parte del fiume avete viveri e polvere sì ne abbiamo abbastanza dov'è questa polvere domandò amos potremmo ingannarci eccola benissimo amos sparì giù e ritornò con un gran sacco di tela che riempì di polvere e lo portò fuori presso un gruppo d'alberi quindi lo coprì così bene con ramosceglie e foglie cadute tanto da sembrare un monte di terra poi risalì nel forte credo di aver tutto pronto disse il vecchio signore vorrei che i bambini fossero in un luogo più sicuro ma potremo mandarli stanotte sul fiume se tutto andrà bene avete udito niente di duluth giovanni che ha dei buoni orecchi crede di aver udito poco fa delle fucilate allora c'è già stato un incontro stefano andate in loro aiuto decatinat avete forse sonno no non potrei dormire non abbiamo più da far niente qui che cosa ne direste di una partita picchetto essi scesero nella sala dove adele venne e si sedette accanto a suo marito mentre onega dai vetri osservava la foresta qualcuno ha picchiato esclamò ad un tratto adele è la morte che ha picchiato disse la donna indiana alcuni uomini si precipitano fuori del bosco decatinat era già corso alla finestra duluth il giovane della non e otto soldati correvano verso il forte le cui porte erano state aperte per riceverli un momento dopo il cannone di bronzo tuonò mentre dintorno l'intero bosco fu invaso da una densa nube di fumo e le palle andarono a battere contro le pareti come la grandine su una finestra capitolo tredicesimo l'attacco del castello avendo lasciato adele alle cure di un ega decatinat prese il suo moschetto e si precipitò giù il vecchio signore era già disceso e conversava con duluth sono mille avete detto sì noi vedemmo nuove tracce di almeno 300 avemmo un combattimento e perdemmo cinque uomini tutti morti lo spero ma dobbiamo tener tutto pronto per quando arrivano al forte c'è poco da sperare dal momento che sono 20 contro uno tutto è pronto e col nostro cannone possiamo affondare i loro canotti quando passano così stanotte ci manderemo le nostre donne anch'io intendevo di far così occupatevi della parte di tramontana voi ed io penserò a venirvi in aiuto nel caso che cambiassero il loro attacco i tiri si succedevano adesso nella foresta e l'aria era piena di fumo gli assalitori tiravano tutti e dall'altra parte i difensori erano esperti dei combattimenti indiani e delle malizie che potevano proteggerli o provocare i nemici a tirare stavano alle vedette guardando attentamente attraverso le fessure del legno e tirando ogni qual volta se ne presentava il caso da principio l'attacco fu dalla parte di mezzogiorno ma un nuovo corpo di rochesi che arrivò si diresse dalla parte di levante e ad agio ad agio anche verso tramontana il forte era circondato da una gran nuvola di fumo salvo dalla parte del fiume dalla riva opposta erano nascosti i canotti e uno condotto da dieci guerrieri rochesi tentò di traversare ma una buona cannonata riuscì ad affondarlo con i suoi uomini che cosa pensate d'ulut domandò il vecchio signore penso che non c'è speranza rispose che cosa possiamo aspettarci quando mille moschetti sono tutti volti verso un così piccolo luogo come questo l'uomo che stava vicino a lui cadde ad un tratto colpito da una palla d'ulut osservò di fuori da dove è venuto questo ah per sant'anna guardate là ed accennava un nuvolo di fumo che veniva dalla sommità di un'alta quercia il diavolo esamina il forte di lassù ed infatti una faccia rossa con un sorriso di scherno apparve per un momento svelto come una freccia d'ulut prese il suo moschetto per tirare ma l'uomo si nascose subito fra il folto fogliame è il flemish bastard avrei preferito uccider lui piuttosto che cento dei migliori guerrieri è dunque così coraggioso si assai e poi è intelligente astuto e crudele ah mio dio se tutte le storie che si sono raccontate fossero vere la sua crudeltà è mostruosa guardate è nuovamente lassù della non e dulut tirarono ambedue si udirono i rami schiantare ma subito un alto guerriero ricomparve ai difensori ancora flemish bastard la sua faccia era quella di un indiano egli restò un poco a guardare il forte poi salto giù e scomparve fra un embo di palle che spezzavano i ramoscelli intorno a lui dalla parte difesa da decatinat l'attacco era anche più gagliardo le palle cadevano come una pioggia continua decatinat si difendeva come un soldato valoroso passeggiando in su e in giù fra i suoi uomini con poche parole di lode o di rimprovero secondo il caso dieci dei suoi soldati erano caduti ma siccome l'attacco si faceva sempre più difficile il vecchio signore e dulut portarono dieci uomini per rinforzo ad un tratto un terribile grido li fece voltare un ega la moglie indiana copriva amorosamente con le braccia il corpo di suo figlio una palla lo aveva ferito al cuore ed egli era morto per un istante il vecchio signore restò esterrefatto poi facendo forza a se stesso i della non disse muoiono sempre sul campo di battaglia intanto gli rochesi avevano cominciato l'attacco dalla parte di levante e molti di essi si erano accampati al principio della foresta adesso toccava damo screen da dove si era messo ad osservare poteva vedere il luogo dove giaceva il sacco della polvere e gli mirò e tirò il primo colpo però non produsse nessun risultato il secondo mirò un poco più basso la palla allora penetrò il sacco e ci fu un'esplosione che scosse il forte immense colonne di fumo salirono fino alla cima degli alberi e dopo il primo gran rumore ci fu un silenzio mortale interrotto soltanto dalla caduta di molti corpi umani amus esclamò decatinato io credo che ci abbiate salvati è facile che essi abbandonino l'attacco ma dulut scosse la testa sarebbe più facile che un lupo lasciasse la sua preda che un irochesi una presa come questa ma essi hanno perduto sì ma sono sempre molti saranno in concilio adesso e fra poco li udiremo di nuovo voi siete troppo stanco decatinato andate a riposarvi almeno per un'ora decatinato era infatti del tutto sfinito amos green e il vecchio marinaio erano già coricati dietro i baluardi del forte decatinato salì per dire qualche parola di conforto ad adele e poi gettatosi su un letto si addormentò profondamente fu svegliato da un nuovo colpo di fucile che veniva dal bosco si alzò in fretta e corse giù dove trovò dulut il vecchio signore ed amos green che parlavano insieme che cosa c'è hanno ricominciato domandò essi nuovamente ci circondano il bosco in faccia a noi ne è gremito disse amos forse vogliono attaccare da questa parte è quello che credo anch'io disse il signore a un tratto gli rochesi cominciarono a far fuoco da tutte le parti tanto che quelli del forte potevano appena difendersi per quanto facessero una resistenza quale non si poteva aspettare che da uomini disperati il vecchio signore con dulut amos decatinat ed efraim lavage fu sempre il primo nella difesa ma una nuova truppa di rochesi venne dalla parte di mezzogiorno e dulut vide in un istante che il recinto era perduto e che soltanto una cosa poteva salvare la casa corse al cannone e tirò sulla folla dei soldati selvaggi i quali per un istante indietreggiarono e così gli assediati ebbero tempo di respirare e di pensare al da farsi capitolo quattordicesimo l'arrivo del frate ma la situazione era terribile per quanto la presenza di spirito di dulut li avesse salvati da un pericolo imminente il numero dei difensori terribilmente ridotto quei pochi che restavano erano stanchi e feriti se dulut della nonna e decatinat permanevano in columi efraim lavage aveva ricevuto una palla in un braccio ed amos sanguinava da un taglio sulla faccia abbiamo 25 donne e 14 ragazzi disse il signore pensiamo a difenderli molti di voi come me hanno oggi perduto figli e fratelli salviamo almeno le nostre mogli e sorelle sul fiume non c'è nessun canotto irochese disse uno se le donne partono con questa oscurità potranno lasciare il forte io credo sarebbe meglio condurre anche gli uomini qui ormai c'è poco da fare ed è un peccato sacrificarli per niente i canotti terranno appena le donne e i fanciulli esclamò terriè ne abbiamo soltanto due grandi e quattro piccoli non c'è posto nemmeno per un uomo allora inutile discutere ma chi remerà ci sono così poche leghe e con la corrente il loro favore lo faranno le nostre donne che sanno quasi tutte maneggiare il remo gli irochesi erano adesso molto quieti e soltanto un colpo di fucile di quando in quando confermava la loro presenza nel bosco dalla parte del fiume nessun segno di nemici mi meraviglio che gli irochesi non abbiano occupato il fiume disse Duluth ma è probabile che i loro canotti siano andati a prendere nuovi rinforzi e che siano presto di non c'è dunque da perdere un minuto di tempo fra un'ora ci sarà abbastanza buio da partire le donne e i fanciulli presero posto nei canotti ad Onega fu affidato il comando delle donne non è molto lontano Adele disse Decatinat quando sua moglie gli si gettò fra le braccia non ti ricordi delle campane dell'Angelus quando viaggiavamo attraverso i boschi era il forte San Luigi distante soltanto da qui una lega o due ma io non voglio lasciarti Amorì siamo sempre stati uniti in tutte le avversità o Amorì perché dovremmo dividerci adesso mia cara tu dirai laggiù quello che accade ed essi ci verranno in aiuto lascialo dire alle altre fammi restare con te non sarò inutile Amorì Onega mi ha insegnato a caricare un fucile non avrò paura credimi non devi parlare così Adele è impossibile non posso farti restare ma io sento che sarebbe meglio è per la mia salvezza cara la mia forza raddoppia quando ti so al sicuro e tu non devi temere per me appena quelli del San Luigi verranno a prenderci noi ci rivedremo Adele tacque e suo marito guardò dalla parte del fiume c'è un canotto sul fiume esclamò quanti guerrieri sono non posso vedere quale strada prende questa strada adesso posso vedere non è un canotto erochese c'è soltanto un uomo ed è un bianco un bianco gridò Duluth chi è costui che osa avventurarsi solo in questi terribili momenti è un gesuita disse uno allungando il collo essi sono sempre dove il pericolo è maggiore no posso vedere il suo cappuccio gridò un altro è un frate francescano un istante dopo la porta fu aperta per far entrare il frate il quale guardò attorno e posando poi la mano sulla spalla di Decatinat disse ah non siete riuscito a sfuggirmi che cosa volete dire padre domandò il signore vi siete sbagliato questo è il mio buon amico Amory Decatinat di una nobile famiglia francese questo è Amory Decatinat l'eretico e lugonotto riprese il monaco l'ho seguito sul San Lorenzo sul Griscellier e l'avrei seguito anche fino alla fine del mondo pur di riuscire a ricondurlo indietro con me perché vorreste prendere il mio amico domandò il vecchio signore perché deve tornare in Francia con sua moglie non c'è posto nel Canada per gli eretici Duluth sorrise ah padre se poteste ricondurci tutti in Francia adesso noi saremmo i vostri debitori e ricordatevi disse della non che siete sotto il mio tetto e che parlate ad un mio ospite ma il frate non si occupava di niente guardate questo disse mostrando un foglio è firmato dal governatore che reclama quest'uomo a Quebec caro signor Decatinat adesso siete nelle mie mani e non vi lascerò fino a che non vi vedrò sul bastimento che vi riporterà in Francia Decatinat ammirò in quell'uomo l'energia e la tenacia mi sembra padre che sareste stato più adatto come soldato che come un seguace di Cristo disse egli ma poiché ci avete seguiti e poiché non c'è altra via da prendere stabiliremo la questione più tardi i due americani non sembravano dello stesso parere Efraim Lavage bisbigliò qualche cosa all'orecchio di Amos Green il capitano ed io possiamo facilmente liberarvi da costui disse Amos guardando Decatinat e se egli vuole impedire il nostro cammino lo pagherà caro no no Amos lasciatelo fare egli agisce secondo ciò che crede il suo dovere ma comincia a piovere adesso è scuro abbastanza per i canotti a un tratto si udì di nuovo il colpo di un fucile e si fanno fuoco esclamò Duluth i canotti devono partire subito perché fra poco il fiume sarà illuminato come di giorno presto presto non c'è un istante da perdere non c'era tempo per gli addi un bacio appassionato e Adele entrò nel canotto con Onega due bambini una ragazza e partì i rimasti osservarono attentamente il fiume e la foresta un rombo dalla foresta annunziò che i selvaggi avevano visto i canotti e si escono dal bosco e vanno alla riva esclamò Decatinat hanno già messo alcuni canotti sul fiume disse Duluth andate al cannone e tirate per farli un po' indietreggiare esclamò il vecchio signore i fuggiaschi erano intanto già spariti dietro la curva del fiume alla vista del primo canotto erochese quelli del forte fecero fuoco ma senza un buon risultato mio dio esclamò Decatinat furiosamente abbandoniamo questo posto prendiamo un canotto e seguiamo i nostri amici che presto verranno presi dagli erochesi per l'amor di dio venite venite non credo che verranno fatti i prigionieri disse Duluth posando la mano sulla spalla di Decatinat non temete è già un pezzetto che sono partite le donne da qui e sanno remare come gli uomini in ogni caso ci sarebbe impossibile partire perché non abbiamo canotti ce n'è uno là sì ma non può tenere che un solo uomo è quello col quale è venuto il frate allora io vado con quello il mio posto è presso Adele si precipitò fuori della porta e stava per entrare nel canotto quando qualcuno gli si fece dinanzi è il mio canotto disse il frate voi spirito maligno voi ci avete rovinati io vi ho ritrovato e adesso non mi sfuggirete un'altra volta Decatinat stava per colpire il frate ma questi si fece il segno della croce e mormorò alcune parole di preghiera fu ciò che gli salvò la vita Decatinat indietreggiò e voltatosi vide ad un tratto la gran porta del forte crollare e una massa di selvaggi penetrare nella casa capitolo quindicesimo il castello di santa maria ciò che era accaduto è facile a spiegarsi mentre quelli del forte discutevano se dovessero sì o no lasciare il posto per andare a difendere le loro moglie e i loro bambini gli rochesi con a capo flemish bastard che si era accorto di quel momento di esitazione erano riusciti a penetrare nel forte Decatinat era al colmo della disperazione che cosa poteva fare adesso gli rochesi non lo avevano ancora visto ma fra poco lo avrebbero certamente assalito ad un tratto sentì la voce dei suoi amici e vide una banda di guerrieri venir loro contro essi erano rimasti soltanto in nove il signore Duluth i due americani il frate Decatinat Terrier il maggiordomo e due servi la banda dei nemici era piccola ma essi erano talmente feriti e accasciati che potevano appena appena difendersi caricate i vostri fucili disse Duluth signor green chinatevi con me e voi pure Giovanni Duval se uno di noi vi è inferito l'altro prenda subito il suo posto adesso siamo pronti poiché essi vengono un momento dopo un gruppo di pelli rosse stava per gettarsi sui nove rimasti quando questi spararono riuscendo ad ucciderne sette e a far indietreggiare gli altri questo è il benvenuto a sant'anna che diamo loro disse il vecchio signore ah signor Decatinat come sono dolente che voi e vostra moglie siate stati messi in simili impicci sono certo però che ella e le altre sono salve al forte adesso voglio sperarlo o non avrò un momento di pace fino a che non riuscirò a rivederla poiché se sono al sicuro noi possiamo aspettare un aiuto in mattinata se non giunga troppo tardi Shamli il comandante non è uomo da lasciar perire un camerata gli rochesi stavano adesso tranquilli essi non si riproveranno ad assalirci disse Duluth abbiamo dato loro una lezione troppo severa daranno fuoco alla casa vorrebbero farlo disse il maggiordomo ma la pietra è troppo solida Decatinat stava attento osservando da tutte le parti quando i suoi occhi caddero su un punto nero lungo il fiume ecco un canotto che viene esclamò stavano percorre l'incontro ma Duluth li respinse tutti con forza volete morire prima del tempo domandò sì sì disse il capitano a Efraim che intese il gesto se non le parole non dobbiamo lasciare la guardia Amos resta con me e sii pronto se essi tirano tutti gli altri erano volti verso la barca è un canotto erochese disse uno impossibile sì sì ed è lo stesso canotto che inseguì quelli delle donne allora esse sono salve lo spero ma nel canotto ci sono più persone adesso di quando ci passò davanti e il piccolo gruppo dei superstiti aspettò con una terribile ansietà che il canotto si avvicinasse per meglio vedere ma anche a quella distanza non c'era da ingannarsi a poppa sedevano due donne l'una era un'ega e l'altra adele capitolo sedicesimo i due nuotatori carlo della non signore di santa maria era un uomo che sapeva reprimersi ma un gemito e una terribile imprecazione uscirono dalle sue labbra quando vide sua moglie in mano dei nemici dai quali ella avrebbe dovuto implorare grazia e stava per rivolgere qualche parola a Decatinat quando questi fuggì verso il fiume e senza parlare vi si gettò a nuoto e si diresse dalla parte del canotto senza armi non aveva pensato che a correre al fianco di sua moglie nel momento del pericolo il frate francescano che in tutta la notte non lo aveva mai abbandonato un momento quando lo vide sparire nelle acque del fiume lo seguì a pochi passi di distanza il canotto stava là in mezzo alla corrente con un cerchio di guerrieri a poppa e le due donne fra essi Decatinat nuotava nuotava con tutte le sue forze e dietro a lui si vedeva la testa del frate che nel suo zelo non aveva pensato che per quanto buon nuotatore il peso della sua veste gli avrebbe impedito di nuotare lungamente ad agio ad agio sentiva mancarsi le forze e la sua testa si affondava sempre più fino a che dopo un'ultima preghiera in mano stua sdomine sparì del tutto sotto la corrente del fiume un minuto dopo Decatinat era riuscito a raggiungere il canotto irochese mio dio esclamò amos lo hanno preso è perduto in quarant'anni ho visto molte cose strane ma mai una come questa disse Duluth il signor Decatinat ha agito come un gentiluomo di Francia disse il signor della non se io sapessi nuotare come trent'anni fa sarei al suo fianco Duluth guardò intorno a sé e scosse la testa noi siamo rimasti soltanto sei disse temo che essi stiano pensando a qualche brutto tiro perché sono troppo tranquilli adesso sul fiume si scorgeva l'unico canotto che aveva i prigionieri a bordo ma poi da nessuna parte si vedeva un segno di nemici quasi quasi cominciò a credere che questi diavoli se ne siano andati esclamò il vecchio signore badate che non sia uno stratagemma osservò Duluth perché dovrebbero fuggire davanti a sei uomini quando ne hanno presi sessanta ma continuando a guardare poterono accorgersi che gli irochesi erano davvero spariti dalla foresta e videro avanzarsi verso di loro un canotto appena arrivato alla sponda un uomo saltò a terra e corse incontro al signor della non mio caro carlo esclamò voi avete difesa la vostra casa come un eroe come siete rimasti soltanto in sei io sapevo che non ci avreste abbandonato chambly noi abbiamo salvato la casa ma le nostre perdite sono state terribili mio figlio è morto mia moglie in quel canotto erochese di faccia a voi le altre arrivarono tutte salve disse chambly soltanto ella fu presa ed una signora francese credo sì ed hanno preso anche suo marito ah povera gente ebbene se vi sentite abbastanza forti da unirvi a noi li seguiremo senza perdere un momento dieci dei miei uomini resteranno a guardia della casa e voi potrete prendere il loro canotto entrate dunque coraggio e avanti capitolo diciassettesimo la fine lirochesi non avevano trattato duramente decatinat quando lo avevano tratto dall'acqua e spinto nel canotto un simile atto di coraggio ispirava loro timore e rispetto dopo essersi assicurati che fosse disarmato lo misero fra le due donne adele era mortalmente pallida e quando suo marito le strinse la mano sentì che era ghiaccia come il marmo mia cara le bisbigliò dimmi che stai bene che non sei ferita o amorì perché sei venuto io non potrei sopportare che ti facessero del male come potevo rimanere laggiù quando ti sapevo nelle loro mani sarei divenuto pazzo era la mia sola consolazione pensare che tu eri al sicuro no no siamo sempre stati uniti in ogni cimento e non dobbiamo dividerci adesso che cos'è la morte adele non dobbiamo aver paura non ho paura nemmeno io ed avvenga quello che dio vuole se morremo ci avvieremo insieme in un'altra vita coraggio cuor mio e tutto andrà bene ditemi signore disse onega è salvo mio marito sì signora va bene è un gran capo ed io non ho mai rimpianto nemmeno adesso di essermi unita con uno che non è del mio popolo ah mio figlio chi mi renderà mio figlio prima che sorga il sole saremo tutti morti ed io sono contenta perché potrò rivederlo finalmente il canotto arrivò a terra e gli rochesi sbarcarono trascinandosi dietro i prigionieri il canotto fu portato sulle spalle di otto guerrieri ad una certa distanza nel bosco dove lo nascosero fra due alberi caduti poi dopo un breve concilio partirono attraverso la foresta coi loro tre prigionieri erano 15 in tutto otto davanti e sette dietro e tutti armati per cui una fuga sarebbe stata impossibile bisognava seguirli e rassegnarsi al destino proseguirono tutto il giorno quella marcia attraverso i boschi onega resisteva come indiana ma adele era stanca prima di sera fu perciò con un po di sollievo che decatinata vide in lontananza attraverso i tronchi degli alberi una gran luce arrivarono ad un gran campo indiano dove erano aggruppati tutti gli rochesi che avevano assalito santa maria in mezzo a loro c'era un terribile fuoco fatto di rami troncati un palo stava nel centro delle fiamme decatinata si pose davanti a sua moglie per impedirle quell'orribile vista era troppo tardi e le indietreggiò mandando un sospiro ma non una parola uscì dalle sue labbra essi hanno già incominciato dunque disse un ega tranquillamente benissimo fra poco toccherà a noi mostriamo loro che sappiamo morire non ci hanno ancora maltrattati disse decatinata forse vorranno tenerci come prigionieri la donna indiana scosse la testa non vi lusingate con una simile speranza disse la quando essi sono così gentili come lo sono stati con voi è segno che vi hanno riservato la tortura vostra moglie dovrà sposarsi ad uno dei loro capi ma voi ed io dovremo morire poiché voi siete un guerriero e io sono troppo vecchia per allettarli sposata ad un irochese decatinata era fuori di sé e sarebbe caduto se adele non lo avesse sorretto fra le sue braccia non temere caro amorì mormorò altre cose potranno succedere ma non questa perché ti giuro che non sopravviverò alla tua morte decatinata la guardò soddisfatto e gli sapeva che adele avrebbe mantenuto il suo giuramento i capi verranno e decideranno la nostra sorte disse unega eccoli e vedrete che ho ragione poiché io conosco la mia gente decatinata mormorò una preghiera quasi per afforzarsi ed affrontare il suo destino quando sarà domandò adesso subito essi hanno già tutto preparato ma voi avete tempo ancora perché io sarò la prima amorì amorì non potremmo noi morire insieme adesso esclamò adele abbracciando suo marito andiamo caro lasciamo questo mondo crudele per un luogo di pace voi avete ben parlato giglio bianco disse unega perché aspettare di farvi prendere se morite per mano vostra guasterete il loro trionfo e il loro capo perderà la sua preda così voi sarete i vittoriosi ed essi i vinti ma come fare unega dopo aver guardato se nessuno l'osservava tirò fuori una piccola pistola pensavo di adoprarla per me e la disse ma adesso voglio loro mostrare che so morire come uno non daga prendete eccola un lampo di gioia brillò sul volto di decatinat afferrando l'arma la loro salvezza adele appoggiò il capo sulla sua spalla sorridendo perdonami cara egli le sussurrò perdonarti a morì io ti benedico e ti amo con tutto il cuore e l'anima mia abbracciami mio diletto e preghiamo un'ultima volta prima di morire essi si erano inginocchiati insieme quando tre guerrieri entrarono nella capanna e dissero qualche breve parola ad onega e la si alzò con un sorriso sono venuti a prendermi e la disse vedrete giglio bianco ed anche voi signore come conosco i doveri della mia posizione addio e ricordatevi dio nega e la sorrise ancora e se ne andò tratta dai guerrieri col passo fermo di una regina che si incammina verso il trono adesso a morì sussurrò adele chiudendo gli occhi e stringendosi a lui egli alzò la pistola e poi con un subitaneo gesto la lasciò cadere e rimase immobile ad occhi spalancati fissando un albero vicino dietro quel tronco era apparsa una mano grossa e rossiccia che si agitava disperatamente da destra a sinistra con gesto di appassionata dissuasione un minuto dopo mentre i prigionieri rimanevano fermi sorpresi ed estatici la mano disparve e in sua vece apparve la faccia espressiva del capitano Ephraim Lavage di Boston ad un tratto uno strepito d'armi risuonò l'intorno e da ogni parte sbucarono i canadesi circondando il campo nemico e facendo fuoco su quello con una fuga irresistibile i selvaggi sorpresi all'improvviso fuggivano qua e là cercando una via di scampo e scorta un passaggio libero si precipitarono da quella parte pazzamente inseguiti sempre dalle palle dei loro persecutori un solo selvaggio era rimasto preferendo la vendetta alla salvezza il flemish bastard corse a Donega e la trafisse col suo ferro mandando un grido di feroce trionfo poi si slanciò nella capanna dove erano i prigionieri ancora inginocchiati Decatinat lo vide venire con gioia salzò lo attese di pie fermo e quando gli fu a tiro fece fuoco due volte colpendolo a morte un istante dopo i due venivano circondati da amici festanti e scorgendo le facce sorridenti di Amos Green di Lavage e di Duluth essi compresero che finalmente era concessa loro un po' di pace conclusione così i rifugiati giunsero alla fine del loro triste viaggio essi passarono l'inverno nel forte San Luigi e giunta la primavera poterono discendere a New York dove una festosa accoglienza li aspettava in casa di Amos Green l'amicizia fra i due uomini s'era fatta così viva dopo i comuni pericoli sofferti che presto essi divennero soci nel commercio delle pellicce e il nome del nobile francese fu conosciuto nelle montagne del Maine come lo era stato una volta nei saloni di Versailles Amos Green sposò una fanciulla olandese e siccome era intima amica da Dele il matrimonio strinse ancor più i legami d'affetto che univano le due famiglie in quanto al capitano Ephraim Lavage ritornò sano e salvo alla sua amata città di Boston dove visse onorato e stimato da tutti fino alla più tarda età il castello di Santa Maria fu presto rimesso nel suo primiero splendore ma dal giorno della morte della moglie il suo padrone non era più lo stesso uomo era divenuto magro cupo misantropo continuamente guidando piccoli eserciti contro gli rochesi finalmente un giorno partì alla testa di una di queste spedizioni e non fece mai più ritorno molte terribili storie sono nascoste in quei boschi silenziosi e la storia di Carlo della non signore di Santa Maria è fra esse grazie a tutti